Casa Riddle Gli abitanti di Little Angleton la chiamavano ancora Casa Riddle, anche se erano passati tanti anni da quando i Riddle ci abitavano. Si trovava sulla collina che dominava il villaggio, alcune delle finestre erano inchiodate, al tetto mancavano delle tegole e l'edera cresceva incolta sulla facciata. Un tempo Casa Riddle era stata una dimora elegante, certo l'edificio più vasto e grandioso nel raggio di chilometri, ma ora era umida, desolata e disabitata. Gli engoltoniani convenivano tutti che la vecchia casa era a sinistra. Mezzo secolo prima qualcosa di strano e terribile era successo là dentro, qualcosa di cui gli abitanti più anziani del villaggio amavano ancora discutere quando erano a corto di pettegolezzi. La storia era stata ripetuta così tante volte e vi erano stati aggiunti così tanti fronzoli che nessuno era più certo di quale fosse la verità. Ogni versione del racconto comunque cominciava allo stesso modo. 50 anni prima, all'alba di una bella giornata d'estate, quando Casa Riddle era ancora ben tenuta e imponente, una cameriera era entrata in salotto e aveva trovato morti tutti e tre i Riddle. La cameriera era corsa urlando giù per la collina fino al villaggio e aveva radunato tutte le persone che poteva. Sono là stesi con gli occhi spalancati, freddi come il ghiaccio, ancora vestiti per la cena. Fu chiamata la polizia e tutta quanta Little Engolton si crogiolò in una curiosità atterrita e in una malcelata eccitazione. Nessuno si sforzò di fingersi addolorato per i Riddle che erano stati assolutamente impopolari. Gli anziani signori Riddle, marito e moglie, erano ricchi, snobbe e sgarbati e il loro figlio Tom, ormai adulto, era anche peggio. Tutto quello che importava agli abitanti era l'identità dell'assassino. Chiaramente tre persone in apparenza sane non morivano di colpo per cause naturali nella stessa notte. L'impiccato, il pub locale, fece affari d'oro quella sera. Il villaggio al completo accorse per discutere gli omicidi e la ricompensa per quell'uscita serale arrivò quando la cuoca dei Riddle fece un ingresso teatrale e annunciò al pub, improvvisamente silenzioso, che un uomo chiamato Frank Bryce era stato appena arrestato. «Frank!» gridarono in molti. «Impossibile!» Frank Bryce era il giardiniere. Viveva solo in un cottage mal ridotto nella proprietà dei Riddle. Frank era tornato dalla guerra con una gamba molto rigida e un disgusto per la folla e i rumori, e da allora lavorava per i Riddle. I presenti fecero a gara per pagare da bere alla cuoca e farle raccontare altri dettagli. «Sempre detto che era uno strano», disse, dopo il quarto Sherry, agli abitanti in avido ascolto. «Scontroso, ecco! E ho offerto da bere un sacco di volte, mica una, e lui mai dato confidenza. Mai!» «Sì, però», disse una donna al bancone. «Ha fatto la guerra, Frank. Gli piace star tranquillo. Che motivo aveva?» «E chi ce l'aveva la chiave della porta dietro, eh?» abbaiò la cuoca. «C'è sempre stata una chiave in più appesa nella casa del giardiniere. Sempre, per quello che mi ricordo. Nessuno ha scassinato la porta. Niente finestre rotte. Frank non ha dovuto far altro che strisciare fino alla casa grande mentre dormivano tutti. I presenti si scambiarono sguardi cupi». «Io l'ho sempre pensato che aveva l'aria cattiva, ecco», borbottò un uomo al bancone. «Se volete saperlo, la guerra l'ha fatto diventare strano», disse il padrone. «Te lo dicevo, Dot, che non avrei mai voluto pestargli i piedi», disse una donna in tono animato. «Un caratteraccio», annui Dot con fervore. «Mi ricordo che quando era piccolo, entro la mattina dopo, quasi tutti a Little Angleton erano certi che Frank Bryce avesse ucciso i Riddle. Ma nella vicina città di Great Angleton, nella buia squallida stazione di polizia, l'ostinato Frank continuava a ripetere che era innocente e che la sola persona che aveva visto nei dintorni della casa il giorno della morte dei Riddle era un ragazzino, uno straniero pallido, coi capelli scuri. Nessun altro al villaggio aveva visto un ragazzo del genere e la polizia era quasi del tutto convinta che Frank se lo fosse inventato. Poi, proprio mentre le cose si facevano molto serie per Frank, giunse il referto dell'autopsia effettuata sui Riddle e questo cambiò tutto. La polizia non aveva mai letto un referto così strano. Una commissione di medici aveva esaminato i corpi e aveva concluso che nessuno dei Riddle era stato avvelenato, pugnalato, colpito da pallottole, strangolato, soffocato o, per quello che se ne poteva desumere, ferito in qualche modo. E aggiungeva, in tono di inequivocabile meraviglia, che in effetti i Riddle sembravano in perfetta salute, a parte il fatto che erano morti tutti e tre. I dottori, come a voler trovare a tutti i costi qualcosa che non andava nei cadaveri, osservarono che ciascun Riddle aveva un'espressione di terrore sul volto. Ma come disse la polizia delusa, chi ha mai sentito di tre persone morte di paura? Poiché non c'erano prove che i Riddle fossero stati assassinati, la polizia fu costretta a rilasciare Frank. I Riddle vennero sepolti nel cimitero di Little Angleton e le loro tombe furono per un po' oggetto di curiosità. Con sorpresa di tutti e in una nube di sospetto, Frank Bryce tornò alla sua casetta nella proprietà dei Riddle. Per quello che ne so li ha uccisi lui e non mi importa di quel che dice la polizia, dichiarò dott all'impiccato. E se avesse un po' di decenza se ne andrebbe, lo sa che sappiamo che è stato lui. Ma Frank non se ne andò. Rimase a badare al giardino per conto della famiglia che venne ad abitare a casa Riddle e di quella dopo, perché nessuna delle due si fermò a lungo. Forse anche per via di Frank, ogni nuovo proprietario infatti sosteneva che su quel luogo tirasse una brutta aria e la casa, in assenza di abitanti, cominciò ad andare in rovina. Il proprietario di casa Riddle a quei tempi era un ricco signore che non ci abitava né la utilizzava in alcun modo. Al villaggio dicevano che la tenesse per ragioni fiscali, anche se nessuno diceva chiaramente quali potessero essere. Il ricco proprietario continuò comunque a pagare Frank perché badasse al giardino. Lui ormai si avvicinava al suo settantasettesimo compleanno. Era piuttosto sordo e la sua gamba ferita era più rigida che mai. Malo si vedeva ancora affaccendarsi attorno alle aiuole, quando c'era bel tempo, anche se le erbacce cominciavano ad avere la meglio. Le erbacce non erano la sola cosa con la quale Frank dovesse combattere. I ragazzi del villaggio si divertivano a tirare sassi alle finestre di casa Riddle. Sfrecciavano in bicicletta sui prati, che faticava tanto a mantenere ben curati, e una o due volte si intrufolarono nel vecchio edificio per scommessa. Sapevano che l'anziano Frank era devoto alla casa e alla proprietà, e li divertiva vederlo zoppicare per il giardino, brandendo il bastone e orlando contro di loro con voce gracchiante. Dal canto suo Frank era convinto che i ragazzi lo tormentassero perché, come i loro genitori e i loro nonni, lo credevano a un assassino. Così, quando Frank si svegliò una notte d'agosto e vide qualcosa di molto strano su alla vecchia casa, si limitò a pensare che i ragazzi ne avessero inventata un'altra per punirlo. Fu la gamba dolorante a svegliare Frank. Ora che era anziano, lo torturava come non mai. Si alzò, scese le scale zoppicando, e andò in cucina con l'idea di riempire di nuovo la borsa dell'acqua calda per dare sollievo al ginocchio. In piedi davanti al lavandino, mentre riempiva il bollitore, guardò verso casa Riddle e vide balenare delle luci alle finestre del piano superiore. Frank capì all'istante che cosa stava succedendo. I ragazzi erano penetrati di nuovo nella casa e, a giudicare dal riverbero, avevano appiccato un incendio. Frank non aveva il telefono e comunque nutriva una profonda sfiducia nella polizia da quando questa lo aveva prelevato per interrogarlo sulla morte dei Riddle. Mise subito giù il bollitore e corse su per le scale quanto più velocemente glielo consentiva la gamba ferita. Ben presto fu di nuovo in cucina, completamente vestito. Staccò una vecchia chiave arrugginita dal gancio vicino alla porta, prese il bastone da passeggio che era appoggiato al muro e si addentrò nella notte. La porta principale di casa Riddle non sembrava forzata e nemmeno le finestre. Frank raggiunse zoppicando il retro della casa e arrivò a una porta quasi completamente nascosta dall'edera. Estrasse la vecchia chiave, la infilò nella toppa e aprì la porta senza far rumore. Si ritrovò nella cucina tenebrosa. Frank non entrava là dentro da molti anni. Comunque, anche se era buio pesto, si ricordava dov'era la porta che si apriva sull'ingresso e vi si diresse a tentoni, le narici piene dell'odore dell'abbandono, le orecchie tese a cogliere qualunque rumore di passi o voci provenisse da sopra. Raggiunse il vasto ingresso, un po' più illuminato grazie alle ampie finestre che si trovavano ai due lati dell'entrata e prese a salire le scale, benedicendo lo spesso strato di polvere che ricopriva la pietra perché smorzava il rumore dei suoi passi e del bastone. Di sopra Frank voltò a destra e vide subito dove erano gli intrusi. Proprio alla fine del corridoio c'era una porta socchiusa e una luce intermittente brillava attraverso la fessura disegnando una lunga lama d'oro sul pavimento nero. Frank si avvicinò impugnando con forza il bastone. Da quella distanza riusciva già a vedere uno spicchio della camera. Nel camino il fuoco era acceso, la cosa lo stupì. Smise di avanzare e ascoltò con attenzione perché dall'interno proveniva una voce d'uomo suonava esitante e impaurita. «Ce n'è ancora un po' nella bottiglia, mio signore, se avete ancora fame.» «Dopo», disse una seconda voce. Anche questa apparteneva a un uomo, ma era stranamente acuta e fredda come un soffio improvviso di vento gelido. Qualcosa di quella voce fece drizzare i radi peli sulla nuca di Frank. «Avvicinami al fuoco, coda liscia.» Frank rivolse l'orecchio destro verso la porta per sentire meglio. Ci fu il tintinnio di una bottiglia posata su una superficie dura e poi il tetro strofinio di una sedia pesante, trascinata sul pavimento. Frank riuscì a intravedere un ometto che dava le spalle alla porta e spingeva la sedia al suo posto. Indossava un lungo mantello nero e aveva una chiazza calva sulla testa. Poi l'ometto scomparve di nuovo alla vista. «Dov'è Nagini?» chiese la voce fredda. «Io, io non lo so, mio signore», rispose nervosamente la prima voce. «È andata a esplorare la casa, credo.» «Devi mongerla prima che ci corichiamo, coda liscia», disse la seconda voce. «Avrò bisogno di nutrirmi durante la notte. Il viaggio mi ha stancato immensamente.» Con le sopracciglia aggrottate, Frank avvicinò ancora di più l'orecchio buono alla porta, ascoltando con grande concentrazione. Ci fu una pausa e poi l'uomo chiamato coda liscia parlò di nuovo. «Mio signore, posso sapere quanto ci fermeremo qui?» «Una settimana», disse la voce fredda. «Forse di più. Il posto è abbastanza comodo e il piano non può ancora procedere. Sarebbe da sciocchi agire prima che finisca la Coppa del Mondo di Quidditch.» Frank si infilò un dito deformato nell'orecchio per sturarlo. Senza dubbio, doveva esserci un tappo di cerume, perché aveva sentito la parola «quidditch», che non era affatto una parola. «La... la Coppa del Mondo di Quidditch, mio signore?» disse coda liscia. Frank si infilò il dito nell'orecchio con maggior vigore. «Perdonatemi, ma... non capisco. Perché dovremmo aspettare che la Coppa del Mondo sia finita?» «Perché, sciocco, in questo preciso momento i maghi si stanno riversando nel paese da tutto il mondo. E qualunque ficcanaso del Ministero della Magia sarà in servizio, pronto a cogliere il minimo segno di attività insolite, a controllare e a ricontrollare l'identità dei maghi. Saranno ossessionati dalla sicurezza per paura che i babbani notino qualcosa. Quindi aspettiamo.» Frank smise di cercare di stapparsi l'orecchio. Aveva sentito distintamente le parole «Ministero della Magia, Maghi e Babbani». Evidentemente ognuna indicava qualcosa di segreto e Frank riusciva a pensare a due soli tipi di persone che avrebbero parlato in codice, spie e criminali. Frank strinse il bastone ancora più forte e ascoltò ancora più attentamente. «Vostra signoria è ancora decisa, dunque», disse piano coda liscia. «Certo che lo sono, coda liscia!» C'era una nota minacciosa ora, nella voce fredda. Seguì una brevissima pausa e poi coda liscia parlò. Le parole li uscirono affrettate, come se si stesse costringendo a pronunciarle prima di perdere il coraggio. «Si potrebbe fare senza Harry Potter, mio signore?» Un'altra pausa, più lunga, e poi «Senza Harry Potter!» sussurrò dolcemente la seconda voce. «Capisco.» «Mio signore, non lo dico perché mi preoccupo per il ragazzo!» esclamò coda liscia, la voce che si alzava stridula. «Lui non significa niente per me, niente di niente! È solo che se potessimo usare un'altra strega, un mago, uno qualunque, la cosa si potrebbe fare molto più in fretta. Se mi permetteste di lasciarvi per un breve periodo, sapete bene che so camuffarmi con molta abilità, potrei essere di ritorno in non più di due giorni con una persona adatta.» «Potrei usare un altro mago», disse piano la voce fredda. «È vero.» «Mio signore, sarebbe ragionevole», disse coda liscia, ora decisamente sollevato. «Mettere le mani su Harry Potter sarebbe così difficile e così ben protetto.» «E così tu ti offri di andare a cercarmi un sostituto? Mi domando, forse il compito di accudirmi ti ha stancato, coda liscia? Forse questo tuo suggerimento di abbandonare il piano non è altro che un tentativo di abbandonare me.» «Mio signore, io non ho alcun desiderio di lasciarvi, nessuno.» «Non mentirmi», sibilò la seconda voce. «Lo sai che ti conosco, coda liscia. Tu ti stai pentendo di essere tornato da me. Io ti faccio orrore. Ti vedo fremere quando mi guardi. Ti sento tremare quando mi tocchi.» «No! La mia devozione a vostra signoria?» «La tua devozione non è altro che codardia! Non saresti qui se avessi un altro posto dove andare. Come posso sopravvivere senza lì te, quando ho bisogno di essere nutrito ogni poche ore? Chi mongerà, nagini?» «Ma sembrate molto più in forze, mio signore.» «Bogiardo!» esalò la seconda voce. «Non sono più in forze di prima, e qualche giorno da solo sarebbe sufficiente a sottrarmi la poca salute che ho riguadagnato grazie alle tue cure maldestre. Silenzio!» Coda liscia, che aveva farfugliato in maniera incoerente, tacque all'improvviso. Per qualche istante Frank non sentì altro che lo scoppiettio del fuoco. Poi il secondo uomo parlò di nuovo, in un sussurro che era quasi un sibilo. «Ho le mie ragioni per voler usare il ragazzo, come ti ho già spiegato, e non userò nessun altro. Ho aspettato tredici anni. Qualche mese in più non farà alcuna differenza. Quanto alla protezione di cui gode, sono convinto che il mio piano funzionerà. Tutto quello che serve è un po' di coraggio da parte tua, Coda liscia. Coraggio che troverai, a meno che tu non voglia provare tutta la potenza dell'ira di Voldemort!» «Mio signore, devo parlare!» disse Coda liscia, la voce venata di panico. «Per tutto il viaggio ci ho pensato e ripensato. Mio signore, la scomparsa di Bertha Jorkins non passerà a lungo inosservata. E se andiamo avanti, se scaglio una maledizione?» «Se?» sussurrò la seconda voce. «Se?» «Se seguirà il piano, Coda liscia. Il ministero non dovrà mai sapere che qualcun altro è scomparso. Lo farei con calma, senza creare scompiglio. Vorrei solo poterlo fare io, ma nelle mie attuali condizioni. Andiamo, Coda liscia. Basta rimuovere un altro ostacolo e la strada che ci porta Harry Potter sarà sgombra. Non ti sto chiedendo di farlo da solo. Per allora il mio fedele servo ci avrà raggiunto.» «Io sono un servo fedele», disse Coda liscia, con una vaga traccia di risentimento nella voce. «Coda liscia, ho bisogno di qualcuno dotato di cervello, qualcuno la cui lealtà non abbia mai vacillato, e tu, sfortunatamente, non possiedi né l'uno né l'altro di questi requisiti.» «Io vi ho trovato», disse Coda liscia, e ora nella sua voce c'era decisamente una nota piagnucolosa. «Sono stato io a trovarvi. Io vi ho portato Bertha Jorkins.» «Questo è vero», disse il secondo uomo, in tono divertito. «Un lampo di prontezza che non avrei ritenuto possibile da parte tua, Coda liscia, anche se a dire il vero non sapevi quanto sarebbe stata utile quando l'hai catturata, vero?» «Io, io credevo che avrebbe potuto esserci utile, mio signore.» «Bogiardo», disse di nuovo la seconda voce, ancor più intrisa di crudele divertimento. Comunque non nego che le sue informazioni si siano rivelate di un valore incalcolabile. Senza di esse non avrei mai potuto architettare il nostro piano, e per questo avrai la tua ricompensa, Coda liscia. Ti permetterò di svolgere un compito essenziale per me, un compito che molti dei miei seguaci darebbero la mano destra per eseguire.» «Davvero, mio signore? Che cosa?» Coda liscia era di nuovo terrorizzato. «Ah, Coda liscia, non vorrei che ti sciupi la sorpresa. La tua parte verrà proprio alla fine, ma ti prometto che avrai l'onore di renderti utile come Berta Jorkins.» «Voi, voi...» La voce di Coda liscia si fece all'improvviso roca, come se gli si fosse seccata la gola. «Voi volete uccidere anche me?» «Coda liscia, coda liscia», disse la voce fredda in tono sua dente. «Perché dovrei ucciderti? Ho ucciso Berta, perché ho dovuto farlo. Non serviva più a niente dopo il mio interrogatorio. Era praticamente inutile. E comunque sarebbero circolate strane domande se fosse tornata al ministero con la notizia che ti aveva incontrato durante le vacanze. I maghi ritenuti morti farebbero bene a non incrociare le streghe del ministero della magia in locande lontane.» Coda liscia borbottò qualcosa così piano che Frank non riuscì ad afferrarlo, ma sentì che il secondo uomo rideva, una risata del tutto priva di allegria, fredda come le sue parole. «Avremmo potuto modificarle la memoria? Ma gli incantesimi di memoria possono essere infranti da un mago potente, come ho dimostrato quando l'ho interrogata. Sarebbe stato un insulto alla sua memoria non usare le informazioni che le ho estorto, coda liscia.» Nel corridoio Frank si accorse all'improvviso che la mano che stringeva il bastone era madida di sudore. L'uomo con la voce fredda aveva ucciso una donna. Ne parlava senza nessun rimorso. Sembrava divertito. Era pericoloso. Era un pazzo. E progettava altri omicidi. Quel ragazzo, Harry Potter, chiunque fosse, era in pericolo. Frank sapeva cosa fare. Doveva andare alla polizia, ora o mai più. Sarebbe sgattaiolato fuori e sarebbe andato dritto alla cabina telefonica al villaggio. Ma la voce fredda aveva ripreso a parlare e Frank rimase dove era, paralizzato, ad ascoltare con tutto se stesso. «Un'altra maledizione. Il mio fedele servo Hogwarts. Harry Potter è praticamente già mio, coda liscia. È deciso. Non ci saranno altre discussioni. Ma ora zitto. Credo di aver sentito Nagini». E la voce del secondo uomo cambiò. Cominciò a emettere suoni che Frank non aveva mai udito prima. Si bilava e sputacchiava senza prendere fiato. Il giardiniere credette che fosse in preda a un qualche attacco. Poi Frank sentì qualcosa muoversi nell'oscurità alle sue spalle. Si voltò a guardare e si irrigidì dal terrore. Qualcosa strisciava verso di lui sul pavimento del corridoio buio? E mentre si avvicinava allo spiraglio illuminato dal fuoco, Frank capì con un brivido di orrore che si trattava di un serpente gigantesco, lungo almeno quattro metri. Terrorizzato e sterrefatto, lo fissò mentre il suo corpo ondeggiante tracciava un ampio solco curvilineo sullo spesso strato di polvere che ricopriva il pavimento, avvicinandosi sempre di più. Che fare? La sola via di scampo era entrare nella stanza dove due uomini sedevano tramando omicidi. Ma se fosse rimasto dov'era, il serpente lo avrebbe ucciso di sicuro. Prima che potesse decidersi, il serpente gli fu di fronte e poi incredibilmente, miracolosamente, attirato dai sibili prodotti dalla voce fredda al di là della porta, lo superò. In pochi istanti la punta della sua coda sparì nello spiraglio. Ora la fronte di Frank era imperlata di sudore e la mano sul bastone da passeggio tremava. Dentro la stanza la voce fredda continuava a sibilare e Frank fu colpito da una strana idea, un'idea impossibile. Quell'uomo sa parlare con i serpenti. Frank non capiva che cosa stesse succedendo. Più di tutto avrebbe desiderato essere ancora nel suo letto con la borsa dell'acqua calda. Il problema era che le sue gambe pareva non volessero muoversi. Mentre stava lì, tremando e cercando di riprendere il controllo, la voce fredda tornò di colpo a parlare in modo comprensibile. «Nagini porta notizie interessanti, Codaliscia», disse. «Davvero, mio signore?» «Davvero sì», disse la voce. «Secondo Nagini c'è un vecchio babbano proprio lì dietro la porta che sta ascoltando tutto quello che diciamo». Frank non ebbe alcuna possibilità di nascondersi. Risuonarono dei passi e poi la porta della stanza si spalancò. Un ometto basso quasi calvo con i capelli ingrigiti, il naso a punta e i piccoli occhi acquosi era in piedi davanti a Frank, che aveva un'espressione di paura e allarme sul volto. «Invitalo a entrare, Codaliscia, hai dimenticato le buone maniere?» La voce fredda proveniva dalla poltrona antica davanti al fuoco, ma Frank non vide il suo occupante. Il serpente, invece, era acciambellato sul tappeto consunto, come l'orribile imitazione di un cane da compagnia. Codaliscia fece cenno a Frank di entrare nella stanza. Benché ancora profondamente scosso, Frank serrò la presa sul bastone e oltrepassò la soglia, zoppicando. Il fuoco era l'unica sorgente di luce nella stanza e gettava lunghe ombre a guzze sulle pareti. Frank fissò lo schienale della poltrona. L'uomo seduto sembrava perfino più piccolo del suo servitore, perché Frank non riusciva a vedergli nemmeno la sommità della testa. «Hai sentito tutto, babbano?» disse la voce fredda. «Com'è che mi hai chiamato?» disse Frank in tono di sfida, perché ora che si trovava dentro la stanza, ora che era giunto il momento di prendere l'iniziativa, si sentiva più coraggioso. Era sempre stato così in guerra. «Ti ho chiamato babbano», disse la voce con freddezza. «Vuol dire che non sei un mago». «Non so cosa vuoi dire con questo», disse Frank con voce sempre più ferma. «So solo che stasera ho sentito parecchie cose che interesseranno la polizia. Ecco, avete già ucciso e state per farlo ancora. E vi dirò un'altra cosa», aggiunse preso da un'improvvisa ispirazione. «Mia moglie sa che sono qui, e se non torno a casa...» «Tu non hai una moglie», disse la voce fredda molto tranquillamente. «Nessuno sa che sei qui. Non hai detto a nessuno che venivi. Non mentire a Lord Voldemort, babbano, perché lui sa, lui sa sempre». «Davvero», disse Frank in tono rude. «Lord, hai detto? Beh, non mi pare che tu abbia poi delle gran maniere, milord. Voltati e guardami in faccia da uomo. Coraggio!» «Ma io non sono un uomo, babbano», disse la voce fredda, udibile e astento, sopra il crepitio delle fiamme. «Sono molto, molto più di un uomo. Comunque, perché no? Ti guarderò in faccia». «Codaliscia, gira la mia poltrona». Il servitore mugolò. «Mi hai sentito, Codaliscia?» Lentamente, storcendo la faccia, come uno che avrebbe preferito fare qualunque cosa, piuttosto che avvicinarsi al suo padrone e al tappeto dove si trovava il serpente, l'ometto avanzò e prese a voltare la poltrona. Il serpente sollevò la brutta testa triangolare e si bilò lievemente, mentre le gambe della poltrona si impigliavano nel tappeto. Infine, la poltrona fu completamente girata verso di lui e Frank vide che cosa vi era seduto. Il bastone da passeggio cadde a terra con un tonfo. Il giardiniere aprì la bocca e urlò, urlò così forte che non udì mai le parole che la cosa nella poltrona pronunciò levando una bacchetta. Ci fu un lampo di luce verde, un rumore improvviso, e Frank Bryce si afflosciò. Era morto, prima ancora di toccare il pavimento. A 300 chilometri di distanza, il ragazzo chiamato Harry Potter si svegliò di soprassalto. La cicatrice Harry era sdraiato sulla schiena, il respiro affannoso, come se avesse corso. Si era svegliato da un sogno molto vivido con il viso nascosto tra le mani. La vecchia cicatrice a forma di saetta sulla sua fronte scottava sotto le dita, come se qualcuno gli avesse appena premuto un filo elettrico sulla pelle. Si alzò a sedere, una mano ancora sulla fronte, l'altra tesa nel buio a cercare gli occhiali sul comodino. Li inforcò e mise lentamente a fuoco la stanza, illuminata dal debole, nebuloso chiarore che filtrava dalla strada attraverso le tende. Harry sfiorò di nuovo la cicatrice con le dita. Faceva ancora male. Accese la lampada, scivolò fuori dal letto, attraversò la stanza, aprì l'armadio e si guardò nello specchio all'interno dello sportello. Un ragazzo smilzo di quattordici anni ricambiò il suo sguardo, gli occhi verde brillante perplessi, sotto i capelli neri spettinati. Esaminò più da vicino la cicatrice a forma di saetta del suo riflesso. Sembrava normale, ma bruciava ancora. Harry cercò di ricordare che cosa stava sognando quando si era svegliato. Sembrava così irreale. C'erano due persone che conosceva e una che non conosceva. Si concentrò intensamente, accigliato, sforzandosi di ricordare. L'immagine di una stanza nell'oscurità affiorò nella sua mente. C'era un serpente su un tappeto, un ometto di nome Peter, detto Codaliscia, e una voce fredda, acuta, la voce di Voldemort. Il solo pensiero fece sentire Harry come se un cubetto di ghiaccio gli fosse scivolato nello stomaco. Chiuse gli occhi con forza e cercò di ricordare l'aspetto di Voldemort, ma fu impossibile. Tutto quello che Harry sapeva era che nel momento in cui la poltrona era stata girata e lui, Harry, aveva visto che cosa vi era seduto, uno spasmo di terrore lo aveva svegliato. O era stato il dolore della cicatrice. E chi era il vecchio? Perché di sicuro c'era un vecchio. Harry lo aveva visto cadere a terra, ma tutto stava diventando confuso. Si coprì il viso per non vedere la camera, cercando di restare aggrappato all'immagine di quella stanza appena illuminata. Ma era come voler trattenere l'acqua con le mani, e più cercava di fermarli, più i dettagli scivolavano via. Voldemort e Codaliscia stavano parlando di qualcuno che avevano ucciso, anche se Harry non riusciva a ricordarsi il nome, e progettavano di uccidere qualcun altro. Lui. Harry sollevò il viso dalle mani, aprì gli occhi e si guardò intorno come se si aspettasse di vedere qualcosa di insolito. A dire il vero, c'era una quantità straordinaria di cose insolite in quella stanza. Un grosso baule di legno, spalancato ai piedi del letto, mostrava un calderone, una scopa, abiti neri e svariati libri di incantesimi. Rotoli di pergamena ingombravano quella parte della sua scrivania, che non era occupata dalla grande gabbia vuota, in cui di solito era appollaiata Edvige, la sua civetta candida. Sul pavimento accanto al letto c'era un libro aperto, lo stava leggendo prima di addormentarsi la sera prima. Le figure del libro si muovevano, uomini in abiti arancioni sfrecciavano avanti e indietro, cavalcando scope e lanciandosi una palla rossa. Harry si avvicinò al libro, lo raccolse e guardò uno dei maghi segnare un gol spettacolare, lanciando la palla attraverso un anello all'altezza di 15 metri. Poi chiuse il volume con un colpo secco. Nemmeno il quidditch, secondo Harry lo sport più bello del mondo, riusciva a distrarlo in quel momento. Posò sul comodino i magnifici sette, si avvicinò alla finestra e tirò le tende per osservare la strada di sotto. Private Drive aveva proprio l'aspetto di una qualunque rispettabile strada di periferia, nelle prime ore di un sabato mattina. Tutte le tende erano tirate. Per quanto Harry poteva vedere nell'oscurità, non si scorgeva anima viva, neppure un gatto. Eppure, eppure... Harry, irrequieto, tornò verso il letto e vi si sedette, toccandosi di nuovo la cicatrice. Non era il dolore a preoccuparlo. Male fisico e ferite non erano una novità per lui. Una volta aveva perso le ossa del braccio destro e gli erano ricresciute tutte dolorosamente in una notte. Poco tempo dopo, lo stesso braccio era stato dilaniato da una zanna velenosa lunga 30 centimetri. Solo l'anno prima, Harry aveva fatto un volo di 15 metri da una scopa volante. Era abituato agli incidenti più bizzarri. Erano inevitabili se frequentavi la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts e avevi il dono di attirarti un sacco di guai. No, la cosa che turbava Harry era che l'ultima volta la cicatrice gli aveva fatto male perché Voldemort era vicino, ma Voldemort non poteva essere lì in quel momento. L'idea di Voldemort appostato a private drive era assurda, impossibile. Harry ascoltò spasmodicamente il silenzio attorno a lui, quasi aspettandosi di sentire lo scricchiolio di una scala o il fruscio di un mantello, e all'improvviso sussultò, colto alla sprovvista da un fragoloso grugnito di suo cugino Dudley che dormiva nella stanza accanto. Harry decise di darsi una calmata. Si stava comportando da stupido. Non c'era nessuno in casa oltre a lui, zio Vernon, zia Petunia e Dudley che dormivano della grossa, immersi in sogni tranquilli e indolori. Addormentati, era così che Harry preferiva i Dursley. Da svegli non erano per lui di alcuna utilità. Zio Vernon, zia Petunia e Dudley erano i soli parenti di Harry al mondo. Erano babbani, ovvero non maghi, che odiavano e disprezzavano la magia in qualunque forma, e questo significava che Harry era benvenuto nella loro casa, quasi quanto una torma di insetti infestanti. Avevano raccontato a tutti che negli ultimi tre anni Harry era stato assente non perché frequentava Hogwarts, bensì il centro di massima sicurezza San Bruto per giovani criminali irrecuperabili. Sapevano benissimo che in quanto mago minorenne, Harry non aveva il permesso di usare la magia al di fuori di Hogwarts, ma erano sempre pronti ad accusarlo di qualunque cosa andasse storta a casa loro. Harry non aveva mai potuto contare su di loro o rivelare alcunché della sua vita nel mondo dei maghi. La sola idea di parlargli della cicatrice che gli faceva male e delle sue preoccupazioni su Voldemort era ridicola. Eppure era soprattutto a causa di Voldemort che Harry era andato a vivere con i Dursley. Se non fosse stato per lui, Harry non avrebbe avuto la cicatrice a forma di saetta sulla fronte. Se non fosse stato per Voldemort, Harry avrebbe avuto ancora i suoi genitori. Harry aveva un anno la notte in cui Voldemort, il più grande mago oscuro del secolo, un mago che in undici anni aveva guadagnato sempre più potere, andò a casa sua e uccise suo padre e sua madre. Poi Voldemort puntò la bacchetta su Harry, scagliò la maledizione che aveva stroncato molti maghi e molte streghe adulti nel corso della sua inarrestabile scalata e incredibilmente non funzionò. Invece di uccidere il bambino, l'incantesimo rimbalzò contro Voldemort. Harry sopravvisse, senza altro segno che la cicatrice a forma di saetta sulla fronte, e Voldemort fu ridotto a una cosa che a malapena poteva dirsi viva. Persi i poteri, la vita quasi estinta, Voldemort fuggì. La cappa di terrore sotto la quale la comunità segreta dei maghi e delle streghe era vissuta tanto a lungo, si dissolse. I seguaci di Voldemort si dispersero e Harry Potter diventò famoso. Fu un bel colpo per Harry, in occasione del suo undicesimo compleanno, scoprire di essere un mago, e fu ancora più sconcertante rendersi conto che nel mondo segreto della magia tutti conoscevano il suo nome. Harry arrivò a Hogwarts per scoprire che ovunque andasse tutti si voltavano a guardarlo, e un mormorio incessante lo seguiva. Ma ormai ci si era abituato. Alla fine dell'estate avrebbe cominciato il suo quarto anno a Hogwarts, e stava già contando i giorni che lo separavano dal ritorno al castello. Ma mancavano ancora due settimane all'inizio della scuola. Si guardò di nuovo intorno, smarrito, e il suo sguardo indugiò sui biglietti di compleanno che i suoi due migliori amici gli avevano spedito alla fine di luglio. Che cosa avrebbero detto se gli avesse scritto della cicatrice dolorante? Subito la voce di Hermione Granger gli riempì la testa, acuta e pervasa di panico. Ti ha fatto male la cicatrice? Harry, è una cosa seria. Scrivi al professor Silente. Io intanto consulterò malanni e disturbi magici comuni. Forse dice qualcosa sulle cicatrici da maledizione. Decisamente, quello sarebbe stato il consiglio di Hermione. Andar dritto dal preside di Hogwarts e nel frattempo consultare un libro. Harry guardò fuori dalla finestra, verso il cielo nero d'inchiostro. Dubitava alquanto che un libro lo potesse aiutare. Per quel che ne sapeva, era l'unico essere vivente sopravvissuto a una maledizione come quella di Voldemort. Era altamente improbabile, quindi, trovare i suoi sintomi elencati in malanni e disturbi magici comuni. Quanto a informare il preside, Harry non aveva idea di dove andasse Silente durante le vacanze estive. Si divertì per un attimo a immaginarlo, la lunga barba argentea, il mantello lungo da mago e il cappello a punta, disteso su una spiaggia, a spalmarsi l'abbronzante sul lungo naso adunco. Ovunque si trovasse Silente, Harry era certo che Edvige sarebbe stata in grado di trovarlo. La civetta di Harry, fino ad allora, non aveva mai mancato di consegnare una lettera a chi che sia, anche senza indirizzo. Ma che cosa avrebbe scritto? Caro professor Silente, mi dispiace disturbarla, ma questa mattina mi ha fatto male la cicatrice, cordialmente Harry Potter. Anche dentro la sua testa le parole suonavano stupide. E così cercò di immaginare la reazione di Ron Weasley, l'altro suo migliore amico, e in un attimo la faccia lentigginosa di Ron parve galleggiare davanti a lui, con un'espressione confusa. «Ti ha fatto male la cicatrice? Ma tu sai chi? Non può essere nei dintorni adesso, no? Voglio dire, tu lo sapresti, no? Cercherebbe di farti secco di nuovo, no? Non so, Harry, forse le cicatrici da maledizione bruciano sempre un po'. Lo chiederò a papà». Il signor Weasley era il mago direttore dell'ufficio per l'uso improprio dei manufatti dei babbani al Ministero della Magia, ma per quanto ne sapeva Harry non aveva particolari conoscenze in materia di incantesimi. E in ogni caso a Harry non andava l'idea che tutta quanta la famiglia Weasley sapesse che lui, Harry, diventava isterico al primo doloretto. La signora Weasley si sarebbe agitata più di Ermione e Fred e George, i fratelli gemelli sedicenni di Ron, avrebbero pensato che Harry si era rammollito. I Weasley erano in assoluto la famiglia preferita di Harry. Sperava che lo invitassero da loro da un momento all'altro. Ron aveva detto qualcosa a proposito della Coppa del Mondo di Quidditch e non voleva che il suo soggiorno fosse costellato di ansiose indagini sulla sua cicatrice. Harry si strofinò la fronte con le nocche. Quello che desiderava veramente, e quasi si vergognava ad ammetterlo, era qualcuno come un genitore. Un mago adulto a cui poter chiedere consiglio senza sentirsi uno stupido. Qualcuno a cui importasse di lui che avesse esperienza in fatto di magia oscura. E poi arrivò la soluzione. Era così semplice e così ovvio che non riusciva a credere di averci messo così tanto. Sirius. Harry balzò dal letto, attraversò la stanza di corsa e si sedette alla scrivania. Prese un pezzo di pergamena, intinse la penna d'aquila nell'inchiostro, scrisse caro Sirius. Poi si interruppe cercando le parole giuste, ancora stupito per non aver pensato subito a lui. In realtà non c'era granché da stupirsi. Dopotutto aveva scoperto che Sirius era il suo padrino solo due mesi prima. C'era una ragione molto semplice per spiegare la totale assenza di Sirius dalla vita di Harry fino ad allora. Sirius si trovava ad Azkaban, la terribile prigione dei maghi, i cui guardiani erano creature chiamate dissennatori, demoli ciechi che succhiavano l'anima e che erano venuti a cercare Sirius a Hogwarts quando era fuggito. Ma Sirius era innocente. Gli omicidi per i quali era stato condannato erano stati commessi da Codaliscia, il servitore di Voldemort, che tutti credevano morto e che Harry, Ron e Hermione avevano incontrato faccia a faccia l'anno prima, anche se il solo a credere alla loro storia, era stato il professor Silente. Per un'ora gloriosa Harry aveva creduto di poter finalmente lasciare i Dursley, perché Sirius gli aveva offerto una casa appena fosse stato scagionato, ma questa possibilità era sfumata. Codaliscia era fuggito prima di essere arrestato e Sirius era stato costretto a scappare per salvarsi. Harry lo aveva aiutato a fuggire a cavallo di un ipogrifo chiamato Fierobecco e da allora Sirius era in fuga. L'idea della casa che avrebbe potuto avere, se Codaliscia non fosse scappato, aveva perseguitato Harry per tutta l'estate. Era stato doppiamente difficile tornare dai Dursley dopo essere stato sul punto di liberarsi di loro per sempre. Tuttavia, anche se non potevano stare insieme, Sirius era stato di grande aiuto. Era merito suo se ora Harry poteva tenere tutte le cose di scuola in camera con sé. I Dursley non gliel'avevano mai permesso prima. Il loro costante desiderio di rendere la vita di Harry un inferno, unito alla paura dei suoi poteri, li aveva indotti a chiudere a chiave il baule scolastico nel ripostiglio del sottoscala per tutte le estati precedenti. Ma da quando avevano scoperto che il padrino di Harry era un assassino pericoloso, il loro atteggiamento era cambiato e Harry aveva accuratamente omesso di precisare che Sirius era innocente. Da quando era tornato a Priva Drive, Harry aveva ricevuto due lettere da Sirius. Entrambe erano state recapitate non via Gufo, come era con sua etudine tra maghi, ma da grandi coloratissimi uccelli tropicali. Edvige non aveva approvato la presenza di questi vistosi intrusi, aveva accettato con estrema riluttanza che bevessero dalla sua ciotola dell'acqua prima di ripartire. A Harry invece erano piaciuti molto, gli facevano pensare a palme e spiagge candide e sperava che ovunque Sirius si trovasse, Sirius non lo disse mai nel caso che le sue lettere venissero intercettate, se la stesse spassando. Per qualche ragione Harry faceva fatica a immaginare che i dissennatori potessero sopravvivere a lungo alla luce diretta del sole. Forse per questo Sirius era andato a sud. Le lettere di Sirius, al momento nascoste sotto la provvidenziale asse mobile sotto il letto di Harry, erano allegre, e in entrambe aveva ricordato a Harry di rivolgersi a lui, se mai ne avesse avuto bisogno. Beh, ora ne aveva bisogno, e subito. La luce della lampada di Harry parve affievolirsi, mentre la fredda luce grigia che precede il levar del sole si insinuava lentamente nella stanza. Alla fine, quando ormai il sole fu sorto, quando le pareti furono diventate d'oro e quando si cominciarono ad avvertire piccoli movimenti dalla stanza di zio Vernon e zia Petunia, Harry sgombrò la scrivania dai fogli appallottolati di pergamena e rilesse la lettera finita. Caro Sirius, grazie per la tua ultima lettera. Quell'uccello era enorme, quasi non passava dalla finestra. Le cose qui vanno come al solito. La dieta di Dudley non procede troppo bene. Ieri la zia lo ha sorpreso mentre si portava di nascosto le ciambelle in camera. Gli hanno detto che gli leveranno la paghetta se continua così, e lui si è arrabbiato sul serio e ha buttato la Playstation giù dalla finestra. È una specie di computer con cui puoi fare dei giochi, una cosa piuttosto stupida, perché adesso non ha nemmeno Mega Mutilation 3 per distrarsi. Io sto bene, soprattutto perché i Darsley sono terrorizzati all'idea che tu possa spuntare all'improvviso e trasformarli tutti in pipistrelli, se solo te lo chiedo. Però questa mattina è successa una cosa strana. La cicatrice mi ha fatto male di nuovo. L'ultima volta è successo quando Voldemort era a Hogwarts. Ma non credo che ora possa essere da queste parti, no? Sai per caso se le cicatrici da maledizione possono far male a distanza di anni? Ti spedirò questa lettera non appena torna Edwige. Al momento è fuori a caccia. Salutami fiero becco. Harry. Sì, pensò Harry, andava bene. Non c'era motivo di parlare del sogno, non voleva sembrare troppo preoccupato. Arrotolò la pergamena e la mise sulla scrivania, da una parte, pronta per il ritorno di Edwige. Poi si alzò, si stiracchiò e aprì di nuovo l'armadio. Senza guardarsi allo specchio, cominciò a vestirsi, prima di scendere a fare colazione. L'invito Quando Harry arrivò in cucina, i tre darseri erano già seduti a tavola. Nessuno di loro alzò gli occhi quando entrò e si sedette. Il faccione rosso di zio Vernon era nascosto dietro il daily mail del mattino e zia Petunia stava dividendo in quattro un pompelmo, le labbra contratte sulla dentatura cavallina. Dudley aveva l'aria arrabbiata e scontrosa e in qualche modo sembrava prendere ancora più spazio del solito, il che era tutto dire, visto che da solo occupava sempre un lato intero del tavolo quadrato. Quando zia Petunia posò un quarto di pompelmo non zuccherato nel piatto di Dudley con un tremulo, ecco di tesoro, Dudley la fulminò con lo sguardo. La sua vita aveva preso una piega alquanto sgradevole da quando era tornato a casa per l'estate con la pagella di fine anno. Zio Vernon e zia Petunia avevano cercato di trovare delle scuse per i suoi brutti voti, come al solito. Zia Petunia insisteva sempre nel dire che Dudley era un ragazzo molto dotato che gli insegnanti non capivano, mentre zio Vernon sosteneva che comunque non avrebbe voluto per figlio una femminuccia secchiona. In più ignoravano le accuse di prepotenze riportate nella pagella. «E' un ragazzo vivace, ma non farebbe male a una mosca», diceva zia Petunia in tono lacrimoso. Comunque, in fondo alla pagella c'erano alcuni commenti accuratamente stilati dall'infermeria della scuola, che nemmeno zio Vernon e zia Petunia poterono liquidare. Per quanto zia Petunia gemesse che Dudley era di costituzione robusta, che il suo grasso era solo dovuto alla crescita e che era un ragazzo in via di sviluppo che aveva bisogno di mangiare molto, restava il fatto che i sarti fornitori della scuola non avevano più calzoni alla zuava abbastanza grandi per lui. L'infermiera scolastica aveva notato ciò che gli occhi di zia Petunia, così acuti nell'individuare ditate sulle pareti scintillanti di casa sua e nell'osservare gli andirivieni dei vicini, semplicemente si rifiutavano di vedere che, ben lungi dall'aver bisogno di cibo in più, Dudley aveva raggiunto più o meno la taglia e il peso di una giovane orca assassina. Così, dopo molte scenate, dopo liti che fecero tremare il pavimento della camera di Harry e dopo che zia Petunia ebbe versato molte lacrime, il nuovo regime era cominciato. La dieta prescritta dall'infermiera scolastica di Smeltins era stata attaccata al frigorifero, opportunamente svuotato di tutte le cose preferite da Dudley, bevande gassate, dolci, cioccolata e hamburger, e riempito invece di frutta e verdura e del genere di cose che zio Vernon definiva roba da conigli. Per non mettere Dudley a disagio, inoltre, zia Petunia aveva insistito che tutta la famiglia seguisse la dieta. Così passò un quarto di pompelmo a Harry. Quest'ultimo notò che era molto più piccolo di quello di Dudley. Zia Petunia era convinta che la cosa migliore per far star su di morale Dudley era assicurarsi che almeno mangiasse più di Harry. Ma zia Petunia non aveva idea di cosa era nascosto sotto l'asse mobile al piano di sopra. non sospettava minimamente che Harry non stesse affatto seguendo la dieta. Nel momento in cui aveva capito che ci si aspettava che sopravvivesse all'estate sgranocchiando carote, Harry aveva spedito Edvige dai suoi amici con richieste d'aiuto e loro avevano risposto munificamente all'appello. Edvige era tornata da casa di Ermione con una grossa scatola piena zeppa di merendine senza zucchero. I genitori di Ermione facevano i dentisti. Hagrid, il guardacaccia di Hogwarts, aveva offerto un sacco pieno dei suoi biscotti fatti in casa, duri come la roccia. Harry non ne aveva toccato uno, aveva già sperimentato abbastanza la cucina di Hagrid e la signora Weasley aveva mandato il gufo di famiglia, Errol, con un'enorme torta alla frutta e pasticcini assortiti. Al povero Errol, che era vecchio e debole, c'erano voluti cinque giorni interi per riprendersi dal viaggio. E poi, per il suo compleanno, che i Darsley avevano completamente ignorato, aveva ricevuto quattro splendide torte di compleanno, da Ron, da Ermione, da Hagrid e da Sirius. Harry ne aveva ancora due e così, pregustando una vera colazione una volta tornato di sopra, prese a mangiare il suo pompelmo senza fiatare. Sio Vernon depose il giornale con un profondo sbuffo di disapprovazione e fissò il suo quarto di pompelmo. «È tutto», disse scontroso a zia Petunia. Zia Petunia gli scoccò uno sguardo severo e poi fece un cenno verso Dudley, che aveva già finito la sua parte e occhieggiava quella di Harry con uno sguardo molto acido negli occhietti porcini. Sio Vernon fece un gran sospiro che gli scompigliò i baffoni cespugliosi e prese i cucchiaio. Suonarono alla porta. Zio Vernon si alzò dalla sedia e attraversò l'ingresso. Veloce come un fulmine, mentre sua madre era alle prese con il bollitore, Dudley rubò il resto del pompelmo di zio Vernon. Harry sentì parlottare, una risatina e la risposta asciutta dello zio. Poi la porta si chiuse e dall'ingresso giunse un rumore di carta strappata. Zia Petunia posò la teiera sul tavolo e si guardò intorno incuriosita, cercando zio Vernon. «Non dovete aspettare a lungo, per scoprire dove era finito. Dopo un minuto circa, eccolo di ritorno. Era livido. Tu!» abbaiò a Harry. «In salotto, subito!» Stupito, chiedendosi che cosa diavolo avesse combinato stavolta, Harry si alzò e seguì zio Vernon nella stanza accanto. Zio Vernon chiuse bruscamente la porta dietro di loro. «Dunque!» disse, marciando verso il camino e voltandosi per fronteggiare Harry come se stesse per dichiararlo in arresto. «Dunque!» Harry avrebbe tanto voluto dire «dunque che cosa!» ma non credeva che l'umore di zio Vernon dovesse essere messo alla prova la mattina così presto, soprattutto in condizioni di forte stress a causa della mancanza di cibo. Quindi decise di mostrarsi educatamente meravigliato. «E' appena arrivato questo!» disse zio Vernon. Vernon sventolò davanti a Harry un foglio di carta da lettera violetto. «Una lettera parla di te!» La confusione di Harry crebbe. Chi poteva scrivere di lui a zio Vernon? Chi conosceva che spedisse lettere via Postino? Zio Vernon fissò Harry con severità, poi guardò la lettera e prese a leggere ad alta voce. «Cari signori d'Arsley, non siamo mai stati presentati, ma sono certa che abbiate sentito parlare molto di mio figlio Ron da Harry. Come forse Harry vi avrà detto, la finale della Coppa del Mondo di Quidditch si terrà il prossimo lunedì sera e mio marito Arthur è appena riuscito a procurarsi dei posti di tribuna grazie alle sue conoscenze all'ufficio per i giochi e gli sport magici. Spero che ci permetterete di portare Harry a vedere la partita, perché si tratta davvero di un'occasione di quelle che capitano una volta nella vita. La Gran Bretagna non ospita la Coppa da trent'anni e i biglietti sono molto difficili da trovare. Naturalmente saremmo lieti di avere da noi Harry per quel che resta delle vacanze estive e di premurarci che prenda il treno per la scuola. Sarebbe meglio se Harry ci spedisse la vostra risposta al più presto per via normale, perché il postino babbano non ha mai consegnato lettere a casa nostra e non sono nemmeno certa che sappia dove si trova. Augurandoci di vedere presto Harry, sinceramente vostra, Molly Weasley. P.S. Spero di aver messo abbastanza a Franco Bolli. Zio Vernon finì di leggere, si infilò la mano nella tasca interna della giacca ed estrasse qualcos'altro. Guarda qua, ringhiò. Prese la busta che aveva contenuto la lettera della signora Weasley e Harry trattenne a stento una risata. Era tutta coperta di Franco Bolli, tranne un quadratino sul davanti nel quale la signora Weasley aveva incastrato l'indirizzo dei Dursley con una scrittura molto piccola. Quindi ci ha messo abbastanza Franco Bolli? disse Harry, come a dire che quello della signora Weasley era un errore che chiunque poteva fare. Zio Vernon lo fulminò con lo sguardo. L'ha notato anche il postino, disse a denti stretti. Era molto curioso di sapere da dove venisse questa lettera. Ecco perché ha suonato. Sembrava che lo trovasse divertente. Harry non disse nulla. Altri avrebbero potuto non capire come mai Zio Vernon facesse tante storie per un eccesso di Franco Bolli, ma Harry viveva coi Dursley da troppo tempo per non sapere quanto erano sensibili a qualunque cosa fosse anche solo lievemente fuori dall'ordinario. Il loro peggior timore era che qualcuno scoprisse che conoscevano, anche se alla lontana, gente come la signora Weasley. Zio Vernon continuava a scrutare Harry, che cercò di restare impassibile. Se non avesse detto o fatto qualcosa di stupido, forse sarebbe riuscito a godersi lo spettacolo più bello della sua vita. Attese che Zio Vernon dicesse qualcosa, ma quello si limitò a fissarlo. Così Harry decise di rompere il silenzio. «Allora, posso andare?» chiese. Un tic scosse il faccione violaceo di Zio Vernon. I suoi baffi tremarono. Harry sapeva che cosa stava succedendo là dietro. La lotta furibonda tra due istinti basilari di Zio Vernon. Permettergli di andare avrebbe reso Harry felice, una cosa contro cui Zio Vernon combatteva da tredici anni. D'altra parte, lasciare che sparisse dai Weasley per il resto dell'estate, voleva dire sbarazzarsi di lui due settimane prima di quanto avesse sperato, e Zio Vernon odiava avere in casa Harry. Per concedersi il tempo di rifletterci, finse di guardare di nuovo la lettera della signora Weasley. «Chi è questa donna?» chiese fissando con disgusto la firma. «L'hai vista?» disse Harry. «È la madre del mio amico Ron. È venuto a prenderlo al treno della scuola qualche settimana fa. Aveva quasi detto Hogwarts Express, e quello era un modo sicuro per far arrabbiare lo zio. Nessuno pronunciava mai il nome della scuola di Harry ad alta voce in casa d'Arsley. Zio Vernon contraste il faccione, come se stesse cercando di ricordare qualcosa di molto spiacevole. «Una donna tarchiata?» ringhiò alla fine. «Con un sacco di figli coi capelli rossi?» Harry si accigliò. Era convinto che fosse un po' eccessivo da parte di Zio Vernon definire qualcuno tarchiato, quando suo figlio Dudley era diventato più largo che alto, in presa in cui prometteva di riuscire dall'età di otto anni. «Quidditch!» borbottò a mezza voce. «Quidditch!» «Che cos'è questa robaccia?» Harry provò una seconda fitta di irritazione. «È uno sport», disse asciutto. «Si gioca a cavallo di manici di...» «Va bene, va bene», disse Zio Vernon ad alta voce. Harry notò con una certa soddisfazione che sembrava vagamente spaventato. Di certo i suoi nervi non avrebbero retto nel sentir pronunciare le parole manici di scopa nel suo salotto. Zio Vernon reagì strapazzando ancora la lettera. Harry vide le sue labbra formare le parole «Ci mandi la sua risposta per via normale». Zio Vernon aggrottò le sopracciglia. «Cosa vorrebbe dire per via normale?» ringhiò. «Normale per noi», disse Harry e prima che suo zio potesse fermarlo aggiunse «Sai, posta via Gufo, è così che è normale fra maghi». Zio Vernon aveva l'aria offesa come se Harry avesse appena pronunciato una disgustosa parolaccia. Tremante di rabbia scoccò uno sguardo nervoso al di là della finestra, come aspettandosi di vedere qualcuno dei vicini con l'orecchio schiacciato contro il vetro. «Quante volte devo dirti di non parlare di quelle cose innaturali sotto il mio tetto?» Sibilò il volto di un intenso color prugna. «Sei lì, porti gli abiti che io e Petunia abbiamo messo sul tuo corpo ingrato!» «Solo dopo che Dudley li ha consumati», disse freddamente Harry, e in verità indossava una felpa così grande per lui che aveva dovuto rimboccare le maniche cinque volte per poter usare le mani, e che scendeva oltre le ginocchia dei jeans estremamente cascanti. «Non ti permetto di usare quel tono con me!» ruggì Zio Vernon. Ma Harry non aveva intenzione di sopportarlo. Erano finiti i giorni in cui era costretto ad accettare ogni stupida singola regola dei Dursley. Non seguiva la dieta di Dudley e non aveva intenzione di lasciare che Zio Vernon gli impedisse di andare alla Coppa del Mondo di Quidditch. Non se poteva evitarlo. Harry trasse un profondo respiro per calmarsi e poi disse «Ok, allora niente Coppa del Mondo. Ora posso andare? Voglio finire una lettera per Sirius. Sai, il mio padrino!» L'aveva fatto. Aveva pronunciato le parole magiche. Osservò il colore violetto ritirarsi a chiazze dal viso di Zio Vernon, facendolo assomigliare a un gelato al mirtillo mal mescolato. «Tu, tu gli scriverai!» disse Zio Vernon cercando di controllare la voce. Ma Harry aveva visto i suoi occhietti contrarsi per la paura improvvisa. «Beh, sì!» disse Harry non curante. «È un po' che non gli do mie notizie. E sai com'è, se non mi sente potrebbe cominciare a pensare che c'è qualcosa che non va». A quel punto si interruppe per godersi l'effetto delle parole. poteva quasi vedere gli ingranaggi al lavoro sotto i capelli fitti e ben pettinati di Zio Vernon. Se avesse impedito a Harry di scrivere a Sirius, questi avrebbe potuto pensare che Harry veniva maltrattato. Ma se gli avesse impedito di andare alla Coppa del Mondo di Quidditch, Harry lo avrebbe scritto a Sirius, che così avrebbe saputo che veniva maltrattato. C'era una sola cosa che Zio Vernon potesse fare e Harry la vide delinearsi nella mente dello zio, come se il faccione baffuto fosse trasparente. Cercò di non sorridere, di mantenersi più impassibile che poteva. E poi? «Beh, allora va bene. Puoi andare a questa maledetta, a questa stupida, a questa Coppa del Mondo di non so che. Scrivi a questi, a questi Weasley, e digli che devono venire a prenderti, però. Non ho tempo di accompagnarti in giro. E puoi dire al tuo padrino, digli che ci vai». «Allora ok», disse Harry allegramente. Si voltò e si avviò verso la porta del salotto, reprimendo a fatica la voglia di mettersi a saltare e gridare. «Ci andava! Andava dai Weasley! Andava a vedere la Coppa del Mondo di Quidditch!». Fuori, nell'ingresso, quasi si scontrò con Dudley, che origliava dietro la porta, con la chiara speranza di godersi la sfuriata. E invece Dudley fu scioccato, alla vista del sorriso trionfante di Harry. «Ottima colazione, vero?», disse Harry. «Mi sento pieno come un uovo. E tu?». Ridendogli in faccia, Harry salì i gradini tre alla volta e si precipitò nella sua camera. La prima cosa che vide fu che Edvige era tornata. Appollaiata nella sua gabbia, fissava Harry con gli enormi occhi d'ambra e faceva scattare il becco come faceva sempre quando era irritata per qualcosa. Il motivo della sua irritazione divenne evidente quasi subito. «Aia!», disse Harry. Era stato appena colpito in testa da quella che sembrava una piccola palla da tennis grigia e piumata. Harry si massaggiò vigorosamente, alzando lo sguardo per capire che cosa fosse, e vide un gufo minuscolo, tanto piccolo da entrare nel palmo della sua mano, che svorazzava eccitato per la stanza come un fuoco d'artificio appena acceso. Il gufo aveva lasciato cadere una lettera ai suoi piedi. Sì, chi no? Riconobbe la grafia di Ron, poi strappò la busta. Dentro c'era un biglietto scritto di gran fretta. «Harry, papà ha i biglietti! Irlanda contro Bulgaria, lunedì sera. Mamma ha scritto ai babbani per chiedergli di lasciarti stare da noi. Forse hanno già ricevuto la lettera. Non so quanto è rapida la posta babbana, ma ho pensato comunque di mandarti questo con Leo. Harry fissò la parola Leo, poi guardò il minuscolo gufo che ora sfrecciava attorno al lampadario sul soffitto. Mai visto niente con un nome così poco appropriato. Forse non riusciva a leggere la grafia di Ron. Tornò alla lettera. «Verremo a prenderti, che ai babbani piaccia o meno. Non puoi perderti la coppa del mondo. Solo che mamma e papà pensano che è meglio se facciamo finta di chiedere il loro permesso prima. Se dicono di sì, manda subito indietro Leo con la risposta e saremo da te domenica alle cinque. Se dicono di no, rimanda subito Leo e verremo a prenderti domenica alle cinque comunque». Hermione arriva oggi pomeriggio. Percy ha cominciato a lavorare all'ufficio per la cooperazione magica internazionale. «Non parlare assolutamente di estero quando sarai qui, a meno che tu non voglia uscire pazzo dalla noia. A presto, Ron». «Calmati», disse Harry, mentre il piccolo gufo volava basso sulla sua testa, ululando come un matto. Forse immaginò Harry, per l'orgoglio di aver recapitato la lettera alla persona giusta. «Vieni qui, devi portare indietro la risposta». Il gufo scese svolazzando sulla gabbia di Edvige, che lo guardò gelida, come per sfidarlo ad avvicinarsi. Harry prese di nuovo la penna d'aquila, afferrò un nuovo foglio di pergamena e scrisse. «Ron, è tutto ok. I babbani hanno detto che posso venire. Ci vediamo domani alle cinque. Non vedo l'ora. Harry». Ripiegò il biglietto fino a farlo diventare piccolissimo e, con immensa difficoltà, lo legò alla zampa del gufetto che saltellava frenetico. Appena pronto, il gufo ripartì, filò fuori dalla finestra e scomparve. Harry si voltò verso Edvige. «Ti va di fare un bel viaggetto?» le chiese. Edvige tubò in tono solenne. «Puoi portare questa a Sirius da parte mia?» disse prendendo la lettera. «Un attimo che la finisco». Srotolò di nuovo la pergamena e aggiunse in fretta un po' scritto. «Se vuoi metterti in contatto con me, sarò dal mio amico Ron Weasley per il resto dell'estate. Suo padre ci ha trovato i biglietti per la Coppa del Mondo di Quidditch». Poi legò la lettera alla zampa di Edvige, che rimase insolitamente immobile, come decisa a dimostrargli come dovrebbe comportarsi un vero gufo postino. «Sarò da Ron quando torni, va bene?» le disse Harry. Lei gli becchettò affettuosamente il dito, poi con un morbido fruscio spalancò le ali enormi e decollò dalla finestra aperta. Harry la guardò sparire, poi strisciò sotto il letto, sollevò l'asse mobile ed estrasse un grosso pezzo di torta di compleanno. Rimase seduto sul pavimento a mangiarla, assaporando la felicità che lo invadeva. Lui aveva un dolce, mentre Dudley non aveva altro che Pompelmo. Era una bella giornata estiva. Avrebbe lasciato private drive l'indomani. La cicatrice era di nuovo perfettamente normale e sarebbe andato alla Coppa del Mondo di Quidditch. Era difficile in quel momento preoccuparsi di qualcosa, perfino di Voldemort. Ritorno alla Tana Per le dodici del giorno dopo, il baule di Harry era stipato delle sue cose di scuola e di tutti i suoi più cari averi. Il mantello dell'invisibilità ereditato da suo padre, la scopa ricevuta in dono da Sirius, la mappa magica di Hogwarts regalata gli da Fred e George Weasley l'anno prima. Aveva svuotato di tutte le provviste il nascondiglio sotto l'asse mobile, controllato ogni angolo della camera da letto in cerca di libri d'incantesimi o penne d'aquila dimenticate e staccato il foglio appeso al muro su cui contava i giorni che lo separavano dal primo settembre, la data del suo ritorno a Hogwarts. L'atmosfera numero 4 di private drive era estremamente tesa. L'imminente arrivo a casa loro di un assortimento di maghi stava rendendo i Darsley nervosi e irritabili. Sio Vernon apparve decisamente allarmato quando Harry lo informò che i Weasley sarebbero arrivati alle 5 del giorno dopo. «Spero che tu gli abbia detto di vestirsi come si deve a quelli là», ringhiò subito. «Ho visto il genere di cose che vi mettete addosso. Sarà meglio che abbiano la decenza di indossare abiti normali, ecco». Harry ebbe un sinistro presentimento. Di rado aveva visto il signore e la signora Weasley indossare qualcosa che i Darsley avrebbero definito «normale». I loro figli, forse, portavano abiti babbani durante le vacanze, ma il signore e la signora Weasley di solito indossavano lunghe vesti a vari livelli di trascuratezza. Harry non si preoccupava di quello che potevano pensare i vicini, ma piuttosto di quanto i Darsley avrebbero potuto essere sgarbati con i Weasley se questi si fossero presentati addobbati secondo la loro peggiore idea di maghi. Zio Vernon si era messo il suo vestito migliore. Ad alcuni questo sarebbe potuto sembrare un gesto di benvenuto, ma Harry sapeva che in realtà Zio Vernon voleva apparire impressionante e minaccioso. Dudley, d'altro canto, pareva come rimpicciolito, non per gli effetti della dieta, ma per il terrore. L'ultima volta che si era imbattuto in un mago adulto ne era uscito con una coda di maiale a cavatappi che gli spuntava dal fondo dei pantaloni e Zia Petunia e Zio Vernon avevano dovuto farlo operare in una clinica privata di Londra. Non c'era affatto da stupirsi, quindi, se Dudley continuava a strofinarsi nervosamente la mano sul sedere e si spostava da una stanza all'altra camminando di lato, come per non offrire lo stesso bersaglio al nemico. Il pranzo fu consumato in un silenzio quasi assoluto. Dudley non protestò nemmeno per il cibo, ricotta e sedano gratinato. Zia Petunia non mangiò nulla, teneva le braccia incrociate, aveva le labbra strette e sembrava che si masticasse la lingua, come per trattenere la furiosa invettiva che avrebbe tanto voluto scagliare contro Harry. «Vengono in macchina, vero?» abbagliò Zio Vernon attraverso il tavolo. «Ehm, rispose Harry. A questo non aveva pensato. Come avrebbero fatto i Weasley a venire a prenderlo? Non avevano più l'auto. La loro vecchia Ford Anglia al momento scorrazzava libera nella foresta proibita a Hogwarts. Ma l'anno prima il signor Weasley aveva preso in prestito un'auto del Ministero della Magia. Forse avrebbe fatto lo stesso anche stavolta?» «Credo di sì», disse Harry. Zio Vernon sbuffò tra i baffi. In circostanze normali avrebbe chiesto che tipo di macchina aveva il signor Weasley. Tendeva a giudicare gli altri dalle dimensioni e dal costo delle loro auto. Ma Harry dubitava che a Zio Vernon sarebbe piaciuto il signor Weasley anche se fosse arrivato a bordo di una Ferrari. Harry passò quasi tutto il pomeriggio nella sua camera. Non riusciva a sopportare la vista di Zia Petunia che ogni pochi secondi spiava attraverso le tendine, come se fosse stato dato l'allarme su un rinoceronte in fuga. Finalmente, alle cinque meno un quarto, Harry scese in salotto. Zia Petunia stava riordinando freneticamente i cuscini. Zio Vernon fingeva di leggere il giornale, ma i suoi occhietti non si muovevano e Harry era certo che stesse tendendo le orecchie al massimo, in attesa del rumore di un auto in arrivo. Dudley era incastrato in una poltrona, seduto sulle mani ciccione, strette saldamente al di dietro. Harry non resistette alla tensione, uscì e andò a sedersi sugli scalini dell'ingresso, gli occhi fissi all'orologio e il cuore che batteva forte per l'eccitazione e l'ansia. Ma le cinque arrivarono e passarono. Zio Vernon, leggermente sudato nel suo completo, aprì la porta, guardò su e giù per la strada, poi ritirò in fretta la testa. «Sono in ritardo», grugnì rivolto a Harry. «Lo so», disse Harry. «Forse hanno trovato traffico». Le cinque e dieci, le cinque e un quarto, ormai anche Harry cominciava a sentirsi in ansia. Alle cinque e mezzo sentizio Vernon e zia Petunia scambiarsi nervosi borbottii in salotto. «Non hanno nessuna considerazione». «Potevamo anche avere un impegno». «Forse credono che li inviteremo a cena se arrivano in ritardo». «Ma non succederà, questo è sicuro», concluse zio Vernon. Harry lo sentì alzarsi e camminare su e giù per il salotto. «Prenderanno il ragazzo e se ne andranno. Non perderemo tempo con loro. Ammesso che vengano poi. Probabilmente hanno sbagliato giorno. Sospetto che quelli della loro razza non tengano in gran conto la puntualità. O è così, oppure avranno una macchinetta da due soldi che si è rotto». «Aaaaaah!» Harry balzò in piedi. Dalla porta del salotto si sentivano i tre darsley scalpicciare per la stanza, in preda al panico. Un attimo dopo, Dudley sfrecciò nell'ingresso, terrorizzato. «Che cosa è successo?» disse Harry. «Cosa c'è?» Ma Dudley non sembrava in grado di parlare. Con le mani ancora strette al sedere, sparì in cucina in un lampo. Harry si precipitò in salotto. Da dietro il camino murato, ornato sul davanti da un fuoco finto, provenivano colpi assordanti e un gran tramestio. «Che cos'è?» boccheggiò Zia Petunia, che si era appiattita contro il muro e fissava il fuoco, terrorizzata. «Che cos'è Vernon?» La risposta arrivò dopo un attimo. All'interno del camino bloccato risuonarono delle voci. «Aia! Fred! No! Indietro! Indietro! C'è stato un errore! Dì a George di non...» «Aia! George, no! Non c'è spazio! Torna subito indietro e di a Ron...» «Forse Harry ci sente, papà! Forse lui può farci uscire!» Si udì un gran battere di pugni sui pannelli dietro il fuoco elettrico. «Harry! Harry, ci senti?» I Darsley accerchiarono Harry come una coppia di iene furibonde. «Che cosa c'è?» ringhiozzi Vernon. «Che cosa sta succedendo?» «Loro sono arrivati con la polvere volante», disse Harry reprimendo a fatica la voglia matta di ridere. «Possono viaggiare attraverso i camini, solo che questo è murato. Un momento...» Si avvicinò al camino e gridò attraverso i pannelli. «Signor Weasley, mi sente?» I tonfi cessarono. Dall'interno qualcuno disse. «Sssh!» «Signor Weasley, sono Harry! Il camino è chiuso! Non potete entrare da qui!» «Accidenti!» disse la voce del signor Weasley. «Perché diavolo hanno chiuso il camino?» «Hanno un fuoco elettrico!» spiegò Harry. «Davvero?» disse la voce del signor Weasley eccitata. «Eclettico, hai detto? Con la spina? Cielo! Devo vederlo! Riflettiamo! Aia, Ron!» La voce di Ron si unì alle altre. «Cosa sta succedendo? Qualcosa è andato storto?» «Oh no, Ron!» disse la voce di Fred, molto sarcastica. «No, è proprio qui che volevamo finire!» «Sì, ci stiamo divertendo da pazzi qui!» disse George. La sua voce suonava soffocata, come se fosse schiacciato contro il muro. «Ragazzi, ragazzi!» disse il signor Weasley in tono vago. «Sto cercando di pensare a cosa fare!» «Sì, c'è un solo modo! Indietro, Harry!» Harry arretrò fino al divano. Zio Vernon, invece, fece un passo avanti. «Aspettate un momento!» ululò al camino. «Si può sapere che cosa avete intenzione di...» «Pang!» Il congegno elettrico sfrecciò attraverso la stanza, mentre il camino chiuso esplodeva, espellendo il signor Weasley, Fred, George e Ron in una nube di calcinacci e schegge vaganti. Zia Petunia strillò e cadde all'indietro, addosso al tavolino. Zio Vernon la ferrò prima che toccasse terra e fissò a bocca spalancata i Weasley, che avevano tutti i capelli rosso vivo, compresi Fred e George, identici fino all'ultima lentigine. «Così va meglio!» disse il signor Weasley ansante, scrollandosi via la polvere dai lunghi abiti verdi e raddrizzandosi gli occhiali. «Ah, voi dovete essere gli zii di Harry!» Alto, magro, un po' calvo, il signor Weasley avanzò verso Zio Vernon, la mano tesa, ma Zio Vernon arretrò di alcuni passi, trascinando con sé Zia Petunia. Zio Vernon era senza parole. Il suo abito migliore era pieno di polvere bianca, che gli copriva baffi e capelli, facendolo sembrare più vecchio di trent'anni. «Ah, sì, mi dispiace per tutto questo!» disse il signor Weasley, abbassando la mano e gettando un'occhiata al camino esploso alle sue spalle. «È tutta colpa mia! Non mi è proprio venuto in mente che non saremmo riusciti a uscire dall'altra parte!» «Vede, ho fatto collegare il suo camino alla metropolvere, solo per un pomeriggio, sa, per venire a prendere Harry. I camini babbani di norma non dovrebbero essere collegati, ma ho un contatto utile al comitato per la regolamentazione della metropolvere, e lui me l'ha sistemato. Posso rimetterlo a posto in un batter d'occhio, comunque, non si preoccupi. Accenderò il fuoco per rimandare indietro i ragazzi, e poi posso ripararvi il camino prima di smaterializzarmi.» Harry era pronto a scommettere che i Dursley non avevano capito una sola parola. Erano ancora lì che fissavano il signor Weasley a bocca aperta, folgorati. Zia Petunia si rimise in piedi barcollando, e si nascose dietro a zio Vernon. «Ciao, Harry!» disse allegramente il signor Weasley. «È pronto il tuo baule? È di sopra!» rispose Harry sorridendo in risposta. «Andiamo a prenderlo!» disse subito Fred. Strizzando l'occhio a Harry, lui e George uscirono dalla stanza. Sapevano dove era la camera di Harry, visto che una volta erano andati a prenderlo nel cuore della notte. Harry sospettava che Fred e George sperassero di dare un'occhiatina a Dudley. Ne avevano sentito parlare moltissimo da lui. «Bene!» disse il signor Weasley dondolando un po' le braccia, mentre cercava le parole per rompere quello spiacevole silenzio. «È proprio... è proprio un bel posticino qui!» Visto che il salotto solitamente immacolato al momento era in vaso di polvere e frammenti di mattoni, i Dursley non presero molto bene l'osservazione. Il volto di zio Vernon divenne violetto e zia Petunia prese a mordersi la lingua, ma sembravano troppo spaventati per dire qualcosa. Il signor Weasley si stava guardando intorno, adorava tutto ciò che riguardava i babbani. Harry vide che moriva dalla voglia di andare a studiare da vicino il televisore e il videoregistratore. «Funzionano a ecletticità, vero?» disse in tono saputo. «Ah, sì, vedo le spine. Io colleziono spine», disse a zio Vernon. «E pile! Ho una gran collezione di pile! Mia moglie pensa che sia matto!» Evidentemente lo pensava anche zio Vernon. Si spostò leggermente a destra, nascondendo zia Petunia, come se fosse convinto che il signor Weasley potesse aggredirli da un momento all'altro. Dudley spuntò all'improvviso, inseguito dai tonfi che provenivano dalle scale. Strisciò lungo il muro, fissando il signor Weasley con occhi terrorizzati, e tentò di nascondersi dietro sua madre e suo padre. Purtroppo la stazza di zio Vernon, pur in grado di coprire l'ossuta zia Petunia, non era nemmeno lontanamente sufficiente a nascondere Dudley. «Ah, questo è tuo cugino, vero, Harry?» disse il signor Weasley, in un altro coraggioso tentativo di far conversazione. «Sì», disse Harry, «questo è Dudley». Lui e Ron si scambiarono un'occhiata e poi dissolsero in fretta lo sguardo l'uno dall'altro. La tentazione di scoppiare a ridere era quasi incontrollabile. Dudley continuava a tenersi il sedere come se avesse paura di vederlo cascare. Il signor Weasley comunque parve sinceramente preoccupato da quello stravagante comportamento. Dal suo tono di voce alla frase che seguì, Harry fu quasi certo che il signor Weasley ritenesse Dudley matto quanto i Darsley pensavano che lo fosse lui, solo che il signor Weasley provava compassione più che paura. «Stai passando delle belle vacanze, Dudley?» chiese gentilmente. Dudley si mise a piagnucolare e si strinse più che poteva il sederone con le mani. Fred e George rientrarono col baule scolastico di Harry, si guardarono intorno e riconobbero Dudley. I loro volti si storsero in due identici ghigni perfidi. «Ah, bene!» disse il signor Weasley. «Meglio che ci muoviamo, allora!» Si rimboccò le maniche ed estrasse la bacchetta. Harry vide i Darsley ritirarsi precipitosamente verso il muro. «Incendio!» esclamò il signor Weasley, puntando la bacchetta verso il buco nel muro. Nel camino le fiamme si alzarono all'istante, scoppiettando allegramente come se fossero accese da ore. Il signor Weasley estrasse un sacchetto dalla tasca, ne slegò il laccio, prese un pizzico di polvere e lo gettò tra le fiamme, che divennero verde e smeraldo e scoppiettarono più che mai. «Vai, allora, Fred!» disse il signor Weasley. «Arrivo!» disse Fred. «Oh no, aspetta!» Un sacchetto di dolci era scivolato fuori dalla tasca e il contenuto rotolava dappertutto. Grosse, grasse caramelle morbide dentro incarti dai colori vivaci. Fred si chinò a raccoglierle e le ficcò di nuovo in tasca, poi salutò allegramente i Darsley agitando la mano, fece un passo avanti ed entrò dritto nel fuoco dicendo «La tana!» Si apetunia, trattenne il respiro tremando, si udì un risucchio e Fred sparì. «Adesso George!» disse il signor Weasley. «Tu e il baule!» Harry aiutò George a trascinare il baule dentro le fiamme e a voltarlo in modo che potesse afferrarlo meglio. Poi, con un secondo risucchio, George gridò «La tana!» e anche lui partì. «Ron, tocca a te!» disse il signor Weasley. «Ci vediamo!» disse Ron allegro ai Darsley. Fece un gran sorriso a Harry, entrò nel fuoco, gridò «La tana!» e sparì. Ormai rimanevano solo Harry e il signor Weasley. «Beh, allora arrivederci!» disse Harry ai Darsley. Loro non risposero. Harry avanzò verso il camino, ma proprio sul bordo il signor Weasley tese una mano e lo trattenne. Stava guardando i Darsley, sbigottito. «Harry vi ha detto a rivederci!» disse. «Non lo avete sentito?» «Non fa niente!» sussurrò Harry al signor Weasley. «Davvero, non importa!» Il signor Weasley non tolse la mano dalla spalla di Harry. «Non rivedrete vostro nipote fino all'estate prossima!» disse a zio Vernon con quieta indignazione. «Di certo vorrete dirgli arrivederci!» Il viso di zio Vernon era lo specchio dei suoi pensieri. L'idea di sentirsi dare lezioni di rispetto da un uomo che aveva appena fatto saltare in aria metà del suo salotto sembrava essere per lui motivo di intensa sofferenza. Ma il signor Weasley aveva ancora la bacchetta in mano e gli occhietti di zio Vernon sfrecciarono verso di essa prima che dicesse in tono molto risentito. «Allora arrivederci!» «Ci vediamo!» disse Harry mettendo un piede nelle fiamme verdi che erano piacevoli come un caldo respiro. In quel momento però dietro di lui si levò un terribile rumore. Il rumore che si fa quando qualcosa ti va per traverso e zia Petunia apprese a strillare. Harry si voltò. Dudley non era più nascosto dietro i genitori. Era in ginocchio accanto al tavolino e tossiva e sputacchiava per via di una cosa viscida violetta lunga una trentina di centimetri che gli spuntava dalla bocca. Uno stupefatto istante più tardi Harry capì che la cosa lunga trenta centimetri era la lingua di Dudley e che una carta colorata di caramella mu era lì per terra accanto a lui. Zia Petunia si precipitò a terra vicino a Dudley, afferrò la punta della sua lingua gonfia e cercò di strappargliela dalla bocca. Naturalmente Dudley urlò e sputacchiò ancora più di prima cercando di rispingerla. Zio Vernon ululava e agitava le braccia e il signor Weasley dovette urrare per farsi sentire. Non preoccupatevi, lo sistemo io, gridò avvicinandosi a Dudley con la bacchetta tesa, ma zia Petunia strillò più forte che mai e si gettò su Dudley riparandolo dal signor Weasley. No, davvero, disse il signor Weasley in tono disperato. È una cosa semplice, è stata la caramella. Mio figlio Fred, un gran giocherellone, ma è solo un incantesimo di ingozzamento, almeno credo. Per favore, posso sistemare tutto. Ma invece di essere rassicurati, i Darsley furono ancora più presi dal panico. Zia Petunia si inghiozzava isterica, strattonando la lingua di Dudley come se fosse decisa a strappargli la via. Dudley sembrava sul punto di soffocare, grazie all'effetto combinato di sua madre e della sua lingua, e zio Vernon, che aveva perso completamente il controllo di sé, afferrò una statuetta di porcellana dalla credenza e la scagliò con tutte le sue forze contro il signor Weasley, che si chinò, mandando il soprammobile in frantumi, dentro il camino esploso. «Insomma!» disse il signor Weasley arrabbiato, prendendo la bacchetta. «Sto cercando di aiutarlo!» Ululando come un ippopotamo ferito, zio Vernon afferrò un altro soprammobile. «Harry, vai via!» urlò il signor Weasley, la bacchetta puntata contro zio Vernon. «Ci penso io!» Harry non voleva perdersi lo spettacolo, ma il secondo soprammobile di zio Vernon mancò per un pelo il suo orecchio sinistro, e tutto sommato decise che era meglio lasciare la situazione al signor Weasley. Entrò nel fuoco, esclamò «Latana!» e gettò un'ultima fugace occhiata al salotto. Con un colpo di bacchetta, il signor Weasley aveva polverizzato un terzo soprammobile nella mano di zio Vernon, e zia Petunia strillava distesa sopra Dudley, la cui lingua ciondolava come un grosso e viscido pitone. Un attimo dopo, Harry fu risucchiato da un vortice e il salotto dei Dursley sparì alla sua vista in una girandola di fiamme verde smeraldo. I tiri vispi Weasley Harry piroettò sempre più in fretta, i gomiti stretti ai fianchi, mentre altri caminetti gli saettavano sfocati davanti, finché non cominciò ad avere la nausea e chiuse gli occhi. Poi, quando finalmente sentì che stava rallentando, tese le mani e si fermò appena in tempo per non cadere a faccia in giù fuori dal camino della cucina dei Weasley. «L'ha mangiata!» gli chiese Fred eccitato, tendendo una mano per aiutare Harry a rialzarsi. «Sì!» rispose Harry alzandosi. «Ma che cos'era?» «Una mu molle lingua», disse Fred allegramente. «Le abbiamo inventate io e George, è tutta l'estate che cercavamo qualcuno su cui provarle». La piccola cucina rimbombò di risate. Harry si guardò attorno e vide Ron e George seduti al tavolo di legno, con due ragazzi dai capelli rossi, che Harry non aveva mai visto prima, anche se capì subito chi fossero. Bill e Charlie, i due Weasley maggiori. «Come va, Harry?» disse il più vicino dei due con un sorriso, tendendo una manona che Harry strinse, sentendo calli e vesciche sotto le dita. Doveva essere Charlie, che lavorava con i draghi in Romania. Charlie aveva la stessa corporatura dei gemelli, più basso e più robusto di Percy e Ron, che erano entrambi alti e smilzi. Aveva una faccia larga e buona, segnata dalle intemperie, e così lentigginosa che sembrava quasi abbronzato. Le sue braccia erano muscolose e su una spiccava una grossa scottatura fresca. Bill si alzò sorridendo e strisse anche lui la mano a Harry. Bill fu piuttosto una sorpresa. Harry sapeva che lavorava per la banca dei maghi, la Gringot, che era stato caposcuola di Hogwarts e aveva sempre immaginato che fosse una versione più vecchia di Percy, irritabile se si trattava di infrangere delle regole e deciso a trattare tutti dall'alto in basso. Invece Bill era... non c'era altra definizione... tosto. Era alto, con lunghi capelli stretti in una coda. Portava un orecchino da cui pendeva una specie di zanna. I suoi vestiti non sarebbero sembrati fuoriposto a un concerto rock, a parte il fatto che gli stivali non erano di cuoio ma di pelle di drago. Prima che uno di loro potesse dire qualcosa, si udì un debole schiocco e il signor Weasley comparve dal nulla al fianco di George. Harry non lo aveva mai visto così arrabbiato. Non è stato divertente, Fred, gridò. Che cosa accidenti hai dato a quel ragazzo babbano? Non gli ho dato niente, rispose Fred con un altro ghigno perfido. L'ho solo fatta cadere. È stata colpa sua se l'ha presa e l'ha mangiata. Io non gli ho mai detto di farlo. L'hai fatta cadere apposta, ruggì il signor Weasley. Sapevi che l'avrebbe mangiata. Sapevi che stava facendo la dieta. Quanto gli è cresciuta la lingua? Chiese George curioso. Ha superato il metro prima che i suoi genitori mi permettessero di rimpicciolirla. Harry e i Weasley scoppiarono di nuovo in una fragorosa risata. Non è divertente, urrò il signor Weasley. Questo genere di comportamento mina seriamente le relazioni maghi babbani. Passo metà della mia vita a battermi contro i maltrattamenti ai babbani e i miei figli. Non gliel'abbiamo data perché è un babbano, esclamò Fred indignato. No, gliel'abbiamo data perché è uno stupido bullo ciccione, disse George. Vero Harry? Sì, è vero, signor Weasley, disse Harry in tono convincente. Non è questo il punto, gridò il signor Weasley furente. Aspettate che lo dica a vostra madre. Dirmi cosa? Fece una voce alle loro spalle. La signora Weasley era appena entrata in cucina. Era una donna bassa e pianotta, con un viso molto gentile, anche se al momento i suoi occhi erano stretti dal sospetto. Oh, ciao, Harry caro, gli disse sorridendo. Poi il suo sguardo tornò a posarsi sul marito. Dirmi che cosa, Arthur? Il signor Weasley esitò. Harry capì che, per quanto fosse arrabbiato con Fred e George, non intendeva davvero raccontare l'accaduto alla signora Weasley. Calò il silenzio, mentre il signor Weasley osservava la moglie nervoso. Poi sulla soglia della cucina apparvero due ragazze. Una, capelli castani molto mossi e denti davanti piuttosto grandi, era l'amica di Harry e Ron, Hermione Granger. L'altra, che era piccola e rossa di capelli, era la sorella minore di Ron, Ginny. Entrambe sorrisero a Harry, che feceva un gran sorriso in risposta, cosa che fece diventare Ginny paonazza. Aveva una cotta per Harry fin dalla sua prima visita alla Tana. Dirmi che cosa, Arthur? Ripetè la signora Weasley in tono pericoloso. Non è niente, Molly, borbottò il signor Weasley. Fred e George hanno solo... ma li ho sgridati. Che cos'hanno combinato questa volta? Chiese la signora Weasley. Se ha qualcosa a che fare con i tiri vispi Weasley, perché non fai vedere a Harry la tua stanza, Ron? disse Hermione dalla soglia. L'ha già vista la mia stanza, disse Ron. Ha dormito lì, l'ultima. Potrei vederla anch'io? disse Hermione in tono eloquente. Oh, disse Ron, cogliendo l'allusione. Va bene. Sì, veniamo anche noi, disse George. Voi restate dove siete, si bilò la signora Weasley. Harry e Ron uscirono dalla cucina con Hermione e Ginny, attraversarono lo stretto ingresso e salirono le scale traballanti che zigzagavano attraverso la casa e portavano ai piani di sopra. Che cosa sono i tiri vispi Weasley? chiese Harry mentre salivano. Ron e Ginny risero, ma Hermione no. Mamma ha trovato un mucchio di moduli di ordinazione mentre puliva la camera di Fred e George, disse Ron piano. Lunghi listini di prezzi delle cose che hanno inventato. Scherzi, sai, bacchette finte, caramelle a sorpresa, un sacco di roba. È stato grande. Non sapevo che stessero inventando tutta quella roba. Sono secoli che sentiamo delle esplosioni venire dalla loro camera, ma non abbiamo mai pensato che stessero facendo sul serio, spiegò Ginny. Credevamo che gli piacesse il rumore e basta. Solo che gran parte della roba, beh, in realtà tutta, era un po' pericolosa. disse Ron. E sai, pensavano di venderla a Hogwarts per fare un po' di soldi e mamma è andata fuori dai gangheri. Gli ha detto che non dovevano permettersi di andare oltre e ha bruciato tutti i moduli. È furiosa con loro perché non hanno preso il GUFO in tutte le materie che lei si aspettava. Il GUFO era il grado ufficiale di fattucchiere ordinario, il diploma che gli studenti di Hogwarts prendevano alla fine del quinto anno. E poi c'è stata una litigata tremenda, continuò Ginny, perché mamma vuole che entrino al Ministero della Magia, come papà, mentre loro vogliono aprire un negozio di giochi e scherzi. In quel momento si aprì una porta sul secondo pianerottolo e spuntò una faccia con occhiali cerchiati di corno e un'espressione molto seccata. «Ciao, Percy!» disse Harry. «Oh, ciao, Harry!» disse Percy. Mi stavo proprio chiedendo chi facesse tutto quel rumore. Sto cercando di lavorare, sai, devo finire una relazione per l'ufficio, ed è piuttosto difficile concentrarsi quando c'è gente che continua a far chiasso su e giù per le scale. «Non stiamo facendo chiasso», ribatte Ronnie irritato. «Stiamo camminando. Scusa se abbiamo disturbato le operazioni top secret del Ministero della Magia. Su cosa stai lavorando?» chiese Harry. «Un rapporto per l'ufficio per la cooperazione magica internazionale», disse Percy compiaciuto. «Stiamo cercando di uniformare lo spessore dei calderoni. Alcuni dei prodotti di importazione sono un po' troppo sottili. Le perdite stanno crescendo quasi del 3% l'anno». «Cambierà il mondo quella relazione», disse Ron. «Finiranno in prima pagina sulla gazzetta del profeta, le perdite dei calderoni». Percy arrossì levemente. «Ridi pure, Ron», disse scaldandosi. «Ma se non viene imposta una qualche legge internazionale, ci ritroveremo il mercato invaso da prodotti scadenti, col fondo sottile che mettono seriamente in pericolo». «Sì, sì, d'accordo», disse Ron e riprese a salire le scale. Percy sbatté la porta. Harry, Ermione e Ginny seguirono Ron per altre tre rampe di scale. Dalla cucina le grida della discussione echeggiavano fin lassù. A quanto pareva il signor Weasley aveva detto alla signora Weasley delle caramelle. La stanza in cima alla casa dove dormiva Ron aveva quasi lo stesso aspetto dell'ultima volta che Harry era stato ospite da loro. La squadra di Quidditch preferita di Ron, i cannoni di Chudley, sfrecciavano e salutavano dai poster sulle pareti e sul soffitto spiovente, e l'acquario sul davanzale, che prima conteneva uova di rana, ora ospitava una rana estremamente grossa. Il vecchio topo di Ron, Crosta, non c'era più, ma in compenso c'era il guffetto grigio che aveva recapitato la lettera di Ron a Harry a private drive. Stava saltando su e giù in una bietta e cantava come un pazzo. «Stazzi, toleo!» disse Ron, infilandosi tra due dei quattro letti che erano stati fatti entrare a forza nella stanza. «Fred e Giorgio dormono con noi perché nella loro stanza ci sono Bill e Charlie», disse a Harry. «Persi riesce a tenersi la camera tutta per sé perché deve lavorare». «Come mai l'hai chiamato Leo?» chiese Harry a Ron. «Non far caso a Ron», disse Ginny, «il suo vero nome è Leo Tordo». «Sì, non è un nome stupido», disse Ron sarcastico. «Gli l'ha dato Ginny», spiegò a Harry. «Secondo lei è simpatico e io ho cercato di cambiarglielo, ma era troppo tardi. Ormai non risponde se lo chiamo in un altro modo. Così adesso è Leo. Devo tenerlo quassù perché dà fastidio a Errol e a Hermes. Dà fastidio anche a me, se è per quello». Leo sfrecciò nella gabbia, tubando in tono acutissimo. Harry conosceva Ron troppo bene per prenderlo sul serio. Si era lamentato continuamente del suo vecchio topo, Crosta, ma era rimasto sconvolto quando sembrò che il gatto di Ermione lo avesse divorato. «Dov'è Grattastinchi?» chiese Harry a Ermione. «In giardino, credo», rispose lei. «Gli piace rincorrere gli ignomi. Non ne aveva mai visti prima d'ora». «Allora, Persi piace il suo lavoro?» chiese Harry, sedendosi su uno dei letti e guardando i cannoni di Chadley sfrecciare dentro e fuori dai poster sul soffitto. «Se gli piace», disse Ron Cupo. «Credo che non verrebbe nemmeno a casa se papà non lo costringesse. È maniacale. Mi raccomando, non chiedergli del suo capo». «Secondo il signor Crouch? Come ho detto al signor Crouch? Il signor Crouch è del parere che? Il signor Crouch mi diceva?» Si fidanzeranno da un momento all'altro. «Come è andata l'estate, Harry?» chiese Ermione. «Hai ricevuto i nostri pacchi con i dolci e il resto?» «Sì, grazie mille», disse Harry. «Mi hanno salvato la vita quelle torte». «E hai notizie di...» cominciò Ron, ma uno sguardo di Ermione lo zittì. Harry sapeva che Ron stava per chiedere di Sirius. Ron e Ermione lo avevano aiutato a sfuggire al Ministero della Magia ed erano preoccupati per lui quasi quanto Harry, ma parlarne davanti a Ginny era comunque una pessima idea. Nessuno, a parte loro e il professor Silente, sapeva com'era fuggito Sirius o credeva nella sua innocenza. «Credo che abbiano smesso di vitigare», disse Ermione per far passare quel momento di imbarazzo, visto che Ginny guardava incuriosita da Ron a Harry. «E se scendessimo ad aiutare tua madre per la cena?» «Sì, va bene», disse Ron. Scesero tutti in cucina, dove trovarono la signora Weasley sola e molto arrabbiata. «Ceneremo in giardino», disse quando entrarono. «Non c'è posto per undici persone qui dentro. Potete portare fuori i piatti, ragazze?» «Bill e Charlie stanno preparando la tavola. Coltelli e forchette, per favore, voi due», disse a Ron e Harry, puntando la bacchetta con tale vehemenza verso un mucchio di patate nel lavandino che quelle schizzarono fuori dalle bucce come bolidi, rimbalzando sui muri e sul soffitto. «No, per l'amor del cielo», sbottò, puntando la bacchetta verso una padella che balzò sul pavimento raccogliendo le patate. «Quei due», esplose irritata, estraendo pentole e pentoline da una credenza, e Harry capì che parlava di Fred e George. «Non so che fine faranno, non lo so proprio. Non hanno nessuna ambizione, a parte combinare più guai che possono». Sbatté una grande padella di lame sul tavolo della cucina e cominciò a rimestarvi dentro con la bacchetta. Una salsa cremosa uscì dalla punta mentre mescolava. «Non è che non abbiano cervello», riprese seccata, mettendo la padella sul fornello e accendendolo con un altro colpo di bacchetta. «Ma lo sprecano! E se non si rimettono in riga in fretta, finiranno nei guai, guai seri. Ho ricevuto più gufi da Hogwarts per loro che per tutti gli altri messi insieme. Se continuano così, finiranno davanti all'ufficio per l'uso improprio delle arti magiche». La signora Weasley puntò la bacchetta verso il cassetto delle posate, che si aprì di scatto. Harry e Ron si ritrassero rapidi, mentre parecchi coltelli ne uscivano a schiera, attraversavano la cucina a volo radente e cominciavano ad affettare le patate che la pentola aveva appena riversato nel lavandino. «Non so dove abbiamo sbagliato con loro», disse la signora Weasley, posando la bacchetta e cominciando a tirar fuori altre padelle. «Da anni è sempre la stessa storia, una cosa dopo l'altra, e non ascoltano! Oh, non di nuovo!» La bacchetta aveva emesso uno squittio acuto e si era trasformata in un topone di gomma. «Un'altra delle loro bacchette finte!» gridò. «Quante volte ho detto a quei due di non lasciarle in giro!» Afferrò la bacchetta vera e si voltò per scoprire che la salsa sul fornello fumava. «Dai!» disse Ron in fretta a Harry, prendendo una manciata di posate dal cassetto aperto. «Andiamo ad aiutare Bill e Charlie!» Lasciarono la signora Weasley e uscirono nel cortile, dalla porta sul retro. Avevano fatto solo pochi passi quando Grattastinchi, il gatto di Ermione, fulvo e dalle zampe alquanto storte, scattò fuori dal giardino. La coda a scovolo ritta in aria, inseguendo quella che sembrava una patata fangosa con le gambe. Harry riconobbe un ognomo, alto astento 25 centimetri, aveva piedini callosi che scalpicciavano rapidissimi, mentre sfrecciava attraverso il cortile e si tuffava di testa in uno degli stivali di gomma sparpagliati attorno alla porta. Harry udì l'ognomo ridacchiare come un pazzo, mentre Grattastinchi infilava una zampa nello stivale, tentando di afferrarlo. Contemporaneamente, dal giardino sul lato opposto della casa si levò un fracasso tremendo. Bill e Charlie, con le bacchette sguainate, avevano incominciato un duello tra due vecchi tavoli che fluttuavano a mezz'aria, facendoli cozzare uno contro l'altro nel tentativo di abbattersi a vicenda. Fred e George facevano il tifo, Ginny rideva e Ermione guardava in disparte, incerta se divertirsi o preoccuparsi. Il tavolo di Bill urtò quello di Charlie con un gran tonfo e gli staccò una gamba. Giunsero altri rumori dall'alto. Tutti guardarono in su e videro la testa di Percy spuntare da una finestra del secondo piano. «Volete darvi una calmata?» ululò. «Scusa, Pers!» disse Bill con un gran sorriso. «Come vanno i tuoi fondi di calderone?» «Molto male!» rispose Percy stizzito e sbatté la finestra. Ridacchiando, Bill e Charlie fecero atterrare i tavoli al sicuro sull'erba, uno vicino all'altro. Poi, con un tocco di bacchetta, Bill riattacò la gamba mancante e fece apparire le tovaglie dal nulla. Alle sette i due tavoli erano carichi di piatti dell'eccellente cucina della signora Weasley e tutta la famiglia, più Harry e Hermione, si sedettero a cena sotto un cielo blu e terzo. Per uno che era vissuto tutta l'estate mangiando torta sempre più stantia, quello era il paradiso. E all'inizio Harry ascoltò più che parlare, servendosi di pasticcio di pollo e prosciutto, patate bollite e insalata. All'estremità del tavolo, Percy stava raccontando a suo padre, nei dettagli, la relazione sui fondi di Calderone. «Ho detto al signor Crouch che la finirò per martedì», diceva in tono pomposo. «È un po' in anticipo, ma mi piace essere tempestivo. Credo che mi sarà grato per averla finita prima del tempo. Voglio dire, al momento da noi c'è così tanto da fare, con tutti i preparativi per la Coppa del Mondo. È che non abbiamo tutto l'appoggio che ci occorre dall'ufficio per i giochi e gli sport magici. Ludo Bugman?» «Mi piace Ludo», disse il signor Weasley in tono mite. «È stato lui a procurarci quegli ottimi biglietti per la Coppa. Io gli ho fatto un piccolo favore. Suo fratello, Otto, si è messo un po' nei guai, per via di un tagliaerba con poteri innaturali, e io ho sistemato la cosa». «Oh, Bugman è piuttosto piacevole, naturalmente», disse Percy sbrigativo. «Ma chissà come ha fatto a diventare direttore dell'ufficio, se si pensa al signor Crouch. Non ce lo vedo proprio, il signor Crouch, a perdere un membro del nostro ufficio senza cercare di scoprire che cosa gli è successo. Ma vi rendete conto che Bertha Jorkins è sparita da più di un mese, è andata in vacanza in Albania e non è più tornata?» «Sì, ne ho parlato con Ludo», disse il signor Weasley accigliato. «Dice che Bertha si è persa moltissime volte prima d'ora, anche se devo dire che se si trattasse di qualcuno del mio ufficio sarei in pensiero». «Oh, Bertha è un caso disperato, è vero», disse Percy. «Ho sentito dire che è stata trasferita da un ufficio all'altro per anni. Insomma, dà molti più guai di quanto valga, ma comunque Bugman dovrebbe cercarla». Il signor Crouch si è interessato personalmente al caso. Lei una volta lavorava da noi, sapete, e credo che al signor Crouch piacesse molto, ma Bugman non fa che ridere e dire che probabilmente teneva la cartina a rovescio ed è finita in Australia invece che in Albania. Comunque, Percy fece un gran sospiro e beve un bel sorso di vino di fior di Sambuco. «Abbiamo abbastanza da fare all'ufficio per la cooperazione magica internazionale, senza metterci a cercare anche i membri degli altri uffici. Come sapete, dobbiamo organizzare un altro evento importante dopo la Coppa del Mondo». Si schiarì la voce in tono eloquente e guardò verso l'estremità del tavolo, dove erano seduti Harry, Ron e Hermione. «Tu sai di cosa parlo, papà!» Alzò appena la voce. «La cosa top secret!» Ron alzò gli occhi al cielo e borbottò a Harry e Hermione. «Vuole che gli chiediamo di che si tratta. Fa così fin da quando ha cominciato a lavorare. Probabilmente è una mostra di calderoni col doppio fondo». Al centro della tavolata la signora Weasley stava discutendo con Bill per via dell'orecchino, che sembrava un acquisto recente. «Con quell'orribile zannona! Insomma, Bill, che cosa dicono alla banca?» «Mamma, alla banca non importa niente a nessuno di come mi vesto, fin tanto che gli porto tanti tesori», disse Bill in tono paziente. «E i capelli ti vanno dappertutto, caro», disse la signora Weasley, giocherellando premurosamente con la bacchetta. «Vorrei tanto che mi permettessi di dargli una giustatina». «A me piacciono», intervenne Ginny, che era seduta accanto a Bill. «Sei così fuori moda, mamma, comunque non sono affatto lunghi come quelli del professor Silente». Vicino alla signora Weasley, Fred, George e Charlie stavano parlando animatamente della Coppa del Mondo. «Deve vincere l'Irlanda», disse Charlie a bocca piena, tra un boccone di patate e l'altro. «Hanno steso il Perù nelle semifinali». «Però la Bulgaria ha Victor Krum», disse Fred. «Krum è solo giocatore decente, l'Irlanda ne ha sette», disse Charlie secco. «Vorrei che fosse passata l'Inghilterra, però. È stato imbarazzante, ecco». «Che cosa è successo?», chiese Harry avido, rimpiangendo più che mai l'isolamento dal mondo della magia che subiva a Privet Drive. Harry era un grande appassionato di Quidditch. Giocava come cercatore nella squadra di Quidditch della casa di Grifondoro fin dal suo primo anno a Hogwarts e possedeva una Firebolt, una delle migliori scope da corsa del mondo. «Ha perso con la Transilvania 390 a 10», disse Charlie Cupo. «Uno spettacolo agghiacciante. E il Galles ha perso con l'Uganda e il Lussemburgo ha massacrato la Scozia». Prima del dolce, gelato di fragola fatto in casa, il signor Weasley fece apparire delle candele per illuminare il giardino sempre più buio e quando ebbero finito, le falene svolazzavano basse sul tavolo e l'aria tiepida era carica degli aromi dell'erba e del caprifoglio. Harry si sentiva molto sazio e in pace col mondo, mentre osservava parecchi gnomi filare tra i cespugli di rose, ridendo come matti, con grattastinchi alle calcagna. Ron si guardò attentamente intorno per controllare che il resto della famiglia fosse impegnato nelle chiacchiere, poi chiese molto piano a Harry. «Allora hai ricevuto notizie da Sirius?». Anche Ermione si guardò attorno e si mise in ascolto. «Sì», disse Harry in un sussurro. «Due volte. Sembra che stia bene. Gli ho scritto l'altro ieri. Magari mi risponderà mentre sono qui». All'improvviso gli venne in mente la ragione per cui aveva scritto a Sirius e per un attimo fu lì lì per raccontare a Ron e Ermione della cicatrice bruciante e del sogno che lo aveva svegliato. Ma non voleva proprio metterli in agitazione in quel momento, non quando lui stesso si sentiva così felice e tranquillo. «Guardate un po' l'ora», disse la signora Weasley all'improvviso, dando un'occhiata all'orologio da polso. «Dovreste proprio essere a letto, tutti quanti. Dovrete alzarvi all'alba per andare alla coppa. Harry, se mi lasci la tua lista delle cose di scuola, te le prendo io domani a Diagon Alley, insieme a quelle dei ragazzi. Può darsi che non resti tempo dopo la Coppa del Mondo. L'ultima volta la partita è durata cinque giorni». «Wow! Spero che sia così anche stavolta», esclamò Harry entusiasta. «Beh, io no di certo», disse Persi in tono affettato. «Tremo al pensiero di quello che troverei sulla mia scrivania se mancassi cinque giorni dall'ufficio». «Sì, qualcuno potrebbe scaricarci di nuovo della cacca di drago, eh Pers?», disse Fred. «Quello era un campione di fertilizzante dalla Norvegia», disse Persi diventando paonazzo. «Non era niente di personale!» «Invece sì», bisbigliò Fred a Harry mentre si alzavano. «Gliel'abbiamo mandata noi». La passaporta A Harry pareva di essersi appena coricato quando la signora Weasley lo scrollò per svegliarlo. «È ora, Harry caro», sussurrò e si mosse per chiamare Ron. Harry cercò gli occhiali a tastoni, li inforcò e si sedette. Fuori era ancora buio. Ron borbottò qualcosa mentre sua madre lo svegliava. Ai piedi del suo materasso Harry vide due grosse sagome insonnolite emergere da grovigli di coperte. «È già ora?», sbadigliò Fred. Si vestirono in silenzio, troppo intontiti per parlare. Poi, sbadigliando e stiracchiandosi, tutti e quattro scesero le scale ed entrarono in cucina. La signora Weasley stava mescolando il contenuto di un grosso tegame sul fornello, mentre il signor Weasley era seduto a tavola e controllava un fascio di grossi biglietti di pergamena. Alzò gli occhi mentre entravano i ragazzi e allargò le braccia per farsi vedere. Indossava una specie di maglione da golfista e un paio di jeans vecchissimi, un po' troppo larghi per lui, tenuti su da una spessa cintura di pelle. «Cosa ne dite?», chiese ansioso. «Dobbiamo viaggiare in incognito. Assomiglio a un verano, Harry?» «Sì», disse Harry con un sorriso. «Dirai proprio di sì». «Dove sono Bill, Charlie e Percy?», chiese George senza riuscire a soffocare un grande sbadiglio. «Beh, loro si materializzano, vero?», disse la signora Weasley, posando il tegame sul tavolo e cominciando a versare il porridge nelle ciotole. «Così possono dormire un po' di più». Harry sapeva che materializzarsi era molto difficile. Voleva dire sparire da un posto e riapparire quasi all'istante in un altro. «Allora sono ancora a letto», brontolò Fred, tirando a sé la sua ciotola di porridge. «Perché non possiamo materializzarci anche noi?» «Perché non avete l'età e non avete passato l'esame», rispose secca la signora Weasley. «E le ragazze dove sono finite?» Si precipitò fuori dalla cucina su per le scale. «Bisogna passare un esame per materializzarsi», chiese Harry. «Ah, sì», rispose il signor Weasley, infilando i biglietti al sicuro nella tasca posteriore dei jeans. «L'ufficio del trasporto magico ha fatto una multa a due persone l'altro giorno per materializzazione senza patente. Non è facile materializzarsi e quando non lo si fa come si deve possono succedere cose spiacevoli. I due di cui sto parlando ci hanno provato e si sono spaccati». Tutti attorno al tavolo, tranne Harry, trasalirono inorriditi. «Ehm, spaccati?» disse Harry. «Metà di loro è rimasta indietro», spiegò il signor Weasley, versando un bel po' di melassa nel suo porridge. «Così naturalmente sono rimasti bloccati. Non potevano andare né di qua né di là. Hanno dovuto aspettare che venisse a liberarli la squadra cancellazione della magia accidentale. Ci sono volute un bel po' di scartoffie, credetemi, perché i babbani avevano visto le parti del corpo rimaste dall'altra parte». Harry ebbe l'improvvisa visione di due gambe e un occhio abbandonati sul marciapiede di Privet Drive. «E poi sono andati a posto?» chiese Esther refatto. «Oh sì», disse il signor Weasley in tono pratico. «Ma si sono presi una bella multa e non credo che ci riproveranno molto presto. Non si può scherzare con la materializzazione. Ci sono un sacco di maghi adulti che non la praticano. Preferiscono le scope. Sono più lente, ma più sicure». «Ma Bill, Charlie e Percy sono capaci tutti e tre?» «Charlie ha dovuto fare l'esame due volte», disse Fred con un gran ghigno. «La prima volta è stato bocciato. È apparso otto chilometri più a sud di dove doveva, proprio sopra una poveretta che faceva la spesa. Vi ricordate?» «Sì, beh, comunque al secondo tentativo ce l'ha fatta», disse la signora Weasley tornando in cucina tra calorosi sogghigni. «Persi è passato solo due settimane fa», disse George. «Da allora si materializza in cucina tutte le mattine, solo per far vedere che è capace». Risuonarono dei passi nel corridoio e Ermione e Ginny entrarono in cucina, tutte due pallide e gonfie di sonno. «Perché dobbiamo alzarci così presto?» chiese Ginny, stropicciandosi gli occhi e prendendo posto a tavola. «Dobbiamo fare una passeggiata», disse il signor Weasley. «Una passeggiata?» esclamò Harry. «Come, andiamo a piedi fino al...» «No, no, è lontanissimo», spiegò il signor Weasley sorridendo. «Dobbiamo camminare solo un po', ma è molto difficile per un gran numero di maghi riunirsi senza attirare l'attenzione dei babbani. Dobbiamo fare molta attenzione a come viaggiamo in qualunque circostanza e per un evento importante come la Coppa del Mondo di Quidditch». «George», disse la signora Weasley severa e tutti sobbalzarono. «Cosa c'è?» disse George, in un tono innocente che non ingannò nessuno. «Che cos'ha in tasca?» «Niente. Non raccontarmi storie». La signora Weasley puntò la bacchetta verso la tasca di George e disse «Accio!». Alcuni piccoli oggetti dai colori vivaci sfrecciarono fuori dalla tasca di George. Lui tentò di afferrarli, ma li mancò, e quelli filarono nella mano tesa della signora Weasley. «Vi avevamo detto di distruggerle», disse Furibonda, mostrando quelle che erano, senza ombra di dubbio, altre mumole lingua. «Vi avevamo detto di eliminarle tutte! Vuotate le tasche! Avanti! Tutti e due!» Fu una scena spiacevole. Era chiaro che i gemelli avevano tentato di portare via da casa più caramelle che potevano, e solo con l'incantesimo di appello la signora Weasley riuscì a trovarle tutte. «Accio! Accio! Accio!» gridò, e frotte di mu sfrecciarono fuori dai posti più improbabili, compresi l'orlo della giacca di George e i risvolti dei jeans di Fred. «Ci abbiamo messo sei mesi a inventarle!» urlò Fred mentre sua madre le gettava via. «Oh, gran bel modo di sprecare sei mesi!» strillò. «Non c'è da stupirsi che non abbiate preso più GUFO!» Insomma, quando partirono, l'atmosfera non era delle più distese. La signora Weasley era ancora fumante e di rabbia, mentre baciava il signor Weasley sulla guancia, anche se non quanto i gemelli, che si misero lo zaino in spalla e uscirono senza dirle una parola. «Beh, divertitevi!» disse la signora Weasley. «E comportatevi bene!» gridò ai gemelli che si allontanavano, ma i due non si voltarono e non risposero. «Manderò Bill, Charlie e Percy verso mezzogiorno!» disse la signora Weasley al signor Weasley, mentre lui, Harry, Ron, Hermione e Ginny seguivano Fred e George attraverso il cortile buio. Faceva freddo e la luna brillava nel cielo. Solo una striscia di una cupa tinta verdastra all'orizzonte, sulla loro destra, mostrava l'avvicinarsi dell'alba. Harry, che stava pensando alle migliaia di maghi che si affrettavano verso la Coppa del Mondo di Quidditch, accelerò per mettersi al passo con il signor Weasley. «Ma allora come fanno tutti quanti ad arrivarci senza che i babbani se ne accorgano?» chiese. «È stato un problema organizzativo cruciale», sospirò il signor Weasley. «Il guaio è che alla Coppa del Mondo arrivano qualcosa come centomila maghi e naturalmente non abbiamo un sito magico abbastanza grande da accoglierli tutti. Ci sono luoghi in cui i babbani non possono entrare, ma prova a immaginare di stipare centomila maghi a diagonale o sul binario nove e tre quarti. Così abbiamo dovuto trovare una bella landa deserta e mettere in atto tutte le precauzioni antibabbani possibili. L'intero ministero ci ha lavorato per mesi. Prima di tutto, naturalmente, bisogna scaglionare gli arrivi. Quelli con i biglietti più a buon mercato devono arrivare con due settimane d'anticipo. Un numero limitato usa mezzi di trasporto babbani, ma gli altri non possono affollare i loro pullman e treni. Ricorda che i maghi arrivano da tutto il mondo. Alcuni si materializzano, naturalmente, ma dobbiamo trovare dei luoghi sicuri per la loro materializzazione a distanza di sicurezza dai babbani. Credo che per questo ci sia un bosco comodo. Per quelli che non vogliono o non possono materializzarsi, ci sono le passaporte, oggetti che servono a trasportare i maghi da un posto all'altro in un orario prestabilito. Si possono organizzare gruppi numerosi, se occorre. Ci sono 200 passaporte disposte in punti strategici in tutta la Gran Bretagna, e la più vicina a noi è in cima Stoze ed Il, ed è lì che siamo diretti. Il signor Weasley indicò un punto davanti a loro, dove una grossa massa nera affiorava oltre la cittadina di Otteris and Catchball. «Che tipo di oggetti sono le passaporte?» chiese Harry incuriosito. «Beh, possono essere qualsiasi cosa», disse il signor Weasley. «Cose che non si notano, ovviamente. Così i babbani non vanno a raccoglierle e non ci giocano. Cose che scambiano per rifiuti». Percorsero faticosamente l'umido viale scuro che portava al villaggio, il silenzio rotto solo dai loro passi. Il cielo si illuminava molto lentamente mentre attraversavano il villaggio, e il nero d'inchiostro si diluiva in un blu fondo. Harry aveva le mani e i piedi congelati. Il signor Weasley continuava a controllare l'ora. Non ebbero fiato da sprecare per la conversazione quando cominciarono a salire Sto Zedil, inciampando ogni tanto in tane di coniglio nascoste, scivolando su grosse zolle nere. A ogni respiro l'aria sembrava penetrare come una lama nel petto di Harry, e le gambe stavano cominciando a irrigidirsi, quando alla fine i suoi piedi incontrarono un terreno pianeggiante. «Uff», disse il signor Weasley jansante, togliendosi gli occhiali e strofinandoli sul golf. «Beh, è andata bene. Abbiamo ancora dieci minuti». Hermione superò la cresta della collina per ultima, tenendosi un fianco. «Ora ci serve solo la passaporta», disse il signor Weasley, infilando di nuovo gli occhiali e scrutando il terreno intorno. «Non deve essere grossa. Avanti!» Si sparpagliarono per cercarla. Dopo appena un paio di minuti, un grido lacerò l'aria immobile. «Qui, Arthur! Qui, vecchio mio, l'abbiamo trovata!» Due alte sagome si stagliavano contro il cielo stellato, sull'altro lato della collina. «Amos!» esclamò il signor Weasley, sorridendo mentre avanzava verso l'uomo che aveva gridato. Gli altri lo seguirono. Il signor Weasley strinse la mano a un mago col volto arrossato e un'ispida barba bruna, che nell'altra mano teneva un vecchio stivale infangato. «Vi presento Amos Diggory», disse il signor Weasley. «Lavora per l'ufficio regolazione e controllo delle creature magiche, e credo che conosciate suo figlio Cedric». Cedric Diggory era un ragazzo molto bello, di circa 17 anni. Era capitano e cercatore della squadra di Quidditch della casa di Tassofrasso a Hogwarts. «Ciao», disse Cedric volgendo lo sguardo intorno. Tutti risposero «Ciao», tranne Fred e George, che fecero appena un cenno. Non avevano mai veramente perdonato a Cedric di aver sconfitto la loro squadra, Grifondoro, nel primo incontro di Quidditch dell'anno passato. «Fatto tanta strada, Arthur?» chiese il padre di Cedric. «Non c'è male», rispose il signor Weasley. «Abitiamo dall'altra parte del villaggio, laggiù. E voi?» «Ci siamo dovuti alzare le due, vero, Ced? Te lo assicuro. Sarò felice quando avrà passato l'esame di materializzazione. Ma non mi la mento. La coppa del mondo di Quidditch non me la perderei per un sacco pieno di galeoni, e in effetti i biglietti costano quasi altrettanto. E tieni conto che me la sono cavata a buon mercato.» Amos Diggory lanciò uno sguardo allegro ai ragazzi. «Sono tutti tuoi, Arthur?» «Oh no, solo quelli rossi», disse il signor Weasley, indicando i suoi figli. «Questa è Ermione, un'amica di Ron, e Harry, un altro amico.» «Per la barba di Merlino!» esclamò Amos Diggory con gli occhi sgranati. «Harry? Harry Potter?» «Eh, sì», rispose Harry. Era ormai abituato alla curiosità della gente e alle occhiate che tutti lanciavano alla sua cicatrice, ma si sentiva sempre a disagio. «Sed mi ha parlato di te, naturalmente», disse Amos Diggory. «Ci ha detto tutto delle partite che avete giocato l'anno scorso, sai, e io gli ho detto, «Sed, questa è una cosa che racconterai ai tuoi nipotini!» «Sì», gli ho detto, «hai battuto Harry Potter!» Harry non riuscì a pensare a una risposta, così restò zitto. Fred e George erano di nuovo imbronciati. Cedric sembrava vagamente imbarazzato. «Harry è caduto dalla scopa, papà», mormorò. «Te l'ho detto, è stato un incidente.» «Sì, ma tu non sei caduto, vero?» rugì Amos in tono gioviale, dando al figlio una manata sulla schiena. «Sempre modesto il nostro sed, sempre un signore, ma ha vinto il migliore. Sono sicuro che Harry direbbe la stessa cosa, vero? Uno cade dalla scopa, uno resta in sella. Non c'è bisogno di essere un genio per dire qual è il più bravo a volare.» «Deve essere quasi ora», disse in fretta il signor Weasley, estraendo di nuovo l'orologio. «Sai se stiamo aspettando qualcun altro, Amos?» «No, i Lovegood sono già là da una settimana, e i Fawcett non sono riusciti a trovare i biglietti», disse il signor Digori. «Non ce ne sono altri di noi in questa zona, vero?» «Non che io sappia», rispose il signor Weasley. «Sì, manca un minuto. Meglio prepararsi.» Guardò Harry e Hermione. «Dovete solo toccare la passaporta. Tutto qui. Basterà un dito.» Con difficoltà, a causa degli zaini gonfi, tutti e nove si strinsero attorno al vecchio stivale che Amos Digori teneva in mano. Stavano tutti lì in cerchio, mentre una brezza fredda accarezzava la cima della collina. Nessuno parlò. All'improvviso a Harry venne in mente come sarebbe parsa strana la scena se un babbano fosse salito lassù in quel momento. Nove persone, due adulti, aggrappati a quel vecchio logoro stivale nella semi-oscurità, in attesa. «Tre?» mormorò il signor Weasley, guardando ancora l'orologio. «Due? Uno?» Successe in un attimo. Per Harry fu come se una forza irresistibile lo avesse arpionato all'ombelico, strattonandolo in avanti. I suoi piedi si staccarono da terra, avvertì Ron e Hermione ai suoi fianchi, spalla controspalla, e tutti sfrecciarono in un ululato di vento e di colore vorticante. Il suo indice era incollato allo stivale come trascinato da una calamita, e poi i suoi piedi toccarono bruscamente il suolo. Ron gli barcollò addosso e lui cadde. La passaporta piombò a terra con un tonfo sordo vicino alla sua testa. Harry guardò in su. Il signor Weasley, il signor Diggory e Cedric erano in piedi, anche se sembravano piuttosto scossi. Tutti gli altri erano per terra. «Era quella delle sette meno cinque da Sto Zedil», disse una voce. Badman e Crouch Harry si districò da Ron e si alzò in piedi. Erano arrivati su quella che sembrava una striscia deserta di brughiera immersa nella foschia. Davanti a loro c'era una coppia di maghi stanchi dall'aria scontrosa, uno dei quali reggeva un grosso orologio d'oro, l'altro un grosso rotolo di pergamena e una penna d'aquila. Erano entrambi camuffati da babbani, anche se maldestramente. L'uomo con l'orologio indossava un completo di tweed con galoscia al polpaccio, il suo collega un kilt e un poncio. «Buongiorno, Basil», disse il signor Weasley, raccogliendo lo stivale e consegnandolo al mago in kilt, che lo gettò in uno scatolone di passaporte usate accanto a lui. Harry vide un vecchio quotidiano, una lattina vuota e un pallone bucato. «Salute a te, Arthur», disse stancamente Basil. «Non sei in servizio, eh? Certi hanno tutte le fortune. È tutta la notte che siamo qui. Meglio che ti tolga di torno. Abbiamo una grossa comitiva in arrivo dalla foresta nera con la passaporta delle sette e un quarto. Aspetta, ora vi trovo il campeggio». Weasley, Weasley, consultò la lista sulla pergamena. «A circa cinquecento metri da quella parte, il primo campeggio che incontrate. Il direttore si chiama Roberts. Diggori secondo campeggio, chiedete del signor Payne». «Grazie, Basil», disse il signor Weasley, e fece cenno a tutti di seguirlo. Si avviarono per la brughiera deserta, senza riuscire a vedere granché attraverso la nebbiolina. Dopo circa venti minuti cominciarono a intravedere una piccola casa di pietra vicino a un cancello. Al di là, Harry distinse a stento le sagome spettrali di centinaia e centinaia di tende, erette sul fianco di un grande campo che saliva dolcemente verso un fitto bosco all'orizzonte. Salutarono i digori e si avvicinarono alla casa. Sulla soglia c'era un uomo che guardava l'accampamento. A Harry bastò un'occhiata per capire che era il solo vero babbano nel raggio di parecchi chilometri. Li sentì arrivare e si voltò a guardarli. Buongiorno, disse il signor Weasley cordiale. Buongiorno, disse il babbano. Lei è il signor Roberts? Sì, sono io, rispose il signor Roberts. E voi chi siete? Weasley, due tende. Abbiamo prenotato un paio di giorni fa. Sì, disse il signor Roberts, consultando una lista appesa alla porta. Le piazzole sono lassù verso il bosco. Solo per questa notte? Proprio così, disse il signor Weasley. Allora paga adesso. Sicuro, certo, disse il signor Weasley. Si allontanò di qualche passo e fece cenno a Harry di avvicinarsi. Aiutami, Harry, bisbigliò, estraendo un mazzetto di banconote babbane dalla tasca e cominciando a sfogliarle. Questo è da... da dieci? Ah sì, adesso vedo i numeri. Allora questo è da cinque. Da venti, lo corresse Harry sottovoce, ben sapendo che il signor Roberts cercava di non perdersi una parola. Ah sì, allora questo è... non so, questi pezzetti di carta. Straniero? Chiese il signor Roberts mentre il signor Weasley tornava con i soldi giusti. Straniero, ripete il signor Weasley perplesso. Lei non è il primo ad aver problemi con i soldi, spiegò il signor Roberts esaminando il signor Weasley da vicino. Dieci minuti fa due tipi hanno cercato di pagarmi con delle monete d'oro grandi come coprimozzi. Davvero, disse il signor Weasley nervoso. Il signor Roberts frugò in un barattolo cercando il resto. Mai stato così pieno, disse all'improvviso, guardando di nuovo verso il campo nebbioso. Centinaia di prenotazioni. Di solito la gente arriva e basta. Vanno bene? Chiese il signor Weasley, la mano tesa ad aspettare il resto che il signor Roberts non gli diede. Sì, disse pensieroso. Gente da ogni dove, un sacco di stranieri, e non solo stranieri, bizzarri, capito? C'è un tipo che va in giro con un chilt e un poncio. Non dovrebbe? Chiese ansiosamente il signor Weasley. È come una specie di... non so, come una specie di raduno, disse il signor Roberts. Hanno l'aria di conoscersi tutti, come una gran festa. In quel momento un mago con i pantaloni alla zuava apparve dal nulla vicino al signor Roberts. Oblivion, disse in tono secco, puntandogli contro la bacchetta. Immediatamente gli occhi del signor Roberts diventarono vacui, le sue sopracciglia si spianarono e uno sguardo di sognante indifferenza cadde sul suo viso. Harry riconobbe gli effetti dell'incantesimo di memoria. «Una mappa del campeggio per voi», disse tranquillamente il signor Roberts al signor Weasley e il suo arresto. «Grazie mille», disse il signor Weasley. Il mago con i pantaloni alla zuava li accompagnò verso il cancello del campeggio. Sembrava sfinito. Aveva il mento blu di barba non fatta e profonde ombre viola sotto gli occhi. Una volta fuori dalla portata del signor Roberts, bisbigliò al signor Weasley. «Mi sta dando un sacco di problemi. Ha bisogno di un incantesimo di memoria dieci volte al giorno per starsene tranquillo. E Ludo Bugman non mi dà certo una mano. Va in giro a parlare di bolidi e pluffe a voce altissima e non ci pensa proprio alla sicurezza anti-babbani. Cielo, sarò felice quando tutto questo sarà finito. Ci vediamo più tardi, Arthur!» E si smaterializzò. «Ma il signor Bugman non è il direttore dei giochi e degli sport magici?» chiese Ginny con aria sorpresa. «Dovrebbe saperlo che non si parla di bolidi coi babbani in circolazione, vero?» «Dovrebbe», disse il signor Weasley sorridendo e guidandoli attraverso il cancello su per il campeggio. Ma Ludo è sempre stato un po' rilassato in fatto di sicurezza. In compenso non si potrebbe desiderare un direttore dell'ufficio per lo sport più entusiasta. Giocava a Quidditch nella nazionale inglese, sapete, ed è stato il miglior battitore che le vespe di Winborn abbiano mai avuto. Risalirono il campo nebbioso tra lunghe file di tende. Molte avevano un'aria quasi normale. I loro proprietari avevano chiaramente cercato di renderle più babbanesche possibile, ma poi si erano traditi aggiungendo camini, batacchi o banderuole. Qua e là spuntavano tende così vistosamente magiche che Harry non poteva certo stupirsi che il signor Roberts nutrisse dei sospetti. A metà del campo sorgeva una stravagante costruzione di seta a righe, simile a un palazzo in miniatura, con parecchi pavoni vivi legati all'ingresso. Un po' più in là passarono davanti a una tenda con tre piani e parecchie torrette, e ancora oltre c'era una tenda con giardino, completo di vasca per gli uccellini, meridiana e fontana. «Siamo sempre i soliti», disse il signor Weasley con un sorriso. «Non possiamo fare a meno di esibirci quando ci ritroviamo. Ah, eccoci, guardate, questo è il nostro posto». Avevano raggiunto il limitare del bosco in cima al campo, e lì c'era uno spazio vuoto, con un piccolo cartello piantato per terra che diceva «Weasley». «Non potevamo trovare un posto migliore», disse allegramente il signor Weasley. «Lo stadio è proprio dall'altra parte del bosco. Siamo vicinissimi». Si sfilò lo zaino dalle spalle. «Allora», disse in tono eccitato, «vietato usare magia, e dico sul serio, non quando siamo così tanti in terra babbana. Monteremo queste tende a mano. Non dovrebbe essere troppo difficile. I babbani lo fanno sempre». «Senti, Harry, secondo te, da dove cominciamo?» Harry non era mai andato in campeggio in vita sua. I Dursley non lo avevano mai portato in vacanza, preferendo lasciarlo con la signora Fig, un'anziana vicina. Comunque, lui e Hermione scoprirono dove dovevano andare quasi tutti i pali e i picchetti, e anche se il signor Weasley fu più d'intralcio che d'aiuto, perché divenne decisamente sovreccitato quando fu il momento di usare il martelletto, alla fine riuscirono a montare due malinconiche tende a due posti. Tutti quanti fecero un passo indietro per ammirare la loro opera. «Nessuno, guardando quelle tende, avrebbe detto che appartenevano a dei maghi», pensò Harry, «ma il guaio era che una volta arrivati Bill, Charlie e Percy sarebbero stati in dieci». Anche Hermione sembrava aver colto il problema. Scoccò uno sguardo interrogativo a Harry mentre il signor Weasley si metteva a quattro zampe ed entrava nella prima tenda. «Staremo un po' stretti!» gridò. «Ma credo che ce la faremo! Venite a dare un'occhiata!» Harry si infilò carponi sotto il lembo della tenda e rimase a bocca aperta. Era entrato in quello che sembrava un appartamento di tre stanze un po' vecchiotto, completo di bagno e cucina. Cosa bizzarra, era arredato esattamente allo stesso modo di quello della signora Fig. C'erano foderine all'uncinetto sulle sedie scompagnate e un forte odore di gatto. «Beh, non dovremo starci molto», disse il signor Weasley, asciugandosi la pelata con un fazzoletto e dando un'occhiata ai quattro letti a castello stipati nella camera da letto. «Me l'ha prestata Perkins dell'ufficio. Non va quasi più in campeggio, poveraccio, alla lombagine!» Prese il bollitore polveroso e ci guardò dentro. «Ci servirà dell'acqua!» «C'è un rubinetto segnato su questa mappa che ci ha dato il babbano», disse Ron, che aveva seguito Harry dentro la tenda e sembrava assolutamente indifferente alle sue straordinarie dimensioni interne. «È dall'altra parte del campo!» «Beh, perché tu, Harry e Hermione, non andate a prenderci l'acqua allora?» Il signor Weasley porse loro il bollitore e un paio di pentole. «Intanto noi andremo a raccogliere della legna per il fuoco!» «Ma abbiamo il fornello!» disse Ron. «Perché non possiamo?» «Ron, sicurezza anti babbani!» disse il signor Weasley con l'aria di uno che pregusta qualcosa di speciale. «Quando i veri babbani vanno in campeggio, cucinano sul fuoco all'aperto! Li ho visti io!» Dopo un breve giro nella tenda delle ragazze, che era leggermente più piccola di quella dei maschi, anche se priva dell'odore di gatto, Harry, Ron e Hermione si accinsero ad attraversare il campeggio con il bollitore e le pentole. Ora, col sole appena sorto e la nebbiolina che si diradava, videro la città di Tende che si allargava in tutte le direzioni. Si fecero strada lentamente tra le file, guardandosi intorno incuriositi. Solo in quel momento Harry cominciò a capire quanti maghi e quante streghe dovevano esserci al mondo. Non aveva mai pensato molto a quelli degli altri paesi. Gli altri campeggiatori si stavano svegliando. Le prime ad alzarsi erano le famiglie con bambini. Harry non aveva mai visto prima maghi e streghe così piccoli. Un bambinetto di non più di due anni era accoccolato fuori da una gran tenda a forma di piramide. Teneva in mano una bacchetta e la puntava allegramente verso una rumaca nell'erba, che si gonfiò piano piano fino a raggiungere la taglia di una salsiccia. Mentre gli passavano davanti, sua madre uscì in fretta dalla tenda. «Quante volte te l'ho detto, Kevin! Non toccare la bacchetta di papà!» Era scivolata sulla lumaca gigante, che esplose. La sua invettiva li seguì nell'aria immobile, mescolata agli urlurati del piccolo. «Rotto lumaca! Rotto lumaca!» Poco più oltre videro due streghette, poco più grandi di Kevin, che cavalcavano scope giocattolo, librate solo quel tanto che consentiva alla punta dei loro piedi di sfiorare l'erba rugiadosa. Un mago del ministero le aveva già individuate. Mentre correva superando Harry, Ron e Hermione, borbottava fra sé. «In pieno giorno! I genitori staranno ancora dormendo, immagino!» Qua e là, maghi e streghe adulti emergevano dalle loro tende e cominciavano a preparare la colazione. Alcuni, gettandosi intorno occhiate furtive, accendevano il fuoco con la bacchetta. Altri sfregavano fiammiferi con aria dubbiosa, come se fossero certi che non potesse funzionare. Tre maghi africani sedevano immersi in una seria conversazione, tutti vestiti con lunghe tuniche bianche, intenti a cuocere quello che sembrava un coniglio su un fuoco di un viola chiaro, mentre un gruppo di streghe americane di mezza età sedeva spettegolando allegramente sotto uno striscione teso tra le loro tende, che diceva «Istituto delle streghe di Salem». Harry colse stralci di conversazione in lingue strane, man mano che oltrepassavano le tende, e anche se non riuscì a capire una sola parola, il tono di ogni voce era eccitato. «Ehm, sono i miei occhi o tutto è diventato verde?» disse Ron. Non erano solo gli occhi di Ron, erano arrivati a un gruppo di tende, tutte coperte con una fitta coltre di trifoglio, sembravano strane collinette spuntate dal terreno. Dalle tende aperte si intravedevano visi sorridenti, poi dietro di loro qualcuno li chiamò. «Harry! Ron! Hermione!» Era Simus Finnegan, un compagno del quarto anno di Grifondoro. Era seduto davanti alla sua tenda coperta di trifoglio, con una donna dai capelli rossicci che doveva essere sua madre, e col suo migliore amico, Dean Thomas, anche lui di Grifondoro. «Vi piacciono le decorazioni?» disse Simus con un sorriso, quando Harry, Ron e Hermione si avvicinarono per salutarlo. Il ministero non è molto contento. «Ah, perché non dovremmo portare i nostri colori?» disse la signora Finnegan. «Dovreste vedere che cos'hanno appeso i Bulgari alle loro tende!» «Farete il tifo per l'Irlanda, vero?» aggiunse guardando Harry, Ron e Hermione con gli occhi sgranati. Quando le ebbero assicurato che sì, certo, avrebbero tifato Irlanda, si allontanarono, anche se, come disse Ron, avremmo mai potuto dire il contrario. «Chissà che cos'hanno appeso i Bulgari alle loro tende», disse Hermione. «Andiamo a dare un'occhiata», disse Harry, indicando una vasta area di tende su per il campo, dove la bandiera bulgara, rossa, verde e bianca, svolazzava al vento leggero. Le tende non erano state ricoperte di vegetazione, ma ciascuna di loro esibiva lo stesso poster, il poster di un volto molto corruciato con folte sopracciglia nere. Naturalmente l'immagine si muoveva, ma non faceva altro che strizzare gli occhi e scoccare sguardi cupi. «Crum», disse piano Ron. «Cosa?», chiese Hermione. «Crum», disse Ron. «Victor Crum, il cercatore bulgaro». «Che faccia antipatica», disse Hermione, guardando i molti crum che strizzavano gli occhi e lanciavano loro occhiate torve. «Faccia antipatica?». Ron alzò gli occhi al cielo. «E chi se ne importa di che faccia ha?». «E' incredibile, e poi è giovanissimo. Ha solo diciotto anni o giù di lì. È un genio, stasera vedrete». C'era già una piccola coda davanti al rubinetto nell'angolo del campo. Henry, Ron e Hermione si misero in fila, dietro a due uomini impegnati in un'accesa discussione. Uno era un mago molto anziano, che indossava una lunga camicia da notte a fiori. L'altro era chiaramente un mago del ministero. Sventolava un paio di pantaloni gessati e quasi urlava esasperato. «Mettiteli e basta!», Arci, da bravo, non puoi andare in giro così. Il babbano al cancello ha già i suoi sospetti. «L'ho comprata in un negozio babbano», disse ostinato il vecchio mago. «I babbani se le mettono». «Le donne babbane se le mettono, Arci, non gli uomini. Loro portano questi», disse il mago del ministero, brandendo i pantaloni gessati. «Non ho intenzione di metterli», disse il vecchio Arci indignato. «Mi piace prendere un po' d'aria attorno alle mie parti intime, grazie». A quel punto Ermione fu sopraffatta da un tale accesso di risatine che dovete schizzare fuori dalla fila, e al suo ritorno Arci aveva già preso l'acqua e se n'era andato. Al ritorno, carichi d'acqua riattraversarono il campeggio più lentamente. Qua e là videro facce più familiari, altri studenti di Hogwarts con le loro famiglie. Oliver Wood, l'ex capitano della squadra di Quidditch della casa di Grifondoro, che aveva appena lasciato Hogwarts, trascinò Harry fino alla tenda dei genitori per presentarlo, e gli disse, in tono eccitato, che era appena stato ingaggiato nella riserva della squadra del Paddlemare United. Poi furono salutati da Ernie McMillen, uno del quarto anno di Tassofrasso, e un po' più in là videro Cho Chan, una ragazza molto graziosa che giocava da cercatrice per la squadra di Corvo Nero. Salutò Harry con la mano e gli sorrise, e lui si rovesciò parecchia acqua addosso per rispondere al saluto. Più che altro per far smettere Ron di fare smorfie, Harry indicò in fretta un bel gruppo di ragazzi che non aveva mai visto prima. «Chi credi che siano?» chiese. «Non sono di Hogwarts, vero?» «Mi sa che vengono da una scuola straniera», disse Ron. «So che ce ne sono altre, ma non ho mai conosciuto nessuno che ne frequenti una». Bill aveva un amico di Penna di una scuola in Brasile, è stato tanti anni fa, e voleva fare un viaggio scambio, ma mamma e papà non potevano permetterselo. Quando gli ha fatto sapere che non poteva andare, il suo amico di Penna si è offeso molto e gli ha mandato un cappello stregato. Gli ha accartocciato le orecchie. Harry rise. Era rimasto sorpreso alla notizia che esistevano altre scuole di magia, ma ora che vedeva nel campeggio maghi di così tante nazionalità, pensò che era stato sciocco a non capire che Hogwarts non poteva essere l'unica. Scoccò un'occhiata a Ermione, che non sembrava affatto stupita. Senza alcun dubbio, aveva già letto la cosa in qualche libro. «Ci avete messo dei secoli», disse George quando finalmente furono di ritorno alla tenda dei Weasley. «Abbiamo incontrato un po' di gente», disse Ron, posando il recipiente con l'acqua. «Non avete ancora acceso il fuoco?» «Papà si sta divertendo con i fiammiferi», disse Fred. Il signor Weasley non riusciva assolutamente ad accendere il fuoco, ma non si poteva dire che non ci provasse. Fiammiferi spezzati ricoprivano il terreno tutto intorno, ma lui sembrava spassarsela come mai nella vita. «Oops», disse quando riuscì ad accenderne uno, e subito lo lasciò cadere per la sorpresa. «Dia qui, signor Weasley», gli disse Ermione gentilmente, prendendogli la scatola e mostrandogli come fare. Alla fine riuscirono ad accendere il fuoco, anche se ci volle almeno un'altra ora, prima che fosse abbastanza caldo da poter cuocere qualcosa. Comunque c'era molto da fare nell'attesa. La loro tenda sembrava montata proprio accanto al sentiero principale che conduceva allo stadio, e membri del ministero continuavano a correre su e giù, salutando cordialmente il signor Weasley mentre passavano. Il signor Weasley faceva la cronaca più che altro a uso di Harry e Ermione. I suoi figli sapevano troppo del ministero per essere granché interessati. Quello era Catbert Mockridge, direttore dell'ufficio delle relazioni con i Goblin. Ecco che arriva Gilbert Wimpole, fa parte del comitato per gli incantesimi sperimentali, ed ha un po' che ha quelle corna. «Ciao Arnie!» Arnold Peacegood è un obbliviatore, un membro della squadra cancellazione della magia accidentale, e quelli sono Bode e Crocker, sono indicibili. Sono che cosa? Dell'ufficio misteri, top secret, non so che cosa fanno. Finalmente il fuoco fu pronto, e avevano appena cominciato a cucinare uova e salsicce quando Bill, Charlie e Percy spuntarono dal bosco e si diressero verso di loro. «Ci siamo appena materializzati, papà», disse Percy a voce alta. «Ah, ottimo! È ora di pranzo!» Erano a metà dei loro piatti di salsicce e uova, quando il signor Weasley balzò in piedi sorridendo e sventolando un braccio verso un uomo che veniva loro incontro. «Ah!» disse. «L'uomo del momento! Ludo!» Ludo Bugman era di gran lunga il personaggio più vistoso che Harry avesse mai visto fino a quel momento, compreso il vecchio Archie, con la sua camicia da notte a fiori. Indossava lunghi abiti da Quidditch, a grosse strisce orizzontali giallo vivo e nero. Sul suo petto era stampato l'enorme disegno di una vespa. Doveva aver avuto un fisico possente un tempo. Ora gli abiti si tendevano su un pancione che certo non aveva nei giorni in cui giocava nella nazionale inglese di Quidditch. Aveva il naso schiacciato, probabilmente rotto da un bolide vagante, pensò Harry, ma i suoi tondi occhi blu, i corti capelli biondi e la carnagione rosea lo facevano assomigliare a uno studente troppo cresciuto. «Ehi là a voi!» gridò Bugman allegramente. Camminava come se avesse delle molle sotto i piedi ed era chiaramente in uno stato di folle eccitazione. «Arthur, vecchio mio!» disse Ansando mentre si avvicinava al fuoco. «Che giornata, eh? Che giornata! Potevamo desiderare un tempo migliore? Si prospetta una notte senza nuvole e i preparativi vanno quasi alla perfezione. Non ho niente da fare!» Proprio in quel momento alle sue spalle un gruppo di maghi del ministero dall'aria tesa scattarono in direzione di un fuoco indubbiamente magico che spediva scintille violette a sei metri d'altezza. Persi corse avanti con la mano tesa. A quanto pareva la sua disapprovazione del modo in cui Ludo Bugman gestiva il suo ufficio non gli impediva di voler fare una buona impressione su di lui. «Ah, sì!» disse il signor Weasley con un gran sorriso. «Questo è mio figlio Persi, ha appena cominciato a lavorare al ministero, e questo è Fred, no, George, scusa, quello è Fred, Bill, Charlie, Ron, mia figlia Ginny e gli amici di Ron, Hermione Granger e Harry Potter». Bugman fu colto alla sprovvista quando udì il nome di Harry e subito i suoi occhi scattarono, come di consueto, verso la famosa cicatrice. «E voi tutti sentite?» continuò il signor Weasley. «Questo è Ludo Bugman, sapete bene chi è. È grazie a lui che abbiamo dei posti così buoni». Bugman fece un sorriso radioso e agitò la mano come per dire che erano sciocchezze. «Ti va una scommessina sulla partita?» disse in tono entusiastico, facendo tintinnare quello che sembrava un bel mucchietto d'oro nelle tasche dell'abito giallo e nero. «Ho già Roddy Pontner che ha scommesso con me, che la Bulgaria segnerà per prima. Gli ho offerto una buona quotazione, visto che i tre cacciatori dell'Irlanda sono i migliori in circolazione da anni, e la piccola Agatha Thames ha puntato la metà del suo allevamento di anguille su una partita lunga una settimana. «Oh, avanti allora», disse il signor Weasley. «Vediamo un galeone sull'Irlanda vincente?» «Un galeone?» Ludo Bugman parve vagamente deluso, ma si riprese subito. «Molto bene, molto bene. Altre puntate?» «Sono un po' troppo giovani per le scommesse», disse il signor Weasley. Molly non sarebbe contenta. «Scommettiamo 37 galeoni, 15 zellini e tre falci», disse Fred, mentre lui e George radunavano in fretta tutto il denaro che avevano. «L'Irlanda vince, ma Victor Crum prende il boccino. Oh, e aggiungiamo una bacchetta finta». «Non vorrete mostrare al signor Bugman una porcheria del genere», si bilò Percy, ma Bugman parve di tutt'altra idea. La sua faccia da bambino, splendette di eccitazione, quando la prese dalle mani di Fred, e quando la bacchetta diede uno strillo acuto e si trasformò in un pollo di gomma, Bugman ruggì dalle risate. «Eccellente! Non ne vedevo una così credibile da anni. Pagherei cinque galeoni per averla!» Percy si irrigidì in un atteggiamento di stupita disapprovazione. «Ragazzi», disse il signor Weasley a mezza voce, «non voglio che scommettiate. Sono tutti i vostri risparmi. Vostra madre!» «Non fare il guastafeste, Arthur», tuonò Ludo Bugman, facendo risuonare le tasche eccitato. «Sono abbastanza grandi da sapere quello che vogliono. Dite che vince l'Irlanda, ma Crum prende il boccino?» «Impossibile, ragazzi, impossibile!» «Vi darò delle buone quote per questa scommessa. Aggiungeremo cinque galeoni per quella buffa bacchetta allora, d'accordo!» Il signor Weasley rimase a guardare impotente, mentre Ludo Bugman estraeva un quadernino e una penna e cominciava a scrivere i nomi dei gemelli. «Grazie mille», disse George, prendendo il foglietto di pergamena che l'altro gli tendeva e riponendolo con cura. Bugman tornò a rivolgersi allegramente al signor Weasley. «Non è che mi offri una tazza, eh? Sto cercando Barty Crouch, il mio corrispettivo bulgaro. Mi sta dando qualche problema e non capisco una parola di quello che dice. Barty riuscirà a chiarire tutto. Parla quasi centocinquanta lingue.» «Il signor Crouch?» chiese Percy, abbandonando all'istante il suo sguardo di inflessibile disapprovazione e fremendo di entusiasmo. «Ne parla più di duecento! Il maridese, la lingua troll, il goblinese.» «Chiunque riesce a parlare la lingua troll», disse Fred sbrigativo, «non devi far altro che puntare il dito e grugnire.» Percy scoccò a Fred uno sguardo feroce e attizzò vigorosamente il fuoco per far bollire di nuovo l'acqua. «Ancora nessuna notizia di Bertha Jorkins, Ludo?» chiese il signor Weasley, mentre Bugman si sistemava nell'erba tra loro. «Non una parola», rispose Bugman tranquillamente, «ma si farà viva. Povera vecchia Bertha! Ha una memoria come un paiolo bucato e zero senso dell'orientamento. Si è persa, ve lo dico io. Un giorno d'ottobre ricomparirà in ufficio, convinta che sia ancora luglio.» «Non credi che sarebbe il caso di mandare qualcuno a cercarla?» suggerì esitante il signor Weasley, mentre Percy passava il tè a Bugman. «Barty Crouch continua a dirmelo», disse Bugman, i tondi occhi sgranati e innocenti. «Ma davvero al momento non ho nessuno che mi avanza.» «Oh, parli del diavolo! Barty!» Un mago si era appena materializzato accanto al loro falò, e non avrebbe potuto fare un contrasto maggiore con Ludo Bugman, sraiato nell'erba con i suoi vecchi vestiti da vespa. Barty Crouch era un uomo anziano, rigido e impettito, impeccabilmente vestito in completo e cravatta. La scriminatura nei suoi corti capelli grigi era diritta in maniera quasi innaturale, e i baffetti a spazzolino avevano l'aria di essere stati spuntati con l'aiuto della riga millimetrata. Le sue scarpe erano lucidate con estrema accuratezza. Harry capì subito perché Percy lo idolatrava. Lui era un convinto assertore delle regole e della necessità di seguirle a puntino, e il signor Crouch aveva osservato la regola sull'abbigliamento babbano così coscienziosamente che sarebbe potuto passare per un direttore di banca. Harry dubitava che perfino zio Vernon sarebbe riuscito a riconoscerlo per quello che era. «Accomodati su un trono d'erba, Barty!» disse Ludo allegramente, picchiando con la mano il terreno a suo fianco. «No, grazie, Ludo!» disse Crouch, e c'era una vena di impazienza nella sua voce. «Ti ho cercato dappertutto! I bulgari insistono che aggiungiamo altri dodici posti alla tribuna d'onore!» «Oh, è questo che vogliono!» disse Bugman. «Credevo che quel tipo mi stesse chiedendo di prestarvi una pinzetta. Parla con un po' d'accento!» «Signor Crouch!» disse Percy senza fiato, sprofondando in una specie di mezzo inchino che lo fece sembrare Gobbo. «Vuole una tazza di tè?» «Oh!» rispose il signor Crouch, guardando Percy con lieve sorpresa. «Sì, grazie, Weatherby!» Fred e George quasi soffocarono il naso nella tazza. Percy, molto rosso attorno alle orecchie, si mise a trafficare col bollitore. «Oh, e volevo dire due cose anche a te, Arthur!» disse il signor Crouch, gli occhi acuti puntati sul signor Weasley. «Ali Bashir è sul sentiero di guerra. Vuole parlarti del tuo embargo sui tappeti volanti!» Il signor Weasley trasse un gran sospiro. «Gli ho mandato un gufo a questo proposito proprio la settimana scorsa. Una volta per tutte, i tappeti sono definiti prodotto babbano nel registro degli oggetti incantabili proibiti, ma lui mi dà retta?» «Ne dubito!» disse il signor Crouch, accettando la tazza che Percy gli porgeva. «Non vede l'ora di esportare qui!» «Beh, non sostituiranno mai le scope in Gran Bretagna, vero?» intervenne Bugman. «Ali è convinto che ci sia una nicchia di mercato per un veicolo familiare», disse il signor Crouch. «Mi ricordo che mio nonno aveva un Axminster che poteva portare dodici persone, ma è stato prima che i tappeti venissero proibiti, naturalmente!» Lo disse come per chiarire, al di là di ogni ragionevole dubbio, che tutti i suoi antenati si erano attenuti rigidamente alla legge. «Allora hai avuto da fare, Barty?» disse Bugman gioviale. «Lo puoi ben dire!» rispose asciutto il signor Crouch. «Organizzare passaporte in cinque continenti non è una cosa da niente, ludo!» «Immagino che sarete tutti e due contenti quando sarà tutto finito», disse il signor Weasley. Ludo Bugman parve sconvolto. «Contenti? Ma quando mai mi sono divertito così? E poi non è che abbiamo finito, eh, Barty? Eh? Resta ancora parecchio da organizzare, eh?» Il signor Crouch alzò le sopracciglia, rivolto a Bugman. «Eravamo d'accordo di non annunciarlo finché tutti i dettagli...» «Oh, i dettagli!» disse Bugman, scacciando via la parola come un nugolo di moscerini. «Hanno firmato, no? Si sono accordati, no? Scommetto quello che vuoi, che questi ragazzi lo scopriranno molto presto. Voglio dire, è a Hogwarts che...» «Ludo! Dobbiamo incontrare i bulgari, lo sai!» disse seccamente il signor Crouch, tagliando corto con i commenti di Bugman. «Grazie per il tè, Weatherby!» Risospinse la tazza intatta verso Percy e aspettò che Ludo si alzasse. Bugman si sollevò a fatica, ingollando il tè rimasto, mentre l'oro, che aveva in tasca, tintinnava allegramente. «Ci vediamo più tardi!» esclamò. «Sarete su in tribuna d'onore con me! Faccio la cronaca della partita!» Agitò la mano, Barty Crouch fece un breve cenno ed entrambi si smaterializzarono. «Che cosa succederà a Hogwarts, papà?» chiese subito Fred. «Di che cosa stavano parlando?» «Lo scoprirete presto!» disse il signor Weasley sorridendo. «Sono informazioni riservate, fino a quando il ministero non deciderà di renderle pubbliche!» disse Percy rigidamente. «Il signor Crouch ha fatto bene a non rivelarle!» «No, stai zitto, Weatherby!» disse Fred. Un senso d'eccitazione quasi palpabile sorse come una nuvola sul campeggio via via che il pomeriggio avanzava. Al tramonto la stessa immobile aria estiva sembrava vibrare di attesa e mentre l'oscurità si stendeva come un manto sulle migliaia di maghi in attesa, le ultime tracce di finzione scomparvero. Il ministero parve a rendersi all'inevitabile e smise di combattere i segni della magia dirompente che ormai apparivano dappertutto. Venditori ambulanti si materializzavano ogni pochi metri, trasportando vassoi e spingendo carretti carichi di merci straordinarie. C'erano coccarde luminose, verdi per l'Irlanda, rosse per la Bulgaria, che strellavano i nomi dei giocatori, cappelli a punta verdi coperti di trifogli danzanti, sciarpe bulgare adorne di leoni che ruggivano per davvero, bandiere di entrambi i paesi che suonavano l'inno nazionale quando le agitavi. C'erano modellini di firebolt che volavano veramente e pupazzetti da collezione di giocatori celebri che camminavano sul palmo della mano, pavoneggiandosi. «Ho risparmiato le paghette tutta l'estate per questo momento», disse Ron a Harry, mentre con Ermione giravano tra i venditori e compravano souvenir. Ron prese un cappello coi trifogli danzanti e una grossa coccarda verde, ma anche un pupazzetto di Victor Krum, il cercatore bulgaro. Il Krum in miniatura camminava avanti e indietro sulla mano di Ron, guardando torvo la coccarda verde sopra di lui. «Wow, guardate questi», disse Harry, affrettandosi a raggiungere un carretto stracarico di quelli che sembravano binocoli d'ottone, pieni di ogni genere di strani pomoli e rotelle. «Omniocolo», disse il venditore con foga. «Si può fare il replay dell'azione, passare tutto al rallentatore e vedere tutto azione per azione, se vi va. È un affare, dieci galeoni l'uno». «Accidenti, ho già comprato questo», disse Ron, indicando il cappello col trifoglio e fissando con desiderio gli omniocoli. «Me ne dia tre», disse Harry deciso. «No, lascia stare», disse Ron arrossendo. Lo metteva in imbarazzo il fatto che Harry, a cui i genitori avevano lasciato una piccola fortuna, fosse molto più ricco di lui. «Non vi regalerò niente a Natale», gli disse Harry mettendo gli omniocoli in mano a Ron e Ermione, «per i prossimi dieci anni, voglio dire». «Mi sembra più che giusto», disse Ron con un gran sorriso. «Oh, grazie, Harry», disse Ermione, «e io prendo i programmi, guardate». Fecero ritorno alle tende con le tasche decisamente alleggerite. Bill, Charlie e Ginny esibivano le loro coccarde verdi e il signor Weasley portava una bandiera irlandese. Fred e George non avevano niente, avevano dato a Bugman tutti i loro soldi. E poi un gong profondo e sonoro rimbombò da qualche parte oltre i boschi, e in un solo istante lanterne verdi e rosse si accesero tra gli alberi, illuminando il sentiero che portava al campo. «È ora», disse il signor Weasley, eccitato come tutti loro. «Avanti, andiamo». La Coppa del Mondo di Quidditch Tenendo ben stretti i loro acquisti, il signor Weasley in testa si affrettarono tutti a entrare nel bosco, seguendo il percorso illuminato dalle lanterne. Sentivano i rumori di migliaia di persone che si muovevano attorno a loro, urla e risate, frammenti di canzoni. L'atmosfera di eccitazione febbrile era altamente contagiosa. Harry non riusciva a smettere di sorridere. Camminarono nel bosco per venti minuti, parlando e scherzando a voce alta. «È ora, finché uscirono all'aperto e si ritrovarono all'ombra di uno stadio gigantesco. Anche se Harry riuscì a vedere solo una piccola porzione degli immensi muri d'oro che circondavano il campo, si rese conto che dieci cattedrali ci sarebbero state dentro comodamente. «A centomila posti», disse il signor Weasley, intercettando l'aria sbalordita di Harry. «Una task force del ministero, cinquecento persone, ci ha lavorato per un anno. Incantesimi respingi i babbani dappertutto. Tutte le volte che i babbani ci si avvicinavano, gli venivano in mente certi appuntamenti importanti a cui non potevano mancare e filavano via, benedetti loro», aggiunse con calore, guidandoli verso l'ingresso più vicino, che era già circondato da uno sciame di streghe e maghi urlanti. «Posti di prima classe», disse la strega del ministero all'ingresso, staccando i loro biglietti. «Tribuna d'onore! Dritto di sopra, Arthur! Più in alto che puoi!» Le scale dentro lo stadio erano coperte di tappeti viola. Si arrampicarono col resto della folla, che lentamente si disperdeva nei vari settori. Il gruppo del signor Weasley continuò a salire finché non arrivarono in cima, e si ritrovarono in una piccola tribuna posta nel punto più alto dello stadio, e sistemata esattamente a metà tra gli anelli d'oro per segnare i gol. C'erano una ventina di poltrone viola e oro, disposte su due file, e quando Harry, infilandosi nei posti davanti coi Weasley, guardò verso il basso, vide una scena che non avrebbe mai potuto immaginare. Centomila maghi e streghe prendevano posto sui sedili che si elevavano a strati sul lungo campo ovale. Tutto era pervaso da una misteriosa luce dorata che sembrava emanare dallo stadio stesso. Dallassù il campo sembrava liscio come velluto. Alle due estremità del campo c'erano tre anelli d'oro a quindici metri di altezza. Proprio di fronte a loro, quasi a livello dello sguardo di Harry, c'era un tabellone gigantesco. Una grafia d'oro continuava a sfrecciare su di esso come se la mano di un gigante invisibile lo scarabocchiasse e poi cancellasse tutto. Guardandolo, Harry vide che sparava messaggi pubblicitari per tutto il campo. «Blue bottle, una scopa per tutta la famiglia, sicura, affidabile, con allarme antifurto incorporato, solvente magico di nonna acetonella per ogni tipo di sporcizia. Via la macchia, via il dolore! Abbigliamento per maghi Stretchy and Sons, Londra, Parigi, Hogsmeade!» Harry si guardò intorno per vedere chi c'era in tribuna. Era ancora vuota, a parte una minuscola creatura seduta al terzultimo posto della fila dietro di loro. La creatura, dalle gambe così corte che stavano dritte davanti a lei sulla poltrona, indossava uno strofinaccio drappeggiato come una toga e teneva la faccia tra le mani. Eppure quelle lunghe orecchie da pipistrello erano stranamente familiari. «Dobby!» esclamò Harry incredulo. La creaturina guardò in su e allargò le dita, mostrando gli enormi occhi marroni e un naso dell'esatta forma e dimensione di un grosso pomodoro. Non era Dobby, era comunque senza ombra di dubbio un elfo domestico, come Dobby, che Harry aveva liberato dai suoi vecchi padroni, la famiglia Malfoy. «Il signore mi ha appena chiamato Dobby?» squittì tra le dita l'elfo incuriosito. La sua voce era più acuta di quella di Dobby, una vocetta tremolante e stridula, e Harry sospettò, anche se era molto difficile a dirsi, con un elfo domestico, che quella potesse essere una femmina. Ron e Ermione si voltarono a guardare. Avevano sentito molto parlare di Dobby da Harry, ma non l'avevano mai incontrato. Anche il signor Weasley osservò la creatura con interesse. «Scusa», disse Harry, «credevo che fossi uno che conosco». «Ma anch'io conosce Dobby, signore?» squittì l'elfa. Si riparava il viso come se la luce la cecasse, anche se la tribuna d'onore non era molto illuminata. «Mi chiamo Winky, signore, e il signore...» I suoi occhi marrone scuro diventarono grandi come piattini, mentre si posavano sulla cicatrice di Harry. «Il signore è certo Harry Potter?» «Sì», rispose Harry. «Ma Dobby parla sempre di Harry Potter, signore!» disse l'elfa, abbassando un po' le mani con aria esterrefatta. «Come sta?» chiese Harry. «Gli piace la libertà!» «Oh, signore!» disse Winky, scuotendo la testa. «Oh, signore! Non voglio mancare di rispetto, signore! Ma io non è sicura che Harry Potter ha fatto un favore a Dobby, signore, quando l'ha liberato!» «Perché?» chiese Harry, preso alla sprovvista. «Che cosa c'è che non va?» «La libertà gli sta dando la testa, signore!» disse Winky, malinconica. «Gli fa venire idee strane sulla sua posizione, signore! Non riesce a trovare un altro lavoro!» «Perché no?» chiese Harry. Winky abbassò la voce di una mezza ottava e sussurrò. «Vuole farsi pagare per il suo lavoro, signore!» «Farsi pagare?» chiese Harry ingenuamente. «Beh, perché non dovrebbe farsi pagare?» Winky parve in orridire all'idea e riparò di nuovo la faccia dietro le mani. «Gli no, no, no! Io dice a Dobby, io dice, trovati una bella famiglia e sistemati, Dobby! Lui sta facendo su un gran baccano, signore, e non è una cosa adatta a un elfo domestico. Vai avanti a far fracasso così, Dobby, io gli dice, e la prossima che sento è che sei finito davanti all'ufficio regolazione e controllo delle creature magiche, come un goblin qualunque!» «Beh, era ora che si divertisse un po', disse Harry. «Gli elfi domestici non dovrebbe divertirsi Harry Potter!» disse Winky in tono deciso da dietro le mani. «Gli elfi domestici fa quello che gli dici! A me non piace affatto le altezze Harry Potter!» lanciò un'occhiata oltre il bordo della tribuna e deglutì. «Ma il padrone mi manda alla tribuna d'onore e io viene, signore!» «Perché ti ha mandato quassù, se sa che non ti piacciono le altezze!» chiese Harry accigliato. «Padrone, padrone vuole che gli tengo il posto Harry Potter! Ha tanto da fare!» disse Winky piegando la testa verso il posto vuoto al suo fianco. «Winky vorrebbe essere di ritorno nella tenda del padrone Harry Potter, ma Winky fa quello che gli dici! Winky è una brava elfa domestica!» scoccò un altro sguardo terrorizzato al bordo della tribuna e affondò di nuovo la faccia nelle mani. Harry si voltò verso gli altri. «E così quello è un elfo domestico!» borbottò Ron. «Bizzarri, direi!» «E non hai visto Dobby?» rispose Harry convinto. Ron puntò l'omniocolo e cominciò a provarlo, fissando la folla dall'altra parte dello stadio. «Forte!» disse, girando la rotellina del replay sul lato. «Posso far rimettere il dito nel naso o quel vecchio laggiù un'altra volta! Ancora!» Ermione, nel frattempo, consultava avidamente il suo programma rivestito di velluto e infiocchettato. «Prima della partita avrà luogo un'esibizione delle mascotte delle squadre», lesse ad alta voce. «Oh, vale sempre la pena di vederla!» disse il signor Weasley. «Le squadre nazionali portano creature della loro terra d'origine, sapete, per fare un po' di scena!» La tribuna si riempì lentamente nella mezz'ora successiva. Il signor Weasley continuava a stringere la mano a maghi chiaramente molto importanti. Percy scattava in piedi così spesso che sembrava fosse seduto su un porcospino. Quando arrivò Cornelius Fudge, il ministro della magia in persona, Percy fece un inchino così profondo che gli occhiali gli caddero e si ruppero. Decisamente imbarazzato, li riparò con un colpo di bacchetta e da quel momento rimase seduto, lanciando sguardi gelosi a Harry, che Cornelius Fudge aveva salutato come un grande amico. Gli strinse la mano con fare paterno, gli chiese come stava e lo presentò ai maghi che sedevano al suo fianco. «Le presento Harry Potter!» disse ad alta voce al ministro della magia bulgaro, che indossava magnifiche vesti di velluto nero, orlate d'oro, e pareva non capire una parola. «Harry Potter! Oh, avanti, ne avrà sentito parlare! Il ragazzo che è sopravvissuto a lei sa chi! Lo sa chi è?» Il mago bulgaro all'improvviso notò la cicatrice di Harry e cominciò a blaterare ad alta voce, tutto agitato, indicandola. «Lo sapevo che ce l'avremmo fatta!» disse stancamente Fudge a Harry. «Non sono granché nelle lingue. Ho bisogno di Barty Crouch per questo genere di cose. Ah, vedo che la sua elfa domestica gli sta tenendo il posto. Buona idea! Questi bulgari continuano a infiltrarsi. Ah, ecco Lucius!» Harry, Ron e Hermione si voltarono in fretta. Lungo la seconda fila, diretti verso tre posti ancora vuoti, proprio dietro al signor Weasley, si stavano infilando niente meno che i vecchi proprietari di Dobby, l'elfo domestico, Lucius Malfoy, suo figlio Draco e una donna che Harry immaginò essere la madre di Draco. Harry e Draco Malfoy erano nemici fin dal loro primo viaggio verso Hogwarts. Pallido, il viso a punta e i capelli di un biondo quasi bianco, Draco somigliava moltissimo a suo padre. Anche sua madre era bionda, alta e sottile e sarebbe stata carina se non avesse avuto l'aria di chi ha una gran puzza sotto il naso. «Ah, Fudge!» disse Malfoy, tendendo la mano mentre si avvicinava al ministro della magia. «Come stai? Ti presento mia moglie Narcissa e nostro figlio Draco!» «Piacere, piacere!» disse Fudge sorridendo e facendo l'inchino alla signora Malfoy. «E permettimi di presentarti il signor Obalonsk, il signor... beh, è il ministro della magia bulgaro e non capisce una parola di quello che dico comunque, quindi non importa. E poi vediamo un po'. «Credo che tu conosca Arthur Weasley!» Fu un attimo di tensione. Il signor Weasley e il signor Malfoy si scambiarono un'occhiata. Harry rammentò con chiarezza l'ultima volta che si erano trovati faccia a faccia. Era stato al ghirigoro e si erano presi a pugni. I freddi occhi grigi del signor Malfoy scivolarono sul signor Weasley e poi su e giù per la fila. «Santo cielo, Arthur!» disse tranquillamente. «Che cosa hai dovuto vendere per avere i biglietti in tribuna d'onore? Di sicuro la tua casa non valeva tanto». Fudge, che non aveva sentito, disse «Lucius ha appena fatto un'offerta molto generosa all'ospedale di San Mungo per malattie e ferite magiche, Arthur. È mio ospite qui!» «Che bel gesto!» disse il signor Weasley con un sorriso molto tirato. Gli occhi del signor Malfoy erano tornati a posarsi su Hermione, che arrossì un po', ma sostenne il suo sguardo con fermezza. Harry sapeva esattamente che cosa faceva arricciare il labbro del signor Malfoy. Lui e la sua famiglia si vantavano di essere maghi puro sangue, e cioè consideravano chiunque fosse di origini babbane, come Hermione. Comunque, in presenza del ministro della magia, il signor Malfoy non si arrischiò a dire nulla, fece solo un cenno beffardo al signor Weasley, e raggiunse i suoi posti nella fila. Draco scoccò a Harry, Ron e Hermione un'occhiata sprezzante, poi sedette tra sua madre e suo padre. «Viscidi imbecilli!» borbottò Ron, mentre lui, Harry e Hermione tornavano a guardare verso il campo. Un attimo dopo, Ludo Bugman prese posto in tribuna. «Tutti pronti?» disse, il volto rotondo radioso come una grande e citatissima forma di formaggio. «Ministro, pronto a partire?» «Quando vuoi, Ludo!» rispose Fagge tranquillamente. Ludo estrasse rapido la bacchetta, la puntò alla propria gola e disse «Sonorus!» la sua voce sovrastò il rugito che riempiva lo stadio e che giò sul pubblico, rimbombando in tutti gli angoli delle tribune. «Signore e signori, benvenuti! Benvenuti alla finale della 422esima Coppa del Mondo di Quidditch!» Gli spettatori urlarono e applaudirono. Migliaia di bandiere sventolarono, aggiungendo al frastuono i loro inni nazionali discordanti. L'enorme tabellone di fronte a loro fu sgombrato dell'ultimo messaggio. «Gelatine tutti gusti più uno! Gustate il rischio!» E vi apparve la scritta «Bulgaria zero, Irlanda zero!» «E ora, senza altri indugi, permettetemi di presentarvi le mascotte della nazionale bulgara!» Il settore destro, che era una marea compatta di rosso, emise un rugito d'approvazione. «Chissà che cosa avranno portato!» disse il signor Weasley curvandosi in avanti. «Ah!» All'improvviso si tolse gli occhiali e li pulì in fretta nell'abito. «Vila!» «Che cosa sono i vii?» La risposta venne quando un centinaio di vila si riversarono sul campo. Le vila erano donne, le donne più belle che Harry avesse mai visto, solo che non erano, non potevano essere umane. Harry rimase interdetto per un attimo, mentre cercava di indovinare che cosa potessero essere. Che cosa potesse far brillare in quel modo la loro pelle di un candore lunare, o far ondeggiare i loro capelli d'oro pallido senza che ci fosse il vento. Ma poi cominciò la musica e Harry smise di preoccuparsi del fatto che non erano umane. In effetti smise di preoccuparsi di qualunque cosa. Le vila avevano cominciato a ballare e la testa di Harry si era completamente, beatamente svuotata. Tutto ciò che importava al mondo era continuare a guardare le vila, perché se avessero smesso di ballare sarebbero successe cose terribili. E mentre le vila danzavano sempre più in fretta, brandelli di pensieri selvaggi presero a rincorrersi nella mente confusa di Harry. Voleva compiere qualcosa di molto impressionante e proprio in quel momento buttarsi giù dalla tribuna nello stadio sembrava una buona idea, ma era abbastanza buona. «Harry, che cosa stai facendo?» disse la voce di Ermione da una gran distanza. La musica cessò. Harry sbatté le palpebre. Era in piedi e una delle sue gambe era a cavalcioni del muretto della tribuna. Accanto a lui, Ron era paralizzato in una posa che lo faceva sembrare sul punto di tuffarsi da un trampolino. Urla a dirate riempivano lo stadio. La folla non voleva che le vila se ne andassero. Harry era d'accordo. Avrebbe tifato per la Bulgaria, naturalmente, e si chiese confusamente perché mai aveva un grosso trifoglio verde appuntato sul petto. Ron, nel frattempo, stava facendo distrattamente a pezzi i trifogli sul suo cappello. Il signor Weasley, con un breve sorriso, si chinò verso Ron e gli tolse il cappello dalle mani. «Lo vorrai ancora?» disse, quando l'Irlanda avrà detto la sua. «Eh?» disse Ron, fissando a bocca aperta le vila, che ora si erano allineate lungo un lato del campo. Hermione emise un chiaro sbuffo di disapprovazione, si alzò e costrinse Harry a rimettersi a sedere. «Insomma», disse. «E ora», ruggì la voce di Ludo Bagman, «gentilmente puntate in aria le bacchette, per le mascotte della nazionale irlandese!» Un attimo dopo, quella che pareva una gran cometa verde e oro, entrò saettando nello stadio. Fece un giro completo, poi si divise in due comete più piccole, che si scagliarono verso gli anelli dorati, e all'improvviso un arcobaleno si inarcò sul campo, unendo le due sfere di luce. La folla fece «Oh!» e «Ah!» come davanti a uno spettacolo di fuochi d'artificio. Poi l'arcobaleno sbiadì, e le sfere di luce si riunirono e si fusero. Avevano formato un enorme trifoglio splendente, che si alzò in cielo e prese a fluttuare sulle tribune. Qualcosa di simile a una pioggia dorata parve cadere giù. «Eccellente!» ruggì Ron, mentre dal trifoglio danzante piovevano grosse monete d'oro, rimbalzando sulle teste e sulle poltrone. Strizzando gli occhi per vedere il trifoglio, Harry si accorse che in realtà era formato da migliaia di minuscoli omini con la barba, vestiti di farsetti rossi e muniti ognuno di una piccolissima lampada verde o d'oro. «Lepricani!» urlò il signor Weasley sull'applauso tumultuoso del pubblico. In molti si stavano ancora azzuffando per raccogliere l'oro. «Ecco qua!» gridò Ron allegramente, ficcando una manciata di monete in mano a Harry. «Per l'omniocolo! Ora ti toccherà comprarmi il regalo di Natale!» L'enorme trifoglio si dissolse. I lepricani planarono sul campo dal lato opposto delle vila e sedettero a gambe incrociate per vedere la partita. «E ora, signore e signori, vogliate dare il benvenuto alla nazionale bulgara di Quidditch! Ecco a voi Dimitrov!» Una sagoma in vesti scarlatte su una scopa sfrecciò in campo, così rapida da sembrare sfocata, scatenando gli applausi vehementi dei tifosi bulgari. «Ivanova!» Una seconda giocatrice in rosso filò fuori. «Zograff! Leschi! Vulcanov! Volkov! E... Krum!» «È lui! È lui!» urlò Ron, seguendo Krum con l'omniocolo. Harry mise rapidamente a fuoco il suo. Victor Krum era magro, scuro e con la pelle olivastra, un gran naso a becco e folte sopracciglia nere. Assomigliava a un uccello da preda troppo cresciuto. Era difficile credere che avesse solo diciotto anni. «E ora vi prego di salutare la nazionale irlandese di Quidditch!» strillò Bugman. «Ecco a voi Connolly, Ryan, Troy, Mullet, Moran, Quigley e Lynch!» Sette turbini verdi sfrecciarono in campo. Harry girò una rotellina sul lato dell'omniocolo e fece rallentare i giocatori quel tanto che bastò a leggere la parola Firebolt sul fianco di ciascuna delle loro scope e a vedere i loro nomi ricamati in argento sulla schiena. «Ed ecco a voi, direttamente dall'Egitto, il nostro arbitro, l'acclamato presidente della Federazione Internazionale di Quidditch, Hassan Mustafa!» Un mago piccolo e magrolino, completamente calvo ma con un paio di baffi da far concorrenza a zio Vernon, vestito d'oro puro per intonarsi allo stadio, entrò in campo. Da sotto i baffi gli spuntava un fischietto d'argento, portava una grossa cassa di legno sotto un braccio e la sua scopa sotto l'altro. Harry riportò l'omniocolo sulla velocità normale, osservando con attenzione Mustafa che montava sulla scopa e apriva la cassa con un calcio. Quattro palle balzarono a mezz'aria, la pluffa scarlatta, i due boli di neri e, Harry lo intuì appena prima che sparisse, il minuscolo boccino d'oro alato. Con un soffio acuto di fischietto, Mustafa scattò in aria dietro le palle. «Partiti!» urlò Bugman. «E' Mullet! Troy! Moran! Dimitrov! Ancora Mullet! Troy! Leschi! Moran!» Era quiddici come Harry non l'aveva mai visto giocare prima. Teneva l'omniocolo così appiccicato agli occhi che gli occhiali si conficcavano nelle orbite. La velocità dei giocatori era incredibile. I cacciatori si passavano la pluffa così in fretta che Bugman aveva appena il tempo di dire i loro nomi. Harry girò una rotellina sulla destra dell'omniocolo, premette il pulsante «Azione per azione» e seguì la partita al rallentatore, mentre luccicanti lettere viola lampeggiavano sulle lenti e il fragore della folla gli martellava i timpani. «Formazione d'attacco testa di Falco!» lesse mentre guardava i tre cacciatori irlandesi sfrecciare vicinissimi. Troy al centro, appena un po' più avanti di Mullet e Moran, lanciarsi sui bulgari. «Passaggio di Porskov!» lampeggiò subito dopo, mentre Troy finse di scattare in alto con la pluffa, deviando la cacciatrice bulgara Ivanova e passando la pluffa a Moran. Uno dei battitori bulgari Volkov assestò un gran colpo a un bolide di passaggio con la sua piccola mazza, scaraventandolo sulla traiettoria di Moran. Moran si abbassò per evitare il bolide e lasciò cadere la pluffa e Leschi, che volava lì sotto, la prese. «Troi segna!» ruggì Bugman e lo stadio tremò all'esplosione di applausi e urla. «Dieci a zero per l'Irlanda!» «Cosa?» urlò Harry guardandosi attorno affannosamente attraverso l'omniocolo. «Malleschia la pluffa!» «Harry, se non vuoi guardare a velocità normale ti perderai un sacco di cose!» gridò Ermione, che ballava su e giù agitando per aria le braccia, mentre Troy faceva un giro d'onore del campo. Harry guardò rapido al di sopra dell'omniocolo e vide che i leplicani che seguivano la partita da bordo campo erano tutti decollati, formando in aria l'enorme trifoglio lucente. Dall'altra parte le vila li osservavano imbronciate. Furioso con se stesso, Harry girò la rotella della velocità fino a tornare in posizione normale. Il gioco riprese. Harry se ne intendeva abbastanza di Quidditch da capire che i cacciatori irlandesi erano straordinari. Lavoravano come una squadra compatta, sembrava che si leggessero nel pensiero gli schemi di gioco e la coccarda sul petto di Harry continuava a strillare i loro nomi. «Troy, Mullet, Moran!» e dieci minuti dopo l'Irlanda aveva segnato altre due volte, conducendo per 30 a zero e suscitando una tonante marea di ululati e di applausi tra i tifosi verde vestiti. La partita si fece più serrata, ma anche più brutale. Volkov e Vulkanov, i battitori bulgari, colpivano i bolidi più ferocemente che potevano per disarcionare i cacciatori irlandesi e stavano riuscendo a sabotare alcune delle loro mosse migliori. Due volte furono costretti a disperdersi e poi, alla fine, Ivanova riuscì a spezzare i ranghi avversari, a scartare il portiere Ryan e segnare il primo gol della Bulgaria. «Dita nelle orecchie!» ululò il signor Weasley mentre le vila cominciavano a danzare festanti. Harry socchiuse anche gli occhi, voleva restare concentrato sul gioco. Dopo qualche secondo azzardò un'occhiata al campo. Le vila avevano smesso di danzare e la Bulgaria era di nuovo in possesso di pluffa. «Dimitrov! Lesky! Dimitrov! Ivanova! Oh cielo!» ruggì Bugman. Centomila maghi e streghe trattennero il respiro, mentre i due cercatori, Krum e Lynch, precipitavano in mezzo ai cacciatori, così rapidi che parve che si fossero appena lanciati da un aereo senza paracadute. Harry seguì la loro discesa con l'omniocolo, strizzando gli occhi per vedere dov'era il boccino. «Si schianteranno!» urlò Hermione accanto a Harry. Aveva quasi ragione. All'ultimissimo istante Victor Krum interruppe la picchiata e ne uscì volando a spirale. Lynch, invece, colpì il suolo con un tonfo sordo che riecheggiò per tutto lo stadio. Un alto lamento si levò dalle tribune irlandesi. «Sciocco!» gemette il signor Weasley. «Quella di Krum era una finta!» «Time out!» urlò Bugman. «Intanto, medi maghi professionisti corrono in campo a verificare le condizioni di Hayden Lynch!» «Andrà tutto bene, è stato solo sbalzato via», disse Charlie in tono rassicurante a Ginny, che era aggrappata al bordo della tribuna, terrificata. Ed era proprio quello che voleva Krum, naturalmente. Harry premette in fretta i pulsanti «Replay» e «Azione per azione» del suo omniocolo. Ruotò appena la rotella della velocità e se li portò di nuovo agli occhi. Guardò Krum e Lynch scendere di nuovo in picchiata al rallentatore. «Finta Wronsky! Pericolosa azione diversiva tra cercatori», recitavano le lucenti lettere viola oltre le lenti. Vide il viso di Krum deformato nello sforzo di concentrazione mentre scartava dalla picchiata appena in tempo, mentre Lynch si schiantava. E capì, Krum non aveva affatto visto il boccino, voleva solo che Lynch lo imitasse. Harry non aveva mai visto nessuno volare così. Krum si muoveva nell'aria apparentemente senza peso, con tale naturalezza che non sembrava nemmeno usare una scopa. Harry riportò l'omniocolo a velocità normale e mise a fuoco Krum. Stava volando in alti cerchi sopra Lynch, che in quel momento veniva rianimato dai medi maghi con calici di pozione. Harry usò lo zoom per inquadrare il viso di Krum e vide i suoi occhi scuri dardeggiare per tutto il campo, trenta metri sotto. Stava usando il tempo in cui Lynch veniva rianimato per individuare il boccino senza interferenze. Lynch finalmente si rialzò, salutato da alte grida dei tifosi verdi, risalì sulla Firebolt e si levò di nuovo in aria. Il suo ritorno parve dare nuova forza all'Irlanda. Quando Mustafa fischiò di nuovo, i cacciatori si misero in moto con un'abilità impareggiabile, che Harry mai aveva visto prima. Dopo altri 15 serrati furibondi minuti, l'Irlanda era in testa di altri 10 gol. Ora conduceva per 130 a 10 e il gioco cominciava a farsi più sporco. Mentre Mullet sfrecciava di nuovo tra le porte, tenendo stretta la pluffa sotto il braccio, il portiere bulgaro Zograf scattò per prenderla. Ciò che accadde si concluse così in fretta che Harry non riuscì a capire, ma un urlo di rabbia dalle folle irlandesi e il lungo, acutissimo fischio di Mustafa gli dissero che era stato commesso fallo. «E Mustafa richiama il portiere bulgaro per sgomitate! Uso eccessivo dei gomiti!» Bugman informò gli spettatori urlanti. «E sì, punizione per l'Irlanda!» I lepricani, che si erano alzati infuriati a mezz'aria, come uno sciame di calabroni lucenti quando era stato commesso fallo su Mullet, ora scattarono insieme per formare le parole «Ha! Ha! Ha!». Le vila dall'altra parte del campo balzarono in piedi, scossero orecchiome con rabbia e ripresero a danzare. Tutti insieme, i ragazzi Weasley e Harry si tapparono le orecchie, ma Ermione, che non ci aveva badato, cominciò a tirare Harry per il braccio. Lui si voltò a guardarla e lei gli sfilò impaziente le dita dalle orecchie. «Guarda l'arbitro!» disse con una risatina. Harry guardò. Hassan Mustafa era atterrato proprio davanti alle vila danzanti e si stava comportando in modo davvero strano. Gonfiava i muscoli e si accarezzava i baffi con aria seducente. «Insomma, non possiamo tollerarlo!» disse Ludo Bugman, anche se in tono molto divertito. «Qualcuno schiaffeggi l'arbitro!» Un medimago attraversò il campo, le dita infilate nelle orecchie, e diede a Mustafa un calcio negli stinchi. Quest'ultimo parve tornare in sé. Attraverso l'omniocolo Harry vide che sembrava straordinariamente imbarazzato e gridava contro le vila che avevano smesso di danzare e sembravano ostili. «E a meno che non mi sbagli di grosso, Mustafa sta davvero tentando di espellere le mascotte della nazionale bulgara!» disse Bugman. «Questa sì che è una cosa a cui non abbiamo mai assistito! Oh, le cose potrebbero volgere al peggio!» E fu così. I battitori bulgari Volkov e Vulkanov erano atterrati ai lati di Mustafa e presero a litigare furiosamente con lui, gesticolando verso i lepricani, che in segno di scherno avevano formato le parole «He, he, he!» Mustafa non si lasciò impressionare dagli argomenti dei bulgari. Agitava il dito in aria e chiaramente diceva loro di riprendere il volo e quando si rifiutarono emise due fischi brevi col suo fischietto. «Due punizioni per l'Irlanda!» urlò Bugman e la folla bulgara ululò di rabbia. «E Volkov e Vulkanov farebbero bene a tornare su quelle scope! Sì, ecco che partono! E Troi prende la pruffa!» Il gioco raggiunse un livello di ferocia mai visto prima. I battitori di entrambi i fronti agivano senza pietà. Volkov e Vulkanov roteavano con violenza le loro mazze e non sembravano avere scrupoli su chi o che cosa colpivano. Dimitrov mirò dritto su Moran, che aveva la pluffa, e quasi la disarcionò dalla scopa. «Fallo!» ulularono i tifosi irlandesi come un solo uomo, tutti in piedi in un'enorme ondata verde. «Fallo!» fece loro ecco la voce di Ludo Bugman, magicamente amplificata. «Dimitrov colpisce Moran! Ha volato allo spopo deliberato di urtarla e ci dovrebbe essere un'altra punizione! Sì, ecco il fischio dell'arbitro!» I leplicani si erano rialzati a mezz'aria e questa volta formarono una mano gigante, che faceva un gesto molto maleducato rivolto alle vila dall'altra parte del campo. Per tutta risposta le vila persero il controllo, si lanciarono attraverso il campo scagliando palle di fuoco contro i leplicani. Harry vide attraverso l'omniocolo che non erano affatto belle in quel momento. Al contrario, i loro volti si allungavano in affilate teste d'uncello dai becchi feroci e lunghe ali squamose spuntavano dalle loro spalle. «E questo, ragazzi!» urrò il signor Weasley sul tumulto della folla sottostante. «È il motivo per cui non bisogna mai fermarsi all'apparenza!» Maghi del ministero si affrettarono a scendere in campo per separare le vila dai leplicani, ma con scarso successo. Nel frattempo la battaglia campale di sotto non era nulla paragonata a quella in alto. Harry guardava da una parte e dall'altra con l'omniocolo, mentre la pluffa cambiava mani con la velocità di un proiettile. «Lesky! Dimitrov! Moran! Troi! Mullet! Ivanova! Ancora Moran! 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 Segna!» Ma le urla entusiaste dei tifosi irlandesi si sentivano a stento sopra gli strilli delle vila, gli scoppi che uscivano dalle bacchette dei membri del ministero e i ruggiti rabbiosi dei bulgari. La partita riprese immediatamente. Ora Lesky aveva la pluffa, ora Dimitrov. Il battitore irlandese, Quigley, sferrò un gran colpo a un bolide di passaggio e lo spedì più forte che poteva verso Krum, che non si scansò abbastanza in fretta. Il bolide lo colpì forte in faccia. Dalla folla si alzò un gemito assordante. Il naso di Krum sembrava rotto, c'era sangue dappertutto, ma San Mustafa non fischiò. Era come distratto e Harry non poteva biasimarlo. Una delle vila aveva scagliato una palla di fuoco e aveva incendiato la sua scopa. Harry desiderò che qualcuno capisse che Krum era ferito. Anche se tifava per l'Irlanda, Krum era il giocatore più emozionante in campo. Ron la pensava chiaramente allo stesso modo. «Time out! Andiamo! Non può giocare così! Guardatelo! Guardate Lynch!» urlò Harry, perché il cercatore irlandese si era all'improvviso lanciato in picchiata e Harry era quasi certo che non si trattasse di una finta Vronsky. Questa volta era per davvero. «Ha visto il boccino?» urlò Harry. «L'ha visto! Guardate! Ecco che va!» Metà dello stadio parve aver capito cosa stava accadendo. I tifosi irlandesi si alzarono in un'enorme onda verde, incitando il loro cercatore, ma Krum gli stava alle calcagna. Harry si domandò come facesse a vedere dove stava andando. C'erano schizzi di sangue nella sua scia, ma ormai era quasi testa a testa con Lynch, mentre entrambi precipitavano di nuovo verso il suolo. «Si schianteranno!» strillò Ermione. «No!» ruggì Ron. «Lynch sì!» gridò Harry, e aveva ragione. Per la seconda volta Lynch colpì il terreno con forza tremenda e fu immediatamente circondato da un'orda di vila infuriate. «Il boccino! Dov'è il boccino!» ululò Charlie nella mischia. «Ce l'ha! Krum l'ha preso! È finita!» gridò Harry. Krum, gli abiti rossi luccicanti del sangue che gli colava dal naso, saliva dolcemente per aria, il pugno in alto, un bagliore d'oro racchiuso nella mano. Il tabellone lampeggiava «Bulgaria 160, Irlanda 170», oltre la folla, che non poteva aver capito che cos'era successo. Poi lentamente, come se un enorme jumbo jet stesse andando su di giri, il rombo dei tifosi irlandesi divenne sempre più forte ed esplose in urla di gioia. «Vince l'Irlanda!» gridò Bugman, che come gli irlandesi sembrava essere stato preso alla sprovvista dalla fine improvvisa della partita. «Krum prende il boccino, ma vince l'Irlanda! Santo cielo! Credo che nessuno di noi se lo aspettasse!» «Perché ha preso il boccino?» strillò Ron mentre saltava su e giù, applaudendo con le braccia tese sopra la testa. «Ha chiuso la partita quando l'Irlanda era in testa di 160 punti, quell'idiota!» «Sapeva che non avrebbero mai potuto rimontare!» gli rispose urlando Harry sopra il frastuono, applaudendo forte anche lui. «I cacciatori irlandesi erano troppo bravi! Voleva finire a modo suo tutto qui!» «È stato molto coraggioso, vero?» disse Ermione sporgendosi per guardare Krum che atterrava e lo sciame di Medimaghi che si apriva un varco a bacchettate tra i lepricani e le vila in piena rissa per raggiungerlo. «Sembra ridotto male!» Harry riportò l'omniocolo agli occhi. Era difficile vedere che cosa succedeva di sotto, perché i lepricani sfrecciavano esilarati per tutto il campo, ma riuscì a distinguere Krum circondato da Medimaghi. Sembrava più corrucciato che mai e non permise che gli tamponassero il sangue. I suoi compagni di squadra lo attorniamano scuotendo la testa con aria sconfitta. Poco più in là, i giocatori irlandesi ballavano in una pioggia d'oro che scendeva dalle loro mascotte. Per tutto lo stadio sventolavano bandiere, l'inno nazionale irlandese risuonava da tutte le parti. Le vila stavano tornando al loro consueto bell'aspetto, benché scoraggiate e depresse. «Beh, abbiamo giocato bene», disse una voce sconfortata alle spalle di Harry. Lui si voltò, era il ministro della magia bulgaro. «Lei parla inglese», disse Faggi in tono offeso, «e mi ha fatto parlare a gesti per tutto il giorno». «Beh, ha stato molto divertente», disse il ministro bulgaro con un'alzata di spalle. «E mentre la nazionale irlandese fa un giro d'onore, accompagnata dalle sue mascotte, la Coppa del Mondo di Quidditch viene portata in tribuna d'onore», ruggì Bugman. Gli occhi di Harry furono improvvisamente abbagliati da una cecante luce bianca, mentre la tribuna d'onore si illuminava per magia, così che dagli spalti tutti potessero vederne l'interno. Strizzando gli occhi verso l'ingresso, vide due maghi affannati che trasportavano in tribuna un'enorme Coppa d'Oro. La consegnarono a Cornelius Fudge, ancora molto irritato al pensiero di aver parlato a gesti tutto il giorno per niente. «E ora un bel applauso ai prodi sconfitti, la Bulgaria!» urlò Bugman. E dalle scale entrarono in tribuna i sette giocatori bulgari battuti. La folla applaudiva in segno di stima. Harry vide migliaia e migliaia di lenti di omniocoli che lampeggiavano e ammiccavano nella loro direzione. Uno per uno i bulgari sfilarono tra gli ordini di posti della tribuna, e Bugman gridò il nome di ciascuno, mentre stringevano la mano al loro ministro e poi a Fudge. Crum, che era l'ultimo, era davvero in condizioni disastrose. Sul viso insanguinato, due occhi pesti gli si stavano gonfiando a velocità spettacolare. Teneva ancora il boccino. Harry notò che a terra sembrava molto meno coordinato. Aveva un'andatura da papera e le spalle piuttosto cascanti. Ma quando venne pronunciato il suo nome, tutto lo stadio rispose con un boato spaccatimpani. E poi venne la nazionale irlandese. Hayden Lynch era sorretto da Moran e Connolly. Il secondo schianto sembrava averlo intontito e aveva uno sguardo decisamente annebbiato. Ma fece un sorriso allegro quando Troy e Quigley sollevarono la coppa e la folla di sotto tuonò la sua approvazione. Harry non si sentiva più le mani dagli applausi. Finalmente, quando la nazionale irlandese si fu allontanata dalla tribuna per compiere un altro giro d'onore a cavallo delle scope, Hayden Lynch saldamente aggrappato a Connolly continuando a sorridere vagamente perplesso, Bugman puntò la bacchetta contro la propria gola e mormorò. «Quietus!» «Se ne parlerà per anni», disse con voce roca. «Un colpo di scena davvero inaspettato quello. Peccato che non sia potuta durare di più. Ah sì, sì, vi devo quanto?» Fred e George avevano appena scavalcato i loro sedili ed erano in piedi davanti al ludo Bugman con un gran sorriso stampato in faccia e le mani tese. Il marchio nero «Non dite a vostra madre che avete scommesso», implorò il signor Weasley rivolto a Fred e George, mentre tutti quanti scendevano lentamente le scale. «Non preoccuparti, papà», disse Fred allegro. «Abbiamo grandi progetti per questo denaro, non vogliamo farcelo requisire». Per un attimo il signor Weasley sembrò sul punto di chiedere di quali progetti si trattasse, ma poi, dopo una breve riflessione, decise che non voleva saperlo. Ben presto si trovarono imbottigliati nella folla in uscita dallo stadio verso il campeggio. Canti rauchi si levavano nell'aria notturna, mentre li percorrevano il cammino lungo il sentiero illuminato dalle lanterne, e i lepricani continuavano a sfrecciare sopra le loro teste, ridacchiando e agitando i loro lumini. Quando finalmente raggiunsero le tende, nessuno aveva voglia di dormire, e visto il livello di chiasso attorno a loro, il signor Weasley decise che potevano prendere un'ultima tazza di cioccolata insieme prima di coricarsi. Ben presto si ritrovarono a discutere animatamente sulla partita. Il signor Weasley si fece trascinare in una disputa con Charlie sulle sgomitate, e fu solo quando Ginny cadde addormentata sul tavolino e rovesciò cioccolata calda su tutto il pavimento, che il signor Weasley dette un taglio ai commenti e li mandò tutti a letto. Ermione e Ginny entrarono nella tenda accanto, e Harry e gli altri Weasley si infilarono il pigiama e si arrampicarono nei loro letti a castello. Dall'altra parte del campeggio si udivano ancora canti e l'eco di qualche sporadica esplosione. «Oh, sono felice di non essere in servizio», borbottò il signor Weasley assonnato. «Non mi piacerebbe proprio dover andare a dire agli irlandesi che devono smettere di festeggiare». Nel letto sopra quello di Ron, Harry rimase sveglio a fissare il soffitto di tela, da cui trapelava ogni tanto il bagliore di un'occasionale lanterna di lepricani, rivivendo nel pensiero alcune delle più spettacolari azioni di Krum. Moriva dalla voglia di tornare a cavallo della sua Firebolt e provare la finta Vronsky. Con tutti i suoi schemi contorti, Oliver Wood non era mai riuscito a spiegare per bene come fare quell'azione. Harry si figurò con indosso una divisa con il suo nome ricamato sulla schiena, e immaginò la sensazione che si doveva provare ascoltando il ruggito di una folla di centomila persone, mentre la voce di Ludo Bugman echeggiava per tutto lo stadio. «Ecco a voi, Potter!» Harry non seppe mai se si fosse veramente addormentato o no. Le sue fantasticherie sul volare come Krum potevano anche essersi trasformate in sogni veri e propri. Seppe solo che all'improvviso il signor Weasley stava urlando. «Alzatevi! Ron! Harry! Venite subito! Alzatevi presto!» Harry balzò a sedere e urtò la tela con la testa. «Cosa succede?» disse. Intuiva vagamente che qualcosa non andava. I rumori nel campeggio erano cambiati, i canti erano finiti. Udì grida e il rumore di passi di corsa. Scivolò giù dal letto a castello e cercò i suoi vestiti, ma il signor Weasley, che si era infilato i jeans sul pigiama, disse «Non c'è tempo, Harry! Prendi una giacca ed esci in fretta!» Harry eseguì e si precipitò fuori dalla tenda, seguito da Ron. Alla luce dei pochi fuochi ancora accesi vide gente che correva nei boschi, sfuggendo a qualcosa che si muoveva nel campo verso di loro, qualcosa che emetteva strani lampi di luce e rumori simili a spari. Alti ululati, risate fragolose e urla di ubriachi avanzavano dalla loro parte. Poi ci fu un'esplosione di intensa luce verde che illuminò la scena. Una folla di maghi avanzava lentamente nel campo a ranghi serrati, le bacchette puntate verso l'alto. Harry strizzò gli occhi per vedere meglio. Sembrava che non avessero faccia. Poi capì che erano incappucciati. Sopra di loro, a mezz'aria, quattro sagome si divincolavano e si contorcevano in forme grottesche. Due di esse erano molto piccole. Era come se i maghi mascherati fossero burattinai e le sagome sopra di loro burattini azionati da fili invisibili che spuntavano dalle bacchette. Altri maghi si univano al gruppo, ridendo e additando i corpi galleggianti in alto. Tende si affrosciavano e mentre la folla in marcia aumentava. Una o due volte Harry vide uno dei maghi far saltar via una tenda dal suo cammino con la bacchetta. Parecchie presero fuoco, le urla si fecero più alte. Il rogo di una tenda illuminò all'improvviso le persone in aria e Harry riconobbe una di loro. Era il signor Roberts, il direttore del campeggio. Gli altri tre dovevano essere sua moglie e i suoi figli. A un tocco di bacchetta di uno dei maghi in marcia la signora Roberts si ribaltò a testa in giù e la camicia da notte ricadde rivelando ampi mutandoni. Lei cercò di coprirsi mentre la folla al di sotto strillava e fischiava sguaiatamente. «È orribile!» mormorò Ron, guardando il più piccolo dei bambini babbani che aveva cominciato a girare come una trottola a venti metri dal suolo la testa che ciondolava da una parte all'altra. «È davvero orribile!» Hermione e Ginny li raggiunsero di corsa, infilandosi le giacche sulle camicie da notte, con il signor Weasley alle loro spalle. Nello stesso istante Bill, Charlie e Percy affiorarono dalla tenda dei ragazzi, completamente vestiti, con le maniche rimboccate e le bacchette in pugno. «Andiamo a dare una mano al ministero!» gridò il signor Weasley sopra il frastuono, arrotolandosi le maniche a sua volta. «Voi altri, entrate nel bosco e restate uniti! Verrò a prendervi quando avremo sistemato la faccenda!» Bill, Charlie e Percy stavano già sfrecciando verso la folla. Il signor Weasley si lanciò dietro di loro. Maghi del ministero accorrevano da ogni parte. La moltitudine sotto i Roberts era sempre più vicina. «Andiamo!» disse Fred, prendendo per mano Ginny e trascinandola verso il bosco. Harry, Ron, Hermione e George li seguirono. Una volta raggiunti gli alberi, si voltarono. Videro i maghi del ministero cercare di attraversare la calca per raggiungere i maghi incappucciati al centro, ma era un'impresa difficile. Parevano non voler scagliare incantesimi che rischiassero di far precipitare i Roberts. Le lanterne colorate lungo il sentiero verso lo stadio erano state spente. Cupe sagome inciampavano tra gli alberi. I bambini piangevano, urla angosciate e voci per vase dal panico rimbombavano attorno a loro nella fredda aria notturna. Harry si sentì spingere di qua e di là da gente di cui non poteva vedere il volto. Poi sentì Ron gridare di dolore. «Che cosa è successo?» esclamò Hermione agitata, fermandosi così di colpo che Harry le rovinò addosso. «Ron, dove sei?» «Oh, che stupida! Lumos!» illuminò la sua bacchetta e puntò il raggio sottile sul sentiero. Ron era disteso a terra. «Sono inciampato su una radice!» sbottò rialzandosi. «Beh, con dei piedi di quelle dimensioni è difficile evitarlo», disse una voce melliflu alle loro spalle. Harry, Ron e Hermione si voltarono di scatto. Draco Malfoy era lì accanto a loro, solo, appoggiato a un albero, decisamente rilassato. Le braccia incrociate, evidentemente, aveva seguito la scena del campeggio attraverso gli alberi. Ron disse a Malfoy di fare una cosa che, Harry lo sapeva, non avrebbe mai osato menzionare davanti al signor Weasley. «Modera il linguaggio, Weasley!» disse Malfoy, i palli di occhi scintillanti. «Non è meglio che vi muoviate adesso? Non vorrete che riconoscano anche lei, vero?» indicò Hermione con un cenno e nello stesso istante un'esplosione come di una bomba e che giò dal campeggio e un lampo di luce verde illuminò per un attimo gli alberi attorno a loro. «Che cosa vorresti dire?» esclamò Hermione in tono di sfida. «Granger, stanno cercando i babbani», disse Malfoy. «Vuoi far vedere le mutande a tutti? Perché se è questo che vuoi, aspetta solo un attimo. Vengono di qua e almeno ci faremo una bella risata!» «Ermione è una strega!» sibilò Harry. «Vedila un po' come ti pare, Potter!» disse Malfoy con un sorriso perfido. «Se credi che non possano riconoscere una sangue marcio, restate pure dove siete!» «Bada come parli!» gridò Ron. Tutti sapevano che sangue marcio era un termine molto offensivo, che indicava una strega o un mago di origini babbane. «Lascia stare, Ron!» disse in fretta Hermione, trattenendolo per un braccio mentre faceva un passo verso Malfoy. Poi, oltre gli alberi, risuonò un'esplosione più fragorosa che mai. Parecchie persone vicine urlarono. Malfoy ridacchiò piano. «Si spaventano per un non nulla, vero?» disse pigramente. «Immagino che tuo padre abbia detto a tutti quanti di nascondersi. Che cosa sta facendo? Cerca di salvare i babbani?» «Dove sono i tuoi genitori?» disse Harry, sempre più arrabbiato. «Là fuori con il cappuccio in testa, vero?» Malfoy si rivolse a Harry, senza smettere di sorridere. «Beh, se lo fossero, non verrei a dirlo a te, vero, Potter?» «Oh, insomma!» intervenne Hermione, scoccando uno sguardo di disgusto a Malfoy. «Andiamo a cercare gli altri!» «Tieni giù quel tuo testone, Granger!» soghignò Malfoy. «Andiamo!» ripetè Hermione, trascinando Ron e Harry di nuovo sul sentiero. «Scommetto quello che vuoi, che suo padre è uno di quelli incappucciati!» esclamò Ron veemente. «Beh, con un po' di fortuna quelli del ministero lo prenderanno!» disse Hermione con fervore. «Oh, non ci posso credere! Dove sono finiti gli altri?» Fred, George e Ginny non si vedevano da nessuna parte, anche se il sentiero era pieno di gente che guardava nervosamente verso il fragore che proveniva dal campeggio. Un gruppo di ragazzini in pigiama stava litigando ad alta voce un po' più avanti. Quando videro Harry, Ron e Hermione, una ragazza con fitti capelli ricci si voltò e chiese in fretta. «O'è, Madame Maxime? Nous l'avons perdue!» «Cosa?» disse Harry. «Oh!» la ragazza che aveva parlato gli voltò le spalle e, mentre continuavano la marcia, la sentirono dire chiaramente «Hogwald!» «Bobaton!» borbottò Hermione. «Come hai detto?» disse Harry. «Devono essere di Bobaton!» disse Hermione. «Sai, l'Accademia della Magia di Bobaton. Ho letto delle cose su compendio sull'istruzione magica in Europa.» «Oh, sì, certo!» disse Harry. «Fred e George non possono essere andati così lontani!» disse Ron estraendo la bacchetta e accendendola per illuminare il sentiero. Harry frugò nelle tasche della giacca in cerca della sua bacchetta, ma lì non c'era. L'unica cosa che vi trovò fu l'omniocolo. «Oh no! Non è possibile! Ho perso la bacchetta!» «Stai scherzando!» Ron e Hermione alzarono le loro quel tanto che bastava per aumentare l'ampiezza dello stretto cono di luce sul terreno. Harry guardò dappertutto nei dintorni, ma la sua bacchetta non si vedeva. «Forse è rimasta nella tenda!» disse Ron. «Forse ti è caduta dalla tasca mentre correvi!» suggerì Hermione ansiosa. «Sì!» disse Harry. «Forse!» Di solito portava sempre con sé la bacchetta nel mondo magico, e ritrovarsi senza nel bel mezzo di una situazione come quella lo fece sentire molto vulnerabile. Un fruscio li fece sobbalzare tutti e tre. Winky, l'elfa domestica, si stava aprendo la strada in un mucchio di cespugli lì vicino. Si muoveva in modo singolare, apparentemente con grande difficoltà. Era come se una mano invisibile cercasse di trattenerla. «C'è cattivi maghi in giro!» squittì follemente, mentre si chinava in avanti e si sforzava di continuare a correre. «Gente in alto! In alto per aria! Winky, si toglie di torno!» e scomparve tra gli alberi, dall'altra parte del sentiero, ansando e squittendo, mentre lottava contro la forza che la contrastava. «Che cos'ha?» disse Ron, guardando incuriosito nella direzione in cui era sparita. «Perché non riesce a correre?» «Scommetto che non ha chiesto il permesso di nascondersi», disse Harry. Stava pensando a Dobby. Tutte le volte che aveva cercato di fare qualcosa che non sarebbe piaciuto ai malfoi, era stato costretto a punirsi. «Ma insomma, gli elfi domestici sono trattati in maniera brutale!» esclamò Ermione indignata. «È schiavitù! Ecco cos'è! Quel signor Crouch l'ha costretta a salire fino in cima allo stadio ed era terrorizzata e l'ha stregata, così lei non può nemmeno correre quando cominciano a calpestare le tende. Perché qualcuno non fa qualcosa!» «Beh, gli elfi sono contenti così, vero?» disse Ron. «Hai sentito la vecchia Winky alla partita? Gli elfi domestici non devono divertirsi! È questo che le piace, farsi comandare a bacchetta!» «È la gente come te, Ron», cominciò Ermione infervorata, «che appoggia sistemi marci e ingiusti, solo perché è troppo pigra per...» Un'altra forte esplosione e cheggiò dal limitare del bosco. «Muoviamoci di qui, va bene?» disse Ron e Harry lo vide guardare Ermione nervosamente. Forse c'era del vero in quello che aveva detto Malfoy, forse Ermione era più in pericolo di loro. Ripartirono. Harry si frugò ancora le tasche, pur sapendo che la sua bacchetta non era lì. Seguirono il sentiero oscuro nel profondo del bosco, continuando a guardarsi intorno alla ricerca di Fred, George e Ginny. Superarono un gruppo di goblin che ridacchiavano su un sacco d'oro che evidentemente avevano vinto scommettendo sul risultato della partita e che sembravano piuttosto indifferenti ai tafferugli del campeggio. Più avanti entrarono in una macchia di luce argentea e tra gli alberi videro tre vila, alte e bellissime, in una radura, circondate da un gruppo di giovani maghi che parlavano tutti a voce molto alta. Io guadagno cento sacchi di galeoni l'anno, gridò uno di loro. Faccio il killer di draghi per il comitato per la soppressione delle creature pericolose. No, non è vero, strillò il suo amico. Tu fai il lavapiatti al paiolo magico, ma io sono un cacciatore di vampiri, ne ho uccisi novanta finora. Un terzo giovane mago, con brufoli ben visibili anche alla tenue luce argentea delle vila, si intromise. Io sto per diventare il ministro della magia più giovane che ci sia mai stato, io. Harry soffocò le risate. Aveva riconosciuto il mago brufoloso. Si chiamava Stan Tiracorto e, in verità, era il bigliettaio dell'autobus magico a tre piani, nottetempo. Si voltò per dirlo a Ron, ma la faccia del ragazzo era diventata stranamente languida e, un attimo dopo, Ron urlò. Ve l'ho detto che ho inventato una scopa che viaggerà fino a Giove? Ma insomma, disse di nuovo Ermione, e lei e Harry afferrarono saldamente Ron per le braccia, lo costrinsero a voltarsi e lo trascinarono via. Erano ormai nel cuore della foresta, quando le voci delle vila e dei loro ammiratori svanirono del tutto. Non c'era nessuno, tutto era molto più tranquillo. Harry si guardò intorno. Direi che possiamo aspettare qui, sentiremo chiunque si avvicini a un chilometro di distanza. Aveva appena finito di parlare che Ludo Bugman spuntò da dietro un albero proprio davanti a loro. Anche alla flebile luce delle due bacchette, Harry si accorse che Bugman era cambiato parecchio. Non era più Ilari e Roseo, non saltellava più, era molto pallido e teso. «Chi siete?» disse sbattendo le palpebre verso di loro, cercando di distinguere i loro volti. «Che cosa ci fate qui tutti soli?» I ragazzi si guardarono sorpresi. «Beh, c'è una specie di rivolta», disse Ron. Bugman lo fissò. «Cosa?» «Al campeggio. Dell'agente ha preso in ostaggio una famiglia di babbani». Bugman imprecò ad alta voce. «Dannazione!» esclamò sconvolto e senza aggiungere altro si smaterializzò con un piccolo pop. «Non è proprio sveglissimo il signor Bugman, vero?» disse Hermione aggrottando le sopracciglia. «È stato un grande battitore, comunque», disse Ron, guidandoli dal sentiero in una piccola radura e sedendosi su una zolla di erba secca ai piedi di un albero. Le vespe di Wimborne hanno vinto il campionato tre volte di fila quando c'era lui in squadra. Estrasse dalla tasca il modellino di Krum, lo posò a terra e lo guardò camminare per un po'. Come il vero Krum, il pupazzo aveva un'andatura a papera e le spalle spioventi, e faceva molta meno impressione con quei piedi in fuori che a cavallo della sua scopa. Harry tese l'orecchio per cogliere i rumori provenienti dal campeggio. Tutto sembrava tranquillo. Forse la rivolta era finita. «Spero che gli altri stiano bene», disse Hermione dopo un po'. «Saranno benissimo», disse Ron. «Pensa se tuo padre mette le mani sul Lucius Malfoy», disse Harry, sedendosi vicino a Ron e osservando il Krum in miniatura trascinarsi sulle foglie cadute. «Ha sempre detto che gli piacerebbe incastrarlo. Almeno questo cancellerebbe quella smorfia dalla faccia di Draco, certo», disse Ron. «Quei poveri babbani però», disse Hermione tesa. «E se non riescono a farli scendere?» «Li tireranno giù», disse Ron con fare rassicurante. «Troveranno il modo». «È una follia comunque fare una cosa del genere proprio stasera che c'è il ministero della magia al completo», aggiunse Hermione. «Voglio dire, come pensano di cavarsela? Credete che abbiano bevuto o sono solo...» Ma si interruppe di colpo e si guardò alle spalle. Anche Harry e Ron si guardarono rapidamente attorno. Era come se qualcuno avanzasse barcollando verso la radura. Attesero, ascoltando i suoni dei passi irregolari dietro gli alberi scuri, ma i passi si fermarono all'improvviso. «C'è nessuno?», gridò Harry. Silenzio. Harry si alzò e guardò dietro l'albero. Era troppo buio per vedere molto oltre, ma avvertì qualcuno appena al di là del suo campo visivo. «Chi c'è?», disse. E poi, di colpo, una voce ruppe il silenzio, una voce diversa da tutte quelle che avevano udito nel bosco, che non gridò di terrore, ma pronunciò una specie di incantesimo. «Mors Mordre!». E qualcosa di enorme, verde e lucente, sbucò dalla pozza di oscurità che gli occhi di Harry avevano tentato di penetrare. Volò oltre le cime degli alberi, su in cielo. «Cosa dia?», sussultò Ron, balzando di nuovo in piedi e fissando la cosa. Per un attimo, Harry pensò che fosse un'altra formazione di lepricani. Poi vide. Era un teschio colossale, fatto come di stelle di smeraldo e con un serpente che gli usciva dalla bocca come una lingua. Si levò sempre più in alto, sotto i loro occhi, stagliandosi vivido in una cortina di fumo verdastro, stampato contro il cielo nero come una nuova costellazione. All'improvviso, nel bosco tutto attorno a loro, esplosero le grida. Harry non capiva perché, ma l'unica causa possibile era l'improvvisa comparsa del teschio, ora abbastanza alto da illuminare il bosco intero, come un sinistro cartellone al neon. Scrutò l'oscurità in cerca della persona che aveva evocato il teschio, ma non vide nessuno. «Chi è là?», gridò di nuovo. Hermione afferrò il dorso della sua giacca e lo tirò indietro. «Harry, andiamo, muoviti!» «Che cosa succede?», chiese Harry, scosso nel vederla tanto pallida e terrorizzata. «E' il marchio nero, Harry», gemette Hermione, tirandolo più forte che poteva, in segno di «Tu sai chi?» «Di Voldemort!» «Harry, andiamo!» Harry si voltò. Ron stava raccogliendo in fretta il suo mini-crum e tutti e tre sfrecciarono attraverso la radura, ma prima che potessero fare più di qualche passo affrettato, una serie di scoppiettii annunciò l'arrivo di una ventina di maghi che apparvero dal nulla e li circondarono. Harry si voltò di scatto e realizzò all'istante. Ogni mago aveva la bacchetta in mano e ogni bacchetta puntava dritto su lui, Ron e Hermione. Senza riflettere urlò «Joe!», afferrò gli altri due e li tirò a forza per terra. «Stupeficium!», ruggirono venti voci. Ci fu una serie di lampi accecanti e Harry sentì i capelli rizzarsi sulla nuca come se un vento potente avesse spazzato la radura. Alzando appena la testa vide lampi di luce di un rosso vivo scaturire dalle bacchette dei maghi e volare sopra di loro, incrociandosi, rimbalzando sui tronchi, sfrecciando indietro nel buio. «Basta!», urlò una voce che riconobbe. «Basta! Quello è mio figlio!». I capelli di Harry cessarono di svolazzare. Alzò la testa un po' di più. Il mago davanti a lui aveva abbassato la bacchetta. Rotolò sulla schiena e vide il signor Weasley che avanzava verso di loro con aria terrorizzata. «Ron! Harry!», disse con voce tremante. «Hermione! State tutti bene?». «Togliti di mezzo, Arthur!», disse una fredda voce asciutta. Era il signor Crouch. Lui e gli altri maghi del ministero li stavano accerchiando. Harry si alzò per affrontarli. Il viso di Crouch era teso di rabbia. «Chi di voi è stato?», esplose lo sguardo tagliente che scattava da uno all'altro. «Chi di voi ha evocato il marchio nero?». «Non siamo stati noi», disse Harry indicando il teschio in alto. «Non abbiamo fatto niente», disse Ron, che si stava sfregando il gomito e guardava indignato suo padre. «Perché volevate attaccarci?». «Non mentite, signori!», urlò Crouch. La sua bacchetta era ancora puntata dritta su Ron e aveva gli occhi fuori dalle orbite. Sembrava un pazzo. «Siete stati sorpresi sul luogo del delitto!» «Barty!», sussurrò una strega avvolta in una lunga vestaglia di lana. «Sono ragazzi, Barty! Non sarebbero mai stati in grado di...» «Da dove è venuto il marchio, voi tre?», disse in fretta il signor Weasley. «Da là!», rispose Ermione con voce tremante, indicando il luogo dove avevano sentito la voce. «C'era qualcuno dietro gli alberi. Hanno urlato delle parole, un incantesimo!» «Oh, erano là, eh?», disse il signor Crouch, gli occhi sporgenti piantati su Ermione, l'incredulità stampata in faccia. «Hanno scagliato un incantesimo, vero? Sembra molto ben informata su come si evoca il marchio, signorina!» Ma nessuno dei maghi del ministero, eccetto Crouch, pareva credere anche solo vagamente che Harry, Ron o Ermione avessero evocato il teschio. Al contrario, alle parole di Ermione avevano di nuovo alzato le bacchette e le avevano puntate nella direzione indicata, scrutando tra gli alberi oscuri. «Siamo arrivati troppo tardi», disse la strega in vestaglia, scuotendo il capo. «Si saranno smaterializzati». «Non credo», disse un mago con un'ispida barba bruna. Era Amos Diggory, il padre di Cedric. «I nostri schiantesimi sono andati dritti tra quegli alberi. Ci sono buone probabilità che li prendiamo». «Amos, fai attenzione», dissero alcuni maghi allarmati, mentre Diggory raddrizzava le spalle, alzava la bacchetta, attraversava la radura e spariva nell'oscurità. Con le mani sulla bocca, Ermione lo guardò scomparire. Qualche istante dopo sentirono Diggory urlare. «Sì, li abbiamo presi! C'è qualcuno qui! È svenuto! È... ma... santinumi!» «Hai preso qualcuno?» gridò Crouch, decisamente incredulo. «Chi? Chi è?» Sentirono dei rametti spezzarsi, il fruscio delle foglie, e poi passi scricchiolanti, mentre il signor Diggory ricompariva da dietro gli alberi. Tra le braccia reggeva una figuretta priva di sensi. Harry riconobbe subito lo strofinaccio. Era Winky. Winky. Crouch non si mosse né parlò, mentre Diggory deponeva l'elfa a terra, ai suoi piedi. Tutti i maghi del ministero lo fissavano. Per qualche istante Crouch rimase esterrefatto, gli occhi lampeggianti nel viso pallido, puntati su Winky. Poi parve rianimarsi. «Non può essere!» disse a scatti. «Non!» oltrepassò in fretta Diggory e si avviò nel punto in cui quest'ultimo aveva trovato Winky. «È inutile, Crouch!» gli gridò dietro Diggory. «Non c'è nessun altro laggiù!» Ma Crouch non sembrava disposto a crederci. Lo sentirono muoversi, udirono il fruscio delle foglie mentre spostava i cespugli cercando qualcosa o qualcuno. «Imbarazzante!» disse Diggory cupo, guardando il corpo privo di sensi di Winky. «L'elfa domestica di Barty Crouch!» «Voglio dire...» «Andiamo, Amos!» disse piano il signor Weasley. «Non crederai che sia stata davvero lei? Il marchio nero è un segno da maghi. Occorre una bacchetta!» «Sì!» disse Diggory. «E lei ce l'aveva una bacchetta!» «Cosa?» esclamò Weasley. «Guarda qui!» Diggory mostrò una bacchetta al signor Weasley. Ce l'aveva in mano. Quindi è infrazione dell'articolo tre del codice dell'uso delle bacchette, tanto per cominciare. A nessuna creatura non umana è permesso di portare o usare una bacchetta. In quel momento si udì un altro pop e l'udo Bugman si materializzò accanto al signor Weasley. Confuso e senza fiato, vorticò sul posto, fissando con gli occhi sgranati i teschio verde smeraldo. «Il marchio nero!» disse ansante, quasi inciampando in guinchi, mentre si voltava verso i colleghi con aria interrogativa. «Chi è stato? Li avete presi? Barty! Che cosa sta succedendo?» Crouch era tornato a mani vuote. Il suo viso era ancora di un pallore spettrale. Le sue mani si torcevano e i baffi a spazzolino vibravano. «Dove sei stato, Barty?» disse Bugman. «Perché non eri alla partita? La tua elfa ti aveva anche tenuto il posto!» «Per tutti i gargoyle!» Bugman aveva appena notato Winky distesa ai suoi piedi. «Che cosa è successo a lei?» «Ho avuto da fare, Ludo!» disse Crouch a scatti, muovendo appena le labbra, e la mia elfa è stata schiantata. «Schiantata? Da voi? Ma perché?» All'improvviso un barlume di comprensione balenò sul faccione tondo e lucente di Bugman. Guardò in su il teschio, giù verso Winky e poi Crouch. «No!» disse. «Winky? Evocare il marchio nero? Non saprebbe come fare! Tanto per cominciare, le servirebbe una bacchetta!» «E ce l'aveva», disse Diggory. Ne stringeva una in mano quando l'ho trovata, Ludo. «Se per lei va bene, Crouch, credo che dovremmo sentire che cosa ha da dire a sua discolpa.» Crouch non diede segno di aver sentito Diggory, ma Diggory parve prendere il suo silenzio per assenso. Levò la bacchetta, la puntò su Winky e disse «Re innerva!» Winky si mosse debolmente. I suoi occhioni marroni si aprirono e sbatté più volte le palpebre, perplessa. Sotto gli occhi dei maghi silenziosi si levò a sedere, tremando. Vide i piedi del signor Diggory e lentamente, esitante, alzò gli occhi per guardarlo. Poi, ancora più lentamente, guardò su in cielo. Harry vide il teschio galleggiante riflesso due volte nei suoi enormi occhi vitrei. L'elfa trattenne il respiro, lanciò uno sguardo terrorizzato alla radura affollata e scoppiò in singhiozzi disperati. «Elfa!» esclamò severo il signor Diggory. «Sai chi sono? Sono un membro dell'ufficio regolazione e controllo delle creature magiche!» Winky cominciò a oscillare avanti e indietro, il respiro rotto e affannoso. A Harry ricordò Dobby nei suoi momenti di terrorizzata disobbedienza. «Come vedi, Elfa, il marchio nero è stato evocato qui», disse il signor Diggory, «e poco dopo tu sei stata scoperta sotto di esso. Vogliamo una spiegazione, se non ti dispiace!» «I... io... non l'ha fatto, signore!» esalò Winky. «Io non sa come si fa, signore!» «Sei stata trovata con una bacchetta in mano!» abbaiò Diggory, impugnandola davanti a lei, e mentre la bacchetta rifletteva la luce verde che emanava dal teschio in alto riempiendo la radura, Harry la riconobbe. «Ehi, è la mia!» disse. L'intera radura si voltò a guardarlo. «Prego?» chiese Diggory sbalordito. «È la mia bacchetta!» disse Harry. «Mi era caduta!» «Ti era caduta?» ripeté Diggory incredulo. «È una confessione la tua? L'hai gettata via dopo aver evocato il marchio?» «Amos, ma guarda con chi stai parlando!» disse il signor Weasley con ira. «Ti pare possibile che Harry Potter evochi il marchio nero?» «Certo che no!» borbottò Diggory. «Mi dispiace, mi sono lasciato trascinare!» «Non mi è caduta lì, comunque!» disse Harry, indicando col pollice gli alberi sotto il teschio. «L'ho persa appena dopo che siamo entrati nel bosco!» «Insomma!» disse Diggory, lo sguardo più duro mentre tornava a fissare Winky, che cercava di ranicchiarsi ai suoi piedi. «Hai trovato questa bacchetta, eh, Elfa? E l'hai raccolta e hai pensato di divertirti un po', eh?» «Io non fa magia con quella, signore!» squittì Winky, mentre le lacrime le scorrevano ai lati del naso bitorsoluto e schiacciato. «Io l'ho! Io l'ho! Io l'ho solo raccolta, signore! Io non fa il marchio nero, signore! Io non sa come si fa!» «Non è stata lei!» intervenne Ermione. Parlare davanti a tutti quei maghi del ministero la rendeva nervosa, ma proseguì con decisione. «Winky ha una vocetta stridula e la voce che abbiamo sentito scagliare l'incantesimo era molto più profonda!» si rivolse a Harry e Ron, cercando il loro sostegno. «Non sembrava affatto Winky, vero?» «No!» disse Harry scuotendo la testa. «Decisamente non suonava come un elfo!» «Sì, era una voce umana!» disse Ron. «Beh, lo vedremo presto!» ringhiò Diggory per niente colpito. «C'è un modo semplice per scoprire l'ultimo incantesimo lanciato da una bacchetta elfa, lo sapevi?» Winky tremò e scosse la testa affannosamente, le orecchie svorazzanti, mentre Diggory alzava di nuovo la sua bacchetta e ne puntava l'estremità contro quella di Harry. «Prior incantazio!» gridò. Harry udì Hermione trattenere il respiro terrificata, mentre un enorme teschio con la lingua di serpente sbucava dal punto in cui le due bacchette si toccavano, ma era solo una pallida ombra del teschio verde alto sopra di loro. Sembrava che fosse fatto di denso fumo grigio, il fantasma di un incantesimo. «Delettrius!» gridò Diggory, e il teschio nebuloso svanì in un fil di fumo. «Allora!» disse con una sorta di selvaggio trionfo, guardando giù verso Winky, che era ancora scossa da tremiti convulsi. «Io non l'ha fatto!» squitti l'elfa, gli occhi che roteavano per il terrore. «Io non sa! Io non sa! Io non sa come si fa! Io è buon elfo! Io non uso bacchette! Io non sa come si fa!» «Sei stata colta sul fatto, elfa!» ruggì Diggory. «Colta con la bacchetta colpevole in mano!» «Amos!» intervenne il signor Weasley ad alta voce. «Pensaci! Pochissimi maghi sanno come fare quell'incantesimo. Dove l'avrebbe imparato?» «Forse Amos sta insinuando», disse Crouch, ogni sillaba pervasa di gelida furia, «che io ho l'abitudine di insegnare ai miei servi come si evoca il marchio nero!» Calò un silenzio molto spiacevole. Amos Diggory sembrava sconvolto. «Signor Crouch, no, niente affatto!» «È andato molto vicino ad accusare le due persone in questa radura che meno di tutte possono aver richiamato quel marchio!» abbaiò Crouch. «Harry Potter e me! Immagino che lei conosca la storia del ragazzo, Amos!» «Ma certo, la sanno tutti!» borbottò Diggory decisamente scornato. «E confido che ricordi le molte prove che ho dato nel corso di una lunga carriera del mio odio e disprezzo per le arti oscure e coloro che le praticano!» gridò Crouch, gli occhi di nuovo sporgenti. «Signor Crouch, io non ho mai insinuato che lei abbia qualcosa a che fare con questa faccenda!» mormorò Amos Diggory, che stava arrossendo dietro l'ispida barba bruna. «Se accusa la mia elfa, accusa me, Diggory!» gridò Crouch. «Altrimenti dove avrebbe imparato a evocarlo?» «Lei potrebbe averlo imparato ovunque!» «Precisamente, Amos!» disse il signor Weasley. «Potrebbe averlo imparato ovunque!» «Winky?» disse all'elfa in tono gentile, ma lei si ritrasse, come se anche lui le stesse urlando contro. «Dove hai trovato esattamente la bacchetta di Harry?» Winky torceva con tanta veemenza l'orlo del suo strofinaccio che questo le si stava sfilacciando tra le dita. «Io... io l'ho trovata... l'ho trovata là, signore!» sussurrò. «Là, tra gli alberi, signore!» «Visto, Amos?» disse il signor Weasley. «Chiunque abbia richiamato il marchio avrebbe potuto smaterializzarsi appena commesso il fatto, lasciando la bacchetta di Harry. Mossa astuta, non usare la propria, cosa che avrebbe potuto tradirlo. E la nostra Winky ha avuto la sfortuna di trovare la bacchetta qualche attimo dopo e di raccoglierla.» «Ma allora vuol dire che si è trovata vicinissima al colpevole!» disse Diggory con impazienza. «Elfa, hai visto qualcuno?» Winky prese a tremare più forte che mai. I suoi occhioni scattarono da Diggory a Ludo Bugman e tornarono da Crouch. poi deglutì e disse «Io non ho visto nessuno, signore! Nessuno!» «Amos!» disse il signor Crouch secco. «Sono pienamente consapevole che nell'ordinario corso degli eventi lei dovrebbe portare Winky al suo ufficio per interrogarla, ma le chiedo di lasciarla a me.» Sembrò che a Diggory quell'idea non andasse affatto a genio, ma dato che il signor Crouch era chiaramente un membro molto importante del ministero, non osò controbattere. «Può stare certo che verrà punita!» aggiunse Crouch gelido. «P-p-padrone!» Winky balbettò guardandolo, gli occhi traboccanti di lacrime. «P-padrone! Ti-ti prego!» Crouch la fissò di rimando, il volto indurito, ogni ruga incisa più profondamente. Non c'era pietà nel suo sguardo. «Questa sera Winky si è comportata in un modo che non avrei mai creduto possibile!» disse lentamente. «Le avevo detto di restare nella tenda, le avevo detto di restarci mentre uscivo a sistemare la faccenda, e ora scopro che mi ha disobbedito. Questo vuol dire vestiti!» «No!» gemette Winky, prostrandosi ai piedi del signor Crouch. «No, padrone! Vestiti no! Vestiti no!» Harry sapeva che l'unico modo per liberare un elfo domestico e radonargli i capi d'abbigliamento. Era penoso vedere Winky tormentare il suo strofinaccio mentre si inghiozzava i piedi di Crouch. «Ma era spaventata!» esplose rabbiosamente Ermione, fissando torva il signor Crouch. «La sua elfa ha paura dell'altezza, e quei maghi incappucciati stavano facendo levitare la gente. Non può biasimarla se ha voluto togliersi di torno!» Crouch fece un passo indietro, evitando il contatto con l'elfa, che ora osservava come se fosse qualcosa di sporco e marcio che stava contaminando le sue lucidissime scarpe. «Non mi serve un elfo domestico che mi disobbedisce», disse Gelido, guardando Ermione. «Non me ne faccio niente di un servo che dimentica i suoi doveri verso il padrone e verso la reputazione del padrone!» Winky piangeva così forte che i suoi singhiozzi echeggiavano per tutta la radura. Calò un silenzio molto teso, interrotto dal signor Weasley, che disse piano «Beh, credo che riporterò i miei ragazzi alla tenda, se nessuno ha niente da obiettare. Amos, quella bacchetta ci ha detto tutto quello che poteva. Puoi ridarla a Harry, per favore?» Diggory consegnò la bacchetta a Harry, che se la mise in tasca. «Andiamo voi tre», disse piano il signor Weasley, ma Ermione non aveva l'aria di volersi muovere. Non riusciva a staccare gli occhi dall'elfa in singhiozzi. «Ermione», disse il signor Weasley con più insistenza, lei si voltò e seguì Harry e Ron fuori dalla radura e tra gli alberi. «Che cosa accadrà, Winky?» chiese non appena furono usciti dalla radura. «Non lo so», disse il signor Weasley. «Come l'hanno trattata?» disse Ermione infuriata. Diggory, che continuava a chiamarla Elfa e Crouch, sa che non è stata lei e ha lo stesso intenzione di licenziarla. Non gli importava di quanto era spaventata o sconvolta. Era come se non fosse nemmeno umana. «Beh, non lo è», disse Ron. Ermione si voltò a guardarlo. «Questo non significa che non abbia dei sentimenti, Ron. È disgustoso il modo in cui...» «Ermione, sono d'accordo con te», disse in fretta il signor Weasley, esortandola ad andare avanti. «Ma questo non è il momento di discutere i diritti degli Elfi. Voglio tornare alla tenda il più in fretta possibile. Che cosa è successo agli altri?» «Era troppo buio, ci siamo persi», disse Ron. «Papà, perché erano tutti così nervosi per la faccenda del teschio?» «Spiegherò tutto quando saremo di ritorno alla tenda», disse il signor Weasley teso. Ma al limitare del bosco furono costretti a fermarsi. Una gran folla di maghi e streghe dall'aria spaventata si era riunita lì, e quando videro il signor Weasley venire verso di loro, molti gli si affrettarono incontro. «Che cosa sta succedendo laggiù? Chi l'ha evocato? Arthur, non sarà lui?» «Certo che non è lui», disse il signor Weasley con impazienza. «Non so chi sia stato. Sembra che si siano smaterializzati. Ora scusatemi, vi prego, voglio andare a dormire». Guidò Harry, Ron e Hermione attraverso la folla e poi di nuovo nel campeggio. Ora era tutto tranquillo. Non c'era traccia dei maghi mascherati, anche se alcune tende distrutte fumavano ancora. Dalla tenda dei ragazzi spuntò la testa di Charlie. «Papà, che cosa sta succedendo?» gridò nell'oscurità. «Fred, George e Ginny sono tornati sani e salvi, ma gli altri sono qui con me», disse il signor Weasley chinandosi ed entrando nella tenda. Harry, Ron e Hermione lo seguirono. Bill era seduto al tavolino della cucina e teneva un lenzuolo contro il braccio che sanguinava abbondantemente. Charlie aveva un largo strappo nella camicia e Percy esibiva il naso insanguinato. Fred, George e Ginny sembravano illesi, anche se scossi. «Li hai presi, papà?» chiese Bill secco. «Quelli che hanno evocato il marchio». «No», rispose il signor Weasley. «Abbiamo trovato l'elfa di Barty Crouch con la bacchetta di Harry, ma non ne sappiamo di più su chi sia il responsabile». «Cosa?» esclamarono Bill, Charlie e Percy in coro. «La bacchetta di Harry», disse Fred. «L'elfa del signor Crouch», disse Percy come folgorato. Con l'aiuto di Harry, Ron e Hermione, il signor Weasley spiegò cos'era successo nel bosco. Alla fine del racconto, Percy traboccava di indignazione. «Beh, il signor Crouch ha ragione a liberarsi di un elfa del genere», disse. «Fuggire quando le aveva detto espressamente di non farlo, metterlo in imbarazzo davanti a tutto il ministero. Che figura avrebbe fatto, se lei fosse dovuta comparire davanti all'ufficio regolazione e controllo?» «Non ha fatto niente. Era solo nel posto sbagliato al momento sbagliato», sbottò Hermione a Percy, che parve molto sorpreso. Hermione era sempre andata molto d'accordo con Percy, molto più degli altri, a dire il vero. «Ermione, un mago nella posizione del signor Crouch, non può permettersi un elfo domestico che corre in giro come un pazzo armato di bacchetta», disse Percy con sussiego riprendendosi. «Non è corsa in giro come una pazza», gridò Hermione, «la solo raccolta da terra». «Sentite, qualcuno potrebbe spiegarci almeno che cos'era quel teschio», intervenne Ron impaziente. «Non ha fatto male a nessuno. Perché tutta quell'agitazione?» «Te l'ho detto, è il simbolo di tu sai chi, Ron», disse Hermione prima che qualcun altro potesse rispondere. «L'ho letto in Ascese e declino delle arti oscure». «E non lo si vedeva da tredici anni», aggiunse piano il signor Weasley. «È naturale che tutti si siano spaventati. È stato quasi come rivedere voi sapete chi». «Non capisco», disse Ron accigliato. «Voglio dire, è pur sempre solo una sagoma in cielo. Ron, tu sai chi e i suoi seguaci mostravano il marchio nero tutte le volte che uccidevano», spiegò il signor Weasley. «Il terrore che ha provocato. Non ne ha idea, sei troppo giovane. Ma immagina di tornare a casa e ritrovarti il marchio nero che incombe sul tuo tetto, sapendo quello che stai per trovare dentro». Il signor Weasley rabbrividì. «Il terrore più grande per chiunque, il più grande in assoluto». Per un attimo calò il silenzio. Poi Bill, togliendo il lenzuolo dal braccio per controllare il suo taglio, disse «Beh, non ci ha aiutato questa notte, chiunque l'abbia evocato. Ha messo in fuga i mangiamorte nell'istante in cui l'hanno visto. Si sono smaterializzati tutti prima che riuscissimo ad avvicinarci, tanto da smascherarne uno. Siamo riusciti ad afferrare i Roberts prima che toccassero terra, però. Gli stanno modificando la memoria proprio adesso». «Mangiamorte?» chiese Harry. «Che cosa sono i mangiamorte?» «È così che si fanno chiamare i sostenitori di Tu Sai Chi», disse Bill. «Credo che stanotte abbiamo visto quel che ne è rimasto, quelli che sono riusciti a tenersi fuori da Azkaban, almeno». «Non possiamo dimostrare che fossero loro, Bill», disse il signor Weasley, «anche se probabilmente lo erano», aggiunse sfiduciato. «Sì, ci scommetto che erano loro», disse Ron all'improvviso. «Papà, c'era Draco Malfoy nel bosco e praticamente ci ha detto che suo padre era uno di quei pazzi mascherati, e sappiamo tutti che i Malfoy erano in combutta con Tu Sai Chi». «Ma i sostenitori di Voldemort», esordì Harry, «tutti sussultarono. Come quasi tutti nel mondo dei maghi, i Weasley evitavano sempre di pronunciare il nome di Voldemort». «Scusate», disse in fretta Harry, «che cosa avevano in mente i sostenitori di voi sapete chi, sollevando Babbani in aria? Voglio dire, a che scopo?» «A che scopo?», disse il signor Weasley con una risata cupa. «Harry, è così che si divertono quelli. Metà degli omicidi di Babbani, al tempo in cui Tu Sai Chi era al suo apice, furono commessi per divertimento. Suppongo che questa sera abbiano bevuto un po' e non siano riusciti a resistere alla tentazione di ricordare a tutti noi che molti di loro sono ancora in circolazione». «Per loro è stata una simpatica rimpatriata», concluse e disgustato. «Ma se erano i Mangiamorte, perché si sono smaterializzati quando hanno visto il marchio nero?», chiese Ron. «Vederlo avrebbe dovuto fargli piacere, no?» «Usa il cervello, Ron», disse Bill. «Se erano davvero Mangiamorte, hanno fatto una gran fatica per riuscire a restare fuori da Azkaban quando Tu Sai Chi cadde, e hanno detto un sacco di balle sul fatto che lui li aveva obbligati a uccidere e torturare. Scommetto che avrebbero ancora più paura di tutti noi messi insieme se tornasse. Hanno negato di aver mai avuto niente a che fare con lui quando ha perso i suoi poteri, e sono tornati alla vita di tutti i giorni. Non credo che sarebbe molto soddisfatto di loro, no?» «Allora, chiunque abbia evocato il marchio nero, disse Ermione lentamente, l'ha fatto per dimostrare il suo sostegno ai Mangiamorte, o per spaventarli?» «La tua supposizione vale quanto la nostra, Ermione», disse il signor Weasley, «ma ti dirò una cosa. Solo i Mangiamorte potevano sapere come evocarlo. Sarei molto sorpreso se la persona che l'ha fatto non fosse stata un tempo un Mangiamorte, anche se ora non lo è. Sentite, è molto tardi, e se vostra madre viene a sapere cos'è successo, si spaventerà da morire. Dormiremo qualche ora, e poi cercheremo di prendere una passaporta domattina presto per andarcene da qui». Harry tornò nel suo lettino con la testa che gli ronzava. Sapeva che avrebbe dovuto sentirsi sfinito. Erano quasi le tre del mattino, ma era svegliissimo, sveglissimo e preoccupato. Tre giorni prima, sembrava che fosse passato molto più tempo, ma erano solo tre giorni, si era svegliato con la cicatrice che gli bruciava, e quella notte, per la prima volta dopo tredici anni, il marchio di Voldemort era comparso nel cielo. Cosa significava tutto questo? Pensò alla lettera che aveva scritto a Sirius prima di lasciare private drive. Chissà se Sirius l'aveva già ricevuta. Quando avrebbe risposto? Harry rimase disteso a guardare la tela, ma non sopraggiunsero fantasticherie di volo a conciliargli il sonno, e fu molto dopo che il russare di Charlie ebbe riempito la tenda, che Harry alla fine si assopì. Caos al Ministero Il signor Weasley li svegliò dopo poche ore di sonno. Usò la magia per ripiegare le tende, e lasciarono il campeggio più in fretta che poterono, passando davanti al signor Roberts, che era sulla soglia della sua casetta. Roberts aveva una strana aria inebetita. Li salutò con la mano e con un vago «Buon Natale!» «Si riprenderà benissimo», disse sottovoce il signor Weasley, mentre si incamminavano nella brughiera. A volte, quando la memoria di una persona viene modificata, questo lo disorienta leggermente per un po', e quella che gli hanno fatto scordare era una cosa grossa. Udirono voci concitate, mentre si avvicinavano al punto in cui si trovavano le passaporte, e quando lo raggiunsero trovarono un gran numero di maghi e streghe attorno al custode Basil, tutti che insistevano per andarsene dal campeggio il più presto possibile. Il signor Weasley ebbe una frettolosa discussione con Basil. Si misero in coda e riuscirono a prendere un vecchio pneumatico per tornare a Stotze ed Hill prima ancora che il sole sorgesse. Tornarono indietro attraverso Otteris and Catchpole, diletti alla tana nella luce dell'alba, parlando molto poco, tanto erano esausti, e pensando con desiderio alla colazione. Alla curva del sentiero la tana apparve ai loro occhi e un grido e cheggio nell'aria. «Oh, grazie al cielo, grazie al cielo!» La signora Weasley, che evidentemente li stava aspettando in giardino, corse loro incontro, con indosso ancora le pantofole, il viso pallido e teso, una copia stropicciata della Gazzetta del Profeta stretta in mano. «Arthur, ero così preoccupata, così preoccupata!» Gettò le braccia al collo del marito e la Gazzetta del Profeta cadde a terra. Harry guardò in giù e lesse il titolo. Scene di terrore alla Coppa del Mondo di Quidditch, completo di una foto balenante in bianco e nero del marchio nero sopra le cime degli alberi. «State tutti bene?» mormorò la signora Weasley agitatissima, liberando il signor Weasley dalla stretta e fissando tutti gli altri con gli occhi arrossati. «Siete vivi? Oh, ragazzi!» E con gran sorpresa di tutti afferrò Fred e George e li strinse in un abbraccio così serrato che le loro teste cozzarono. «Aia, mamma, ci stai strangolando!» «Vi ho pensato ad altro! E se voi sapete chi vi avesse catturato e l'ultima cosa che vi avesse detto fosse stata che non avevate preso abbastanza GUFO?» «Oh, Fred! George!» «Su, Molly, stiamo tutti benissimo!» disse il signor Weasley in tono rassicurante, sciogliendola dai gemelli e guidandola verso casa. «Bill», aggiunse a mezza voce, «raccogli quel giornale, voglio vedere che cosa dice?» Quando furono tutti stipati nella piccola cucina e Hermione ebbe preparato alla signora Weasley una tazza di tè molto forte, nella quale il signor Weasley insistette per versare un goccio di whisky incendiario Ogden stravecchio, Bill tese il giornale al padre. Il signor Weasley scorse la prima pagina mentre Percy guardava da sopra la sua spalla. «Lo sapevo», disse il signor Weasley gravemente. «Il ministero brancola nel buio. I colpevoli non sono stati catturati. Servizio di sicurezza inefficiente. Maghi oscuri in libertà. Sventura nazionale.» «Di chi è?» «Ah, ma certo, Rita Skeeter.» «Quella donna ce l'ha con il ministero della magia!» esclamò Percy infuriato. «La settimana scorsa ha scritto che stiamo perdendo tempo a cavillare sullo spessore dei calderoni, quando dovremmo occuparci di marchiare i vampiri, come se non fosse espressamente stabilito nel paragrafo 12 delle indicazioni per il trattamento dei non-maghi semi-umani.» «Facci il favore, Percy», disse Bill sbadigliando. «Chiudi il becco.» «Sono citato», disse il signor Weasley spalancando gli occhi dietro le lenti mentre arrivava alla fine dell'articolo della Gazzetta del Profeta. «Dove?» sputacchiò la signora Weasley, semisoffocata dal tè corretto al whisky. «Se l'avessi letto avrei saputo che eri vivo.» «Non con nome e cognome», disse il signor Weasley. «Sentite qui.» «Se i maghi e le streghe terrorizzati che attendevano col fiato sospeso qualche notizia ai margini del bosco si aspettavano di ricevere rassicurazioni dal ministero della magia, sono rimasti amaramente delusi. Un rappresentante del ministero si è presentato parecchio tempo dopo l'apparizione del marchio nero, sostenendo che nessuno era rimasto ferito, ma rifiutandosi di fornire ulteriori informazioni. Resta da vedere se questa dichiarazione sarà sufficiente a smentire le voci secondo cui parecchi corpi sono stati portati via dal bosco un'ora dopo. «Figuriamoci», disse il signor Weasley esasperato, passando il giornale a Persi. «Nessuno è rimasto ferito. Che cosa avrei dovuto dire?» «Voci secondo cui parecchi corpi sono stati portati via dal bosco. Beh, certo che gireranno delle voci, adesso che ha scritto questa roba.» Trasse un profondo sospiro. «Molly, dovrò andare in ufficio. Ci sarà bisogno di calmare le acque.» «Vengo con te, papà», disse Persi in tono pomposo. «Il signor Crouch avrà bisogno di tutti in prima linea, e così gli potrò consegnare di persona la relazione sui calderoni.» E sfrecciò fuori dalla cucina. La signora Weasley parve molto turbata. «Arthur, dovresti essere in vacanza. Questa faccenda non ha niente a che vedere col tuo ufficio. Possono occuparsene senza di te, no?» «Devo andare, Molly», disse il signor Weasley. «Ho peggiorato le cose. Il tempo di cambiarmi e partirò.» «Signora Weasley», disse Harry all'improvviso, incapace di trattenersi. «Non è che per caso è arrivata Edvige con una lettera per me?» «Edvige, caro», disse la signora Weasley distrattamente. «No, no, non è arrivata posta per nessuno.» Ron e Ermione scoccarono uno sguardo incuriosito a Harry, che rispose guardandoli con aria eloquente. «Va bene se vado a sistemare la mia roba in camera tua, Ron?» «Sì, credo che verrò anch'io», disse subito Ron. «Ermione?» «Sì», disse lei rapida, e tutti e tre uscirono dalla cucina e salirono le scale. «Che cosa succede, Harry?» chiese Ron non appena si furono chiuse alle spalle la porta della soffitta. «C'è una cosa che non vi ho detto», disse Harry. «Sabato mattina mi sono svegliato con la cicatrice che mi faceva male di nuovo.» Le reazioni di Ron e Ermione furono quasi esattamente quelle che Harry aveva immaginato nella sua stanza private drive. A Ermione si mozzò il fiato, poi prese a snocciolare consigli uno dopo l'altro, citando un gran numero di enciclopedie e tutti quanti da Albus Silente a Madame Pomfrey, l'infermiera di Hogwarts. Ron era semplicemente ammutolito. «Ma non era là, vero? Tu sai chi? Cioè, l'ultima volta che la cicatrice ti faceva male. Lui era a Hogwarts, vero?» «Sono sicuro che non era a private drive», disse Harry, «ma l'ho sognato. Lui e Peter, sapete, coda liscia. Adesso non ricordo tutto, ma progettavano di uccidere qualcuno.» Aveva esitato un istante, sul punto di dire «me», ma non se la sentì di spaventare Ermione più di quanto non lo fosse già. «Era solo un sogno», disse Ron in tono rassicurante, «solo un incubo.» «Sì, ma lo era davvero?» disse Harry, voltandosi per guardare dalla finestra il cielo sempre più chiaro. «E' strano, no? Mi fa male la cicatrice. Tre giorni dopo i Mangiamorte sono in marcia e il marchio di Voldemort è di nuovo su in cielo. Non pronunciare il suo nome!» sibilò Ron a denti stretti. «E vi ricordate che cosa ha detto la professoressa Trelonei?» riprese Harry ignorando Ron alla fine dell'anno scorso. La professoressa Trelonei era la loro insegnante di divinazione a Hogwarts. Lo sguardo terrorizzato di Ermione scomparve e lei emise uno sbuffo sprezzante. «Oh, Harry, non vorrei mica dare letta a quella vecchia impostora!» «Voi non c'eravate», disse Harry, «voi non l'avete sentita. Quella volta è stato diverso. Ve l'ho detto, è andata in trance, per davvero, e ha detto che il Signore Oscuro sarebbe risorto, più grande e orribile che mai, e ci sarebbe riuscito, perché il suo servo stava per tornare da lui, e quella notte Codalicia è fuggito.» Calò il silenzio. Ron giocherellava con aria assente, con un buco nel copriretto dei cannoni di Chudley. «Perché hai chiesto se era arrivata Edwige, Harry?» gli domandò Ermione. «Stai aspettando una lettera?» «Ho scritto a Sirius della cicatrice», disse Harry stringendosi nelle spalle. «Sto aspettando la sua risposta.» «Bella pensata!» disse Ron, mentre la sua espressione si rischiarava. «Scommetto che Sirius saprà cosa fare.» «Speravo che mi avrebbe risposto subito», aggiunse Harry, «ma non sappiamo dove si trova. Potrebbe essere in Africa o qualcosa del genere, no?» disse Ermione con molto buonsenso. «Edwige non riuscirà a coprire una distanza del genere in pochi giorni.» «Sì, lo so», disse Harry, ma una morsa gli serrava lo stomaco, mentre scrutava fuori dalla finestra il cielo del tutto privo di Edwige. «Vieni a fare una partita a Quidditch nel frutteto, Harry», disse Ron. «Andiamo, tre contro tre. Giocano anche Bill, Charlie, Fred e George. Puoi provare la finta, Vronsky.» «Ron!» disse Ermione, con un tono di voce del tipo «Non credo che tu sia molto sensibile. Harry non ha voglia di giocare a Quidditch adesso. È preoccupato e stanco. Abbiamo tutti bisogno di andare a dormire.» «Sì, mi va di giocare a Quidditch», disse Harry all'improvviso. «Aspetta, vado a prendere la Firebolt.» Ermione uscì dalla stanza, borbottando qualcosa che suonava molto come «Maschi». Né il signor Weasley né Percy furono molto a casa la settimana seguente. Entrambi uscivano ogni mattina prima che il resto della famiglia si alzasse, e tornavano ogni sera parecchio dopo l'ora di cena. «È un gran trambusto», disse loro Percy con solennità la domenica sera prima del previsto ritorno a Hogwarts. «Non ho fatto altro che spegnere incendi tutta la settimana. La gente continua a mandare strillettere, e naturalmente, se non apri immediatamente una strillettere, quella esplode. Bruciature su tutta la scrivania, è la mia penna d'oca più bella, ridotta in cenere.» «Perché tutti spediscono strillettere?», chiese Ginny, che stava aggiustando la sua copia di «Mille erbe e funghi magici» con il magiscotch sul tappeto davanti al cammino in salotto. «Protestano per il servizio di sicurezza alla Coppa del Mondo», disse Percy. «Vogliono il risarcimento dei danni per i loro averi che sono stati distrutti.» «Mandangus Fletcher ha inoltrato un reclamo per una tenda di dodici stanze e idromassaggio, ma io ce lo impugno! So per certo che ha dormito sotto un mantello tenuto su con dei rami!» La signora Weasley gettò un'occhiata alla pendola nell'angolo. A Harry piaceva quell'orologio. Era del tutto inutile se uno voleva sapere che ora fosse, ma per altri versi forniva molte informazioni.» Aveva nove lancette d'oro e ognuna portava scritto il nome di un Weasley. Non c'erano cifre sul quadrante, ma i posti dove poteva trovarsi ciascun membro della famiglia. C'erano casa, scuola e lavoro, ma anche scomparso, ospedale, prigione e, al posto del dodici, pericolo mortale. Otto delle lancette al momento indicavano la posizione «casa», ma quella del signor Weasley, che era la più lunga, era ancora puntata su lavoro. La signora Weasley sospirò. «E dai giorni di voi sapete chi? Che vostro padre non andava più in ufficio nei fine settimana?» disse. «Lo stanno facendo lavorare troppo. Gli si rovina la cena se non torna a casa presto.» «Beh, papà sente di dover rimediare al suo errore alla partita, vero?» disse Percy. A dire il vero, è stato un po' avventato fare una dichiarazione ufficiale, senza prima intendersi con il suo capo di partimento. «Non osare dar la colpa a tuo padre per ciò che ha scritto quella sciagurata di una skitter!» esclamò la signora Weasley, infiammandosi all'istante. «Se papà non avesse detto niente, la vecchia Rita avrebbe scritto che era scandaloso, che nessuno del ministero avesse commentato l'accaduto», disse Bill, che stava giocando a scacchi con Ron. «Rita Skeeter non mette mai nessuno in buona luce. Vi ricordate? Una volta ha intervistato tutti gli spezza incantesimi della Gringot e mi ha chiamato un fricchettone coi capelli lunghi.» «Beh, un po' lunghi sono, caro», disse la signora Weasley dolcemente. «Se solo me li lasciassi...» «No, mamma!» La pioggia frustava la finestra del salotto. Hermione era immersa nella lettura del «Manuale degli incantesimi, volume quarto». La signora Weasley ne aveva comprata una copia per lei, una per Ron e una per Harry a diagonale. Charlie stava rammendando un passamontagna ignifugo. Harry lustrava la sua firebolt con il kit di manutenzione per scope che Hermione gli aveva regalato per il suo tredicesimo compleanno aperto ai suoi piedi. Fred e George sedevano in un angolo lontano, la penna in mano, e si scambiavano sussurri, le teste chine su un rotolo di pergamena. «Che cosa state facendo voi due?» disse la signora Weasley in tono severo lo sguardo sui gemelli. «I compiti», rispose Fred vagamente. «Non essere ridicolo, siete ancora in vacanza», disse la signora Weasley. «Sì, siamo rimasti un po' indietro», disse George. «Non starete per caso preparando un nuovo modulo di ordinazione, vero?» chiese la signora Weasley in tono scaltro. «Non starete pensando di ricominciare con i tiri vispi per caso?» «Dai, mamma», disse Fred guardandola con aria addolorata. «Se Logworth Express deragliasse domani e io e George morissimo, come ti sentiresti sapendo che l'ultima cosa che ti abbiamo sentito dire era un'accusa infondata?» Tutti risero, perfino la signora Weasley. «Oh, sta arrivando papà», disse lei all'improvviso, guardando di nuovo l'orologio. La lancetta del signor Weasley era di colpo scattata da lavoro a viaggio. Un secondo dopo si fermò vibrando su casa con le altre e tutti sentirono la sua voce dalla cucina. «Vengo, Arthur», gridò la signora Weasley uscendo in fretta dalla stanza. Dopo pochi istanti il signor Weasley entrò nel salotto caldo, con la cena su un vassoio. Sembrava completamente sfinito. «Beh, adesso sì che siamo nei guai», disse alla signora Weasley, sedendosi in una poltrona vicino al fuoco e giochelellando con scarso entusiasmo, con il suo cavolfiore un po' rattrappito. «È tutta la settimana che Rita Skeeter va in giro a ficcare il naso in cerca di altri pasticci del ministero di cui scrivere, e ora ha scoperto che la povera Berta è sparita. Così questa storia sarà in prima pagina domani sul profeta. Io l'avevo detto a Buckman che doveva mandare qualcuno a cercarla un secolo fa». «Il signor Crouch lo dice da settimane e settimane», disse Persi prontamente. «Crouch è molto fortunato che Rita non abbia scoperto la faccenda di Winky», disse il signor Weasley irritato. «La sua elfa domestica sorpresa con la bacchetta con cui è stato evocato il marchio nero sarebbe roba da prima pagina per una settimana». «Credevo che fossimo tutti d'accordo che quell'elfa, per quanto irresponsabile, non ha evocato il marchio, o no?», si scaldò Persi. «Se vuoi saperlo, il signor Crouch è molto fortunato che nessuno alla Gazzetta del Profeta sappia com'è cattivo con gli elfi», disse Ermione arrabbiata. «Ma insomma, Ermione», ribatté Persi, «un funzionario d'alto rango del ministero, come il signor Crouch, merita un'obbedienza cieca da parte dei suoi servitori». «Della sua schiava, vorrei dire», esclamò Ermione mentre la sua voce saliva di tono. «Perché non l'ha pagata, Winky, vero?» «Credo che sia meglio se andate tutti di sopra a controllare di aver fatto i bagagli come si deve», intervenne la signora Weasley ponendo fine alla lite. «Avanti, su, tutti quanti!» Harry richiuse il suo kit di manutenzione per scope, si mise la Firebolt in spalla e tornò di sopra con Ron. Lassù la pioggia rimbombava ancora più fragorosamente ed era accompagnata da forti sibili e gemiti del vento, per non parlare degli sporadici ululati del ghoul che viveva in soffitta. Leo prese di nuovo a cantare e a sfrecciare nella sua gabbia quando entrarono nella stanza di Ron. La vista dei bauli quasi pronti sembrava averlo precipitato in un delirio d'eccitazione. «Dagli dei biscottini guffici!» disse Ron lanciando un pacchetto a Harry. «Così magari sta zitto!» Harry infilò alcuni biscottini guffici tra le sbarre della gabbia di Leo, poi si voltò verso il suo baule. La gabbia di Edvige era lì accanto, ancora vuota. «È passata più di una settimana», disse Harry guardando il posatoio vuoto di Edvige. «Ron, non pensi che Sirius sia stato catturato, vero?» «No, ci sarebbe scritto sulla gazzetta del profeta», disse Ron. «Il ministero vorrebbe far sapere a tutti di aver preso qualcuno, no?» «Sì, almeno credo. Guarda, qui c'è la roba che mamma ti ha comprato a Diagonalley e ha prelevato per te dell'oro dalla tua camera blindata e ti ha lavato tutte le calze. Depose una pila di pacchi sulla brandina di Harry e vi lasciò cadere accanto il sacchetto col denaro e un mucchio di calze. Harry prese ad aprire i pacchi, a parte il manuale degli incantesimi volume quarto di Miranda Goshock, aveva un mazzetto di penne d'oca nuove, una dozzina di lotoli di pergamena e ricambi per il suo kit di pozioni, era a corto di pesce scorpione ed essenza di bella donna. Stava ammucchiando la biancheria nel calderone quando alle sue spalle Ron fece un versaccio di disgusto. «E questo che cosa dovrebbe essere?» Tra le mani reggeva una cosa che a Harry parve un lungo abito di velluto marrone. Aveva un orlo di pizzo dall'aria muffita attorno al collo e polsini di pizzo identici. Si sentì bussare alla porta e la signora Weasley entrò con una bracciata di divise di Hogwarts, lavate e stirate di fresco. «Ecco qui!» disse, dividendo la pila in due. «Ora state attenti a metterle via bene, in modo che non si stropiccino!» «Mamma, mi hai portato per sbaglio il vestito nuovo di Ginny!» disse Ron, tendendole la cosa marrone. «Ma certo che no!» disse la signora Weasley. «È per te un abito da cerimonia!» «Cosa?» esclamò Ron terrificato. «Un abito da cerimonia!» ripetè la signora Weasley. «Sulla lista della scuola c'è scritto che dovete avere un abito da cerimonia quest'anno, un abito per le grandi occasioni!» «Vorrai scherzare!» disse Ron incredulo. «Non metterò mai quella cosa, non se ne parla proprio!» «Li portano tutti, Ron!» disse la signora Weasley contrariata. «Sono tutti così, anche tuo padre ne ha alcuni per le feste importanti!» «Piuttosto che mettermi quella roba vado in giro nudo come un verme!» disse Ron ostinato. «Non fare lo sciocco!» ribatté la signora Weasley. «Devi avere un abito da cerimonia! È sulla lista! Ne ho preso uno anche per Harry! Faglielo vedere, Harry!» Con trepidazione, Harry aprì l'ultimo pacchetto sulla brandina. Non era così tremendo, niente pizzo, e in effetti era più o meno uguale alla divisa scolastica, solo che era verde bottiglia invece che nero. «Ho pensato che sintonava il colore dei tuoi occhi, caro!» disse la signora Weasley con affetto. «Beh, va benissimo!» disse Ron arrabbiato, guardando l'abito di Harry. «Perché non posso averne anch'io uno così? Perché... beh, il tuo l'ho dovuto comprare di seconda mano, e non c'era molta scelta!» spiegò la signora Weasley arrossendo. Harry guardò da un'altra parte. Avrebbe volentieri diviso tutto il denaro rinchiuso nella sua camera blindata della Gringot con i Weasley, ma sapeva che non l'avrebbero mai accettato. «Non me lo metterò mai!» ripeteva Ron Testardo. «Mai!» «Bene!» scattò la signora Weasley. «Allora vai in giro nudo! E tu, Harry, per favore, fagli una foto! Avrei proprio bisogno di farmi quattro risate!» E uscì sbattendo la porta. Alle loro spalle si udì un buffo rumore sputacchiante. Leo stava soffocando dopo aver inghiottito un biscottino gufico troppo grosso. «Perché tutte le cose che ho sono schifezze!» esclamò Ron furibondo, attraversando la stanza per disimpastare il becco di Leo. Sull'Hogwarts Express C'era decisamente una tetraggine da fine delle vacanze nell'aria quando Harry si svegliò la mattina dopo. Una pioggia pesante picchiettava ancora contro la finestra mentre si infilava i jeans e una felpa. La divisa della scuola l'avrebbe indossata sull'Hogwarts Express. Lui, Ron, Fred e George erano appena arrivati sul pianerottolo del primo piano, diretti verso la colazione, quando la signora Weasley comparve ai piedi delle scale con aria seccata. «Arthur!» gridò verso i piani superiori. «Arthur! Messaggio urgente dal ministero!» Harry si appiattì contro il muro mentre il signor Weasley scendeva ciabattando freneticamente col vestito alla rovescia. Quando Harry e gli altri entrarono in cucina, videro la signora Weasley che frugava preoccupata nei cassetti della credenza. «C'era una penna qui da qualche parte!» e il signor Weasley chino sul fuoco, intento a parlare con... Harry chiuse gli occhi e li riaprì per assicurarsi che funzionassero a dovere. La testa di Amos Diggory era lì, in mezzo alle fiamme, come un grosso uovo barbuto. Parlava molto in fretta, del tutto indifferente alle scintille che gli volavano attorno e alle fiamme che gli lambivano le orecchie. «Dei vicini babbani hanno sentito dei colpi e delle urla, così sono andati a chiamare quei, come si chiamano, Puliziotti. Arthur, devi andarci subito!» «Ecco qui!» disse la signora Weasley senza fiato, infilando in mano al marito un foglio di pergamena, una boccetta d'inchiostro e una penna d'oca arruffata. «Un vero colpo di fortuna averlo sentito», disse la testa di Diggory. «Dovevo andare in ufficio presto per spedire un paio di gufi e ho trovato tutti quelli dell'uso improprio delle arti magiche che uscivano. Se Rita Skeeter avviene a sapere di questa cosa, Arthur?» «E secondo malocchio, che cosa è successo?» chiese il signor Weasley stappando la boccetta d'inchiostro, intingendo la penna e preparandosi a prendere appunti. La testa di Diggory alzò gli occhi al cielo. «Dice che ha sentito un intruso in giardino. Dice che qualcuno strisciava verso casa sua, ma è stato sorpreso dai suoi bidoni. Che cosa hanno fatto i bidoni?» chiese il signor Weasley scrivendo freneticamente. «Un chiasso maledetto e hanno sparato immondizia dappertutto, per quel che ne so», rispose Diggory. Apparentemente uno era ancora in volo quando sono arrivati i puliziotti. Il signor Weasley gemette. «E l'intruso?» «Arthur, lo sai com'è fatto malocchio», disse la testa di Diggory, alzando di nuovo gli occhi al cielo. «Qualcuno che striscia nel suo giardino, nel cuore della notte, è più probabile che da qualche parte ci sia un gatto molto traumatizzato, coperto di bucce di patata. Ma se quelli dell'uso improprio delle arti magiche mettono le mani su malocchio, è finito. Pensa ai suoi precedenti. Dobbiamo farlo uscire con un'accusa minore, qualcosa del tuo ufficio. Quanto valgono i bidoni esplosivi?» «Forse potrebbe uscire su cauzione», disse il signor Weasley, continuando a scrivere in fretta, le sopracciglia aggrottate. «Ma l'occhio non ha usato la bacchetta? Non ha aggredito nessuno?» «Scommetto che è schizzato giù dal letto e ha cominciato a buttare dalla finestra tutto quello che gli capitava», disse il signor Diggory, «ma faranno fatica a dimostrarlo. Non ci sono vittime». «Va bene, arrivo», disse il signor Weasley. Poi si infilò in tasca la pergamena con gli appunti e sfrecciò fuori dalla cucina. La testa di Diggory fissò la signora Weasley. «Mi dispiace, Molly», disse più lentamente, «disturbarvi così presto, ma Arthur è il solo che possa tirar fuori malocchio, e malocchio dovrebbe cominciare il nuovo lavoro oggi. Perché doveva scegliere proprio ieri notte? Non importa, Amos», disse la signora Weasley, «sei sicuro che non vuoi un po' di pane tostato o qualcos'altro prima di andare?» «Oh, perché no», disse il signor Diggory. La signora Weasley prese una fetta di pane imburrato da una pila sul tavolo della cucina, la mise tra le molle del camino e la infilò in bocca a Diggory. «Grazie», disse lui con voce soffocata, e poi sparì con un piccolo pop. Harry sentì il signor Weasley che salutava in fretta Bill, Charlie, Percy e le ragazze. Dopo cinque minuti tornò in cucina, con i vestiti nel verso giusto stavolta, passandosi un pettine tra i capelli. «Meglio che mi muova, in bocca al lupo, ragazzi», disse il signor Weasley a Harry, Ron e ai gemelli, gettandosi sulle spalle un mantello e preparandosi a smaterializzarsi. «Molly, ce la farai ad accompagnare i ragazzi a King's Cross?» «Ma certo», rispose lei, «tu pensa a Malocchio, noi ce la caveremo». Mentre il signor Weasley spariva, Bill e Charlie entrarono in cucina. «Qualcuno ha detto Malocchio?», chiese Bill. «Che cosa ha combinato stavolta?» «Dice che stanotte qualcuno ha cercato di entrare in casa sua», rispose la signora Weasley. «Malocchio mudi?», disse George pensieroso, spalmando marmellata di arance sul pane tostato. «Non è quello svitato. Tuo padre ha un'altissima opinione di Malocchio mudi», disse la signora Weasley con fermezza. «Sì, certo, papà colleziona spine, vero?», disse Fred a bassa voce, mentre la signora Weasley usciva dalla stanza. «Chi si somiglia?» «Mudy era un grande mago ai suoi tempi», disse Bill. «È un vecchio amico di Silente, vero?», chiese Charlie. «Silente non si può certo definire normale, però, giusto?», disse Fred. «Voglio dire, lo so che è un genio». «Chi è Malocchio?», chiese Harry. «È in pensione. Prima lavorava al ministero», disse Charlie. «L'ho conosciuto una volta che papà mi ha portato in ufficio. Era un Auror, uno dei migliori, un cacciatore di maghi oscuri», aggiunse in risposta allo sguardo vacuo di Harry. «Metà delle celle di Azkaban sono piene grazie a lui. Si è fatto un sacco di nemici, però, soprattutto le famiglie di quelli che ha catturato, e ho sentito che da vecchio è diventato davvero paranoico. Non si fida più di nessuno, vede maghi oscuri dappertutto». Bill e Charlie decisero di accompagnare gli altri alla stazione di Kings Cross, ma Percy, profondendosi in scuse, disse che doveva proprio andare al lavoro. «Non posso assolutamente prendermi un altro permesso in questo momento», disse loro. «Il signor Crouch sta davvero cominciando a contare su di me». «Sì, e la sai una cosa, Percy?», disse George serio. «Scommetto che presto imparerà il tuo nome». La signora Weasley aveva affrontato il telefono all'ufficio postale del villaggio per prenotare tre normali taxi babbani che li portassero a Londra. Arthur ha cercato di farsi prestare delle auto del ministero per noi, sussurrò a Harry mentre si trovavano nel giardino lavato dalla pioggia a guardare i tassisti che caricavano sei pesanti bauli di Hogwarts nei portabagagli. «Ma non ce n'erano di libere! Oh cielo, non sembrano felici, vero?». Harry preferì non dire alla signora Weasley che i tassisti babbani trasportano di rado gufi sovreccitati e Leo stava facendo un fracasso spacca timpani. Certo non contribuì il fatto che un certo numero di favolosi fuochi d'artificio freddi del dottor filibuster con innesco ad acqua partirono a sorpresa quando il baule di Fred si aprì di scatto, strappando al tassista ululati di paura e dolore mentre Grattastinchi si arrampicava d'artigli sguainati su per la gamba del poveretto. Il viaggio fu scomodo poiché vennero tutti stipati nel sedile posteriore dei taxi coi loro bauli. Grattastinchi ci mise un po' a riprendersi dai fuochi d'artificio e Harry, Ron e Ermione arrivarono a Londra cosparsi di graffi. Furono molto sollevati di scendere a King's Cross anche se la pioggia cadeva più fitta che mai e per trasportare i bauli attraverso la strada affollata e dentro la stazione si insupparono fino all'osso. Harry era ormai abituato a raggiungere il binario 9 e tre quarti, si trattava semplicemente di camminare dritti attraverso l'apparentemente solida barriera che separava i binari 9 e 10. L'unica parte complicata era farlo così da non dare nell'occhio in modo da evitare di attirare l'attenzione dei babbani. Quel giorno lo fecero a gruppi. Harry, Ron e Ermione, i più vistosi dal momento che avevano Leo e Grattastinchi, andarono per primi. Si appoggiarono alla barriera con aria non curante, chiacchierando tranquillamente e scivolarono di lato attraverso di essa e il binario 9 e tre quarti si materializzò davanti a loro. L'Hogwarts Express, un treno a vapore di un rosso lucente, era già al binario che sputava nuvole di fumo, da cui i molti studenti di Hogwarts e i loro genitori emergevano come cupi fantasmi. Leo si fece più rumoroso che mai in risposta ai versi di molti gufi nella nebbia. Harry, Ron e Ermione andarono a prendere i posti e ben presto sistemarono i bagagli in uno scompartimento a metà del treno. Poi saltarono giù di nuovo sulla banchina per salutare la signora Weasley, Bill e Charlie. «Può darsi che ci vedremo prima di quanto pensiate», disse Charlie con un gran sorriso mentre abbracciava Ginny. «Perché?» chiese Fred molto incuriosito. «Lo vedrete», disse Charlie, «ma non dite a Persi che ve ne ho parlato. Sono informazioni riservate, almeno fino al momento in cui il ministero non gli terrà opportuno renderle note dopo tutto», disse nel tono pomposo di Persi. «Sì, vorrei tanto tornare a Hogwarts quest'anno», disse Bill, le mani in tasca, guardando il treno con aria quasi malinconica. «Perché?» chiese George impaziente. «Sarà un anno interessante per voi», disse Bill con gli occhi che brillavano. «Potrei perfino prendermi una vacanza per venire a dare un'occhiata». «Un'occhiata a cosa?» chiese Ron. Ma in quel momento il treno fischiò e la signora Weasley li sospinse verso le porte. «Grazie per averci ospitati, signora Weasley», disse Hermione, mentre salivano a bordo, chiudevano la porta e si sporgevano dal finestrino per gli ultimi saluti. «Sì, grazie di tutto, signora Weasley», aggiunse Harry. «Oh, è stato un piacere, cari», disse la signora Weasley. «Vi inviterei per Natale, ma, beh, suppongo che vorrete tutti restare a Hogwarts, visto che, insomma, fra una cosa e l'altra». «Ma, ma», disse Ron seccato, «che cosa sapete voi tre che noi non sappiamo?» «Lo scoprirete questa sera, immagino», disse la signora Weasley con un sorriso. «Sarà molto eccitante. Badate, sono molto felice che le regole siano cambiate». «Quali regole?», chiesero Harry, Ron, Fred e George in coro. «Sono sicura che il professor Silente ve lo dirà. Ora fate i bravi, d'accordo?» «D'accordo, Fred e George?» I pistoni si bilarono forte e il treno prese a muoversi. «Dici che cosa succederà a Hogwarts?», urlò Fred, spenzolandosi dal finestrino, mentre la signora Weasley, Bill e Charlie si allontanavano a gran velocità. «Che regole sono cambiate!» Ma la signora Weasley si limitò a sorridere e ad agitare la mano. Prima che il treno avesse voltato l'angolo, lei, Bill e Charlie si erano smaterializzati. Harry, Ron e Hermione tornarono nel loro scompartimento. La pioggia fitta che spruzzava i finestrini rendeva molto difficile guardare fuori. Ron aprì il suo baule, estrasse l'abito da cerimonia marrone e lo gettò sulla gabbia di Leo per farlo star zitto. «Buckman voleva dirci che cosa succederà a Hogwarts», disse imbronciato sedendo vicino a Harry. «Alla coppa del mondo, vi ricordate? E mia madre non vuole dirmelo. Chissà cosa...» «Sst!» Hermione sussurrò all'improvviso, premendosi un dito sulle labbra e indicando lo scompartimento accanto. Harry e Ron tesero le orecchie e dalla porta aperta udirono una familiare voce nell'iflua. «Mio padre ha seriamente preso in considerazione l'idea di mandarmi a Durmstrang invece che a Hogwarts, sapete? Conosce il preside, vedete? Beh, lo sapete che cosa pensa di Silente? Quello ama il sangue marcio e Durmstrang non ammette quel genere di plebaglia. Ma a mia madre non piaceva l'idea che andassi a scuola così lontano. Mio padre dice che Durmstrang ha una posizione molto più ragionevole di Hogwarts sulle arti oscure. Gli studenti di Durmstrang le imparano, non fanno solo quelle sciocchezze di difesa come noi». Hermione si alzò, raggiunse in punta di piedi la porta dello scompartimento e la fece scorrere, chiudendo fuori la voce di Malfoy. «Quindi è convinto che Durmstrang sarebbe andata meglio per lui, vero?» disse con rabbia. «Vorrei tanto che ci fosse andato, così non dovremmo sopportarlo noi. Durmstrang è un'altra scuola di magia», chiese Henry. «Sì», rispose Hermione sprezzante, «e ha una pessima fama. Secondo compendio sull'istruzione magica in Europa dà una grande importanza alle arti oscure». «Credo di averne sentito parlare», disse Ron vagamente. «Dov'è? In che paese?» «Beh, nessuno lo sa, no?» disse Hermione alzando le sopracciglia. «Perché no?» chiese Henry. «Per tradizione c'è sempre una grande rivalità tra tutte le scuole di magia. Durmstrang e Bobaton preferiscono tenere nascosta la loro posizione, così nessuno può rubare i loro segreti», spiegò Hermione con tono pratico. «Andiamo», disse Ron cominciando a ridere. «Durmstrang deve essere grande come Hogwarts. Come si fa a nascondere un castello enorme?» «Ma Hogwarts è nascosto», disse Hermione sorpresa. «Lo sanno tutti. Beh, tutti quelli che hanno letto storia di Hogwarts, comunque». «Solo tu, allora», disse Ron. «Vai avanti. Come si fa a nascondere un posto come Hogwarts?» «È stregato», disse Hermione. «Se un babbano lo guarda, non vede altro che un ammasso di rovine con un cartello all'ingresso che dice attenzione, non entrare, pericolo». Quindi anche Durmstrang appare in rovina visto da fuori. «Forse», rispose Hermione scrollando le spalle, «o potrebbe essere pieno di incantesimi respingi babbani come lo stadio della Coppa del Mondo e per evitare che i maghi stranieri lo scoprano l'avranno reso indisegnabile». «Come hai detto?» «Beh, si può stregare un edificio in modo che sia impossibile riprodurlo su una cartina, no?» «Se lo dici tu», disse Harry, «ma io sono convinta che Durmstrang si trovi da qualche parte nell'estremo nord, su su», disse Hermione pensierosa, «in un posto molto freddo, perché hanno anche mantelli di pelliccia come parte della divisa». «Pensate un po', disse Ron sognante, «sarebbe stato così facile buttare Malfoy giù da un ghiacciaio e farlo sembrare un incidente, peccato che sua madre abbia voluto tenerselo vicino!» La pioggia divenne sempre più fitta mentre il treno avanzava verso nord. Il cielo era così cupo e i finestrini così appannati che le lanterne vennero accese già a mezzogiorno. Il carrello del pranzo arrivò sferragliando lungo il corridoio e Harry comprò un bel mucchio di calderotti da dividere con gli altri. Parecchi dei loro amici vennero a salutarli mentre il pomeriggio avanzava, compresi Simus Finnegan, Dean Thomas e Neville Longbottom, un ragazzo molto distratto dalla faccia tonda che era stato cresciuto da una formidabile nonna strega. Simus portava ancora la coccarda dell'Irlanda, un po' della magia sembrava essersi consumata, strillava ancora «Troi! Mullet! Moran!» ma in tono molto debole e sfinito. Dopo una mezz'oretta, Ermione, stanca delle interminabili chiacchiere sul Quidditch, si seppellì di nuovo nel Manuale degli Incantesimi, volume quarto, e cominciò a cercare di imparare un incantesimo di appello. Neville ascoltò gli altri con invidia mentre raccontavano i momenti più magici della finale. «La nonna non è voluta venire», disse depresso. «Non ha voluto comprare i biglietti, però deve essere stato straordinario!» «Proprio così!» disse Ron. «Guarda qua, Neville!» frugò nel baule issato sul portabagagli ed estrasse il Victor Croom in miniatura. «Oh, wow!» esclamò Neville, sempre più invidioso, mentre Ron gli metteva Croom nella mano grassoccia. «L'abbiamo visto anche da vicino!» disse Ron. «Eravamo in tribuna d'onore!» «Per la prima e ultima volta in vita tua, Weasley!» Draco Malfoy era comparso sulla porta. Dietro di lui c'erano Crabbe e Goyle, i suoi enormi scagnozzi, entrambi cresciuti, a quanto pareva, di almeno una trentina di centimetri durante l'estate. Evidentemente avevano origliato la conversazione dalla porta che Dean e Simus avevano lasciato socchiusa. «Non mi pare di averti invitato qui, Malfoy!» disse Harry freddamente. «Weasley, che cos'è quella?» disse Malfoy, indicando la gabbia di Leo. Una manica dell'abito da cerimonia di Ron pensolava, oscillando al movimento del treno, mettendo chiaramente in mostra il polsino di pizzo ammuffito. Ron fece per nascondere il tutto, ma Malfoy fu più veloce, afferrò la manica e tirò. «Guardate qui!» esclamò estatico esibendo il vestito. «Weasley, non pensavi mica di metterti questa roba, vero? Voglio dire, era molto di moda nel 1890 o giù di lì!» «Vai a mangiare cacca, Malfoy!» disse Ron, dello stesso colore del vestito, mentre lo strappava dalle mani dell'altro. Malfoy scoppiò in una risata di scherno. Crabbe e Goyle ridacchiarono stupidamente. «Allora, hai intenzione di partecipare, Weasley? Vuoi provare a portare un po' di gloria al nome di famiglia? C'è anche del denaro, sai. Potresti permetterti dei vestiti decenti, se vincessi!» «Di cosa stai parlando?» sbottò Ron. «Hai intenzione di partecipare?» ripetè Malfoy. «Immagino che tu ci sarai, Potter. Non perdi mai l'occasione di metterti in mostra, vero?» «Dicci cosa vuoi o sparisci, Malfoy», disse Ermione seccamente, da sopra il manuale degli incantesimi. Un sorriso gioioso si aprì sul volto pallido di Malfoy. «Non dirmi che non lo sai», disse deliziato. «Hai il padre e un fratello al ministero e non lo sai nemmeno? Santo cielo! Mio padre me l'ha detto secoli fa. L'ha sentito dire da Cornelius Fudge. Ma certo, mio padre ha sempre contatti di alto livello al ministero. Forse tuo padre è troppo in basso per saperlo». «Weasley, sì, probabilmente non parlano di cose importanti in sua presenza». Con un'ultima risata Malfoy fece un cenno a Crabbe e Goyle e scomparvero tutti e tre. Ron scattò in piedi e chiuse la porta scorrevole con tanta forza da mandare in frantumi il vetro. «Ron!» esclamò Ermione, poi estrasse la bacchetta, bisbigliò «Reparo!» e i sola lastra, che tornò sulla porta. «Beh, sembra sempre che lui sappia tutto e noi no», ringhiò Ron. «Ma certo, mio padre ha sempre contatti di alto livello al ministero. Papà avrebbe potuto avere la promozione quando voleva, è solo che gli piace stare dove sta». «Ma certo», disse Ermione piano, «non lasciare che ti provochi, Ron». «Lui, provocarmi, figuriamoci», disse Ron, afferrando uno dei calderotti rimasti e riducendolo in poltiglia. Il cattivo umore di Ron durò per tutto il viaggio. Non parlò molto mentre indossavano la divisa della scuola ed era ancora incupito quando l'Hogwarts Express finalmente rallentò e si fermò nel buio impenetrabile della stazione di Hogsmeade. Mentre le portiere si aprivano, in alto echeggiò un rombo di tuono. Ermione avvolse grattastinchi nel suo mantello e Ron lasciò l'abito da cerimonia sopra Leo, mentre scendevano dal treno le testechine e gli occhi ridotti a fessure per il diluvio. La pioggia ora scendeva così fitta e rapida che era come se sulle loro teste venissero continuamente rovesciati secchi d'acqua ghiacciata. «Ciao, Hagrid!», gridò Henry individuando una sagoma gigantesca all'estremità della banchina. «Tutto bene, Henry!», urlò di rimando Hagrid agitando il braccio. «Ci si vede alla festa se non si affoga prima!». Quelli del primo anno per tradizione approdavano al castello di Hogwarts attraversando il lago in barca con Hagrid. «Oh, non mi piacerebbe affatto attraversare il lago con questo tempo!», disse Ermione convinta, tremando mentre avanzavano lentamente lungo la banchina buia col resto della folla. Un centinaio di carrozze senza cavallo erano schierate in attesa fuori dalla stazione. Henry, Ron, Ermione e Neville si arrampicarono con sollievo in una di esse. La porta si chiuse con un colpo secco e qualche momento dopo la lunga processione di carrozze si fece strada rombando e schizzando acqua su per il sentiero che conduceva al castello di Hogwarts. Il torneo tre maghi Le carrozze avanzarono pesantemente attraverso i cancelli, fiancheggiati da statue di cinghiali alati e su per il ripido viale, oscillando pericolosamente in quella che si stava trasformando in fretta in una tempesta. La fronte contro il finestrino, Henry vide Hogwarts avvicinarsi, le molte finestre illuminate, confuse e tremolanti, al di là della fitta cortina di pioggia. Un fulmine dardeggiò nel cielo mentre la loro carrozza si fermava davanti ai grandi portoni di quercia, in cima alla rampa di gradini di pietra. Chi era a bordo delle carrozze davanti a loro già si affrettava a salire e a entrare nel castello. Anche Henry, Ron, Ermione e Neville balzarono giù e sfrecciarono per gli scalini, alzando lo sguardo solo quando si trovarono al riparo, nell'imponente sala d'ingresso, illuminata dalle torce, con la sua grandiosa scalinata di marmo. «Miseriaccia!» disse Ron, scuotendo la testa e schizzando acqua dappertutto. «Se continua così, il lago strariperà! Sono fradi...» Un grosso palloncino rosso pieno d'acqua era caduto giù dal soffitto sulla testa di Ron ed era esploso. Insuppato e sputacchiante, Ron barcollò e urtò Henry. Un secondo palloncino mancò per un soffio Ermione ed esplose ai piedi di Henry, sollevando un'ondata di acqua fredda sulle sue scarpe da tennis e fin dentro i calzini. I ragazzi intorno striderarono e presero a spintonarsi nel tentativo di uscire dalla linea di tiro. Henry alzò la testa. Sei metri più su, a mezz'aria, Peeves il poltergeist, un omino con il berretto coperto di campanelle e il papillon arancione, prendeva la mira con la faccia maligna deformata dalla concentrazione. «Peeves!» urlò una voce adirata. «Peeves, vieni giù immediatamente!» La professoressa McGonagall, vicepreside della scuola e direttrice della casa di Grifondon, oro, era arrivata di fretta dalla sala grande. Scivolò sul pavimento bagnato e si aggrappò al collo di Ermione per non cadere. «Oops! Chiedo scusa, signorina Granger!» «Non è niente, professoressa!» esclamò Ermione col fiato mozzo, massaggiandosi la gola. «Peeves, scendi subito!» abbaiò la professoressa McGonagall, raddrizzandosi il cappello a punta e gettando un'occhiataccia in su, attraverso gli occhiali con la montatura squadrata. «Non sto facendo niente!» ridacchiò Peeves scagliando una bomba d'acqua contro alcune ragazze del quinto anno, che urlarono e si precipitarono in sala grande. «Sono già bagnati, no? Mocciosetti! Vai!» e colpì un gruppo di ragazzi del secondo anno, che erano appena arrivati. «Chiamerò il preside!» gridò la professoressa McGonagall. «Ti avverto, Peeves!» Peeves tirò fuori la lingua, scagliò gli ultimi gavettoni e sfrecciò via su per la scalinata di marmo, ridendo come un pazzo. «Beh, avanti adesso!» disse severa la professoressa McGonagall alla folla in subuglio. «In sala grande! Andiamo!» Harry, Ron e Ermione percorsero sdrucciolando la sala d'ingresso e attraversarono la doppia porta sulla destra, con Ron che borbottava inviperito a mezza voce mentre si spingeva via dalla faccia i capelli insuppati. La sala grande era magnifica come sempre, decorata per il banchetto d'inizio anno. Piatti e calici d'oro scintillavano alla luce di centinaia e centinaia di candele che galleggiavano a mezz'aria sopra i tavoli. Le quattro lunghe tavolate delle case erano affollate di studenti vocianti. In fondo alla sala gli insegnanti sedevano lungo un solo lato di un quinto tavolo di fronte ai loro allievi. Lì dentro faceva molto più caldo. Harry, Ron e Ermione passarono oltre i serpeverde, i corvo nero e i tassofrasso e si sedettero con gli altri di Grifondoro all'estremità della sala, vicino a Nick quasi senza testa, il fantasma di Grifondoro. Biancastro e quasi trasparente, Nick quella sera portava il suo solito farsetto con una gorgiera particolarmente ampia, che serviva al doppio scopo di essere vestito a festa e di assicurare che la testa non ciondolasse troppo sul collo, in parte tagliato. «Buonasera», disse sorridendo. «La sapete una cosa?», disse Ron sfilandosi le scarpe e svuotandole dell'acqua. «Spero che si sbrighino con lo smistamento. Sto morendo di fame». La cerimonia dello smistamento degli studenti alle case si svolgeva all'inizio di ogni anno scolastico, ma per una sfortunata serie di circostanze Harry non aveva assistito a nessuna dopo la sua. Aveva una certa voglia di vederla. In quell'istante una voce affannata e molto su di giri gridò dall'altra parte del tavolo. «Ehi là, Harry!» Era Colin Crivey, uno del terzo anno per il quale Harry era una specie di eroe. «Ciao, Colin!», rispose Harry cauto. «Harry, indovina un po'? Quest'anno c'è anche mio fratello, mio fratello Dennis!» «Ah, bene!», disse Harry. «È davvero emozionato!», esclamò Colin, praticamente saltellando. «Spero solo che finisca a Grifondoro! Incrocia le dita, eh, Harry!» «Sì, certo!», disse Harry. Poi si rivolse di nuovo a Ron, Ermione e Nick quasi senza testa. «I fratelli e le sorelle, di solito, vanno nelle stesse case, vero?», disse. Lo deduceva dai Weasley, che erano stati assegnati tutti e sette a Grifondoro. «Oh no, non necessariamente», disse Ermione. «La gemella di Parvati Patil è a Corvo Nero e sono identiche. Ci si aspetterebbe che stessero insieme, no?». Harry guardò il tavolo degli insegnanti. Sembrava che ci fossero più posti vuoti del solito. Hagrid, naturalmente, stava ancora tentando di attraversare il lago con quelli del primo anno. La professoressa McGonagall probabilmente stava sovrintendendo all'asciugatura del pavimento dell'ingresso, ma c'era anche un altro posto vuoto e Harry non riuscì a capire chi altri mancasse. «Dov'è il nuovo insegnante di difesa contro le arti oscure?», chiese Ermione, guardando dalla stessa parte. «Non avevano ancora avuto un insegnante di difesa contro le arti oscure che fosse durato più di un anno». Il preferito di Harry di gran lunga era stato il professor Lupin, che aveva dato le dimissioni l'anno prima. Guardò il tavolo dei professori in lungo e in largo. Decisamente non c'erano facce nuove laggiù. «Forse non sono riusciti a trovare nessuno», disse Ermione preoccupata. Harry scrutò il tavolo con maggiore attenzione. Il minuscolo professor Flitwick, l'insegnante di incantesimi, era seduto su una grossa pila di cuscini accanto alla professoressa Sprout, l'insegnante di erbologia, che aveva il cappello di traverso sui capelli neri svolazzanti. Stava parlando con la professoressa sinistra di astronomia. Accanto sedeva il giallastro Aquilino, un tuoso insegnante di pozioni. Piton, la persona meno gradita a Harry di tutta Hogwarts. Il disgusto di Harry per Piton era pari solo all'odio di Piton per lui, un odio che, se possibile, era aumentato l'anno prima, quando Harry aveva aiutato Sirius a fuggire proprio sotto il lungo naso di Piton. Piton e Sirius erano nemici fin dai tempi della scuola. Vicino a Piton c'era un posto vuoto, che Harry immaginò fosse quello della professoressa McGonagall. Oltre, esattamente al centro del tavolo, sedeva il professor Silente, il preside, i capelli argentei e la barba fluente che brillavano alla fiamma delle candele, gli splendidi abiti verde cupo, ricamati di numerose stelle e lune. Silente posava il mento sulle lunghe dita sottili, fissando il soffitto attraverso gli occhiali a mezzaluna, come se fosse perso nei suoi pensieri. Anche Harry guardò il soffitto, che rifletteva per magia il cielo fuori, e non l'aveva mai visto così tempestoso. Nuvole nere e viola lo attraversavano vorticando, e mentre rimbombava un altro tuono saettò un fulmine. «Oh, muovetevi!» silagnò Ron accanto a Harry. «Potrei mangiarmi un ipogrifo!» Non fece in tempo a finire la frase che le porte della sala grande si aprirono, e cadde il silenzio. La professoressa McGonagall guidò una lunga fila di ragazzini del primo anno fino all'altro capo del salone. Se Harry, Ron e Hermione erano bagnati, non era niente a confronto dei nuovi arrivati. Sembrava che invece di arrivare in barca avessero attraversato il lago a nuoto. Tutti tremavano di freddo e nervosismo, mentre sfilavano lungo il tavolo degli insegnanti e si fermavano davanti al resto della scuola. Tutti tranne il più piccolo, un ragazzino coi capelli color topo, avvolto in quello che Harry riconobbe come il cappotto di pelliccia di talpa di Hagrid. Il cappotto era così grande per lui che sembrava avviluppato in un tendone nero e peloso. Il suo faccino spuntava da sopra il colletto, emozionato quasi da star male. Quando ebbe preso posto accanto ai suoi terrorizzati coetanei, incrociò lo sguardo di Colin Crivey, alzò entrambi i pollici e articolò «Sono caduto nel lago!». Sembrava decisamente divertito dall'accaduto. La professoressa McGonagall posò uno sgabello davanti alla fila e vi sistemò sopra un cappello da mago estremamente vecchio, sporco e rattoppato. I ragazzini lo fissarono, così tutti gli altri. Per un attimo calò il silenzio, poi uno strappo vicino all'orlo si spalancò come una bocca e il cappello prese a cantare. «Anni ne son passati più di mille all'epoca in cui io fui cucito. Quattro maghi facevano faville e i loro nomi hai certo già sentito. Da landa incolta grifondoro fiero, da strette forre onesto corvo nero, da ampie valli tassofrasso il mite, l'astuto serpeverde da marcite. Un sogno li teneva uniti e stretti, un desiderio una speranza sola, formare ed educar nuovi maghetti. Per questo a Hogwarts fecero una scuola. Tra quattro case, Hogwarts fu divisa, cioè una per ognuno dei maestri, e tale divisione fu decisa perché ciascun seguisse i propri estri. Amava sa il coraggio, grifondoro. Per lo scolaro audace era il suo alloro. Di corvo nero fu l'intelligenza, da subito virtù di preferenza. Tassofrasso considerava degno delle lodi più calde il duro impegno. L'ambizione piaceva a serpeverde, che sempre amò chi vince e mai chi perde. Quale allievo mandare a quale casa non fu già mai un problema finché vissero, ma chi sceglier saprà, un dì si dissero, quando morti saremm tabula rasa. Trovò la soluzione grifondoro, dal capo tolse me il suo cappello, perché potessi scegliere per loro, mi donarono un poco di cervello. Non sbaglio mai, e dunque adesso vieni. Fino alle orecchie calcami, aderente, do un'occhiata dentro alla tua mente, e ti dico la casa a cui appartieni. Il cappello parlante finì, e la sala grande risuonò d'applausi. Non è la stessa canzone che ha cantato quando ha smistato noi, disse Harry, applaudendo assieme a tutti gli altri. «Ne canta una diversa ogni anno», disse Ron. «Deve essere una vera pizza essere un cappello, no? Immagino che passi tutto l'anno a preparare la prossima». La professoressa McGonagall stava srotolando un gran rotolo di pergamena. «Quando vi chiamo, dovete mettervi il cappello e sedervi sullo sgabello», disse ai ragazzi in fila. «Quando il cappello proclama la vostra casa, andrete a sedervi al tavolo giusto». «Hackeray Stewart», un ragazzo fece un passo avanti, tremando visibilmente da capo a piedi. Prese il cappello parlante, se lo mise e si sedette sullo sgabello. «Corvo nero», strillò il cappello. Stewart Hackeray se lo tolse e corse al tavolo di Corvo nero, dove tutti lo applaudirono. Harry colse di sfuggita Cho, la cercatrice di Corvo nero, che festeggiava il nuovo arrivato. Per un attimo fuggente, Harry provò lo strano impulso di unirsi al tavolo di Corvo nero. «Baddock Malcom! Serpeverde!» Il tavolo all'altro capo della sala esplose in applausi. Harry vide Malfoy battere le mani, mentre Baddock si univa ai Serpeverde. Harry si chiese se Baddock sapesse che la casa di Serpeverde aveva prodotto più maghi e streghe oscuri di qualunque altra. Fred e George fischiarono, mentre Malcolm Baddock si sedeva. «Branston Eleanor!» «Tassofrasso!» «Coldwell Owen!» «Tassofrasso!» «Creevey Dennis!» Il piccolo Dennis Creevey barcollò in avanti, inciampando nella pelliccia di talpa di Hagrid, proprio mentre quest'ultimo scivolava nella sala, attraverso una porta dietro il tavolo degli insegnanti. Alto due volte un uomo normale e largo almeno tre, Hagrid, con la sua lunga barba nera, aggrovigliata e incolta, aveva un aspetto vagamente inquietante, una falsa impressione, perché Harry, Ron e Hermione sapevano che Hagrid aveva proprio un buon carattere. Il gigante fece loro l'occhiolino, mentre sedeva all'estremità del tavolo degli insegnanti e guardava Dennis Creevey infilarsi il cappello parlante. Lo squarcio vicino all'orlo si spalancò. «Grifondoro!» gridò il cappello. Hagrid batté le mani con quelli di Grifondoro, mentre Dennis Creevey, con un sorriso smisurato, si sfilava il cappello e correva a raggiungere Colin. «Colin, ce l'ho fatta!» disse con voce acuta, lasciandosi cadere su una sedia vuota. «È stato bellissimo! E qualcosa nell'acqua mi ha afferrato e mi ha spinto di nuovo sulla barca!» «Forte!» disse Colin con lo stesso tono eccitato. «Probabile che fosse la piovra gigante, Dennis!» «Wow!» disse Dennis come se nessuno, nemmeno nel sogno più selvaggio, potesse sperare di meglio che finire dentro un lago profondissimo, agitato dalla tempesta ed esserne ributtato fuori da un mostro marino gigante. «Dennis! Dennis! Lo vedi quel ragazzo laggiù? Quello con i capelli neri e gli occhiali! L'hai visto? Lo sai chi è, Dennis?» Harry distorse lo sguardo e lo fissò con insistenza sul cappello parlante, che ora chiamava Emma Dobbs. Lo smistamento continuò. Ragazzi e ragazze con vari gradi di paura stampati in faccia avanzavano uno dopo l'altro verso lo sgabello e la fila diminuì lentamente, mentre la professoressa McGonagall finiva con la lettera L. «Oh, muovetevi!» gemette Ron massaggiandosi lo stomaco. «Insomma, Ron, lo smistamento è più importante del cibo!» disse Nick quasi senza testa, mentre Medley Laura entrava a far parte di Tassofrasso. «Certo, se sei morto!» ribatté Ron. «Spero che quelli di Grifondoro di quest'anno siano all'altezza della situazione!» disse Nick quasi senza testa, applaudendo mentre McDonald Natalie si univa al tavolo di Grifondoro. «Non vorremmo perdere la nostra serie di vittorie, vero?» Grifondoro aveva vinto la Coppa delle Case tre anni di fila. «Prichard Graham!» «Serpe verde!» «Quark urla!» «Corvo nero!» e finalmente con Whitby Kevin, Tassofrasso, lo smistamento si concluse. La professoressa McGonagall prese il cappello e lo sgabello e li portò via. «Era ora!» disse Ron, brandendo coltello e forchetta e guardando con aria d'attesa il suo piatto d'oro. Il professor Silente si era alzato in piedi, sorrise agli studenti, le braccia allargate in segno di benvenuto. «Ho solo una parola da dirvi!» esordì la voce profonda che eccheggiava nella sala. «Abbuffatevi!» «E come!» esclamarono Harry e Ron ad alta voce, mentre i vassoi vuoti si riempivano per magia davanti ai loro occhi. Nick, quasi senza testa, rimase a guardare con aria tetra, mentre Harry, Ron e Hermione si riempivano i piatti. «Ah, si va meglio!» disse Ron con la bocca piena di purè di patate. «Siete fortunati che stasera ci sia il banchetto, sapete?» disse Nick, quasi senza testa. «Sono successi dei guai in cucina prima!» «Perché? Che coi è il tutto esso?» disse Harry, masticando un enorme pezzo di bistecca. «Peeves, naturalmente!» disse Nick, quasi senza testa, scuotendo il capo che oscillò pericolosamente. Si sistemò la gorgiera un po' più su e riprese. «La solita questione, sapete? Voleva partecipare al banchetto. Beh, non se ne parla proprio, sapete com'è fatto. Così tremendamente incivile. Appena vede un piatto di cibo lo lancia!» «Abbiamo tenuto un consiglio di spettri. Il frate Grasso voleva che gli dessimo una possibilità. Ma assai saggiamente, secondo me, il barone sanguinario è stato fermissimo!» Il barone sanguinario era lo spettro di Serpeverde, un fantasma magro e silenzioso, coperto di macchie di sangue argentato. Era l'unico a Hogwarts in grado di controllare Peeves. «Sì, l'avevamo capito che Peeves sembrava eccitato per qualcosa», disse Ron Cupo. «E allora che cosa ha combinato nelle cucine?» «Oh, il solito», rispose Nick quasi senza testa alzando le spalle. «Caos, turbamento e tafferuglio! Pentole dappertutto, tutto allagato di minestra! Ha terrorizzato gli elfi domestici!» «Clang!» Ermione aveva rovesciato la sua coppa d'oro. Il succo di zucca dilagò sulla tovaglia, lasciando una considerevole macchia arancione sul lino candido. Ma Ermione non ci fece caso. «Ci sono elfi domestici qui?» esclamò, guardando con orrore, Nick quasi senza testa. «Qui a Hogwarts?» «Certamente», rispose Nick quasi senza testa, sorpreso dalla sua reazione. «Il più alto numero che in qualunque altro luogo della Gran Bretagna, credo. Sono più di cento!» «Non ne ho mai visto uno», disse Ermione. «Beh, non escono quasi mai dalla cucina di giorno, no?» disse Nick quasi senza testa. «Vengono fuori di notte per fare le pulizie, controllare i camini e così via. Voglio dire, non si dovrebbe vederli, giusto? È questa la caratteristica di un buon elfo domestico, che non sai che c'è! Non è così?» Ermione lo fissò. «Ma vengono pagati?» chiese. «Hanno le vacanze, vero? E i permessi per malattia, la pensione e il resto?» Nick quasi senza testa ridacchiò così forte che la gorgiera scivolò via e la testa ricadde, penzolando dai tre centimetri scarsi di pelle e muscolo spettrale che la tenevano unita al collo. «Permessi per malattia e pensione?» disse, risistemandosi la testa fra le spalle e bloccandola di nuovo con la gorgiera. «Gli elfi domestici non vogliono permessi per malattia e pensione!» Ermione abbassò gli occhi sul piatto quasi intatto, riposò forchetta e coltello e lo spinse via. «Andiamo, Mione!» disse Ron spruzzando pezzetti di pasticcio di Yorkshire addosso a Harry. «Op! Cusa, Harry!» deglutì. «Non sarà digiunando che gli farai avere i permessi per malattia!» «Lavoro da schiavi!» disse Ermione respirando affannosamente. «Ecco che cosa ha prodotto questa cena! Lavoro da schiavi!» e si rifiutò di inghiottire un altro boccone. La pioggia tamburellava ancora pesantemente contro le alte scure finestre. Un altro tuono scosse i vetri e il soffitto tempestoso fu attraversato da un bagliore che illuminò i piatti d'oro mentre gli avanzi della prima portata sparivano e venivano sostituiti all'istante da altre pietanze. «Torta di melassa, Ermione!» disse Ron spingendola apposta sotto il suo naso. «Guarda! Torta marmorina! Dolce al cioccolato!» Ma Ermione gli scoccò un'occhiata così simile a quelle della professoressa McGonagall che lasciò subito perdere. Quando anche i dolci furono spazzolati e le ultime briciole svanite dai piatti lasciandoli lustri e puliti, Albus Silente si alzò di nuovo. Il chiacchiericcio che riempiva la sala si interruppe quasi all'istante, tanto da lasciare udire solo l'ululato del vento e il picchiettio della pioggia. «Dunque!» esordì Silente sorridendo a tutti quanti. «Ora che siamo tutti sazi e dissetati...» «Mff!» borbottò Ermione. «Devo richiamare ancora una volta la vostra attenzione su alcuni avvisi. Il signor Filch, il custode, mi ha chiesto di dirvi che la lista di oggetti proibiti dentro le mura del castello quest'anno è stata estesa agli yo-yo ululanti, ai frisbee zannuti e ai boomerang rimbalzatutto. La lista completa comprende qualcosa come 437 oggetti, credo, e può essere consultata nell'ufficio del signor Filch, se qualcuno volesse controllare. Gli angoli della bocca di Silente si arricciarono. «Come sempre vorrei ricordare a tutti voi che la foresta compresa entro i confini del parco della scuola è proibita agli studenti, come lo è il villaggio di Hogsmeade a tutti coloro che non sono ancora al terzo anno. È altresì mio doloroso dovere informarvi che il campionato di Quidditch quest'anno non avrà luogo». «Che cosa?» esclamò Henry senza fiato. Cercò con lo sguardo Fred e George, suoi compagni di squadra. Aprivano e chiudevano la bocca senza emettere alcun suono, evidentemente troppo sconvolti per parlare. Silente riprese. «Ciò è dovuto a un evento che prenderà il via in ottobre e continuerà per tutto l'anno scolastico, impegnando molto del tempo e delle energie degli insegnanti. Ma sono certo che vi divertirete tutti enormemente. Ho l'immenso piacere di annunciare che quest'anno a Hogs...» ma in quel momento risuonò un tuono assordante e le porte della sala grande si spalancarono. Sulla soglia c'era un uomo appoggiato a un lungo bastone, avvolto in un mantello nero da viaggio. Un lampo improvviso lo illuminò. Tutte le teste dei ragazzi si volsero di scatto a guardarlo. L'uomo abbassò il cappuccio, scosse una folta chioma di lunghi capelli brizzolati, poi prese ad avanzare verso il tavolo degli insegnanti. Un sordo clank e cheggiò nella sala un passo sì e uno no. Lo sconosciuto raggiunse l'estremità del tavolo, voltò a destra e zoppicò vistosamente verso Silente. Un altro lampo attraversò il soffitto. Ermione trattenne il respiro. Una luce tagliente aveva illuminato il viso dell'uomo, un viso diverso da tutti quelli che Harry avesse mai visto. Era come se fosse stato scolpito nel legno da uno scultore inesperto che aveva solo una vaghissima idea di come avrebbe dovuto essere un volto umano. Ogni centimetro di pelle sembrava coperto di cicatrici. La bocca pareva un taglio diagonale e mancava un grosso pezzo di naso, ma furono gli occhi dell'uomo a spaventarlo. Uno era piccolo, scuro e lucente, l'altro era grande, tondo come una moneta e di un vivace blu elettrico. L'occhio blu si muoveva incessantemente, senza che mai calasse la palpebra, e roteava in su, in giù e da una parte all'altra, in totale autonomia rispetto all'occhio normale, e poi roteò indietro, verso l'interno della testa, così che ne rimase visibile solo il bianco. Lo straniero raggiunse Silente, tese una mano coperta di cicatrici quanto il volto, e Silente la strinse, mormorando parole che Harry non riuscì a cogliere. Parve rivolgere qualche domanda allo straniero, che scosse la testa senza sorridere, e rispose sottovoce. Silente annui, e fece segno all'uomo di sedere nel posto vuoto alla sua destra. Lo straniero sedette, scosse via la chioma grigio scuro, trasse a sé un piatto di salsicce, lo portò a ciò che restava del naso, e lo annusò. Poi estrasse dalla tasca un coltellino, vi infilzò l'estremità della salsiccia, e cominciò a mangiare. L'occhio normale era fisso sulle salsicce, ma quello blu sfrecciava ancora il requieto tra le palpebre, abbracciando la sala e gli studenti. «Vorrei presentarvi il nostro nuovo insegnante di difesa contro le arti oscure!» disse allegro Silente, rompendo il silenzio. «Il professor Moody!» Era consuetudine che i nuovi componenti del corpo insegnante venissero accolti con un applauso, ma nessuno, né fra i docenti né fra i ragazzi, batte le mani, a parte Silente e Hagrid. Il suono è che giò lugubre nel silenzio e ben presto smisero. Tutti gli altri sembravano troppo esterrefatti dalla bizzarra apparizione di Moody per riuscire a far altro che fissarlo. «Moody!» mormorò Harry rivolto a Ron. «Ma l'occhio Moody, quello che tuo padre è corso ad aiutare stamattina!» «Deve essere lui!» disse Ron con voce bassa e timorosa. «Che cosa gli è successo?» sussurrò Hermione. «Che cosa è successo alla sua faccia?» «Non lo so», mormorò Ron, osservando Moody affascinato. Moody parve del tutto indifferente all'accoglienza men che tiepida. Ignorando la caraffa di succo di zucca davanti a sé, infilò di nuovo la mano nel mantello da viaggio, estrasse una fiaschetta e beve una lunga sorsata. Mentre alzava il braccio, il mantello si sollevò leggermente da terra e Henry vide sotto il tavolo parecchi centimetri di una gamba di legno intagliato che terminava in un piede a zampa di leone. Silente si schiarì di nuovo la voce. «Come stavo dicendo?» disse, sorridendo alla marea di studenti davanti a lui, tutti con gli occhi ancora puntati su malocchio Moody. «Nei prossimi mesi avremo l'onore di ospitare un evento assai emozionante. Un evento che non ha luogo da più di un secolo. È con grandissimo piacere che vi informo che il torneo Tre Maghi quest'anno si terrà a Hogwarts!» «Sta scherzando!» disse Fred Weasley ad alta voce. La tensione che aveva riempito la sala, dall'arrivo di Moody, si ruppe all'improvviso. Quasi tutti scoppiarono a ridere e Silente ridacchiò in tono soddisfatto. «Non sto scherzando, signor Weasley!» disse. «Anche se ora che me l'ha ricordato, quest'estate me ne hanno raccontata una niente male su un troll, una megera e un lepricano che vanno insieme al bar». La professoressa McGonagall tossicchiò sonoramente. «Ma forse questo non è il momento, no», disse Silente. «Dov'ero rimasto? Ah sì, il Torneo Tre Maghi. Beh, alcuni di voi forse non sanno di che si tratta, quindi spero che quelli di voi che lo sanno mi perdoneranno questa breve spiegazione e sono liberi di pensare a quello che vogliono». Il Torneo Tre Maghi fu indetto per la prima volta settecento anni fa, come competizione amichevole tra le tre maggiori scuole europee di magia, Hogwarts, Bobaton e Durmstrang. Venne scelto un campione per rappresentare ciascuna scuola e i tre campioni gareggiarono in tre imprese magiche. Le scuole si alternavano nell'ospitare il Torneo ogni cinque anni e tutti convennero che fosse un modo eccellente per stabilire legami tra giovani streghe e maghi di diverse nazionalità, almeno fino a quando il tributo di morti non divenne così elevato che fu deciso di sospendere il Torneo. «Il tributo di morti!» sussurrò Hermione preoccupata, ma la sua agitazione non pareva condivisa dalla maggior parte degli studenti in sala. Molti di loro parlottavano eccitati e Henry stesso era molto più interessato ad avere altre notizie sul Torneo che a preoccuparsi per decessi avvenuti centinaia di anni prima. «Ci sono stati parecchi tentativi nel corso dei secoli di riportare in auge il Torneo», continuò Silente, «nessuno dei quali ha avuto molto successo. Comunque i nostri uffici per la cooperazione magica internazionale e per i giochi e gli sport magici hanno deciso che i tempi sono maturi per un nuovo tentativo. Abbiamo lavorato molto nel corso dell'estate per far sì che questa volta nessun campione o nessuna campionessa si trovi in pericolo mortale. I presidi di Bobaton e Durmstrang arriveranno in ottobre con la loro squadra scelta di campioni e la selezione dei tre sfidanti avverrà a Halloween. Un giudice imparziale deciderà quali studenti saranno più degni di gareggiare per la Coppa Tre Maghi. La gloria della loro scuola è un premio personale in denaro pari a mille galeoni». «Io ci sto», si bilò Fred Weasley lungo il tavolo, il viso acceso d'entusiasmo alla prospettiva di tanta gloria e ricchezza. Non era il solo a immaginarsi campione di Hogwarts. Ai tavoli di ciascuna casa Harry vide ragazzi e ragazze che guardavano rapiti verso Silente o confabulavano con i vicini, ma in quel momento Silente parlò di nuovo e la sala si zittì un'altra volta. «Pur sapendo quanto ciascuno di voi sia desideroso di portare a Hogwarts la Coppa Tre Maghi», disse, «i presidi delle scuole partecipanti, assieme al Ministero della Magia, hanno convenuto di imporre un limite d'età per gli sfidanti di quest'anno. Solo gli studenti dell'età giusta, cioè da diciassette anni in su, potranno proporsi per la selezione». «Questa...» Silente alzò un po' la voce, perché una rumorosa protesta si scatenò a quelle parole, e i gemelli Weasley all'improvviso divennero furibondi. «È una misura che riteniamo necessaria, dal momento che le prove del torneo saranno pur sempre difficili e pericolose, quali che siano le precauzioni che prenderemo, ed è altamente improbabile che gli studenti al di sotto del sesto e del settimo anno siano in grado di affrontarle. Mi assicurerò personalmente che nessuno studente di età inferiore inganni il nostro giudice imparziale e lo induca a nominarlo campione di Hogwarts». I suoi occhi azzurro chiaro scintillarono, indugiando sulle facce ribelli di Fred e George. «Pertanto vi prego di non perdere tempo a iscrivervi, se avete meno di 17 anni. Le delegazioni di Bobaton e Durmstrang arriveranno in ottobre e resteranno con noi per la maggior parte dell'anno. So che tutti voi tratterete con la massima gentilezza i nostri ospiti stranieri durante il loro soggiorno, e darete il vostro sincero sostegno al campione di Hogwarts quando verrà designato o designata. E ora è tardi, e so quanto è importante che ciascuno di voi sia ben sveglio e riposato quando comincerete le lezioni domani mattina. Ora di andare a letto, forza, veloci!» Silente si risedette e si voltò a parlare con malocchio mudi. Ci fu un gran fracasso di sedie spostate e colpi secchi, mentre tutti gli studenti si alzavano e sciamavano nella sala d'ingresso attraverso le doppie porte. «Non possono farlo!» esclamò George Weasley, che non si era unito alla folla che avanzava verso la porta, ma era lì in piedi a guardare torvo verso Silente. «Compiamo diciassette anni in aprile. Perché non possiamo provarci? Non riusciranno a impedirmi di partecipare», disse Fred cociuto, scrutando accigliato il tavolo degli insegnanti. «I campioni faranno un sacco di cose che normalmente uno non ha il permesso di fare. È il premio di mille galeoni!» «Sì», disse Ron, lo sguardo remoto. «Sì, mille galeoni!» «Andiamo», disse Ermione, «saremo gli ultimi se non vi muovete!» Harry, Ron, Ermione, Fred e George si avviarono verso l'ingresso. Gli ultimi due, impegnati a discutere su come Silente, avrebbe potuto impedire ai minori di diciassette anni di prendere parte alle selezioni del torneo. «Chi è il giudice imparziale che sceglierà i campioni?» chiese Harry. «Non lo so», disse Fred. «Ma è lui che dovremo ingannare. Scommetto che un paio di gocce di pozione invecchiante potrebbero servire, George.» «Ma Silente lo sa che non avete l'età richiesta», disse Ron. «Sì, ma non è lui a scegliere il campione, no?» disse Fred astuto. «Mi pare che una volta che questo giudice saprà chi vuole partecipare, sceglierà il migliore di ogni scuola, senza badare affatto all'età. Silente sta cercando di impedirci di partecipare.» «Ma ci sono stati dei morti», disse Hermione in tono petulante, mentre attraversavano una porta nascosta da un arazzo e imboccavano un'altra scalinata più stretta. «Sì», disse Fred con leggerezza, «ma è successo tanti anni fa, no? E poi che gusto c'è senza un po' di rischio? Ehi, Ron, e se scopriamo come aggirare Silente, ti va di partecipare?» «Che cosa ne dici?» Ron chiese a Harry. «Sarebbe forte esserci, no? Ma temo che vorrebbero qualcuno più grande. Non so se abbiamo imparato abbastanza.» «Io no, di sicuro!» esclamò la voce cupa di Neville da dietro Fred e George. «Però credo che la nonna vorrebbe che provassi. Dice sempre che dovrei tenere alto l'onore della famiglia. Quindi dovrò... Ops!» Il piede di Neville era sprofondato in un gradino a metà della rampa. C'erano molte scale truccate a Hogwarts. A gran parte degli studenti più anziani veniva ormai istintivo saltare quel gradino in particolare, ma la memoria di Neville era notoriamente scarsa. Harry e Ron lo afferrarono sotto le ascelle e lo tirarono fuori, mentre un'armatura in cima alle scale scricchiolava e sbatacchiava, scossa da una risata asmatica. «Zitto tu!» disse Ron, chiudendole la celata mentre passavano. Salirono fino all'ingresso della torre di Grifondoro, che era nascosto dietro un grande ritratto di una signora grassa vestita di seta rosa. «Parola d'ordine!» disse lei al loro arrivo. «Guazzabuglio!» disse George, me l'ha detta un prefetto giù di sotto. Il ritratto si aprì come una porta, rivelando un'apertura nel muro, che tutti attraversarono. Un fuoco scoppiettante riscaldava la sala comune circolare, piena di tavoli e poltrone soffici. Hermione scoccò uno sguardo cupo alle fiamme che danzavano allegramente, e Harry la sentì distintamente mormorare «Lavoro da schiavi!» prima di dar loro la buonanotte e di sparire al di là della porta, che conduceva al dormitorio femminile. Harry, Ron e Neville salirono l'ultima rampa di scale a spirale e raggiunsero il loro dormitorio, che si trovava in cima alla torre. Cinque letti a baldacchino con tende di un intenso rosso cremisi erano disposti lungo le pareti, ciascuno con il del proprietario ai piedi. Dean e Simus erano già pronti per dormire. Simus aveva fissato la coccarda dell'Irlanda alla testata del letto, e Dean aveva appeso un poster di Victor Krumm sopra il comodino. Il suo vecchio manifesto della squadra di calcio dei West Ham era fisso lì accanto. «Che matto!» sospirò Ron, scuotendo la testa verso i giocatori perfettamente immobili. Harry, Ron e Neville si infilarono il pigiama e si ficarono al letto. Qualcuno, un elfo domestico senza dubbio, aveva sistemato degli scaldini tra le lenzuola. Era molto piacevole, stardì distesi sotto le coperte ad ascoltare la tempesta che infuriava di fuori. «Potrei provarci, sai», disse Ron assonnato nell'oscurità. «Se Fred e George trovano il modo, il torneo, non si sa mai, no?» «Penso di sì». Harry si rigirò, mentre una serie di nuove immagini sfolgoranti si formava nella sua testa. Eccolo indurre il giudice imparziale a credere che aveva 17 anni. Eccolo diventare il campione di Hogwarts. Eccolo in campo, le braccia alzate in segno di trionfo, davanti a tutta la scuola impegnata ad applaudire e a urlare. Aveva appena vinto il torneo tre maghi. Il viso di ciò spiccava nitido nella folla confusa, raggiante di ammirazione. Harry sorrise nel cuscino, straordinariamente felice che Ron non potesse vedere quello che vedeva lui. Malocchio mudi La mattina dopo, la tempesta si era esaurita, anche se il soffitto della sala grande era ancora coperto. Pesanti nuvole grigio peltro vorticavano in alto, mentre Harry, Ron e Ermione studiavano i nuovi orari scolastici a colazione. Qualche sedia più in là, Fred, George e Lee Jordan discutevano i metodi magici per invecchiarsi e riuscire a essere ammessi di straforo al torneo tre maghi. «Oggi non è male, siamo fuori tutta la mattina», disse Ron, che scorreva col dito l'orario delle lezioni. «Erbologia con quelli di tassofrasso e cura delle creature magiche? Accidenti! Siamo ancora con i serpeverde! Due ore di divinazione oggi pomeriggio», gemette Harry leggendo più avanti. «Divinazione era la materia che amava di meno», dopo Pozzioni. La professoressa Trelonei non faceva che predire la morte di Harry, cosa che lui trovava estremamente seccante. «Avreste dovuto mollarla come ho fatto io», disse Ermione impaziente, imburrandosi una fetta di pane tostato. Così fareste qualcosa di sensato, come aritmanzia. «Vedo che hai ripreso a mangiare», disse Ron, osservando Ermione, stendere una dose generosa di marmellata sul pane imburrato. «Ho deciso che ci sono modi migliori per prendere posizione sui diritti degli elfi», disse Ermione altezzosa. «Sì, e poi avevi fame», disse Ron con un ghigno. Sopra di loro si udì un improvviso fluscio e un centinaio di gufi planarono dalle finestre aperte, carichi della posta del mattino. Distinto Harry guardò in su, ma non c'era traccia di qualcosa di bianco nella massa di bruno e grigio. I gufi volteggiarono sui tavoli, cercando i destinatari delle lettere e dei pacchi. Un grosso allocco calò su Neville Longbottom e gli depositò in grembo un pacchetto. Neville si dimenticava quasi sempre di mettere in valigia qualcosa. All'altro capo della sala, il barbagianni di Draco Malfoy era atterrato sulla sua spalla, portando da casa quella che sembrava la consueta scorta di caramelle e dolci. Cercando di nascondere la delusione che gli attanagliava lo stomaco, Harry tornò al suo porridge. Possibile che fosse successo qualcosa a Edvige e che Sirius non avesse nemmeno ricevuto la sua lettera? Questo cupo pensiero lo accompagnò per tutto il sentiero bagnato che attraversava l'orto finché non raggiunsero la serra numero tre, e lì venne distratto dalla professoressa Sprout, che mostrò alla classe le piante più brutte che Harry avesse mai visto. Più che piante sembravano lumache nere giganti e spuntavano in verticale dal terriccio. Ciascuna si contorceva ed era ricoperta di bozzi grossi e lucenti che sembravano pieni di liquido. «Bubotuberi!» disse loro in tono sbrigativo la professoressa Sprout. «Devono essere strizzati. Dovete raccogliere il pus!» «Che cosa?» esclamò Simus Finnegan, disgustato. «Pus, Finnegan, pus!» ripetè la professoressa Sprout, «ed è estremamente prezioso, quindi non sprecatelo. Dovete raccogliere il pus, dicevo, in queste bottiglie. Mettetevi i guanti di pelle di drago. Può fare strane cose alla pelle se non è diluito il pus di bubotubero.» Strizzare i bubotuberi era rivoltante, ma dava anche una strana soddisfazione. Quando le bolle esplodevano, ne schizzava una grossa quantità di un liquido denso giallo-verde, che aveva un forte odore di benzina. Lo misero nelle bottiglie, come aveva detto la professoressa Sprout, e per la fine della lezione ne avevano raccolti parecchi litri. «Questo farà felice Madame Pomfrey», disse la professoressa Sprout, chiudendo l'ultima bottiglia con un tappo. «È un ottimo rimedio per le forme più ostinate di acne, il pus di bubotubero. Dovrebbe impedire agli studenti di ricorrere a misure disperate per liberarsi dei foruncoli.» «Come la povera Eloise Migen», disse Anna Abbott, una di tassofrasso, in un sussurro. «Ha cercato di far sparire i suoi con una maledizione.» «Che sciocca ragazza!», commentò la professoressa Sprout, scuotendo la testa. «Ma Madame Pomfrey, alla fine, le ha riattaccato il naso. Il rimbombo di una campana e che giò dal castello attraverso i prati umidi, segnalando la fine della lezione, e la classe si divise. I tassofrasso rientrarono per andare a trasfigurazione, e i grifondoro presero la direzione opposta e percorsero il prato in discesa verso la piccola capanna di legno di Hagrid, che si trovava al limitare della foresta proibita. Hagrid li aspettava fuori, la mano sul collare del suo enorme cane nero, Zanna. Per terra ai suoi piedi c'erano parecchie casse di legno. Zanna uggiolava e tirava il collare, chiaramente impaziente di indagare più da vicino sul contenuto. Mentre si avvicinavano, udirono uno strano rumore di sonagli, punteggiato da quelle che sembravano piccole esplosioni. «Giorno!», disse Hagrid con un gran sorriso rivolto a Harry, Ron e Ermione. «Aspetto i serpeverde! Non vorranno perdersi questa roba! Schiopodi sparacoda!» «Puoi ripetere?», disse Ron. Hagrid indicò il contenuto delle casse. «Bleh!», strillò Lavanda Brown, facendo un balzo indietro. «Bleh!» era una descrizione perfetta per gli schiopodi, secondo Harry. Avevano l'aspetto di aragoste deformi senza corazza, orrendamente pallide e viscide, con le zampe che sbucavano da punti molto strani e senza testa, almeno non visibile. In ogni cassa ce n'erano un centinaio, ciascuno lungo una ventina di centimetri, e brulicavano l'uno addosso all'altro, urtando ciechi contro i lati dei contenitori. Emanavano un fortissimo odore di pesce marcio. Ogni tanto dalla coda di uno schiopodo volavano via delle scintille, e con un piccolo «fut» questo schizzava in avanti di parecchi centimetri. «Sono appena usciti dall'uovo», disse Hagrid fiero. «Così potete tirarli su voi! Ho pensato che poteva essere una bella ricerca!» «E perché dovremmo desiderare di allevarli?» disse una voce fredda. Era Draco Malfoy. I serpeverde erano arrivati. Crabbe e Goyle sghignazzarono in segno di approvazione. Hagrid parve in difficoltà. «Voglio dire, che cosa fanno?» chiese Malfoy. «A che cosa servono?» Hagrid aprì la bocca e parve riflettere intensamente. Ci fu una pausa di qualche secondo, poi rispose in tono rude. «Quella sarà la prossima lezione, Malfoy. Oggi dovete solo darci da mangiare. Dovete provare a darci delle cose diverse. Io non ne ho mai tenuti prima, non so che cosa ci piace. Io ho qua uova di formica e fegato di rana e un po' di bisce. Provate un po' di tutto!» «Prima il pus, adesso questo!» borbottò Simus. Solo il profondo affetto che provavano per Hagrid poté indurre Harry, Ron e Hermione ad afferrare viscide manciate di fegato di rana e calarle nelle casse per tentare gli schiopodi. Harry non riuscì a reprimere il sospetto che tutta la faccenda fosse completamente inutile, perché pareva proprio che gli schiopodi non fossero provvisti di bocca. «Aia!» strillò Dean Thomas dopo una decina di minuti. «Mi ha preso!» Hagrid gli corse vicino preoccupato. «Gli è esplosa la coda!» disse Dean arrabbiato, mostrando a Hagrid una scottatura sulla mano. «Ah, sì, può succedere quando scoppiano!» annui Hagrid. «Beh!» disse di nuovo Lavanda. «Hagrid! Che cos'è quella cosa a punta?» «Ah, certi hanno il pungiglione!» disse Hagrid entusiasta. Lavanda ritrasse in fretta la mano dal contenitore. «Mi sa che sono i maschi! Le femmine hanno delle cosette per succhiare sulla pancia, per succhiare il sangue, credo!» «Beh, adesso capisco perché stiamo cercando di tenerli in vita!» disse Malfoy sarcastico. «Chi non vorrebbe un animaletto che brucia, punge e morde contemporaneamente!» «Solo perché non sono proprio carini non vuol dire che non servano a niente!» ribatté Ermione. «Il sangue di drago è straordinariamente magico, ma non per questo vorresti avere un drago come animale di compagnia, no?» Harry e Ron fecero un gran sorriso a Hagrid, che scoccò loro un sorriso furtivo da sotto la barba cespugliosa. Hagrid sarebbe andato matto per un drago da compagnia, come Harry, Ron e Ermione sapevano fin troppo bene. Ne aveva avuto uno per un breve periodo durante il loro primo anno, un pericoloso dorso rugoso di Norvegia che rispondeva al nome di Norberto. Hagrid semplicemente adorava le creature mostruose, più letali erano, meglio era. «Beh, almeno gli schiopodi sono piccoli!» disse Ron mentre tornavano al castello per il pranzo un'ora più tardi. «Adesso lo sono!» disse Ermione con tono esasperato. «Ma una volta che Hagrid avrà scoperto cosa mangiano, ci scommetto che diventeranno lunghi due metri!» «Beh, non importa, se salta fuori che servono a curare il mal di mare, no?» disse Ron con un sorriso malizioso. «L'ho detto solo per sittire Malfoy», rispose Ermione, che fra parentesi secondo me ha ragione. «La cosa migliore da fare sarebbe spiaccicarli tutti prima che comincino ad attaccarci!» Sedettero al tavolo di Grifondoro e si servirono di costolette d'agnello e patate. Ermione cominciò a mangiare così in fretta che Harry e Ron la fissarono esterrefatti. «È questa la nuova presa di posizione a favore dei diritti degli elfi?» disse Ron. «Cercare di procurarti il vomito?» «No!» rispose Ermione con tutta la dignità che si può avere con la bocca piena di cavolini di Bruxelles. «Voglio solo andare in biblioteca!» «Cosa?» disse Ron incredulo. «Ermione, è il primo giorno! Non abbiamo ancora nemmeno i compiti da fare!» Ermione alzò le spalle e continuò a ingurgitare cibo, come se non mangiasse da giorni. Poi balzò in piedi, disse «Ci vediamo a cena!» e si allontanò a gran velocità. Quando suonò la campana che segnalava l'inizio delle lezioni del pomeriggio, Harry e Ron si diressero alla Torre Nord. In cima a una stretta scala a chiocciola, una scaletta a pioli d'argento portava fino a una botola rotonda nel soffitto e alla stanza in cui viveva la professoressa Trelonei. Il familiare profumo dolciastro che si sprigionava dal fuoco colpì le loro narici quando sbucarono in cima alla scala. Come al solito, le tende erano tutte tirate. La stanza circolare era immersa nella fioca luce rossastra delle molte lampade drappeggiate con sciarpe e scialli. Harry e Ron superarono la folla di poltrone e puff di cinz già occupati che riempivano la stanza e sedettero insieme a un tavolino rotondo. «Buondi!» disse la voce velata della professoressa Trelonei proprio alle spalle di Harry facendolo sobbalzare. Molto esile, con enormi occhiali che rendevano i suoi occhi smisurati nel viso affilato, la professoressa Trelonei guardava Harry dall'alto con l'espressione tragica che riservava solo a lui. Il consueto notevole quantitativo di perline, catenelle e braccialetti che portava addosso scintillava alla luce del fuoco. «Tu sei preoccupato, mio caro», disse a Harry in tono lugubre. «Il mio occhio interiore vede oltre il tuo viso spavaldo, vede l'anima inquieta che c'è dentro di te, e sono spiacente di dover dire che le tue preoccupazioni non sono infondate. Vedo che ti aspettano tempi difficili, ahimè, molto difficili. Temo che la cosa di cui hai paura in vero accadrà, e forse più presto di quel che credi». La sua voce si fece quasi un sussurro. Ron si voltò verso Harry con gli occhi al cielo, e Harry gli rispose con uno sguardo impassibile. La professoressa Trelonei li oltrepassò, e sedette in una gran poltrona con braccioli davanti al camino, di fronte alla classe. Lavanda Brown e Parvati Patil, che nutrivano una profonda ammirazione per la professoressa Trelonei, sedevano sul puff molto vicino a lei. «Miei cari, è giunto il momento di prendere in esame le stelle», annunciò l'insegnante. «Il movimento dei pianeti e gli eventi misteriosi che rivelano solo a coloro che comprendono i passi della danza celeste. Il destino umano può essere decifrato attraverso i raggi planetari che si mescolano». Ma la mente di Harry era alla deriva. Il fuoco aromatico lo faceva sempre sentire sonnolento e ottuso, e i vaneggiamenti della professoressa Trelonei non avevano propriamente effetti incantatori su Harry, anche se non poté fare a meno di pensare a quello che gli aveva appena detto. «Temo che la cosa di cui hai paura in vero accadrà». Ma Ermione aveva ragione, si disse Harry irritato. La professoressa Trelonei era davvero una vecchia impostora. Al momento non aveva paura proprio di niente. Beh, a parte i suoi timori che Sirius fosse stato catturato, ma cosa ne sapeva la professoressa Trelonei? Da molto tempo era giunto alla conclusione che le sue predizioni in realtà non fossero altro che un insieme di risposte casualmente azzeccate e modi spettrali. A parte, naturalmente, quella volta alla fine dell'anno, quando aveva predetto il ritorno di Voldemort, e Silente stesso si era detto convinto che quella trans fosse autentica quando Harry gliel'aveva descritta. «Harry!» sussurrò Ron. «Cosa?» Harry si guardò intorno. Tutta la classe lo stava fissando. Si raddrizzò. Si era quasi assopito, perso nel calore e nei suoi pensieri. «Stavo dicendo, mio caro, che è evidente che sei nato sotto l'influenza funesta di Saturno», disse la professoressa Trelonei, una debole nota di risentimento nella voce per il fatto che chiaramente Harry non pendeva dalle sue labbra. «Nato sotto cosa, mi scusi?» disse Harry. «Saturno! Il pianeta Saturno!» disse la professoressa Trelonei, questa volta decisamente seccata, che non fosse costernato dalla notizia. «Stavo dicendo che Saturno era di sicuro in una posizione di potere nei cieli al momento della tua nascita. I tuoi capelli scuri, la tua piccola statura, due tragiche perdite così presto. Credo di poter affermare a ragione, mio caro, che sei nato a metà inverno?» «No», disse Harry, «sono nato a luglio». Ron trasformò rapidamente la risata in un accesso di tosse. Mezz'ora dopo, a tutti era stata distribuita una complicata mappa circolare e ciascuno tentava di definire la posizione dei pianeti al momento della sua nascita. Era un lavoro noioso, che richiedeva ripetute consultazioni di schemi e calcoli di angoli. «Ho due nettuni qui», disse Harry dopo un po', guardando torvo la sua pergamena. «Non può essere giusto, vero?» «Oh», disse Ron, imitando il sussurro mistico della professoressa Trelonei. «Quando due nettuni appaiono nel cielo, è un segno sicuro che sta nascendo un piccoletto con gli occhiali, Harry!» Simus e Dean, che lavoravano lì accanto, ridacchiarono forte, anche se non abbastanza da coprire gli squittii eccitati di Lavanda Brown. «Oh, professoressa, guardi qui! Credo di avere un corpo celeste fuori posto! Oh, che pianeta è, professoressa!» «È Urano, mia cara», rispose la professoressa Trelonei, scrutando la mappa. «Posso dare anch'io un'occhiata al tuo corpo celestiale, Lavanda?» disse Ron. Per sua gran sfortuna, la professoressa Trelonei lo sentì, e fu questo, forse, che la indusse a dare così tanti compiti alla fine della lezione. «Un'analisi dettagliata del modo in cui vi influenzeranno i movimenti planetari del prossimo mese, con riferimento alla vostra mappa personale», sbottò seccamente, in un tono molto poco mistico e molto più simile a quello della professoressa McGonagall. «La voglio pronta per lunedì, e niente scuse!» «Maledetta vecchia pipistrella», disse Ron amaramente, mentre si univano alla folla che scendeva le scale diretta alla sala grande. «Ci vorrà tutto il fine settimana, ci vorrà!» «Tanti compiti?» disse Ermione in tono vivace raggiungendoli. «La professoressa Vector a noi non ne ha dato nemmeno uno!» «Beh, urrà per la professoressa Vector!» disse Ron imbronciato. Raggiunselo l'ingresso, che era affollato di ragazzi in coda per la cena. Si erano appena messi in fila, quando alle loro spalle risuonò una voce forte. «Weasley! Ehi, Weasley!» Harry, Ron e Ermione si voltarono. Malfoy, Crabbe e Goyle erano lì, e tutti e tre parevano gongolare per qualcosa. «Cosa c'è?» disse Ron asciutto. «Tuo padre è sul giornale, Weasley!» disse Malfoy, brandendo una copia della Gazzetta del Profeta e parlando a voce molto alta, così che lo sentissero tutti nell'ingresso gremito. «Ascolta un po'! Altri errori al Ministero della Magia!» «Pare che i guai del Ministero della Magia non siano ancora finiti», scrive Rita Skeeter, inviato speciale. «Recentemente sotto accusa per lo scarso controllo alla Coppa del Mondo di Quidditch e ancora incapace di giustificare la sparizione di una delle sue streghe, il Ministero è sprofondato di nuovo nell'imbarazzo, ieri a opera di Arnold Weasley, dell'ufficio per l'uso improprio dei manufatti dei babbani!» Malfoy alzò gli occhi dalla pagina. «Figuriamoci, non sono nemmeno riusciti a dare il nome giusto, Weasley, è come se fosse una completa nullità, vero?» gracchiò. Ora nell'ingresso lo ascoltavano tutti. Malfoy raddrizzò la pagina con un gesto pomposo e lesse. Arnold Weasley, che due anni fa fu accusato di possesso di un'autovolante, ieri è stato coinvolto in una zuffa con parecchi protettori della legge babbani, poliziotti, a causa di alcuni bidoni della spassatura altamente aggressivi. Pare che il signor Weasley sia intervenuto in aiuto di Malocchio Moody, l'anziano ex-auror che è andato in pensione dal Ministero quando non è stato più in grado di distinguere fra una stretta di mano e un tentato omicidio. Come era prevedibile, il signor Weasley, all'arrivo presso la casa strettamente sorvegliata del signor Moody, ha scoperto che quest'ultimo aveva ancora una volta dato un falso allarme. Il signor Weasley è stato costretto a modificare parecchie memorie prima di riuscire a sfuggire ai poliziotti, ma si è rifiutato di rispondere alle domande della Gazzetta del Profeta sul perché abbia coinvolto il Ministero in una scena tanto indegna e potenzialmente imbarazzante. «E c'è anche la foto, Weasley!» disse Malfoy, raddrizzando il giornale e reggendolo in alto. «Una foto dei tuoi genitori a casa loro, sempre che si possa chiamarla casa. Tua madre potrebbe anche perdere qualche chilo, no?» Ron tremava di rabbia. Gli occhi di tutti erano puntati su di lui. «Vai al diavolo, Malfoy!» disse Henry. «Andiamo, Ron!» «Ah, certo! Sei stato da loro quest'estate, vero, Potter?» soghignò Malfoy. «Allora dimmi, sua madre è davvero così cicciona o è solo la foto?» «Hai presente tua madre, Malfoy?» disse Henry, che con Ermione tratteneva rompere i vestiti per impedirgli di scagliarsi su Malfoy. «Quella faccia che fa come se avesse la cacca sotto il naso? Ce l'ha sempre avuta o è solo perché era con te?» Il volto pallido di Malfoy arrossì appena. «Non osare insultare mia madre, Potter!» «Tieni la tua boccaccia chiusa allora!» disse Henry voltandosi. «Bang!» Parecchi ragazzi urlarono. Henry sentì qualcosa di incandescente sfiorargli il lato del viso. Affondò la mano in tasca per prendere la bacchetta, ma prima ancora di riuscire a toccarla udì un secondo forte bang e un ruggito che cheggiò per tutta la sala d'ingresso. «Oh no che non lo fai, ragazzo!» Henry si voltò di scatto. Il professor Moody scendeva zoppicando la scalinata di marmo. Aveva estratto la bacchetta e la teneva puntata su un furetto di un bianco immacolato che tremava sul pavimento di pietra, esattamente nel punto in cui prima c'era Malfoy. Nell'ingresso calò un silenzio terrorizzato. Nessuno mosse un muscolo tranne Moody, che si voltò per guardare Henry, o meglio, il suo occhio normale guardava Henry. L'altro era rivolto verso l'interno della testa. «Ti appreso!» ringhiò Moody. La sua voce era bassa e rauca. «No!» rispose Henry. «Mancato!» «Lascialo!» gridò Moody. «Lasciare che cosa?» chiese Henry esterefatto. «Non tu!» «Lui!» ringhiò Moody, puntando il pollice sopra la spalla per indicare Crabbe, che si era appena immobilizzato sul punto di prendere in braccio il furetto bianco. A quanto pareva, l'occhio di Moody era magico e poteva vedere dall'altra parte della testa. Moody prese a zoppicare verso Crabbe, Goyle e il furetto, che emise uno squittio spaventato e scattò via, filandosela verso i sotterranei. «Non credo proprio!» ruggì Moody, puntando la bacchetta di nuovo verso il furetto, che volò in aria a tre metri di altezza, cadde con un tonfo al suolo e poi rimbalzò di nuovo in alto. «Non mi piace chi attacca quando l'avversario gli volta le spalle!» ruggì Moody, mentre il furetto rimbalzava sempre più in alto e squittiva di dolore. «E' una cosa sporca, vile e infima!» Il furetto volò per aria, le zampe e la coda che si agitavano in vano. «Non farlo mai più!» disse Moody, pronunciando ogni parola man mano che il furetto colpiva il pavimento di pietra e rimbalzava di nuovo. «Professor Moody!» disse una voce stupefatta. La professoressa McGonagall scendeva la scalinata di marmo con le braccia cariche di libri. «Salute, professoressa McGonagall!» disse Moody tranquillamente, spedendo il furetto ancora più su. «Che cosa... che cosa sta facendo?» chiese la professoressa McGonagall, gli occhi che seguivano l'ascesa del furetto. «Insegno!» rispose Moody. «Insegna!» «Moody, quello è uno studente?» strillò la professoressa McGonagall mentre i libri le cadevano a terra. «Già!» rispose Moody. «No!» urlò la professoressa McGonagall, scendendo la scala di corsa ed estraendo la bacchetta. Un attimo dopo, con un forte schiocco, ricomparve Draco Malfoy, accasciato a terra, i lisci capelli biondi che coprivano la faccia rossa come un papavero. Malfoy si rialzò tremante. «Moody, non usiamo mai la trasfigurazione per punire!» disse debolmente la professoressa McGonagall. «Il professor silente deve averglielo detto di sicuro!» «È possibile che me l'abbia accennato, sì!» disse Moody, grattandosi il mento, tutt'altro che preoccupato. «Ma ho pensato che un bello spavento coi fiocchi...» «Noi diamo dei castighi, Moody, o parliamo con il direttore della casa del colpevole!» «Allora farò così!» disse Moody, fissando Malfoy con enorme disgusto. Malfoy, i cui palli di occhi lacrimavano ancora dal dolore e dall'umiliazione, scoccò uno sguardo malevolo da sotto in su verso Moody e borbottò qualcosa in cui si distinsero le parole «Mio padre!» «Oh, davvero?» disse Moody piano, soppicando in avanti di qualche passo il secco clank della gamba di legno che echeggiava nell'ingresso. «Beh, conosco tuo padre da molto tempo, ragazzo. Digli che Moody tiene d'occhio suo figlio come si deve. Digli questo da parte mia. Ora, il direttore della tua casa è Piton, vero?» «Sì!» rispose Malfoy pieno di lancore. «Un altro vecchio amico!» ringhiò Moody. «Avevo proprio voglia di fare una bella chiacchierata col vecchio Piton. Vieni tu!» e, preso Malfoy per il braccio, lo trasse in piedi senza tanti complimenti e lo condusse verso i sotterranei. La professoressa McGonagall rimase a fissarli preoccupata per qualche istante, poi agitò la bacchetta verso i libri sparsi a terra che si alzarono galleggiando per aria e tornarono fra le sue braccia. «Non dite niente!» sussurrò Ron a Harry e Ermione, mentre poco dopo si sedevano al tavolo di Grifondoro, circondati da chiacchiere eccitate su ciò che era appena accaduto. «Perché no?» chiese Ermione sorpresa. «Perché voglio fissare tutto questo nella memoria per sempre!» disse Ron, gli occhi chiusi e l'espressione rapita. «Draco Malfoy, lo straordinario furetto rimbalzante!» Harry e Ermione risero entrambi e lei prese a riempire i piatti di stufato. «Poteva fargli male sul serio a Malfoy, però!» disse. «È stato un bene, veramente, che la professoressa McGonagall l'abbia fatto smettere!» «Ermione!» esclamò Ron veemente, gli occhi di nuovo spalancati. «Stai sciupando il momento più bello della mia vita!» Ermione sbuffò d'impazienza e prese di nuovo a mangiare a tutta velocità. «Non dirmi che questa sera torni in biblioteca!» disse Harry osservandola. «Devo!» rispose Ermione a bocca piena. «Ho un sacco da fare!» «Ma hai detto che la professoressa Vector non sono compiti!» rispose. In cinque minuti vuotò il piatto e se ne andò. Si era appena alzata che il suo posto fu preso da Fred Weasley. «Mudi!» disse. «Ma quanto è forte, eh?» «È più che forte!» disse George sedendosi di fronte a Fred. «Superforte!» disse il migliore amico dei gemelli, Lee Jordan, scivolando nel posto accanto a George. «L'abbiamo avuto oggi pomeriggio!» disse Harry e Ron. «Com'è stato?» chiese Harry molto incuriosito. Fred, George e Lee si scambiarono sguardi eloquenti. «Mai sentita una lezione così!» disse Fred. «Lui sa, ragazzo!» disse Lee. «Sa cosa vuol dire andare là fuori a farlo!» disse George in tono solenne. «Fare che cosa?» chiese Harry. «Combattere le arti oscure!» disse Fred. «Ha visto di tutto!» disse George. «Eccezionale!» disse Lee. Ron frugò nello zaino in cerca dell'orario. «Non ce l'abbiamo fino a giovedì!» disse deluso. Le maledizioni senza perdono I due giorni successivi trascorsero senza gravi incidenti, a parte il fatto che Neville fuse il suo sesto calderone a pozioni. Il professor Piton, che nel corso dell'estate sembrava aver raggiunto nuove vette di perfidia, lo punì costringendolo a sventrare un intero barile di rospi cornuti. e Neville ne uscì con un collasso nervoso. «Lo sai perché Piton è così di cattivo umore, vero?» disse Ron a Harry, mentre Ermione insegnava a Neville un incantesimo smacchiatore per rimuovere le budella di rospo da sotto le unghie. «Sì!» rispose Harry. «Mudi!» Era noto a tutti che Piton desiderava ardentemente il posto di insegnante di difesa contro le arti oscure e non era riuscito a ottenerlo per il quarto anno di fila. Piton aveva preso in antipatia tutti gli insegnanti precedenti e l'aveva dimostrato, ma sembrava stranamente cauto nel manifestare aperta ostilità nei confronti di malocchio Moody. A dire il vero, tutte le volte che Harry li vedeva insieme, ai pasti o quando passavano nei corridoi, aveva la netta impressione che Piton evitasse l'occhio di Moody, sia quello magico che quello normale. «Credo che Piton abbia un po' paura di lui, sai?» disse Harry pensieroso. «Prova un po' a pensare se Moody trasformasse Piton in un rospo cornuto», disse Ron, gli occhi velati, e lo facesse rimbalzare per tutte le segrete. Gli studenti di Grifondoro del quarto anno aspettavano la prima lezione di Moody con tanta ansia che il giovedì arrivarono subito dopo pranzo e si disposero in fila davanti alla sua classe, prima ancora che la campana suonasse. La sola persona assente era Ermione, che comparve appena in tempo per la lezione. «Ero in biblioteca», completò Harry, «dai muoviti, o non troveremo posti decenti». Si affrettarono a occupare tre sedie proprio davanti alla cattedra, estrassero la loro copia di «Le forze oscure guida all'autodifesa» e attesero, insolitamente tranquilli. Presto udirono il tonfo dei passi disuguali di Moody che percorreva il corridoio, ed egli entrò in classe, con l'aria strana e terrificante di sempre. Si vedeva appena il piede di legno a forma di zampa spuntare da sotto il mantello. «Potete metterli via», borbottò, arrancando verso la cattedra e mettendosi a sedere. «Quei libri non vi serviranno». Rimisero i libri nelle borse. Ron sembrava decisamente elettrizzato. Moody estrasse il registro, allontanò la lunga chioma di capelli brizzolati dal viso contorto e sfigurato, e prese a fare l'appello, con l'occhio normale che scorreva sicuro la lista, mentre l'occhio magico roteava, indugiando su ogni studente quando rispondeva alla chiamata. «Allora», disse, quando l'ultimo si fu dichiarato presente, «ho ricevuto una lettera dal professor Lupin a proposito di questa classe». «Mi pare che abbiate una preparazione piuttosto solida nell'affrontare le creature oscure. Avete fatto i mollicci, i berretti rossi, i fuochi fatui, gli avvincini, i cappa e i lupi mannari». «Esatto», ci fu un mormorio diffuso di assenso. «Ma siete indietro, molto indietro, sulle maledizioni», disse Moody. «Quindi sono qui per spiegarvi nel dettaglio quello che i maghi possono farsi gli uni agli altri. Ho un anno per insegnarvi come affrontare le forze». «Come? Non rimarrà», disse Ron d'impulso. L'occhio magico di Moody roteò per fissarsi su Ron, che cambiò faccia, spaventato. Ma dopo un attimo Moody sorrise. Era la prima volta che lo faceva. Ciò rese il suo volto segnato di cicatrici più devastato e contorto che mai, ma fu confortante sapere che era in grado di fare una cosa amichevole, come sorridere. Ron parve molto sollevato. «Tu devi essere il figlio di Arthur Weasley, eh?», disse Moody. «Tuo padre mi ha tirato fuori da un bel guaio qualche giorno fa. Sì, mi fermo solo quest'anno. Un favore speciale assilente. Un anno e poi torno alla mia vita tranquilla di pensionato». Fece una risata roca e batte le mani nodose. «Allora, cominciamo subito. Le maledizioni assumono forze e forme diverse. Ora, secondo il Ministero della Magia, dovrei insegnarvi le contromaledizioni e fermarmi lì. Non dovrei mostrarvi come sono fatte le maledizioni oscure e illegali prima del sesto anno. Si ritiene che non siate grandi abbastanza da affrontarle fino ad allora. Ma il professor Silente ha un'opinione più alta dei vostri nervi. Pensa che possiate farcela. E prima sapete che cosa dovrete fronteggiare, meglio è», dico io. «Come potete difendervi da qualcosa che non avete mai visto? Un mago che sta per scagliarvi contro una maledizione illegale non vi dirà cosa ha intenzione di fare. Non ha intenzione di comportarsi lealmente. Dovete essere preparati. Dovete essere vigili e attenti. Dovete mettere via quella roba, signorina Brown, quando parlo io». Lavanda sobbalzò e arrossì. «Stava mostrando a Parvati il suo oroscopo completo sotto il banco. Evidentemente l'occhio magico di Moody riusciva a vedere attraverso il legno massiccio, oltre che dietro la testa». «Allora, qualcuno di voi sa a quali maledizioni corrispondono le pene più gravi secondo la legge magica?». Parecchie mani si alzarono esitanti, comprese quelle di Ron e di Ermione. Moody indicò Ron, anche se il suo occhio magico era ancora puntato sulla vanda. «Ehm», esordì Ron esitante, «papà me ne ha spiegata una. Si chiama la maledizione Imperius, mi pare». «Ah, sì», disse Moody in tono di lode. «Tuo padre dovrebbe conoscerla. Ha procurato al ministero un sacco di guai tempo fa, la maledizione Imperius». Moody si alzò pesantemente sui piedi scompagnati, aprì il cassetto della scrivania ed estrasse un barattolo di vetro. Dentro zampettavano tre grossi ragni neri. Harry sentì che Ron gli si rannichiava contro. Li detestava i ragni. Moody pescò nel barattolo, prese uno dei ragni e lo tenne nel palmo della mano, in modo che tutti lo vedessero. Poi puntò la bacchetta contro di lui e borbottò «Imperio». Il ragno si calò con un balzo dalla mano di Moody appeso a un sottile filo di seta e prese ad ondolarsi avanti e indietro, come su un trapezio. Tese le zampe rigidamente, poi fece un salto all'indietro, spezzando il filo e atterrando sulla scrivania, dove cominciò a fare la ruota in cerchio. Moody agitò la bacchetta e il ragno si alzò su due delle zampe posteriori e si esibì in quello che era un inconfondibile passo di tip-tap. Tutti risero, tutti tranne Moody. «Vi sembra divertente, eh?» ringhiò. «Vi piacerebbe, eh, se lo facessi a voi?» Le risate si spensero quasi all'istante. «Controllo totale», disse Moody piano, mentre il ragno si appallottolava e cominciava a rotolare. «Potrei costringerlo a saltare fuori dalla finestra, ad affogarsi, a ficcarsi giù per la gola di uno di voi!» Ron rabbrividì istintivamente. «Anni fa c'erano un sacco di maghi e streghe controllati dalla maledizione Imperius», disse Moody, e Henry seppe che alludeva i giorni di massima potenza di Voldemort. Un bel lavoretto per il ministero, cercare di stabilire chi era costretto a fare certe cose e chi le faceva di sua spontanea volontà. «La maledizione Imperius può essere contrastata, e io vi insegnerò come, ma ciò richiede una gran forza di carattere, e non tutti ce l'hanno. Meglio evitare di esserne vittime, se potete. Vigilanza costante!» abbaiò, e tutti sussultarono. Moody raccolse il ragno sobbalzante e lo rimise nel barattolo. «Qualcun altro ne sa una? Un'altra maledizione illegale?» La mano di Hermione scattò di nuovo, e salì anche, con lieve sorpresa di Henry, quella di Neville. L'unica lezione nella quale di solito Neville forniva volontariamente informazioni era erbologia, che era di gran lunga la materia in cui riusciva meglio. Neville stesso parve sorpreso della propria audacia. «Sì!» disse Moody, l'occhio magico che roteava per fissarsi sul Neville. «Ce n'è una, la maledizione Cruciatus!» disse Neville con la sua vocetta acuta ma ben chiara. Moody guardò molto attentamente Neville, questa volta con entrambi gli occhi. «Tu sei Longbottom!» disse, l'occhio magico che roteava in giù per consultare di nuovo il registro. Neville annuì nervoso, ma Moody non indagò oltre. Rivolto a tutta la classe, afferrò il secondo ragno nel barattolo e lo mise sulla cattedra, dove rimase immobile, evidentemente troppo spaventato per muoversi. «La maledizione Cruciatus!» disse Moody. «Deve essere un po' più grosso perché possiate capire!» disse puntando la bacchetta contro il ragno. «Engorgio!» Il ragno si gonfiò. Ora era più grosso di una tarantola. Senza più alcuna riserva, Ron spinse indietro la sedia, allontanandola il più possibile dalla scrivania di Moody. Moody alzò di nuovo la bacchetta, la puntò contro il ragno e mormorò «Crucio!». D'un tratto le zampe del ragno si piegarono sotto il suo corpo. L'animale si rovesciò e prese a contorcersi orribilmente, dondolando da una parte all'altra. Non emise alcun suono, ma Harry fu certo che se avesse potuto avrebbe urlato. Moody non spostò la bacchetta e il ragno cominciò a sobbalzare e ad agitarsi più violentemente. «Basta!» esclamò Hermione con voce stridula. Harry si voltò verso di lei. Stava guardando non il ragno, ma Neville, e Harry, seguendo il suo sguardo, vide che le mani di Neville stringevano il bordo del banco, le nocche bianche, gli occhi spalancati e stravolti. Moody alzò la bacchetta, le zampe del ragno si rilassarono, ma continuò a contorcersi. «Reducio!» mormorò Moody e il ragno rimpicciolì fino a tornare della sua misura normale. Moody lo rimise nel barattolo. «Dolore!» disse Moody dolcemente. «Non c'è bisogno di pinze, schiacciapollici o coltelli per torturare qualcuno se sapete scagliare la maledizione Cruciatus. Anche quella era molto popolare una volta.» «Bene, qualcuno ne conosce altre?» Harry si guardò intorno. Dalle facce capì che si stavano chiedendo tutti che cosa sarebbe successo all'ultimo ragno. La mano di Hermione tremò appena mentre la alzava per la terza volta. «Sì!» disse Moody guardandola. «Avada Kedavra!» sussurrò Hermione. In parecchi la guardarono tesi, compreso Ron. «Ah!» disse Moody, un altro vago sorriso che gli torceva la bocca storta. «Sì, l'ultimo e il peggiore! Avada Kedavra, la maledizione mortale!» Infilò la mano nel barattolo di vetro e come se intuisse che cosa stava per succedere, il terzo ragno corse freneticamente sul fondo del barattolo, cercando di sfuggire alle dita di Moody, ma lui lo afferrò e lo depose sulla cattedra. Il ragno prese a zampettare affannosamente sulla superficie di legno. Moody levò la bacchetta e Harry presentì quanto sarebbe accaduto e rabbrividì. «Avada Kedavra!» ruggì Moody. Ci furono un lampo di luce verde accecante e un rumore improvviso, come se un'entità enorme e invisibile galleggiasse nell'aria. Il ragno si rovesciò sulla schiena all'istante, illeso ma inequivocabilmente morto. Parecchie ragazze lanciarono grida soffocate. Ron si era gettato all'indietro e quasi cadde dalla sedia quando il ragno scivolò verso di lui. Moody spazzò via il ragno morto dalla cattedra. «Non è bello», disse tranquillamente. «Non è piacevole e non c'è contro maledizione. Non c'è modo di fermarla. Solo una persona, che si sappia, è mai sopravvissuta e questa persona è seduta qui, di fronte a me». Harry si sentì arrossire mentre gli occhi di Moody, tutti e due, fissavano i suoi. Avvertì che anche gli altri lo guardavano. Harry fissò la lavagna vuota come se ne fosse stregato, ma senza in realtà vederla. Allora era così che erano morti i suoi genitori, proprio come quel ragno. Anche loro erano intatti e integri. Avevano semplicemente visto il lampo di luce verde e sentito il fragore della morte incombente prima che la vita venisse cancellata dai loro corpi. Da tre anni Harry riviveva di continuo nella sua mente la morte dei suoi genitori, da quando aveva scoperto che erano stati assassinati, da quando aveva saputo cos'era successo quella notte, che Codaliscia aveva rivelato la posizione dei suoi genitori a Voldemort e come lui era piombato loro addosso. Come Voldemort avesse ucciso per primo suo padre, dopo che James Potter aveva cercato di trattenerlo, urlando a sua moglie di prendere Harry e fuggire. Come Voldemort fosse avanzato verso Lily Potter, ordinandole di farsi da parte in modo da poter colpire Harry. Come lei avesse offerto la propria vita in cambio di quella di Harry. E allora Voldemort aveva ucciso anche lei, prima di puntare la bacchetta su Harry. Tutto questo Harry lo sapeva dalla voce dei suoi stessi genitori, evocata dal tremendo potere dei dissenatori, da lui affrontati l'anno prima, perché i demoni inducevano le loro vittime a rivivere i ricordi peggiori della loro vita e ad annegare, impotenti, nella loro disperazione. Come da una distanza infinita, Moody parlò di nuovo. Con uno sforzo enorme, Harry si costrinse a tornare al presente. Avada, Kedavra, è una maledizione che ha bisogno di essere sostenuta da un grande potere magico. Potreste estrarre tutti le vostre bacchette adesso, puntarle contro di me e pronunciare le parole, e dubito che mi fareste uscire anche solo il sangue dal naso. Ma questo non ha importanza. Non sono qui per insegnarvi come si fa. Ora, se non esiste contro maledizione, perché ve l'ho mostrata? Perché dovete sapere. Dovete capire che cos'è il peggio. Non dovete trovarvi in una situazione in cui dobbiate affrontarlo. Vigilanza costante, ruggì, e tutta quanta la classe sobbalzò di nuovo. Ora, queste tre maledizioni, Avada, Kedavra, Imperius e Cruciatus, sono note come le maledizioni senza perdono. L'uso su un essere umano è sufficiente per beccarsi una condanna a vita ad Azkaban. È questo che dovete combattere. È questo che devo insegnarvi a contrastare. Avete bisogno di preparazione. Avete bisogno di essere attrezzati. Ma soprattutto avete bisogno di esercitare una costante, incessante vigilanza. Fuori le penne! Ricopiate! Passarono il resto della lezione a prendere appunti su ciascuna delle maledizioni senza perdono. Nessuno parlò finché non suonò la campana, ma quando Moody li ebbe congedati e furono usciti dalla classe, esplose un torrente di chiacchiere. Quasi tutti discutevano le maledizioni con voci intimorite. Avete visto come si contorceva? E quando l'ha ucciso, proprio così, parlavano della lezione, pensò Harry, come se si fosse trattato di una specie di spettacolo eccezionale. Ma lui non l'aveva trovata molto divertente e nemmeno Hermione, a quanto pareva. Muovetevi, disse in tono nervoso a Harry e Ron. Non di nuovo quella maledetta biblioteca, disse Ron. No, disse Hermione asciutta, indicando un corridoio laterale. Neville. Neville era da solo, in mezzo al passaggio, e fissava il muro di pietra con gli stessi occhi sgranati e pieni di orrore di quando Moody aveva dato la dimostrazione della maledizione Cruciatus. Neville, disse Hermione dolcemente, Neville si guardò intorno. Oh, ciao, disse, la voce molto più acuta del solito. Una lezione interessante, vero? Chissà che cosa c'è a cena? Io, io muoio di fame, e voi? Neville, ti senti bene? Chiese Hermione. Oh, sì, sto bene, farfugliò Neville con la stessa voce innaturale. Una cena molto interessante, voglio dire, una lezione. Che cosa c'è da mangiare? Ron scoccò a Harry uno sguardo allarmato. Neville, cosa... Ma uno strano tonfo sordo echeggiò alle loro spalle, e i ragazzi si voltarono per vedere il professor Moody che zoppicava verso di loro. Tacquero di colpo guardandolo tesi, ma quando Moody parlò, la sua voce roca era molto più dolce e gentile del consueto. Va tutto bene, ragazzo, disse a Neville, perché non vieni su nel mio ufficio? Andiamo, possiamo berci una tazza di tè. La prospettiva di prendere il tè con Moody sembrò spaventare Neville ancora di più. Non si mosse né parlò. Moody puntò l'occhio magico su Harry. Stai bene, vero, Potter? Sì, rispose Harry quasi in tono di sfida. L'occhio azzurro di Moody tremò appena nella palpebra mentre scrutava Harry. Poi Moody disse. Dovete sapere. Sembrerà duro, forse, ma dovete sapere. Fingere non serve a niente. Bene, andiamo, Longbottom, ho dei libri che potrebbero interessarti. Neville scoccò un'occhiata supplichevole a Harry, Ron e Hermione, ma loro non dissero niente. Quindi non ebbe altra scelta che lasciarsi condurre via una delle mani nodose di Moody sulla spalla. Ma che cosa è successo? Disse Ron, guardando Neville e Moody voltare l'angolo. Non lo so, rispose Hermione pensierosa. Che lezione però, eh? Disse Ron a Harry mentre si avviavano verso la sala grande. Fred e George avevano ragione, vero? Sai il fatto suo, Moody, eh? Quando ha fatto la vada che Davra e quel ragno è morto sul serio, l'ha lasciato lì stecchito. Ron colse l'espressione di Harry e tacque all'improvviso. Ne disse altro finché non furono giunti nella sala grande. Qui borbottò che secondo lui era meglio cominciare subito con le predizioni della professoressa Trelawney perché ci sarebbero volute ore. Hermione non si unì alla conversazione di Harry e Ron durante la cena ma mangiò a velocità forse nata e poi ripartì alla volta della biblioteca. Harry e Ron tornarono alla torre di Grifondoro e stavolta fu Harry, che non aveva pensato ad altro per tutta la cena, ad affrontare l'argomento delle maledizioni senza perdono. Moody e Silente non finirebbero nei guai con il ministero se si sapesse che ci hanno mostrato le maledizioni legali, chiese Harry mentre si avvicinavano alla signora grassa. Sì, è probabile, disse Ron, ma Silente ha sempre fatto le cose a modo suo, no? E sono anni che Moody si caccia nei guai, immagino. Prima attacca e poi chiede, prova a pensare ai bidoni della spazzatura. Guazzabuglio. La signora grassa scattò in avanti rivelando il passaggio e i due salirono nella sala comune di Grifondoro, che era affollata e rumorosa. Allora, dobbiamo prendere la roba di divinazione, chiese Harry. Temo di sì, sospirò Ron. Salirono in dormitorio a prendere i libri e le mappe e vi trovarono Neville solo, seduto sul letto a leggere. Sembrava parecchio più tranquillo che alla fine della lezione di Moody, anche se ancora non perfettamente in sé. Aveva gli occhi piuttosto arrossati. Stai bene, Neville? gli chiese Harry. Oh sì, rispose Neville. Sto bene, grazie. Stavo leggendo il libro che mi ha dato il professor Moody. Mostrò il volume, piante acquatiche magiche del Mediterraneo e loro proprietà. A quanto pare, la professoressa Sprout ha detto al professor Moody che sono proprio bravo in erbologia, disse Neville. Nella sua voce c'era una leggera nota di fierezza che Harry aveva colto di rado prima d'allora. Così ha pensato che mi sarebbe piaciuto. Riferire a Neville quello che aveva detto la professoressa Sprout, riflette Harry, era una maniera piena di tatto per tirargli su il morale, perché era molto raro che Neville si sentisse dire che era bravo in qualcosa. Era proprio il genere di cosa che avrebbe potuto fare il professor Lupin. Harry e Ron portarono di sotto le loro copie di Svelare il futuro. Trovarono un tavolo libero e si misero a lavorare sulle loro predizioni per il mese seguente. Un'ora dopo avevano fatto scarsi progressi, anche se il tavolo era ingombro di pezzi di pergamena coperti di conti e simboli, e la mente di Harry era annebbiata, come se fosse stata invasa dai vapori del fuoco della professoressa Trellonei. «Non ho la più pallida idea di cosa dovrebbe significare questa roba», ammise, fissando una lunga lista di calcoli. «Sai», disse Ron, i capelli ritti a furia di passarci in mezzo le dita, preso dallo sconforto, «credo che sia ora di ricorrere alle vecchie misure d'emergenza per divinazione». «Cosa? Dobbiamo inventare?» «Sì», rispose Ron, spazzando via dal tavolo la gran massa di foglietti scarabocchiati, intingendo la penna nell'inchiostro e cominciando a scrivere. «Lunedì prossimo», annunciò, «mi verrà la tosse a causa dell'infelice congiunzione di Marte e Giove». Alzò lo sguardo su Harry. «La conosci, no? Dalle un oceano di disgrazie e lei ci sguazzerà». «Giusto», disse Harry, appallottolando il suo primo tentativo e lanciandolo nel fuoco, al di sopra delle teste di un gruppo di allievi del primo anno, seduti a chiacchierare. «D'accordo, allora. Lunedì rischio di... ustioni». «Ci puoi giurare», fece Ron, un cupo. «Lunedì ci toccano di nuovo gli schiopodi». «Ok, martedì io...» «Perderai una cosa preziosa», disse Harry che sfogliava a svelare il futuro in cerca di spunti. «Giusto», rispose Ron, prendendo nota. «Per colpa di... Mercurio. Perché invece tu non ti fai pugnalare alle spalle da qualcuno che credevi un amico?» «Sì, dai», approvò Harry scrivendo. «E sarà perché... Venere è nella dodicesima casa, e mercoledì avrò la peggio in una rissa». «Ah, la rissa la volevo io!» «No, allora io perdo una scommessa». «E certo, perché scommetterai su di me nella rissa». Continuarono a inventare predizioni, che divennero sempre più tragiche per un'altra ora, mentre la sala comune attorno a loro si svuotava lentamente e i ragazzi salivano a dormire. Grattastinchi li raggiunse, balzò agilmente in una poltrona vuota e fissò Harry con aria imperscrutabile, come avrebbe potuto fare Ermione se avesse saputo che non stavano facendo i compiti come si deve. Guardandosi intorno e cercando di pensare a una sventura che non aveva ancora usato, Harry vide Fred e George seduti accanto al muro, dall'altra parte della sala, le teste vicine, le penne in mano, chini sullo stesso rotolo di pergamena. Era decisamente insolito vedere Fred e George appartati in un angolo a lavorare in silenzio. Di solito amavano stare nel bel mezzo della mischia e richiamare rumorosamente l'attenzione. C'era qualcosa di misterioso nel modo in cui lavoravano chini sulla pergamena e a Harry ricordò il modo in cui confabulavano alla tana. Allora aveva pensato che si trattasse di un altro modulo di ordinazione per i tiri vispi Weasley, ma questa volta sembrava diverso, o avrebbero certamente coinvolto Lee Jordan. Si chiese se ciò che facevano avesse qualcosa a che vedere con la partecipazione al torneo tre maghi. Mentre Harry li osservava, George scosse la testa, scarabocchiò qualcosa e disse molto piano, ma senza riuscire a evitare che la sua voce risuonasse nella sala quasi deserta. No, così sembra che lo stiamo accusando, dobbiamo andarci cauti. Poi George alzò gli occhi e vide Harry che lo guardava. Harry fece un gran sorriso e tornò in fretta alle sue predizioni. Non voleva che George pensasse che stava origliando. Poco dopo i gemelli arrotolarono la pergamena, diedero la buonanotte e andarono a dormire. Fred e George se n'erano andati da una decina di minuti quando il ritratto si aprì e Hermione entrò nella sala comune con un fascio di fogli in una mano e nell'altra una scatola il cui contenuto sbatacchiò. Grattastinchi inarcò la schiena e si mise a fare le fusa. Ciao, disse lei, ho appena finito. Anch'io, esclamò Ron trionfante lasciando cadere la penna d'oca. Hermione si sedette, depose gli oggetti che aveva con sé su una sedia vuota e trasse a sé le predizioni di Ron. Non ti aspetta un gran bel mese, vero? disse Sardonica, mentre Grattastinchi le si acciambellava in grembo. Ah beh, almeno sono avvisato, disse Ron sbadigliando. A quanto pare anneghi due volte, disse Hermione. Oh, davvero? disse Ron dando un'occhiata al compito. Meglio cambiarne una, potrei farmi calpestare da un ipogrifo imbizzarrito. Non credi che sia un po' troppo sfacciato inventarti questa roba? disse Hermione. Come osi? disse Ron fingendosi indignato. Abbiamo lavorato come elfi domestici. Hermione inarcò le sopracciglia. È solo un modo di dire, aggiunse in fretta Ron. Anche Henry depose la penna. Aveva appena finito di predire la propria morte per decapitazione. Che cosa c'è nella scatola? chiese indicandola. È buffo che tu me lo chieda, rispose Hermione lanciando uno sguardo feroce a Ron. Tolse il coperchio e mostrò il contenuto ai ragazzi. Dentro c'erano una cinquantina di spille, tutte di colori diversi, ma tutte con le stesse lettere. Crepa. Crepa, disse Henry, prendendo una spilla per osservarla meglio. Che roba è? Non Crepa, fece Hermione impaziente. È C-R-E-P-A, sta per Comitato per la Riabilitazione degli elfi proletari e alienati. Mai sentito nominare, disse Ron. Beh, per forza, rispose Hermione in tono animato. L'ho appena fondato. Davvero, esclamò Henry con una certa sorpresa. E quanti membri conta? Beh, se vi iscrivete voi due, fanno tre, disse Hermione. E tu credi che noi vogliamo andare in giro con delle spille con sopra scritto Crepa, eh? C-R-E-P-A, sbottò Hermione infiammandosi. Volevo metterci, fermiamo il vergognoso abuso dei nostri compagni magici e campagna per il mutamento del loro status legale, ma non ci stava, quindi quelli sono i titoli del nostro manifesto. Brandì il foglio di pergamena verso di loro. Ho fatto accurate ricerche in biblioteca. Gli elfi sono stati ridotti in schiavitù secoli fa. Non riesco a credere che nessuno abbia fatto niente per cambiare la situazione prima d'ora. Hermione, apri le orecchie, disse Ron ad alta voce. A loro piace, a loro piace stare in schiavitù. I nostri obiettivi a breve termine, disse Hermione, parlando ancora più forte di Ron, come se non avesse sentito una parola, sono assicurare agli elfi domestici salari e condizioni di lavoro dignitosi. I nostri obiettivi a lungo termine comprendono la modifica della legge sul divieto all'utilizzo della bacchetta e il tentativo di insediare un elfo all'ufficio regolazione e controllo delle creature magiche, perché sono spaventosamente sottorappresentati. E come le facciamo tutte queste cose? chiese Henry. Cominciamo raccogliendo adesioni, disse allegramente Hermione. Ho pensato che l'iscrizione può costare due zellini, compresa la spilla, e il ricavato può finanziare la nostra campagna di volantinaggio. Tu sei il tesoriere, Ron. Di sopra ho una cassetta per te. Henry, tu sei il segretario. Così, se credi, puoi scrivere tutto quello che ho detto adesso come verbale della nostra prima riunione. Ci fu una pausa. Hermione fece un largo sorriso, e nel vedere la faccia di Ron, Henry fu seriamente combattuto tra il ridere di lui e il prendersela con lei. Alla fine il silenzio fu rotto non da Ron, che sembrava temporaneamente ammutolito, ma da un dolce picchiettio contro il vetro. Henry guardò attraverso la sala comune ormai vuota e vide, illuminata dalla luce lunare, una civetta candida come la neve, appollaiata sul davanzale. «Edvige!» gridò, poi scattò in piedi e attraversò di corsa la stanza per aprire la finestra. Edvige volò dentro, planò nella stanza e atterrò sul tavolo, sopra le predizioni di Henry. «Era ora!» esclamò Henry, raggiungendola di corsa. «Hà la risposta!» disse Ron eccitato, indicando il pezzetto di pergamena accartocciata legato alla zampa di Edvige. Henry lo slegò in fretta e si sedette a leggerlo, mentre Edvige svolazzava fino al suo ginocchio, tubando piano. «Che cosa dice?» chiese Hermione con il fiato sospeso. La lettera era molto breve e sembrava che fosse stata stilata molto in fretta. Henry lesse ad alta voce. «Harry, volo immediatamente a nord. La notizia della tua cicatrice è l'ultima di una serie di strane voci che mi sono giunte fin qui. Se ti fa ancora male, vai subito da Silente. Dicono che abbia convinto Malocchio a tornare al lavoro, il che significa che ha colto i segnali, anche se è l'unico. Mi farò vivo presto. I miei più cari saluti a Ron e Hermione. Tieni gli occhi aperti, Henry. Sirius.» Henry alzò lo sguardo su Ron e Hermione, che ricambiarono. «Vola a nord!» sussurrò Hermione. «Sta tornando?» «Che segnali ha colto, Silente?» chiese Ron perplesso. «Harry, che cosa succede?» Henry si era appena colpito la fronte col pugno, facendo sobbalzare Edvige, appollaiata nel suo grembo. «Non dovevo dirglielo!» esclamò furioso. «Di che cosa stai parlando?» chiese Ron sorpreso. «Lo ha convinto a tornare!» ribatté Henry e questa volta colpì il tavolo col pugno. Edvige si rifugiò sullo schienale della poltrona di Ron, tubando indignata. «Torna perché è convinto che io sia nei guai, ma io sto bene! Non ho niente per te!» sbottò rivolto a Edvige, che schioccava il becco in attesa. «Dovrai andare su alla guferia se vuoi da mangiare!» Edvige gli lanciò un'occhiata profondamente offesa e decollò attraverso la finestra aperta, schiaffeggiandolo sulla testa con l'ala tesa mentre partiva. «Harry!» esordì Hermione in tono tranquillizzante. «Vado a dormire!» disse Henry asciutto. «Ci vediamo domattina!» Di sopra, nel dormitorio, si infilò il pigiama e si ficò nel letto a baldacchino, ma non si sentiva nemmeno lontanamente stanco. Se Sirius tornava e veniva catturato, era colpa sua, di Henry, perché non aveva tenuto la bocca chiusa. Un doloretto durato pochi istanti e lui aveva dovuto spiattellare tutto, se solo avesse avuto il buon senso di tenerselo per sé. Sentì Ron salire poco più tardi, ma non gli rivolse la parola. A lungo Henry rimase disteso a contemplare l'oscuro baldacchino del suo letto. Il dormitorio era immerso in un silenzio totale, e se fosse stato meno preoccupato, Henry avrebbe capito che l'assenza del solito russare di Neville indicava che non era l'unico a essere sveglio. Bobaton e Durmstrang Il giorno dopo, Henry si svegliò presto, con in testa un piano dettagliato, come se nel sonno il suo cervello ci avesse lavorato sopra tutta la notte. Si alzò, si vestì nella pallida luce dell'alba, uscì dal dormitorio senza svegliare Ron e scese nella sala comune deserta. Qui prese un foglio di pergamena dal tavolo sul quale si trovava ancora il suo compito di divinazione e scrisse la lettera che segue. Caro Sirius, credo di aver solo immaginato che mi facesse male la cicatrice. Ero mezzo addormentato l'ultima volta che ti ho scritto. Non serve che tu ritorni. Qui va tutto bene. Non stare in pensiero per me. La mia testa è perfettamente a posto. Henry. Poi uscì dal buco del ritratto, salì nel castello silenzioso, ostacolato solo per un attimo da Peeves, che cercò di rovesciargli addosso un grosso vaso a metà del corridoio del quarto piano. E infine giunse alla guferia, che si trovava in cima alla torre ovest. La guferia era una stanza di pietra circolare, piuttosto fredda e piena di spifferi, perché nessuna delle finestre era chiusa da vetri. Il pavimento era completamente coperto di paglia, cacche di gufo e scheletri rigurgitati di topi e ratti. Centinaia e centinaia di gufi di tutte le razze immaginabili erano appollaiati lassù su trespoli che si innalzavano fino alla cima della torre, quasi tutti addormentati, anche se qua e là un tondo occhio d'ambra, scrutò Tor Voherry. Lui individuò Edvige rannicchiata tra un barbagianni e un allocco e le si avvicinò rapido, scivolando un po' sul pavimento ricoperto di escrementi. Gli scivolle un po' per convincerla a svegliarsi e poi a dargli retta, mentre lei continuava a ritrarsi sul suo trespolo mostrandogli la coda. Evidentemente era ancora offesa per la sua mancanza di gratitudine la sera prima. Alla fine Henry buttò lì che probabilmente era troppo stanca e che forse avrebbe chiesto a Ron di prestargli Leo, e fu questo a indurla a tendere la zampa e a consentirgli di legargli la lettera. «Trovalo e basta, d'accordo?» disse Henry, accarezzandole il dorso mentre la portava sul braccio verso una delle aperture nel muro. «Prima dei dissennatori!» Lei gli becchettò il dito, forse un po' più forte di come avrebbe fatto normalmente, ma comunque cantò dolcemente in tono rassicurante. Poi spalancò le ali e decollò verso il sole che sorgeva. Henry la guardò sparire, avvertendole nello stomaco la familiare sensazione di disagio. Era stato così sicuro prima che la risposta di Sirius avrebbe alleviato le sue preoccupazioni invece di aggravarle. «Quella è una bugia, Henry!» disse Hermione bruscamente mentre facevano colazione, quando lui raccontò che cosa aveva fatto. «Non ti sei immaginato che ti faceva male la cicatrice, e lo sai!» «E allora?» replicò Henry. «Non tornerà ad Azkaban a causa mia!» «Lascia perdere!» ribatté seccamente Ron quando lei aprì la bocca per discutere ancora, e per una volta Hermione gli diede retta e tacque. Nelle due settimane che seguirono, Henry fece del suo meglio per non stare in pensiero per Sirius. A dire il vero, non poteva fare a meno di guardarsi attorno ansiosamente tutte le mattine quando arrivavano i gufi postini, e la sera, prima di addormentarsi, non riusciva a scacciare le orribili visioni di Sirius circondato dai dissennatori in qualche buia strada di Londra, ma durante il giorno cercava di non pensare al suo padrino. Desiderò di avere ancora il quiddice a distrarlo. Nulla funzionava meglio di un bel allenamento intenso su una mente turbata. D'altra parte, le lezioni diventavano più difficili e impegnative di quanto non fossero mai state, in particolare difesa contro le arti oscure. Con loro sorpresa, il professor Moody aveva annunciato che avrebbe scagliato la maledizione Imperius su ciascuno di loro a turno, per dimostrare il suo potere e per vedere se riuscivano a resistere ai suoi effetti. «Ma aveva detto che è illegale, professore», disse Ermione dubbiosa, mentre Moody spazzava via i banchi con un ampio gesto della bacchetta, creando un vasto spazio vuoto al centro dell'aula. «Ha detto che usarlo contro un altro essere umano è...» «Silente vuole che voi impariate che cosa si prova», disse Moody, mentre l'occhio magico roteava su Ermione e la fissava con uno sguardo immobile e inquietante. «Se preferisci imparare nell'altro modo, quello più duro, quando qualcuno te la scaglia addosso per assumere il totale controllo di te, mi sta bene. Sei esonerata. Vattene!» Puntò un dito contorto verso la porta. Ermione diventò molto rossa e mormorò qualcosa sul fatto che non voleva dire che desiderava andarsene. Harry e Ron si scambiarono un ghigno. Sapevano che Ermione avrebbe mangiato pus di bubo tubero piuttosto che perdersi una lezione così importante. Moody chiamò gli studenti uno alla volta e scagliò contro ciascuno la maledizione Imperius. Harry rimase a guardare i suoi compagni mentre uno dopo l'altro venivano obbligati a fare le cose più incredibili. Dean Thomas fece per tre volte il giro della stanza a balzi, cantando l'inno nazionale. Lavanda Brown imitò uno scogliattolo. Neville si esibì in una serie di esercizi ginnici piuttosto stupefacenti, che certo non sarebbe stato in grado di eseguire in condizioni normali. Nessuno di loro parve in grado di opporsi e ciascuno di loro si riprese solo quando Moody ebbe sciolto l'incantesimo. «Potter!» ringhiò Moody. «Tocca a te!» Harry avanzò fino al centro della classe, nello spazio che Moody aveva sgombrato dai banchi. Il professore levò la bacchetta, la puntò su Harry e disse «Imperio!» Harry provò una sensazione davvero straordinaria. Aveva l'impressione di galleggiare, come se tutti i pensieri e le preoccupazioni dentro la sua testa venissero dolcemente cancellati, lasciando nient'altro che una vaga, indefinibile felicità. Rimase lì, infinitamente rilassato, solo vagamente conscio che tutti lo stavano osservando, e poi sentì la voce di malocchio Moody che echeggiava in una stanza remota del suo cervello vuoto. «Salta sul banco! Salta sul banco!» Harry piegò docilmente le ginocchia, preparandosi a balzare. «Salta sul banco! Ma perché poi?» Un'altra voce si era risvegliata al fondo del suo cervello. «È una cosa stupida da fare, davvero!» diceva la voce. «Salta sul banco!» «No, non credo che lo farò, grazie!» disse l'altra voce, un po' più decisa. «No, davvero, non voglio farlo!» «Salta! Ora!» La cosa che Harry provò subito dopo fu parecchio dolore. Aveva spiccato un salto e contemporaneamente aveva cercato di trattenersi. Il risultato fu che si schiantò a testa bassa contro il banco, rovesciandolo, e a giudicare da come stavano le sue gambe, probabilmente aveva tutte e due le rotule fratturate. «Ah, così sì che va bene!» ringhiò la voce di Moody e all'improvviso Harry sentì sparire la sensazione di vuoto e di eco dentro la testa. Si ricordò esattamente che cosa stava succedendo e il dolore alle ginocchia parve raddoppiare. «Guardate tutti quanti! Potter si è opposto! L'ha contrastata! E mi venga un colpo! L'ha quasi sconfitta! Ci riproveremo, Potter! E voi altri state attenti! Guardate i suoi occhi! È lì che lo vedete! Molto bene, Potter! Davvero molto bene! Faranno fatica a controllare te!» «Da come parla!» Borbottò Harry un'ora dopo, mentre usciva zoppicando dall'aula. Moody aveva insistito per fargli ripetere tutto per quattro volte di fila, finché Harry non aveva completamente vinto la maledizione. «Uno potrebbe pensare che stiamo per essere attaccati da un momento all'altro!» «Sì, lo so!» disse Ron, che saltellava un passo sì e uno no. Aveva fatto molta più fatica di Harry a opporsi alla maledizione, anche se Moody gli aveva assicurato che gli effetti sarebbero svaniti per l'ora di pranzo. Quando si dice un paranoico, Ron si guardò nervosamente alle spalle per controllare che Moody fosse fuori tiro e riprese. «Non mi stupisco che siano stati contenti di farlo fuori al ministero. Hai sentito che cosa ha raccontato a Simus? Cosa ha fatto a quella strega che gli ha gridato «Boo!» alle spalle il primo aprile? E secondo lui, quando dovremmo documentarci su come resistere alla maledizione Imperius con tutto quello che abbiamo da fare». Tutti i ragazzi del quarto anno avevano constatato un notevole aumento nella quantità di lavoro richiesta quel trimestre. La professoressa McGonagall spiegò il perché quando la classe reagì con un lamento particolarmente sonoro alla montagna di compiti di trasfigurazione che aveva assegnato. «State per affrontare una fase fondamentale della vostra istruzione magica», disse con gli occhi che scintillavano pericolosamente dietro gli occhiali quadrati. «I vostri GUFO si avvicinano». «Non abbiamo nessun GUFO fino al quinto anno», esclamò Dean Thomas indignato. «Forse no, Thomas, ma credimi, avrete bisogno di tutta la preparazione che riuscite a mettere insieme. La signorina Granger resta l'unica della classe che sia riuscita a trasformare un porco spino in un puntaspilli soddisfacente. Devo ricordarti che il tuo puntaspilli, Thomas, si appallottola ancora quando qualcuno gli si avvicina con uno spillo». Ermione, che era arrossita di nuovo, parve sforzarsi di non sembrare troppo compiaciuta. Harry e Ron si divertirono da pazzi quando, alla lezione di divinazione, la professoressa Trelawney annunciò a tutti e due che si erano meritati il massimo dei voti. L'insegnante lesse ampi passi delle loro predizioni, lodandoli per come accettavano, senza batter ciglio, gli orrori che li attendevano. Ma si divertirono molto meno quando chiese di fare lo stesso per il mese successivo. Entrambi erano ormai a corto di catastrofi. Nel frattempo, il professor Beans, lo spettro che insegnava storia della magia, aveva assegnato un tema alla settimana sulle rivolte dei Goblin del XVIII secolo, mentre Piton li stava costringendo a scoprire antidoti. Era una cosa che tutti prendevano molto sul serio, perché Piton aveva accennato all'ipotesi di avvelenare uno di loro prima di Natale, per vedere se i loro antidoti erano efficaci. Invece, il professor Flitwick aveva chiesto di leggere tre libri in più, per prepararsi alla lezione sugli incantesimi di appello. Anche Hagrid aggiungeva carico a carico. Gli schiopodi sparacoda crescevano a ritmo notevole, considerato che nessuno aveva ancora scoperto che cosa mangiavano. Hagrid era estasiato e, come parte della loro ricerca, suggerì che gli studenti andassero da lui a sere alterne per osservare gli schiopodi e prendere appunti sul loro straordinario comportamento. «Io non lo farò», dichiarò Draco Malfoy con decisione, quando Hagrid fece questa proposta con l'aria di un babbo Natale che estrae un giocattolo gigante dal suo sacco. «Mi basta e avanza vedere questi cosi schifosi durante le lezioni. Grazie». Il sorriso scomparve dal viso di Hagrid. «Tu farai quello che ti dico», ringhiò. «O fregherò un'ideuzza al professor Moody. Ho sentito che sei proprio un bel furetto, Malfoy!» I grifondoro si rotolarono dalle risate. Malfoy divenne rosso di rabbia, ma evidentemente il ricordo della punizione di Moody era ancora abbastanza doloroso da impedirgli di ribattere. Harry, Ron e Hermione tornarono al castello alla fine della lezione, col morale alle stelle. Vedere Hagrid che metteva sotto Malfoy era particolarmente appagante, soprattutto perché Malfoy aveva fatto davvero del suo meglio per far licenziare Hagrid l'anno prima. Quando arrivarono nella sala d'ingresso, non riuscirono ad avanzare per la folla di studenti accalcati attorno a un gran cartello esposto ai piedi della scalinata di marmo. Ron, il più alto dei tre, cercò di sbirciare oltre le teste assiepate davanti a loro e lesse a voce alta. Torneo tre maghi. Le delegazioni di Bobaton e Durmstrang arriveranno alle sei in punto di venerdì 30 ottobre. Le lezioni termineranno con mezz'ora di anticipo. «Magnifico!» esclamò Harry. «L'ultima ora del venerdì è Pozioni. Piton non avrà il tempo di avvelenarci tutti. Gli studenti riporteranno borse e libri nei rispettivi dormitori e si riuniranno davanti al castello per salutare i nostri ospiti prima del banchetto di benvenuto!» «Manca solo una settimana!» commentò Ernie McMillen di tassofrasso, spuntando dalla folla, gli occhi scintillanti. «Chissà se Cedric lo sa. Vado a dirglielo!» «Cedric?» disse Ron in tono vacuo mentre Ernie scappava via. «Diggory!» precisò Harry. «Credo che voglia partecipare al torneo. Quell'idiota campione di Hogwarts!» disse Ron mentre si facevano largo nella folla vociante, puntando verso la scala. «Non è un idiota, è solo che non ti piace perché ha battuto Grifondoro a Quidditch!» disse Ermione. «Ho sentito dire che è uno studente davvero brillante ed è anche un prefetto!» Lo disse come se con questo la questione fosse chiusa. «Ti piace solo perché è bello!» disse Ron caustico. «Scusa, sai, ma a me non piace la gente solo perché è bella!» ribatte Ermione indignata. Ron finse un colpo di tosse che suonò stranamente come «Lockhart!» La comparsa del cartello nella sala d'ingresso ebbe un effetto notevole su tutti. La settimana seguente parve esserci un solo argomento di conversazione, ovunque Harry andasse, il torneo tre maghi. Le voci si propagavano di studente in studente, come virus altamente contagiosi. Chi voleva farsi avanti come campione di Hogwarts? In cosa sarebbe consistito il torneo? In che cosa gli studenti di Bobaton e Durmstrang erano diversi da loro? Harry notò anche che il castello fu ripulito da cima a fondo. Parecchi ritratti sudici furono scrostati, con grandis appunto dei loro soggetti, che sedevano rannicchiati nelle cornici, borbottavano cupi e trasalivano tastandosi i volti di un rosa acceso. Le armature all'improvviso diventavano scintillanti e si muovevano senza cigolare, e Argus Filch, il custode, divenne talmente feroce con gli studenti che dimenticavano di pulirsi le scarpe, che provocò una crisi isterica in un paio di ragazzine del primo anno. Anche altri membri del personale docente sembravano stranamente agitati. «Longbottom, sei pregato di non far sapere a nessuno di Durmstrang che non sei nemmeno in grado di eseguire un semplice incantesimo di scambio», abbaiò la professoressa McGonagall alla fine di una lezione particolarmente difficile, durante la quale Neville aveva trapiantato per errore le proprie orecchie su un cactus. Quando scesero per colazione la mattina del 30 ottobre, scoprirono che la sala grande era stata addobbata durante la notte. Enormi stendardi di seta pendevano dai muri. Ciascuno rappresentava una casa di Hogwarts, rosso con un leone d'oro per grifondoro, blu con un'aquila di bronzo per corvo nero, giallo con un tasso nero per tasso frasso, e verde con un serpente d'argento per serpe verde. Dietro il tavolo degli insegnanti lo stendardo più grande di tutti portava il blasone di Hogwarts. Leone, aquila, tasso e serpente uniti sotto una grande H. Henry, Ron e Hermione individuarono Fred e George al tavolo di grifondoro. Ancora una volta, cosa del tutto insolita, sedevano lontano da tutti gli altri e parlavano a bassa voce. Ron fu il primo a raggiungerli. «È un vero disastro», diceva George a Fred in tono depresso, «ma se non vorrà parlare con noi, dovremo spedirgli comunque la lettera, o gliela metteremo in mano, non può evitarci per sempre». «Chi è che vi evita?» chiese Ron, prendendo posto accanto a loro. «Magari fossi tu», ribatté Fred, seccato per l'interruzione. «Che cos'è che è un disastro?» chiese Ron a George. «Avere un idiota ficcanaso come te per fratello», disse a George. «Voi due vi siete già fatti venire in mente qualcosa sul torneo tre maghi?» chiese Henry. «Avete pensato a come fare per tentare di iscrivervi?» «Ho chiesto alla McGonagall come vengono scelti i campioni, ma non me l'ha voluto dire», dispose George in tono aspro. «Mi ha detto solo di star zitto e continuare a trasfigurare il mio procione». «Chissà che prove saranno», disse Ron pensieroso. «Sapete, scommetto che potremmo affrontarle. Harry, ne abbiamo fatte di cose pericolose prima d'ora». «Non davanti a una giuria», disse Fred. «La McGonagall dice che i campioni ricevono un punteggio in base a come hanno superato le prove». «Chi sono i giudici?» chiese Henry. «Beh, i presidi delle scuole in vizza fanno sempre parte della commissione», disse Hermione, e tutti si voltarono a guardarla, piuttosto sorpresi, perché tutti e tre sono stati feriti durante il torneo del 1792, quando si imbizzarrì il basilisco che i campioni avrebbero dovuto catturare. Notò che tutti la fissavano e disse, con il solito tono di impazienza nel constatare che nessun altro aveva letto i libri che lei invece conosceva, «è tutto scritto in storia di Hogwarts, anche se naturalmente quel libro non è del tutto affidabile. Storia riveduta e corretta di Hogwarts sarebbe un titolo più calzante, o anche storia decisamente prevenuta e selettiva di Hogwarts, che glissa sugli aspetti più spregievoli della scuola». «Di cosa stai parlando?» chiese Ron, anche se Henry credeva di sapere che cosa si preparava. «Degli elfi domestici!» esclamò Hermione ad alta voce, come Henry si immaginava. «In oltre mille pagine di storia di Hogwarts non si dice nemmeno una volta che siamo tutti complici nello sfruttamento di un centinaio di schiavi!» Henry scosse la testa e si concentrò sulle uova strapazzate. Lo scarso entusiasmo suo e di Ron non era affatto riuscito a scalfire la determinazione di Hermione nel perseguire la giustizia per gli elfi domestici. Era vero, entrambi avevano sborsato due zellini per la spilla Crepa, ma l'avevano fatto solo per farla star calma. I loro zellini erano stati sprecati comunque, semmai avevano reso Hermione più battagliera. Da allora perseguitava Henry e Ron prima perché portassero le spille, poi perché convincessero altri a fare lo stesso, e aveva anche cominciato a battere la sala comune di Grifondoro tutte le sere, mettendo alle strette i compagni e scuotendo il salvadanaio sotto il loro naso. «Ma vi rendete conto che c'è qualcuno che vi cambia la lenzuola, vi accende il fuoco, vi pulisce le aule, vi cucina i pasti, e che questo qualcuno è un gruppo di creature magiche che non vengono pagate e sono trattate come schiave?» continuava a ripetere con veemenza. Alcuni, come Neville, avevano versato il loro obolo solo perché Hermione smettesse di fissarli minacciosa. Qualcuno sembrava vagamente interessato a ciò che aveva da dire, ma riluttante a prendere parte più attivamente alla campagna. Molti consideravano tutta la faccenda uno scherzo. Ron alzò gli occhi verso il soffitto, inondato di sole autunnale, e Fred fu colto da un estremo interesse per la sua pancetta. Entrambi i gemelli si erano rifiutati di comprare la spilla crepa. Invece George si voltò verso Hermione. «Senti, sei mai stata giù nelle cucine, Hermione?» «No, certo che no», rispose lei asciutta. «Non credo che gli studenti debbano...» «Noi ci siamo stati», disse George, indicando Fred, «un sacco di volte a prendere del cibo. E li abbiamo visti e sono felici. Sono convinti che il loro è il più bel lavoro del mondo. È perché non sono istruiti e gli hanno fatto il lavaggio del cervello», sbottò Hermione in tono acceso, ma il resto della frase fu inghiottito dall'improvviso fruscio che annunciava l'arrivo dei gufi postali. Harry guardò subito in alto e vide Edvige planare verso di lui. Hermione t'acqua all'istante. Lei e Ron fissarono ansiosi Edvige, che si posava sulla spalla di Harry, ripiegava le ali e tendeva stancamente la zampa. Harry sfilò la risposta di Sirius e offrì le sue striscioline di bacon a Edvige, che le divorò soddisfatta. Poi, assicuratosi che Fred e George fossero immersi in un altro dibattito sul torneo tre maghi, Harry lesse in un sussurro a Ron e Hermione la lettera di Sirius. «Bel tentativo, Harry. Sono tornato e sono al sicuro. Voglio che tu mi tenga informato su tutto ciò che accade a Hogwarts. Non usare Edvige. Continua a cambiare gufi e non preoccuparti per me. Pensa solo a guardarti le spalle. Non dimenticare quello che ho detto a proposito della cicatrice. Sirius. Perché devi cambiare gufi?» chiese Ron a voce bassa. «Edvige attira troppo l'attenzione», rispose subito Hermione. «È vistosa. Una civetta bianca che continua a tornare nel posto dove lui si nasconde, ovunque sia. Voglio dire, non sono uccelli che si trovano dappertutto, no?» Harry arrotolò la lettera e se la mise in tasca, domandandosi se fosse più o meno preoccupato di prima. Il fatto che Sirius fosse riuscito a tornare senza farsi catturare era già qualcosa. E inoltre non poteva negare che fosse rassicurante sapere di averlo vicino. Almeno non avrebbe dovuto attendere tanto a lungo per avere risposta alle sue lettere. «Grazie, Edvige», disse accarezzandola. Lei emise un verso assonnato, tuffò rapida il becco nel suo calice di succo d'arancia, poi decollò di nuovo. Era chiaro che non vedeva l'ora di farsi una bella dormita su alla guferia. Quel giorno, nell'aria, c'era un piacevole senso di attesa. Nessuno fu molto attento in classe, tutti erano molto più interessati all'arrivo delle delegazioni di Bobaton e Durmstrang. Anche Pozioni fu più sopportabile del solito, visto che durò mezz'ora di meno. Quando la campana suonò in anticipo, Harry, Ron e Ermione corsero su alla torre di Grifondoro, depositarono borse e libri, si infilarono i mantelli e tornarono giù di corsa nella sala d'ingresso. I direttori delle case stavano disponendo in fila i loro studenti. «Weasley, raddrizzati il cappello», ordinò la professoressa McGonagall a Ron. «Signorina Patil, via quella cosa ridicola dai capelli!» Parvati si rabbuiò e si tolse una grossa farfalla decorativa dall'estremità della treccia. «Seguitemi, prego», disse la professoressa McGonagall. «Quelli del primo anno davanti, non spingete!» Scesero in fila i gradini e si schierarono davanti al castello. Era una serata fredda e serena. Il sole stava tramontando e una pallida luna trasparente brillava già sulla foresta proibita. Harry, in piedi tra Ron e Ermione in quarta fila, vide Danny Scrivey tremare di agitazione tra quelli del primo anno. «Sono quasi le sei», disse Ron, consultando l'orologio e poi guardando giù per il viare che portava i cancelli principali. «Come pensate che arriveranno? In treno?» «Ne dubito», rispose Ermione. «E come allora? Con le scope?» suggerì Harry, alzando gli occhi al cielo stellato. «Non credo, non da così distante». «Una passaporta?» suggerì Ron. «Oppure potrebbero materializzarsi. Forse a casa loro possono farlo anche se hanno meno di diciassette anni». «Non è possibile materializzarsi dentro i confini di Hogwarts. Quante volte devo dirtelo?» sbuffò Ermione. Scrutarono ansiosamente i prati sempre più bui, ma nulla si muoveva. Tutto era immobile, silenzioso e piuttosto normale. Harry cominciava ad aver freddo. Sperava che si muovessero. Forse gli studenti stranieri stavano preparando un ingresso teatrale. Gli venne in mente quello che aveva detto il signor Weasley al campeggio prima della Coppa del Mondo di Quidditch. «Siamo sempre i soliti. Non riusciamo a fare a meno di esibirci». E poi, silente, gridò dall'ultima fila, dove si trovava assieme agli altri insegnanti. «Ha ha! O mi sbaglio di grosso, oppure sta arrivando la delegazione di Bobaton!» «Dove?» esclamarono parecchi studenti con impazienza, guardando tutti da una parte diversa. «Laggiù!» urlò uno del sesto anno, puntando l'indice verso la foresta. «Qualcosa di grosso, molto più grosso di una scopa, o meglio di cento scope, si precipitava nel cielo azzurro cupo, in direzione del castello, e diventava sempre più grande. «È un drago!» strillò istericamente una ragazzina del primo anno. «Non dire stupidaggini! È una casa volante!» esclamò Dennis Rivey. Dennis aveva quasi indovinato. Mentre la gigantesca sagoma nera sfiorava le cime degli alberi della foresta proibita, illuminata dalle luci del castello, videro un'enorme carrozza azzurra, delle dimensioni di una vasta dimora, che fluttuava verso di loro, trainata nell'aria da una dozzina di cavalli alati, tutti palomino, grandi come elefanti. Le prime tre file di studenti si ritrassero, mentre la carrozza sfrecciava più in basso e si preparava ad atterrare a una tremenda velocità. Poi, con un fracasso abnorme che fece balzare Neville indietro sul piede di un serpeverde del quinto anno, gli cioccoli dei cavalli, più grossi di piatti da portata, toccarono terra. Dopo un secondo atterrò anche la carrozza, rimbalzando sulle vaste ruote, mentre i cavalli dal manto dorato scuotevano le enormi teste e roteavano i grandi occhi rossi e fieri. Harry ebbe appena il tempo di notare che sulla porta della carrozza c'era un blasone, due bacchette d'oro incrociate da cui spuntavano tre stelle ciascuna, prima che questa si aprisse. Un ragazzo vestito di azzurro pallido balzò giù, si curvò, trafficò per un attimo con qualcosa ed estrasse una serie di gradini d'oro. Poi arretrò rispettosamente. Harry vide una lustra scarpa nera col tacco alto spuntare dall'interno della carrozza. Una scarpa grande come una slitta da bambino, seguita quasi immediatamente dalla donna più grande che avesse mai visto. La taglia della carrozza e dei cavalli si spiegò subito. Alcuni ragazzi trattennero il respiro. Harry aveva visto solo una persona grande come quella donna nella sua vita e questa persona era Hagrid. Dubitava che ci fosse una differenza di più di due o tre centimetri nella loro altezza. Eppure in qualche modo, forse semplicemente perché a Hagrid era abituato, quella donna che ora era scesa dagli scalini e guardava la folla in attesa con gli occhi sgranati, sembrava ancor più innaturalmente grossa. Quando fu colpita dalla luce che fiottava dalla sala d'ingresso, si scoprì che aveva un bel viso olivastro, grandi occhi neri liquidi e il naso piuttosto grifagno. I suoi capelli erano raccolti in una crocchia lucente alla base del collo. Era vestita da capo a piedi di satè nero e molti splendidi opali scintillavano attorno al collo e sulle sue dita enormi. Silente prese ad applaudire. Anche gli studenti, seguendo il suo esempio, batterono le mani. Molti in punta di piedi per vedere meglio la donna. Il suo viso si distese in un sorriso cortese e avanzò verso Silente, tendendo una mano tutta bagliori. Per baciargliela, Silente quasi non si chinò. «Mia cara Madame Maxime», disse, «benvenuta a Hogwarts». «Mon char, Silente!» esclamò lei con voce profonda. «Voi sta bene, spero?» «Sono in ottima forma, grazie», disse Silente. «I miei studenti», disse Madame Maxime, agitando non curante una delle sue enormi mani e indicando alle sue spalle. Harry, la cui attenzione si era completamente concentrata su Madame Maxime, notò in quel momento che una dozzina circa di ragazzi e ragazze, tutti a occhio e croce tra i diciassette e i diciotto anni, erano spuntati dalla carrozza e ora erano in piedi dietro Madame Maxime. Tremavano, cosa tutt'altro che sorprendente, dato che i loro abiti sembravano di seta leggera e nessuno portava il mantello. Alcuni si erano avvolti sciarpe e scialli attorno alla testa. Per quel che Harry poté vedere delle loro facce, erano all'ombra di Madame Maxime, stavano contemplando Hogwarts con aria preoccupata. «Karkaroff è già qui», chiese Madame Maxime. «Dovrebbe arrivare a momenti», rispose Silente. «Preferite aspettare qui e salutarlo o entrare a scaldarvi un po'? «Scaldarci, sì», disse Madame Maxime. «Ma i cevalli...» «Il nostro insegnante di cura delle creature magiche sarà felice di occuparsene», disse Silente, non appena avrà sistemato un piccolo problema che si è verificato con alcuni dei suoi altri compiti. «Gli schiopodi», mormorò Ron a Harry con un ghigno. «I miei destrieri hanno bisogno di...» «Una mano decisa», disse Madame Maxime, con l'aria di dubitare che qualunque insegnante di cura delle creature magiche di Hogwarts fosse all'altezza dell'incarico. «Loro sono tanto forti. Le assicuro che Hagrid se ne occuperà con competenza», disse Silente con un sorriso. «Très bien», disse Madame Maxime con un piccolo inchino. «Voleva dire a questa Hagrid che i cevalli bevono solamente whisky di malto, s'il vous plaît?» «Provederemo», disse Silente, inchinandosi a sua volta. «Venite», disse Madame Maxime imperiosa ai suoi studenti, e la folla di Hogwarts si dischiuse, per lasciarli salire le scale di pietra. «Quanto credete che saranno grandi i cavalli di Durmstrang?» chiese Simus Finnegan a Harry e Ron, sforgendosi di fianco a lavanda e parvati. «Beh, se sono più grandi di questi, neanche Hagrid riuscirà a controllarli», disse Harry. «Sempre che non sia stato aggredito dai suoi schiopodi, chissà che cosa sta succedendo». «Forse sono fuggiti», disse Ron speranzoso. «No, non dirlo», intervenne Hermione con un brivido. «Prova a immaginarteli liberi per il parco». Rimasero lì, tremando un po', ad aspettare l'arrivo della compagnia di Durmstrang. Quasi tutti guardavano il cielo in attesa. Per qualche minuto il silenzio fu rotto solo dagli sbuffi e dallo scalpitio dei grossi cavalli di Madame Maxime. «Ma poi...» «Sentite qualcosa?» disse Ron all'improvviso. Harry tese l'orecchio. Un suono forte e stranamente misterioso avanzava verso di loro dall'oscurità. Un rombo e un risucchio soffocato, come se un immenso aspirapolvere avanzasse lungo il letto di un fiume. «Il lago!» urrò lì Jordan indicandolo. «Guardate il lago!» Dalla loro postazione in cima ai prati che sovrastavano il parco, potevano vedere chiaramente la liscia superficie nera dell'acqua, solo che all'improvviso non fu più affatto liscia. Al centro, in profondità, c'era una strana turbolenza. Grandi bolle si formavano in superficie, ondate si abbattevano sulle rive fangose e poi, proprio al centro del lago, apparve un vortice, come se un tappo gigante fosse appena stato tirato via dal fondo. Una cosa che sembrava un lungo palo nero, prese ad affiorare lentamente dal cuore del vortice. E poi Henry vide il sartiame. «È un albero, maestro!» disse a Ron e Ermione. Lenta e maestosa, la nave sorse dalle acque, splendente nella luce lunare. «È un albero, maestro!» disse a Ron e Ermione. «È un albero, maestro!» 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il calice di fuoco. «Non ci credo!» esclamò Ron, stupefatto, mentre gli studenti di Hogwarts risalivano in fila i gradini dietro la delegazione di Durmstrang. «Croom! Harry! Victor Croom!» «Per l'amor del cielo, Ron è solo un giocatore di Quidditch!» disse Hermione. «Solo un giocatore di Quidditch!» disse Ron, guardandola come se non riuscisse a credere alle sue orecchie. «Ermione è uno dei migliori cercatori del mondo! Non sapevo che andasse ancora a scuola!» Mentre riattraversavano la sala d'ingresso con gli altri studenti di Hogwarts diretti alla sala grande, Harry vide Lee Jordan che saltava su e giù per riuscire a vedere meglio la nuca di Croom. «Parecchie ragazze del sesto anno si stavano frugando freneticamente in tasca mentre camminavano. «Oh, non ci posso credere! Non ho nemmeno una penna! Credi che mi firmerà il cappello col rossetto?» «Insomma!» disse alteziosa Hermione mentre superavano le ragazze che ora battibeccavano per il rossetto. «Io voglio avere il suo autografo, se ci riesco!» disse Ron. «Non è che hai una penna, è Harry!» «No, sono di sopra, nella borsa!» rispose Harry. Raggiunsero il tavolo di Grifondoro e presero posto. Ron si premurò di sedere sul lato che guardava l'ingresso perché Croom e i suoi compagni di Durmstrang erano ancora riuniti laggiù, incerti su dove sedersi. Gli studenti di Bobaton si erano sistemati al tavolo di corvo nero e si guardavano intorno imbronciati. Tre di loro si stringevano ancora sciarpe e scialli attorno alla testa. «Non fa così freddo!» esclamò irritata Hermione che li stava osservando. «Perché non si sono portati i mantelli?» «Quaggiù! Venite a sedervi qui!» si bilò Ron. «Di qua, Hermione! Spostati! Fai spazio!» «Cosa? Troppo tardi!» disse Ron amareggiato. Victor Croom e i suoi compagni di Durmstrang si erano seduti al tavolo di serpeverde. Harry notò che Malfoy, Crabbe e Goyle erano molto compiaciuti per questo. Malfoy si chinò in avanti per dire qualcosa a Croom. «Sì, certo, lisciatelo bene, Malfoy!» disse Ron aspro. «Ci scommetto che Croom lo capisce benissimo che tipo è. Scommetto che ha sempre intorno della gente che lo adula. Dove credete che dormirà?» «Potremmo offrirgli un posto nel nostro dormitorio, Harry. Non mi dispiacerebbe cedergli il mio letto. Io potrei sistemarmi su una brandina.» Hermione sbuffò. «Sembrano molto più allegri di quelli di Bobaton», osservò Harry. Gli studenti di Durmstrang si stavano togliendo le pesanti pellicce e guardavano in su, verso il soffitto nero stellato, con aria interessata. Un paio presero i piatti e le coppe d'oro e li osservarono da vicino, evidentemente impressionati. Su, al tavolo dei docenti, il signor Filch, il custode, stava aggiungendo delle sedie. Indossava un vecchio fracca ammuffito in onore della circostanza. Harry si meravigliò nel vedere che aggiungeva quattro sedie, due da ciascun lato di Silente. «Ma ci sono solo due persone in più», disse. «Perché Filch prepara quattro posti? Chi altro deve arrivare?» «Eh?» disse Ron in tono vago. Stava ancora fissando avidamente Croom. Quando tutti gli studenti furono entrati nella sala e si furono sistemati ai tavoli delle loro case, gli insegnanti entrarono, raggiunsero in fila il tavolo più lontano e si sedettero. Il professor Silente, il professor Karkaroff e Madame Maxim furono gli ultimi. Quando apparve la loro preside, gli allievi di Bobaton scattarono in piedi. Alcuni studenti di Hogwarts risero. Il gruppo di Bobaton non sembrò minimamente imbarazzato e nessuno tornò a sedere, se non dopo che Madame Maxim ebbe preso posto alla sinistra di Silente. Quest'ultimo però rimase in piedi e il silenzio calò sulla sala grande. «Buonasera, signore e signori, fantasmi e soprattutto ospiti», disse Silente rivolgendo un gran sorriso agli studenti stranieri. «È un grande piacere per me darvi il benvenuto qui a Hogwarts. Spero e confido che la vostra permanenza qui sarà tanto comoda quanto piacevole». Una delle ragazze di Bobaton, che si stringeva ancora uno scialle attorno alla testa, scoppiò in un'inconfondibile risatina di scherno. «Nessuno ti costringe a restare», sussurrò Ermione seccata. «Il torneo verrà ufficialmente inaugurato alla fine del banchetto», disse Silente. «Ora vi invito tutti a mangiare, bere e a fare come se foste a casa vostra». Sedette, Harry vide Karkaroff curvarsi subito verso di lui e intavolare una conversazione. I piatti davanti a loro si riempirono di cibo come al solito. Gli elfi domestici giù nelle cucine sembravano aver dato fondo a tutte le loro capacità. Davanti a loro c'era una varietà di pietanze molto più ricca di quanto Harry non avesse mai visto prima, comprese alcune che erano decisamente straniere. «Che cos'è quello?» esclamò Ron, indicando un grosso piatto di una specie di stufato di crostacei disposto accanto a un gran pasticcio di carne e rognone. «Buyabes», disse Ermione. «Buy che cosa?» disse Ron. «È francese», spiegò Ermione. «L'ho mangiata in vacanza due stati fa. È molto buona». «Se lo dici tu», commentò Ron servendosi di sanguinaccio. La sala grande sembrava molto più affollata del solito, anche se c'erano una ventina scarsa di studenti in più. Forse era perché le uniformi di colore diverso spiccavano contro il nero della divisa di Hogwarts. Ora che si erano tolti le pellicce, gli studenti di Durmstrang apparvero vestiti di un intenso rosso sangue. Hagrid sgattaiolò nella sala, passando per una porta dietro il tavolo degli insegnanti, venti minuti dopo l'inizio del banchetto. Scivolò al suo posto in fondo e salutò Erri, Ron e Ermione con una mano pesantemente fasciata. «Gli schiopodi stanno bene, Hagrid!» gridò Erri. «Benissimo!» rispose Hagrid allegro. «Sì, ci scommetto», disse Ron piano. «A quanto pare finalmente hanno trovato qualcosa che gli piace, eh? Le dita di Hagrid!» In quel momento una voce disse. «Mi scusa, voleva prendere la bouillabaisse». Era la ragazza di Bobaton che aveva riso durante il discorso di Silente. si era tolta lo scialle. Una cascata di capelli di un biondo argenteo le scendeva fin quasi alla vita. Aveva grandi occhi di un azzurro intenso e denti candidi e regolari. Ron diventò paonazzo. La fissò di sotto in su, aprì la bocca per rispondere, ma non ne uscì altro che un debole gorgoglio. «Certo, fai pure», rispose Erri, spingendo il piatto verso la ragazza. «Voi non prende più?» «No», rispose Ron senza fiato. «Sì, era squisita». La ragazza prese il piatto e lo portò con cautela al tavolo di corvo nero. Ron continuava a fissarla come se non avesse mai visto una ragazza prima di quel momento. Erri scoppiò a ridere. Il rumore parve far tornare in sé Ron. «È una vila», disse a Erri con voce rocca. «Ma certo che no, ribattermi o ne acida. non vedo nessun altro che la guarda a bocca aperta come un idiota». Ma le cose non stavano proprio così. Mentre la ragazza attraversava la sala, molte teste maschili si voltarono e alcuni parvero perdere l'uso della parola, proprio come Ron. «Vi dico che non è una ragazza normale», disse Ron allungando la testa per non perderla di vista. «Non le fanno così a Hogwarts». «Le fanno benone a Hogwarts», disse Erri senza riflettere. «Si dava il caso che Cho Chan fosse seduta a pochi posti di distanza dalla ragazza coi capelli d'argento». «Quando voi due vi sarete risistemati gli occhi nelle orbite», disse Erri bruscamente, «forse riuscirete a vedere chi è appena arrivato». Stava indicando il tavolo degli insegnanti. I due posti ancora vuoti erano stati appena occupati. Ora Ludo Bugman sedeva dall'altro lato del professor Karkaroff, mentre il signor Crouch, il capo di Persi, era vicino a Madame Maxim. «Che cosa ci fanno qui?» disse Erri stupito. «Hanno organizzato loro il torneo tre maghi, no?» disse Ermione. «Avranno voluto assistere all'apertura». Quando arrivò la seconda portata, notarono anche un certo numero di dessert dall'aria insolita. Ron studiò da vicino uno strano tipo di budino pallido, poi lo spostò accuratamente di qualche centimetro alla sua destra, in modo che fosse ben visibile dal tavolo di corvo nero. La ragazza che sembrava una vila, però, a quanto pareva, aveva mangiato abbastanza e non venne a prenderselo. Quando i piatti d'oro furono ripuliti, Silente si alzò di nuovo. Una piacevole tensione parve diffondersi nella sala. Erri provò un vago brivido di eccitazione al pensiero di ciò che stava per accadere. Parecchi posti più in là, Fred e George erano tesi in avanti e fissavano Silente con grande concentrazione. «Il momento è giunto», disse Silente, sorridendo al mare divisi rivolti verso il suo. «Il torneo tre maghi sta per cominciare!» «Vorrei dire qualche parola di presentazione prima di far entrare il forziere.» «Il cosa?» sussurrò Erri. Ron alzò le spalle. «Solo per chiarire la procedura che seguiremo quest'anno, ma prima di tutto lasciate che vi presenti per coloro che non li conoscono, il signor Bartemius Crouch, direttore dell'Ufficio per la Cooperazione Magica Internazionale, ci fu un clap-clap di applausi educati, e il signor Ludo Bugman, direttore dell'Ufficio per i giochi e gli sport magici.» Per Bugman risuonò una salva di applausi molto più sonora che per Crouch, forse a causa della sua fama di battitore, o semplicemente perché aveva un aspetto molto più amabile. lui rispose con un cenno gioviale della mano. Bartemius Crouch non sorrise né salutò quando venne annunciato il suo nome. Ricordandolo col suo abito inappuntabile alla Coppa del Mondo di Quidditch, Erri riflette che vestito da mago aveva un'aria strana. I suoi baffi a spazzolino e la scriminatura severa sembravano parecchio stravaganti vicino ai lunghi capelli e alla barba bianca di Silente. Il signor Bugman e il signor Crouch hanno lavorato instancabilmente negli ultimi mesi per mettere a punto il torneo tre maghi, proseguì Silente, e si uniranno a me, al professor Kalkaroff e a Madame Maxim nella giuria che valuterà gli sforzi dei campioni. Alla parola campioni l'attenzione degli studenti in ascolto parve ridestarsi. Forse Silente aveva notato la loro improvvisa immobilità perché sorrise dicendo Ora il forziere prego signor Filch. Filch che era appostato seminascosto in un angolo remoto della sala si avvicinò a Silente trasportando un grosso baule di legno tempestato di pietre preziose. Sembrava molto antico. Un mormorio eccitato di interesse si levò dagli studenti in attesa. Danny scrivei salì addirittura sulla sedia per vederci bene ma essendo così piccolo la sua testa sovrastava a stento quelle degli altri. Le istruzioni per le prove che i campioni affronteranno quest'anno sono già state prese in esame dal signor Crouch e dal signor Bugman disse Silente mentre Filch posava con cautela il baule sul tavolo davanti a lui ed essi hanno preso i provvedimenti necessari. Le sfide saranno tre distribuite nell'arco dell'anno scolastico e metteranno alla prova i campioni in molti modi diversi. La loro perizia magica la loro audacia i loro poteri deduttivi e naturalmente la loro capacità di affrontare il pericolo. A quest'ultima parola la sala fu invasa da un silenzio così assoluto che sembrava che tutti avessero smesso di respirare. Come sapete tre campioni gareggiano nel torneo riprese tranquillo Silente uno per ogni scuola essi otterranno un punteggio in base all'abilità dimostrata in ciascuna delle prove del torneo e il campione che avrà totalizzato il punteggio più alto dopo la terza prova vincerà la coppa tre maghi i campioni verranno designati da un selezionatore imparziale il calice di fuoco Silente estrasse la bacchetta e batte tre volte sul cofano il coperchio si aprì lentamente con un cigolio Silente infilò la mano all'interno ed estrasse una grossa coppa di legno rozzamente intagliata sarebbe sembrata del tutto comune se non fosse stata colma fino all'orlo di fiamme danzanti blu e biancastre Silente chiuse il forziere e pose delicatamente il calice sul coperchio da lì sarebbe stato ben visibile a tutti chiunque desideri proporsi come campione deve scrivere a chiare lettere il suo nome e quello della sua scuola su un foglietto di pergamena e metterlo nel calice disse Silente gli aspiranti campioni hanno 24 ore per farsi avanti domani sera la sera di Halloween il calice restituirà i nomi dei tre che avrà giudicato più meritevoli di rappresentare le loro scuole il calice verrà esposto stasera nella sala d'ingresso dove sarà liberamente raggiungibile per tutti coloro che desiderano gareggiare per garantire che nessuno studente di età inferiore a quanto richiesto cada in tentazione continua Silente traccerò una linea dell'età attorno al calice di fuoco una volta che sarà stato posto all'ingresso nessuno al di sotto dei 17 anni potrà avvarcare questa linea infine vorrei ricordare a tutti coloro che desiderano partecipare che il torneo non va affrontato con leggerezza una volta che un campione sarà stato scelto dal calice di fuoco lui o lei sarà tenuto a partecipare al torneo fino alla fine inserire il vostro nome nel calice costituisce un contratto magico vincolante non è concesso di cambiare idea una volta diventati campioni vi prego dunque di essere molto sicuri di voler prendere parte alla gara prima di mettere il vostro nome nel calice ora credo che sia il momento di andare a dormire buonanotte a voi tutti una linea dell'età disse fred weasley gli occhi cintillanti mentre tutti si dirigevano verso la sala d'ingresso beh si dovrebbe riuscire a imbrogliarla con una pozione invecchiante no e una volta che i nomi sono nel calice è fatta lui non è in grado di stabilire se hai 17 anni o no ma io credo che nessuno sotto i 17 anni abbia uno straccio di possibilità disse ermione non ne sappiamo ancora abbastanza parla per te la zitti george secco tu proverai a entrare vero Harry Harry considerò in fretta l'insistenza di Silente sul fatto che nessuno con meno di 17 anni dovesse candidarsi ma poi la meravigliosa visione di se stesso vincitore della coppa tre maghi invase di nuovo la sua mente si chiese quanto avrebbe potuto arrabbiarsi Silente se qualcuno con meno di 17 anni avesse trovato il modo di superare la linea dell'età dov'è chiese Ron che non stava ascoltando una parola della conversazione ma scrutava la folla per vedere che fine aveva fatto Crum Silente non ha detto dove dormono quelli di Durmstrang vero ma questo interrogativo ebbe quasi subito una risposta avevano raggiunto il tavolo di serpe verde e Karkarov aveva appena chiamato a raccolta i suoi studenti allora torniamo alla nave stava dicendo Victor come ti senti hai mangiato abbastanza devo far portare del vino aromatizzato dalle cucine Harry vide Crum scuotere la testa mentre indossava di nuovo la pelliccia io folefa delfino herr professor disse un alto studente di Durmstrang speranzoso non l'ho chiesto a te Poliakov ribatté Karkarov l'aria affettuosa e paterna svanita in un istante vedo che ti sei rovesciato di nuovo il cibo sui vestiti disgustoso ragazzo Karkarov si voltò e raggiunse la porta con i suoi studenti al seguito Harry si fermò per cedergli il passo grazie disse Karkarov non curante guardandolo appena e poi si immobilizzò si voltò di nuovo verso Harry e lo guardò come se non riuscisse a credere ai suoi occhi dietro di lui anche gli studenti di Durmstrang si fermarono gli occhi di Karkarov risalirono lentamente il viso di Harry e indugiarono sulla sua cicatrice anche gli studenti di Durmstrang fissavano Harry incuriositi con la coda dell'occhio Harry vide le facce di alcuni illuminarsi di comprensione il ragazzo con i vestiti macchiati diede un colpetto alla sua vicina e indicò apertamente la fronte di Harry sì è Harry Potter disse una voce ringhiosa alle loro spalle il professor Karkarov si voltò di scatto ma l'occhio Moody era là appoggiato pesantemente al bastone l'occhio magico che fissava malevolo il preside di Durmstrang il colore svanì dal viso di Karkarov i suoi lineamenti si torsero in una terribile smorfia di rabbia e paura tu esclamò fissando Moody come se avesse visto un fantasma io disse Moody al cigno e a meno che tu non debba dire qualcosa a Potter Karkarov è il caso che ti sposti stai bloccando il passaggio era vero metà degli studenti della sala ora era in attesa alle loro spalle e si alzava in punta di piedi per vedere il motivo dell'ingorgo senza dir altro il professor Karkarov si portò via i suoi studenti Moody lo guardò sparire l'occhio magico puntato sulla sua schiena e un'aria di intenso disgusto sul viso sfigurato di sabato in genere quasi tutti gli studenti facevano colazione tardi invece quella mattina Henry Ron e Ermione non furono i soli ad alzarsi molto prima del solito quando scesero nella sala d'ingresso c'erano già una ventina di persone che girellavano mangiando pane tostato e osservando il calice di fuoco stava nel centro della sala sullo sgabello che di solito reggeva il cappello parlante una sottile linea d'oro circolare era disegnata per terra a circa tre metri dallo sgabello qualcuno ci ha già messo dentro il suo nome chiese Ron impaziente a una del terzo anno tutti quelli di Durmstrang rispose lei ma non ho ancora visto nessuno di Hogwarts scommetto che qualcuno si è candidato ieri sera dopo che eravamo andati tutti a dormire disse Henry io avrei fatto così non avrei voluto che tutti mi vedessero e se il calice ti risputa subito fuori qualcuno rise alle spalle di Henry voltandosi vide Fred George e Lee Jordan che correvano giù dalle scale tutti e tre molto eccitati fatto sussurrò Fred trionfante a Henry Ron e Hermione l'abbiamo appena presa cosa chiese Ron la pozione invecchiante cervello di cacca disse Fred una goccia per uno spiegò George sfregandosi le mani tutto allegro ci basta essere più grandi solo di pochi mesi ci divideremo i mille galeoni se vince uno di noi tre disse Lee con un gran sorriso non sono sicura che funzionerà sapete intervenne Hermione cauta Silente avrà pensato anche a questo Fred George e Lee la ignorarono pronti chiese Fred agli altri due tremando per l'eccitazione andiamo allora vado io per primo Henry guardò affascinato Fred che estraeva dalla tasca un foglietto di pergamena con scritto sopra Fred Weasley Hogwarts Fred avanzò fino alla linea e Lee rimase dondolandosi sulle punte dei piedi come un tuffatore che si accinge a un volo di 15 metri poi con gli occhi di tutti i presenti puntati a addosso trasse un gran respiro e superò la linea per un solo istante Henry fu convinto che avesse funzionato George lo pensò di sicuro perché emise un ululato di trionfo e seguì il fratello con un balzo ma un attimo dopo si udì un forte sfrigolio ed entrambi i gemelli furono espulsi dal cerchio d'oro come se fossero stati scagliati da un invisibile lanciatore atterrarono doloranti a tre metri di distanza sul freddo pavimento di pietra poi come se non bastasse risuonò una forte esplosione ed entrambi si videro spuntare due identiche lunghe barbe bianche la sala d'ingresso rimbombò di risate a cui si aggiunsero anche quelle di George e Fred non appena si furono guardati bene in faccia vi avevo avvertiti disse una voce profonda e divertita e tutti si voltarono mentre il professor Silente usciva dalla sala grande scrutò Fred e George con gli occhi che scintillavano suggerisco a entrambi di andare da Madame Pomfrey si sta già occupando della signorina Fosset di Corvo Nero e del signor Summers di Tassofrasso anche loro hanno deciso di invecchiarsi un po' anche se devo dire che le loro barbe non sono nemmeno remotamente belle come le vostre Fred e George si diressero all'infermeria accompagnati da Lee che ululava dal ridere mentre Harry Ron e Hermione ridacchiando a loro volta entrarono per fare colazione le decorazioni della sala grande quella mattina erano cambiate era Halloween una nuvola di pipistrelli vivi svolazzava sul soffitto incantato mentre centinaia di zucche intagliate sogghignavano da tutti gli angoli Harry si diresse verso Dean e Simus che stavano discutendo degli studenti di Hogwarts di 17 anni o più che probabilmente si sarebbero fatti avanti giravoce che Warrington si sia alzato presto e abbia presentato il suo nome disse Dean a Harry quello grosso di serpeverde che sembra un bradipo Harry che aveva giocato a quiddici contro Warrington scosse la testa disgustato non possiamo avere un campione di serpeverde e tutta Tassofrasso parla di digori disse Simus sprezzante io non pensavo che avrebbe voluto rischiare il suo bel faccino ascoltate esclamò Ermione all'improvviso nell'ingresso si udirono applausi e grida tutti si voltarono sulle sedie e videro entrare Angelina Johnson con un sorriso imbarazzato Angelina una ragazza di colore alta che giocava da cacciatrice nella squadra di quiddici di Grifondoro li raggiunse si sedette e disse beh fatto ho appena consegnato il mio nome stai scherzando disse Ron colpito ma allora hai diciassette anni le chiese Henry ma certo che ce li ha io non vedo nessuna barba e tu disse Ron li ho compiuti la settimana scorsa spiegò Angelina beh sono contenta che si presenti qualcuno di Grifondoro disse Ermione spero davvero che tu ce la faccia Angelina grazie Ermione disse Angelina con un sorriso sì meglio tu che bambolo diggori disse Simus suscitando gli sguardi truci di parecchi tassofrasso che passavano lì davanti che cosa facciamo oggi allora chiese Ron a Henry e Ermione quando ebbero finito di fare colazione e uscirono dalla sala grande non siamo ancora andati da Hagrid propose Henry ok disse Ron basta che non ci chieda di offrire qualche dito agli schiopodi all'improvviso Ermione si illuminò di entusiasmo mi è venuto in mente adesso non ho ancora chiesto a Hagrid di iscriversi a Crepa esclamò aspettatemi faccio un salto di sopra a prendere le spille va bene ma che razza di disse Ron esasperato mentre Ermione correva su per la scalinata di marmo ehi Ron disse Henry all'improvviso è la tua amica gli studenti di Bobaton stavano rientrando dal parco compresa la ragazza che assomigliava a una vila i ragazzi accalcati attorno al calice di fuoco si ritrassero per lasciarli passare guardandoli con grande curiosità Madame Maxime entrò alle spalle dei suoi studenti e li mise in fila uno dopo l'altro gli allievi di Bobaton varcarono la linea dell'età e lasciarono cadere i loro pezzetti di pergamena nelle fiamme blu e biancastre ogni nome cadendo nel fuoco diventava rosso per un attimo e sprizzava scintille che cosa credi che succederà a quelli che vengono esclusi mormorò Ron rivolto a Harry mentre la vila lasciava cadere il suo foglietto nel calice credi che torneranno alla loro scuola o resteranno qui a vedere il torneo non lo so rispose Harry resteranno qui immagino Madame Maxime resta per fare il giudice no? quando tutti gli studenti di Bobaton ebbero inserito i loro nomi nel calice Madame Maxime li condusse di nuovo fuori nel parco allora dove dormono? disse Ron avanzando verso la porta per seguirli con lo sguardo un gran fracasso alle loro spalle annunciò la ricomparsa di Ermione con la scatola di spille crepa oh beh muoviamoci disse Ron correndo giù per i gradini senza togliere gli occhi di dosso alla vila che ora era a metà del prato con Madame Maxime mentre si avvicinavano alla capanna di Hagrid al limitare della foresta proibita fu svelato il mistero della sistemazione notturna di Bobaton gli studenti stavano risalendo a bordo della gigantesca carrozza azzurra ora parcheggiata a un centinaio di metri dalla porta di casa di Hagrid i pachidermici cavalli volanti pascolavano in un recinto improvvisato lì accanto Harry bussò alla porta di Hagrid e i latrati tonanti di Zanna risposero all'istante era ora esclamò Hagrid aperta la porta e visto chi bussava credevo che vi eravate scordati dove che abito abbiamo avuto tanto da fare a esordì ermione e a mutoli Hagrid indossava il suo migliore e davvero orrendo vestito marrone peloso più una cravatta a quadri gialli e arancio ma non era questo il peggio evidentemente aveva cercato di domare le sue chiome usando dosi abbondanti di quella che sembrava morchia ora i capelli erano appiattiti in due ciuffi forse aveva cercato di farsi la coda come Bill ma aveva scoperto di averne troppi il look non gli donava affatto per un momento ermione strabuzzò gli occhi poi decisa a non commentare disse dove sono gli schiopodi là fuori vicino all'orto delle zucche rispose Hagrid tutto felice stanno diventando grandicelli ormai devono essere lunghi quasi un metro c'è solo un problema hanno cominciato a mangiarsi tra loro oh no davvero disse ermione citendo con un'occhiata eloquente Ron che fissando la stravagante acconciatura di Hagrid aveva appena aperto la bocca per dire la sua sì disse Hagrid malinconico va tutto bene però adesso li ho messi in vasche separate ce n'ho ancora una ventina beh meno male commentò Ron Hagrid non colse il sarcasmo la capanna di Hagrid era in realtà una sola stanza un letto gigantesco con una coperta patchwork era sistemato in un angolo un tavolo di legno e alcune sedie ugualmente smisurate si trovavano davanti al fuoco sotto un'abbondanza di prosciutti salati e uccelli morti pensolanti dal soffitto i ragazzi sedettero al tavolo mentre Hagrid preparava il tè e ben presto furono immersi nell'ennesima discussione sul torneo tre maghi Hagrid sembrava eccitato quanto loro aspettate disse con un gran sorriso dovete solo aspettare vedrete della roba che non avete mai visto la prima prova ma non devo dire niente continua Hagrid lo supplicarono Harry, Ron e Hermione ma lui si limitò a scuotere la testa sorridendo non voglio rovinarvi la sorpresa disse ma sarà uno spettacolo parola mia quei campioni dovranno proprio mettercela tutta mai pensavo di vedere un torneo tre maghi nella mia vita finirono per pranzare da Hagrid anche se non mangiarono molto Hagrid aveva preparato quello che secondo lui era uno stufato di carne ma dopo che Hermione estrasse un grosso artiglio dalla sua porzione lei Harry e Ron persero l'appetito però si divertirono a cercare di far dire a Hagrid quali sarebbero state le prove del torneo discussero quali dei partecipanti avevano le maggiori possibilità di essere scelti come campioni e si chiesero se Fred e George si fossero già liberati della barba una pioggia leggera prese a cadere a metà pomeriggio era molto piacevole star seduti vicino al fuoco ascoltando il ticchettio morbido delle gocce contro la finestra guardando Hagrid che si rammendava i calzini e litigava con Hermione a proposito degli elfi domestici perché si rifiutò categoricamente di unirsi al crepa quando lei gli mostrò le spille gli fai solo un dispiacere Hermione disse in tono grave infilando uno spesso filo giallo in un enorme ago di osso è nella loro natura curare gli umani sono fatti così capito li fai infelici se ci porti via il loro lavoro e li insulti se provi a pagarli ma Henry ha liberato Dobby ed era al settimo cielo obiettò Hermione e abbiamo sentito dire che adesso chiede lo stipendio sì beh ci sono i matti in tutte le razze non dico che non c'è il singolo elfo che ci piacerebbe la libertà ma non riuscirai mai a convincere gli altri quasi tutti gli altri no niente da fare Hermione Hermione parve molto contrariata e infilò la scatola con le spille nella tasca del mantello alle cinque e mezzo stava calando l'oscurità e Ron Henry e Hermione decisero che era ora di tornare al castello per il banchetto di Halloween e cosa più importante per assistere alla proclamazione dei campioni delle tre scuole vengo con voi disse Hagrid mettendo via il cucito solo un secondo Hagrid si alzò raggiunse la cassettiera accanto al letto e vi frugò in cerca di qualcosa non gli fecero molto caso finché un odore davvero atroce non colpì i loro nasi tossicchiando Ron disse Hagrid che cos'è eh disse Hagrid voltandosi con una grossa bottiglia in mano non vi piace è dopo barba chiese Hermione con voce un po' soffocata eh e de colonne borbottò Hagrid stava diventando rosso forse un po' troppa disse burbero vado a toglierla aspettate si precipitò fuori e lo videro lavarsi vigorosamente nel barile d'acqua fuori dalla finestra e de colonne esclamò Hermione stupefatta Hagrid e i capelli e il vestito aggiunse Harry a mezza voce guardate esclamò Ron all'improvviso indicando fuori Hagrid si era appena rialzato e voltato se prima era arrossito non era niente in confronto a quello che gli stava succedendo ora alzandosi con molta cautela in modo che Hagrid non li vedesse Harry Ron e Hermione sbirciarono dalla finestra e videro che madame Maxime e gli studenti di Bobaton erano appena usciti dalla carrozza anche loro diretti al banchetto non sentirono le parole di Hagrid ma si era rivolto a madame Maxime con lo sguardo rapito e velato che Harry gli aveva visto solo in una circostanza quando contemplava il cucciolo di drago Norberto va al castello con lei sbottò Hermione indignata credevo che ci aspettasse dopo aver degnato la capanna solo di una vaga occhiata Hagrid marciò su per il prato con madame Maxime gli studenti di Bobaton a seguito impegnati a correre per tenere dietro alle loro enormi falcate lei gli piace disse Ron incredulo beh se avranno dei figli stabiliranno un record mondiale ci scommetto che i loro bambini peseranno una tonnellata uscirono dalla capanna e si chiusero la porta alle spalle fuori era sorprendentemente buio stringendosi nei mantelli si incamminarono su per i prati oh sono loro guardate sussurrò Hermione il drappello di Durmstrang risaliva dal lago verso il castello Victor Krum camminava a fianco di Karkarov e gli altri studenti li seguivano in ordine sparso eccitato Ron seguì Krum con gli occhi ma quest'ultimo non si guardò intorno mentre raggiungeva il portone principale e lo varcava prima di loro quando entrarono la sala grande illuminata dalle candele era quasi piena il calice di fuoco era stato spostato ora si trovava davanti al posto di Silente al tavolo degli insegnanti Fred e George di nuovo senza un pelo sembravano aver preso bene la delusione spero che sia Angelina disse Fred mentre Harry Ron e Hermione si sedevano anch'io disse Hermione ansante beh lo sapremo presto il banchetto di Halloween parve protrarsi più del solito forse perché era il secondo banchetto in due giorni Harry non gustò le pietanze straordinarie come avrebbe fatto in circostanze normali come chiunque altro nella sala a giudicare dai colli perennemente tesi dall'espressione di impazienza dipinta su ogni volto dal continuo su e giù per vedere se Silente aveva già finito di mangiare Harry voleva soltanto che venisse sparecchiato e scoprire chi erano i campioni designati e finalmente i piatti d'oro tornarono immacolati come in origine il rumore nella sala crebbe bruscamente e scomparve quasi all'istante mentre Silente si alzava ai suoi lati il professor Karkaroff e Madame Maxim sembravano tesi e ansiosi come chiunque altro Ludo Bugman sorrideva e strizzava l'occhio a parecchi studenti il signor Krauch invece sembrava piuttosto indifferente quasi annoiato bene il calice è quasi pronto a prendere le sue decisioni annunciò Silente ritengo che abbia bisogno di un altro minuto ora prego i campioni che verranno chiamati di venire da questa parte della sala passare davanti al tavolo degli insegnanti ed entrare nella stanza accanto e indicò la porta dietro il tavolo dove riceveranno le prime istruzioni estrasse la bacchetta e tracciò un ampio gesto tutte le candele tranne quelle all'interno delle zucche intagliate si spensero all'istante sprofondando la sala nella semi oscurità il calice di fuoco ora splendeva più luminoso che mai e lo sfavillio bianco e bluastro delle fiamme era quasi doloroso allo sguardo tutti lo fissavano in attesa qualcuno continuava a controllare l'orologio ci siamo quasi bisbigliò lì Jordan le fiamme ridiventarono rosse all'improvviso dall'interno del calice si sprigionarono scintille un attimo dopo una lingua di fuoco dardeggiò nell'aria un pezzetto di pergamena bruciato ne volò fuori tutta la sala trattenne il respiro silente afferrò il foglietto e lo tenne in mano col braccio teso in modo da poter leggere alla luce delle fiamme che erano tornate di un bianco bluastro il campione di durmstrang lesse con voce forte e chiara è victor crum lo sapevo io strillò ron mentre una tempesta di applausi e urla invadeva la sala Harry vide victor crum alzarsi dal tavolo di serpe verde e dirigersi coffo verso silente girò a destra avanzò lungo il tavolo degli insegnanti e sparì oltre la porta che conduceva alla stanza accanto bravo victor esplose carcaroff così forte che tutti lo udirono anche sopra gli applausi lo sapevo che avevi la stoffa i battimani e i commenti si spensero l'attenzione si concentrò di nuovo sul calice che qualche istante dopo tornò a farsi rosso un secondo foglietto di pergamena ne schizzò fuori sospinto dalle fiamme il campione di bobaton annunciò silente è fleur de la cour è lei ron gridò erri mentre la ragazza che somigliava tanto a una vila si alzava in piedi con grazia gettava indietro la chioma brillante e avanzava leggera tra i tavoli di corvo nero e tasso frasso oh guarda ci sono rimasti tutti male disse ermione al di sopra del frastuono accennando agli altri del gruppo di bobaton rimasti male era dir poco pensò erri due delle ragazze escluse erano scoppiate in un pianto dirotto e si inghiozzavano con la testa sulle braccia quando anche fleur de la cour fu scomparsa nella sala accanto calò di nuovo il silenzio ma questa volta era un silenzio carico di un'eccitazione quasi palpabile era la volta del campione di hogwarts e il calice di fuoco vi venne ancora una volta rosso scintille ne piovvero fuori la lingua di fuoco scattò alta nell'aria e dalla sua punta silente prese il terzo pezzetto di pergamena il campione di hogwarts scandì è cedric diggory no esclamò ron ad alta voce ma nel frastuono assordante del tavolo vicino nessuno lo sentì tranne Harry ogni singolo tassofrasso era balzato in piedi urlando e saltando mentre cedric avanzava tra i compagni con un gran sorriso sul volto e si dirigeva verso la stanza dietro il tavolo degli insegnanti in verità l'applauso per cedric durò tanto a lungo che silente ci mise un po' a farsi sentire di nuovo ottimo gridò allegramente e alla fine il clamore si calmò bene ora abbiamo i nostri tre campioni sono certo di poter contare su tutti voi compresi gli studenti di Bobaton e Durmstrang perché diate ai vostri campioni tutto il sostegno che potete acclamando il vostro campione contribuirete in modo molto ma silente si interruppe all'improvviso e tutti capirono che cosa lo aveva distratto il fuoco nel calice era tornato rosso le scintille sprizzarono una lunga fiamma d'ardeggiò repentina nell'aria su di essa galleggiava un altro foglietto di pergamena automaticamente così parve silente tese la lunga mano e afferrò la pergamena la allontanò da sé e lesse il nome per un lunghissimo istante silente fissò il foglietto e tutta la sala fissò silente poi il preside si schiarì la voce e lesse Harry Potter i quattro campioni Harry rimase là dove era conscio che tutte le teste nella sala grande si erano voltate a guardarlo era esterrefatto tramortito stava sognando non aveva sentito bene non ci furono applausi un brusio come di api infuriate invase la sala alcuni studenti si alzarono per vedere meglio Harry seduto al suo posto come paralizzato al tavolo degli insegnanti la professoressa McGonagall era scattata in piedi e aveva oltrepassato rapida Ludo Bugman e il professor Karkaroff per parlottare concitata col professor silente che tese l'orecchio verso di lei accigliato Harry si voltò verso Ron e Hermione oltre le loro teste vide tutti i grifondoro che lo fissavano a bocca aperta non ho messo il mio nome nel calice disse Harry con aria assente voi lo sapete che non l'ho fatto tutti e due si limitarono a restituirgli uno sguardo vacuo al tavolo principale il professor silente si era alzato in piedi e aveva fatto un cenno alla professoressa McGonagall Harry Potter esclamò di nuovo Harry vieni qui per favore vai sussurrò Hermione dando una spintarella a Harry Harry si alzò inciampò nell'orlo dell'abito e barcollò un po' si incamminò lungo lo spazio tra il tavolo di grifondoro e quello di tassofrasso gli parve un percorso infinitamente lungo il tavolo principale non sembrava affatto avvicinarsi e sentiva centinaia e centinaia di occhi fissi su di lui come tanti riflettori il brusio divenne sempre più intenso dopo quella che gli parve un'ora si trovò di fronte a silente con gli sguardi di tutti gli altri insegnanti puntati addosso bene oltre quella porta Harry disse silente non sorrideva Harry oltrepassò il tavolo Hagrid era seduto proprio alla fine non gli fece l'occhiolino né gli rivolse uno dei suoi soliti cenni di saluto sembrava totalmente sballordito e si limitò a fissarlo come tutti gli altri Harry valcò la soglia e si ritrovò in una stanza più piccola tappezzata di ritratti di maghi e streghe un bel fuoco scoppiettava nel cammino davanti a lui al suo ingresso le facce dei ritratti si voltarono a guardarlo una strega raggrinzita scivolò addirittura fuori dalla cornice del suo quadro ed entrò in quello accanto che ospitava un mago coi baffoni da tricheco la strega avvizzita prese a sussurrargli all'orecchio victor crum cedric digori e fleur de la cour erano riuniti attorno al fuoco erano stranamente impressionanti stagliati contro le fiamme crum ingobbito e imbronciato era appoggiato al camino un po' discosto dagli altri due cedric stava in piedi con le mani dietro la schiena e fissava il fuoco fleur de la cour si voltò quando Harry entrò e gettò indietro il manto di lunghi capelli argentei che cosa succede disse noi si ritorna in sala pensava che fosse andato a portare un messaggio Harry non sapeva come spiegare l'accaduto e rimase lì a guardare i tre campioni fu colpito dal fatto che erano tutti molto alti alle loro spalle si sentì uno scalpiccio e Ludo Bugman entrò nella stanza prese Harry per il braccio e lo spinse in avanti straordinario mormorò strizzandogli il braccio assolutamente straordinario signori signora aggiunse avvicinandosi al fuoco e rivolgendosi agli altri tre posso presentarvi per quanto incredibile possa sembrare il quarto campione del tre maghi Victor Croom si raddrizzò e scrutò Harry la sua faccia arcigna si rabbuiò ulteriormente cedric sembrava disorientato guardò Bugman Harry e poi di nuovo Bugman come se non fosse sicuro di aver capito bene Fleur de la Cure invece scosse i capelli sorridendo e disse oh è molto divertente monsieur Bugman divertente ripetè Bugman stupito no non è uno scherzo il nome di Harry è appena uscito dal calice di fuoco le folte sopracciglia di Croom si contrassero appena cedric sembrava ancora educatamente perplesso Fleur si accigliò ma c'è uno sbaglio no? disse sdegnosamente a Bugman lui non può entrare in gara è troppo piccolo beh è sconcertante disse Bugman strofinandosi il mento liscio e sorridendo a Harry ma come sapete il limite di età è stato imposto solo quest'anno come ulteriore misura di sicurezza e visto che il suo nome è uscito dal calice voglio dire non credo che ci si possa tirare indietro a questo punto è scritto nelle regole siete obbligati Harry dovrà fare del suo meglio la porta alle loro spalle si aprì di nuovo lasciando entrare una piccola folla il professor Silente seguito da vicino dal signor Crouch dal professor Karkaroff da madame Maxime dalla professoressa McGonagall e dal professor Piton Harry udì il sonoro brusio proveniente dalla sala prima che la McGonagall chiudesse la porta madame Maxime esclamò subito Fleur marciando verso la sua preside si dice che anche questo ragazzino sarà in gara da qualche parte sotto la torpida incredulità Harry provò uno spasmo di rabbia ragazzino madame Maxime si erse in tutta la sua considerevole altezza la sommità della sua bella testa sfiorò il candeliere carico di cieli e il suo gigantesco petto foderato di satè nero si sollevò che cosa vuole dire tutto questo Silonte chiese imperiosa vorrei saperlo anch'io Silente disse il professor Karkaroff aveva un sorriso gelido e i suoi occhi azzurri erano pezzetti di ghiaccio due campioni per Hogwarts non ricordo che nessuno mi abbia detto che alla scuola ospite sono concessi due campioni o non ho letto le regole abbastanza attentamente scoppiò in una breve risata cattiva se è impossibile disse madame Maxime con la mano enorme coperta di splendidi upali posata sulla spalla di Fleur Ogva non può avere due campioni è assolutamente ingiusto eravamo convinti che la tua linea dell'età dovesse tenere alla larga i concorrenti più giovani Silente disse Karkaroff il sorriso gelido ancora al suo posto anche se i suoi occhi erano più freddi che mai altrimenti è ovvio avremmo portato una più ampia delegazione di candidati dalle nostre scuole non è colpa di nessuno se non di Potter Karkaroff intervenne Piton a bassa voce i suoi occhi neri ardevano di malevolenza non incolpare Silente per l'ostinazione che Potter dimostra nell'infrangere le regole passa il limite da quando ha messo piede in questa scuola grazie Severus disse Silente con decisione e Piton tacque anche se i suoi occhi scintillavano maligni attraverso la cortina degli unti capelli neri il professor Silente stava guardando Harry che sostenne il suo sguardo cercando di decifrarne l'espressione oltre le lenti a mezzaluna hai messo il tuo nome nel calice di fuoco Harry gli chiese calmo Silente no rispose Harry sentiva che tutti lo osservavano con grande attenzione nell'ombra Piton emise un piccolo sbuffo di impaziente incredulità hai chiesto a uno studente più grande di metterlo nel calice di fuoco per conto tuo chiese il professor Silente ignorando Piton no rispose Harry con veemenza ma lui dice il falso naturalmente gridò madame Maxime Piton scosse la testa arricciando le labbra non avrebbe potuto attraversare la linea dell'età disse secca la professoressa McGonagall sono certa che siamo tutti d'accordo su questo punto Silente ha fatto un sbaglio con la linea intervenne madame Maxime alzando le spalle è possibile naturalmente disse Silente in tono educato Silente sa benissimo che non ha commesso un errore esclamò la professoressa McGonagall furiosa insomma che sciocchezza Harry non avrebbe potuto oltrepassare la linea e dal momento che il professor Silente crede che non abbia convinto un altro studente a farlo al posto suo sono sicura che questo dovrebbe bastare anche a chiunque altro e scoccò a Piton uno sguardo furibondo signor Crouch signor Bugman disse Karkaroff la voce untuosa voi siete i nostri giudici imparziali certo converrete che tutto ciò è decisamente irregolare Bugman si asciugò il faccione rotondo con il fazzoletto e guardò Crouch che era lontano dal bagliore del fuoco quasi del tutto nascosto nell'ombra era vagamente inquietante e nella semioscurità il suo viso sembrava molto più vecchio quasi scheletrico quando parlò comunque fu con il suo consueto tono asciutto dobbiamo seguire le regole e le regole stabiliscono chiaramente che le persone i cui nomi escono dal calice di fuoco sono tenute ad areggiare nel torneo beh Barty conosce le regole a mena dito disse Bugman sorridendo e voltandosi di nuovo verso Karkaroff e Madame Maxim come se la questione fosse chiusa insisto nel chiedere di riproporre i nomi degli altri miei studenti disse Karkaroff aveva lasciato cadere il tono untuoso il sorriso ora e aveva un'aria davvero torva rimetterete al suo posto il calice di fuoco e continueremo a inserire nomi finché ogni scuola non avrà due campioni è una questione di principio silente ma Karkaroff non funziona così disse Bugman il calice di fuoco si è appena spento non si riaccenderà fino all'inizio del prossimo torneo al quale Durmstrang non prenderà assolutamente parte esplose Karkaroff dopo tutti i nostri incontri e le trattative e i compromessi non mi aspettavo proprio che succedesse una cosa del genere ho una mezza idea di andarmene ora vuota minaccia Karkaroff ringhiò una voce vicino alla porta non puoi abbandonare il tuo campione ora deve gareggiare devono gareggiare tutti un contratto magico vincolante come ha detto Silente comodo eh Moody era appena entrato avanzò zoppicando verso il fuoco e a ogni suo passo risuonava un sordo clank comodo ripetè Karkaroff temo di non capirti Moody Henry capì che stava cercando di suonare sprezzante come se le parole di Moody non meritassero la sua attenzione ma le sue mani strette a pugno con forza lo tradirono no disse Moody tranquillamente è molto semplice Karkaroff qualcuno ha messo il nome di Potter nel calice sapendo che se fosse uscito avrebbe dovuto gareggiare qualcuno che voleva dare a Govard a due chance intervenne madame Maxime sono d'accordo madame Maxime disse Karkaroff con un inchino presenterò formale protesta al ministero della magia e alla confederazione internazionale dei maghi se c'è qualcuno che ha motivo di protestare questo è Potter ringhiò Moody ma che buffo non gli ho sentito dire una parola perché lui vuole lamentarsi proruppe Fleur de la Cour picchiando un piede per terra può entrare in gara sono settimane che noi vogliamo essere scelti l'onore della nostra scuola il premio di mille galeoni c'è chi darebbe l'esistenza per un'occasione come questa forse qualcuno spera che Potter ci rimetta l'esistenza disse Moody il ringhio quasi spento nella voce un silenzio estremamente teso seguì queste parole Ludo Bugman che sembrava davvero molto agitato saltellò nervosamente e disse Moody vecchio mio che cosa tremenda da dire sappiamo tutti che il professor Moody considera sprecata la mattina se non scopre sei complotti per ucciderlo prima dell'ora di pranzo disse Carcaroff ad alta voce a quanto pare sta instillando la paura di essere assassinati anche nei suoi studenti una strana qualità in un insegnante di difesa contro le arti oscure silente ma senza dubbio avrai avuto le tue buone ragioni io mi immagino le cose ringhiò Moody io avrei delle visioni è stato un mago o una strega molto abile a mettere il nome del ragazzo in quel calice ah e che prove ci sono intervenne madame Maxime le grosse mani alzate perché hanno raggirato un oggetto magico molto potente ribatte Moody era necessario un incantesimo con fundus di potenza eccezionale per indurre quel calice a dimenticare che al torneo partecipano solo tre scuole suppongo che abbiano inserito il nome di Potter come rappresentante di un'altra scuola per assicurarsi che fosse l'unico della sua categoria a quanto pare ci hai riflettuto parecchio Moody disse Karkaroff freddamente ed è in effetti una teoria molto ingegnosa anche se naturalmente ho sentito dire che di recente ti sei convinto che uno dei tuoi regali di compleanno conteneva un uovo di basilisco abilmente camuffato e lo hai fatto a pezzi prima di scoprire che era un orologio a cucù quindi ci comprenderai se non ti prendiamo del tutto sul serio c'è gente che volge a proprio vantaggio occasioni innocue ribatte Moody in tono minaccioso il mio compito è di pensare come pensano i maghi oscuri Karkaroff tu dovresti ricordartelo bene Alastor ammonì silente Harry si chiese per un attimo con chi stesse parlando ma poi capì che malocchio non poteva certo essere il vero nome di Moody quest'ultimo tacque anche se continuò a osservare Karkaroff soddisfatto il volto di Karkaroff era paunazzo non sappiamo come si è giunti a questa circostanza disse silente rivolto a tutti i presenti mi pare comunque che non abbiamo altra scelta se non accettarla sia Harry che Cedric sono stati prescelti per gareggiare nel torneo e dunque è ciò che faranno oh ma Silonte mia cara madame Maxim se ha un'alternativa sarei felice di sentirla silente attese ma madame Maxim non parlò si limitò a scoccare uno sguardo ostile non era l'unica comunque Piton era furioso Karkaroff era livido Bugman invece era piuttosto eccitato beh cominciamo allora disse fregandosi le mani e sorridendo a tutti dobbiamo dare le istruzioni ai nostri campioni vero Barty vuoi fare gli onori di casa il signor Crouch parve uscire da una profonda fantasticheria si disse le istruzioni si la prima prova avanzò verso il fuoco da vicino Harry pensò che sembrava malato c'erano ombre scure sotto i suoi occhi e la sua pelle segnata aveva un'aria fragile e avvizzita che non aveva alla coppa del mondo di Quidditch la prima prova è studiata perché voi dimostriate la vostra audacia disse a Harry Cedric Fleur e Crum quindi non vi diremo di che cosa si tratta il coraggio di fronte agli ignoto è una qualità importante in un mago molto importante la prima prova avrà luogo il 24 novembre davanti agli altri studenti e alla commissione giudicatrice ai campioni non è permesso di chiedere o accettare aiuti di nessun genere dai loro insegnanti per portare a termine le prove del torneo i campioni affronteranno la prima sfida armati solo di bacchetta riceveranno istruzioni sulla seconda prova al termine della prima a causa della natura impegnativa del torneo e del tempo che esso richiede i campioni sono esentati dagli esami di fine anno crouch si volse verso silente credo che sia tutto vero albus credo di sì rispose silente guardando crouch con aria preoccupata sei sicuro che non vuoi fermarti a dormire a hogwarts stanotte e barty no silente devo tornare al ministero disse crouch questo è un periodo molto intenso molto difficile ho lasciato il giovane weatherby al mio posto è molto entusiasta un po' troppo entusiasta a dire il vero verrai a bere qualcosa prima di partire almeno disse silente dai marty io resto qui esclamò allegramente bugman hogwarts è il centro di tutto adesso è molto più eccitante qui che in ufficio non credo ludo disse crouch con un tocco dell'antica impazienza professor karkaroff madame maxim il bicchiere della staffa propose silente ma madame maxim aveva già messo il braccio attorno alle spalle di fleur e la stava guidando con decisione fuori dalla stanza harry le sentì parlare fitto fitto in francese mentre tornavano nella sala grande karkaroff fece un cenno a crum e anche loro uscirono in silenzio però harry cedric vi consiglio di andare su a dormire disse silente sorridendo a entrambi sono sicuro che grifondoro e tasso frasso non vedono l'ora di festeggiare con voi e sarebbe un peccato privarli di quest'ottima scusa per fare un bel po' di baccano harry scoccò un'occhiata a cedric che annui e uscirono insieme la sala grande ormai era deserta le candele si erano quasi consumate dando ai sorrisi frastagliati delle zucche un'aria inquietante e tremolante allora disse cedric con un vago sorriso siamo di nuovo avversari già disse harry non riuscì a trovare proprio nulla da dire nella sua testa regnava il caos più totale come se il suo cervello fosse stato saccheggiato allora dimmi disse cedric mentre raggiungevano la sala d'ingresso che ora era illuminata solo da torce in assenza del calice di fuoco come hai fatto a mettere dentro il tuo nome non l'ho fatto rispose harry guardandolo da sotto in su non l'ho messo ho detto la verità ok disse cedric harry capì che non gli credeva beh ci vediamo allora cedric si diresse verso una porta alla sua destra harry rimase ad ascoltarlo mentre scendeva ai gradini poi lentamente prese a salire la scala di marmo qualcuno a parte ron e ermione gli avrebbe creduto o avrebbero pensato tutti che si era candidato per il torneo ma come facevano a crederlo quando avrebbe dovuto competere con altri che avevano tre anni di istruzione magica più di lui quando avrebbe dovuto affrontare prove che non solo avevano l'aria di essere molto pericolose ma dovevano essere portate a termine davanti a centinaia di persone si ci aveva pensato aveva fantasticato ma era stato uno scherzo davvero una specie di vana chimera non aveva mai pensato veramente seriamente di partecipare ma qualcun altro si qualcun altro l'aveva voluto al torneo e si era assicurato che vi prendesse parte perché per fargli un regalo non ne era molto convinto per vederlo mentre si copriva di ridicolo beh era probabile che il suo desiderio si avverasse ma per farlo uccidere Moody era fissato come al solito non era possibile che qualcuno avesse messo il nome di Harry nel calice per scherzo per fargli un tiro mancino qualcuno lo voleva davvero morto Harry rispose subito a questo interrogativo sì qualcuno lo voleva morto fin da quando aveva solo un anno Voldemort ma come avrebbe potuto assicurarsi che il nome di Harry finisse nel calice di fuoco Voldemort doveva trovarsi molto molto lontano in qualche paese remoto nascosto solo debole e privo di potere eppure nel suo sogno appena prima di svegliarsi con la cicatrice dolorante Voldemort non era solo parlava con coda liscia progettava l'assassinio di Harry Harry sussultò quando si trovò faccia a faccia con la signora grassa non si era accorto di dove stava andando fu una sorpresa anche scoprire che non era sola dentro la cornice la strega avvizzita che si era insinuata nel quadro del vicino quando Harry si era unito ai campioni ora era seduta con aria tronfia accanto alla signora grassa doveva essersi precipitata di dipinto in dipinto lungo le sette rampe di scale per arrivare lì prima di lui sia lei che la signora grassa lo stavano guardando col massimo interesse bene 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 disse la signora grassa Violet mi ha appena raccontato tutto chi è appena stato scelto come campione della scuola allora guazzabuglio rispose Harry torpido assolutamente no disse la strega pallida indignata no no vi è la parola d'ordine disse la signora grassa in tono conciliante e ruotò sui cardini per lasciare entrare Harry nella sala comune il boato che scaturì all'apertura del ritratto quasi lo ributtò indietro un attimo dopo una dozzina di paia di mani lo trascinavano dentro e Harry si trovò faccia a faccia con la casa di grifondoro al completo che urlava applaudiva e fischiava dovevi dircelo che ci provavi mugghiò freddi in parte seccato in parte profondamente colpito come hai fatto a riuscirci senza beccarti la barba eccezionale rugì George non ho fatto un bel niente rispose Harry non so come ma Angelina lo aveva ghermito oh se non posso essere io almeno è un grifondoro potrai pareggiare i conti con digori per l'ultima partita qui dice Harry strillò Katie Bell un'altra dei cacciatori di grifondoro c'è da mangiare Harry vieni a prendere non ho fame ho mangiato abbastanza al banchetto ma nessuno volle sentire che era sazio nessuno volle sentire che non aveva messo il nome nel calice non una singola persona parve accorgersi che non era affatto dell'umore giusto per festeggiare lì Jordan aveva recuperato da qualche parte uno stendardo di grifondoro e insistette per avvolgerlo attorno a Harry come un mantello Harry non riuscì ad allontanarsi tutte le volte che cercava di sgattaiolare verso la scala che portava ai dormitori la folla attorno a lui serrava i ranghi e lo costringeva a trangugiare un'altra burro birra e gli ficava in mano patatine e noccioline tutti volevano sapere come aveva fatto come aveva raggirato la linea dell'età di Silente ed era riuscito a mettere il suo nome nel calice non ce l'ho messo ripeté ancora e ancora non so come potuto succedere ma per quel che lo ascoltavano avrebbe anche potuto non rispondere affatto sono stanco urlò alla fine dopo quasi mezz'ora no davvero George vado a dormire voleva più di ogni altra cosa scovare Ron e Ermione trovare il lume della ragione ma sembrava che nessuno dei due fosse nella sala comune insistette che aveva bisogno di dormire quasi calpestò i piccoli fratelli Crivei che cercavano di tendergli un agguato ai piedi delle scale riuscì a scrollarsi di dosso tutti quanti e infine si arrampicò su nel dormitorio più in fretta che poté con suo grande sollievo scoprì che Ron era steso sul suo letto nel dormitorio altrimenti deserto ancora vestito da capo a piedi al solo sguardo quando Harry sbatté la porta alle sue spalle dove sei stato? gli chiese Harry oh ciao disse Ron sorrideva ma il suo era un sorriso molto strano forzato Harry si rese conto all'improvviso che indossava ancora lo stendardo scarlatto di grifondoro che lì gli aveva legato al collo si affrettò a toglierselo ma era annodato molto stretto Ron rimase sul letto senza muoversi a guardare Harry che cercava di levarselo di dosso allora disse quando finalmente Harry si fu levato lo stendardo e lo ebbe gettato in un angolo congratulazioni come sarebbe a dire congratulazioni esclamò Harry fissando Ron c'era decisamente qualcosa che non andava nel sorriso di Ron era più che altro una smorfia beh nessun altro è riuscito a superare la linea dell'età disse Ron nemmeno Fred e George che cosa hai usato il mantello dell'invisibilità il mantello dell'invisibilità non mi avrebbe fatto oltrepassare quella linea disse Harry lentamente ah giusto disse Ron credevo che me l'avresti detto se fosse stato il mantello perché ci avrebbe coperti tutti e due no? invece hai trovato un altro modo vero? senti disse Harry non ho messo il mio nome in quel calice deve essere stato qualcun altro Ron alzò le sopracciglia e perché lo avrebbe fatto? per uccidermi pensò Harry ma sentì che sarebbe stato troppo melodrammatico non lo so rispose le sopracciglia di Ron si alzarono così tanto che rischiarono di sparire inghiottite dai capelli va bene lo sai a me puoi dire la verità disse se non vuoi che nessun altro lo sappia d'accordo ma non capisco perché ti preoccupi di mentire non sei finito nei guai no? quell'amica della signora grassa quella Violet ci ha già raccontato tutto Silente ti lascia partecipare un premio in denaro di mille galeoni eh e non devi nemmeno fare gli esami di fine anno non ho messo il mio nome in quel calice ripete Harry che cominciava a spazientirsi si si va bene disse Ron con lo stesso tono scettico di Cedric solo che stamattina hai detto che se fossi stato tu l'avresti messo ieri notte e nessuno ti avrebbe visto non sono stupido sai ma stai facendo di tutto per sembrarlo scattò Harry davvero? disse Ron e ora non c'è la traccia di sorriso più o meno forzato sulla sua faccia vorrai andare a dormire Harry immagino che dovrai alzarti presto domattina per un servizio fotografico o roba del genere afferrò le tende attorno al suo letto a baldacchino e le chiuse di scatto Harry rimase in piedi vicino alla porta a fissare le cortine di velluto rosso che in quel momento nascondevano una delle poche persone che avrebbero dovuto credergli la pesa delle bacchette quando Harry si svegliò la domenica mattina gli scivole un po' per capire perché si sentisse così infelice e preoccupato poi il ricordo della notte precedente gli precipitò addosso si alzò a sedere e scostò bruscamente le tende del suo letto deciso a parlare con Ron a costringerlo a credergli solo per scoprire che il letto di Ron era vuoto evidentemente era già sceso a colazione Harry si vestì e scese la scala a chiocciola che portava nella sala comune nell'istante in cui comparve i ragazzi che avevano già fatto colazione scoppiarono di nuovo in un applauso la prospettiva di scendere nella sala grande e affrontare il resto dei grifondoro che lo trattava come una specie di eroe non era allettante o così comunque o rimanere lì e lasciarsi assediare dei fratelli Crivei che gli facevano entrambi gesti frenetici perché si unisse a loro si diresse deciso verso il buco del ritratto lo aprì e si trovò faccia a faccia con Ermione ciao disse lei porgendogli una pila di fette di pane tostato avvolte in un tovagliolo ti ho portato queste ti va una passeggiata buona idea rispose Henry grato scesero attraversarono in fretta l'ingresso senza guardare dentro la sala grande e ben presto si trovarono a percorrere il prato in direzione del lago dove era ormeggiata la nave di Durmstrang sagoma nera riflessa nell'acqua era una mattinata gelida e camminarono mangiando mentre Henry raccontava a Ermione che cosa era successo esattamente dopo che aveva lasciato il tavolo di Grifondoro la sera prima con suo immenso sollievo Ermione accettò la sua storia senza riserve beh naturalmente lo sapevo che non ti eri fatto avanti tu disse quando lui ebbe finito di riferirle la scena avvenuta nella stanza accanto alla sala grande dovevi vederti quando Silente ha letto il tuo nome ma la domanda è chi è stato a metterlo nel calice perché Moody ha ragione Henry non credo che nessuno degli studenti avrebbe potuto farlo non sarebbero mai stati in grado di imbrogliare il calice o scavalcare Silente e i suoi hai visto Ron la interruppe Henry Ermione esitò sì era a colazione rispose pensa ancora che sia stato io a dare il mio nome beh no non credo non per davvero disse Ermione imbarazzata che vuol dire non per davvero no Henry non hai capito disse Ermione accolatamente è invidioso invidioso esclamò Henry incredulo invidioso di cosa vuole fare la figura dell'idiota davanti a tutta la scuola eh senti disse Ermione paziente tu sei sempre al centro dell'attenzione lo sai che è così lo so che non è colpa tua aggiunse in fretta vedendo che Henry spalancava la bocca infuriato lo so che non vai a cercartelo ma beh lo sai Ron ha tutti quei fratelli con cui competere a casa e tu sei il suo migliore amico e sei così famoso viene sempre messo in disparte quando ci sei tu e lo sopporta e non ne parla mai ma credo che questa sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso magnifico disse Henry amaramente davvero magnifico digli da parte mia che facciamo cambio quando vuole digli da parte mia che è il benvenuto la gente che sbircia la mia cicatrice ovunque vada non gli dirò un bel niente disse Ermione brusca diglielo tu è il solo modo di risolvere la faccenda non ho intenzione di corrergli dietro per dirgli di crescere rispose Henry così forte che parecchi gufi su un albero vicino spiccarono il volo allarmati forse si convincerà che non mi sto divertendo quando mi sarò rotto l'osso del collo o non fa ridere disse Ermione piano non fa ridere neanche un po' sembrava estremamente preoccupata Henry stavo pensando lo sai che cosa dobbiamo fare vero subito appena torniamo al castello sì dobbiamo dare a Ron un bel calcio nel scrivere a Sirius devi dirgli che cosa è successo ti ha chiesto di tenerlo al corrente di tutto quello che succede a Hogwarts è come se si aspettasse qualcosa del genere ho qui una pergamena e una penna piantala disse Henry guardandosi intorno per essere sicuro che nessuno ascoltasse ma i prati erano deserti è tornato solo perché mi faceva male la cicatrice probabilmente correrà al castello se gli dico che qualcuno mi ha iscritto al torneo tre maghi lui vorrebbe che glielo dicessi disse Ermione con fermezza lo scoprirà comunque come Henry questa cosa non passerà sotto silenzio disse Ermione molto seria questo torneo è famoso e tu sei famoso sarei davvero sorpresa se la gazzetta del profeta non scrivesse niente su di te sei già citato in metà dei libri su tu sai chi lo sai e Sirius preferirebbe saperlo da te lo so che è così ok ok gli scriverò disse Henry gettando l'ultimo pezzo di pane tostato nel lago entrambi rimasero a guardarlo galleggiare per un attimo prima che un grosso tentacolo spuntasse dall'acqua e lo facesse sparire poi tornarono al castello che gufo devo usare disse Henry mentre salivano le scale mi ha scritto di non usare più Edvige chiedi a Ron se ti presta a Ron non chiede un bel niente disse Henry in tono perentorio beh allora prendi uno dei gufi della scuola li possono usare tutti disse Ermione salirono alla guferia Ermione diede a Henry una pergamena una penna e una boccetta d'inchiostro poi si mise a passeggiare tra le lunghe file di trespoli osservando i gufi così diversi mentre Henry sedeva con la schiena appoggiata al muro e scriveva la sua lettera caro Sirius mi hai detto di tenerti informato su quello che succede a Hogwarts così eccomi qui non so se hai sentito ma il torneo tre maghi si tiene quest'anno e sabato sera sono stato scelto come quarto campione non so chi ha messo il mio nome nel calice di fuoco perché non sono stato io l'altro campione di Hogwarts è Cedric Diggory di Tassofrasso a questo punto si interruppe e riflette avrebbe voluto dirgli del peso terribile che pareva essersi installato nel suo petto dalla sera prima ma non riuscì a trovare le parole per dirlo così si limitò a intingere di nuovo la penna d'oca nell'inchiostro e scrisse spero che tu e Fiero Becco stiate bene Henry finito disse a Hermione alzandosi e spazzolando via la paglia dall'abito a quell'atto Edvige scese svolazzando sulla sua spalla e tese la zampa non posso mandare te le disse Henry cercando con lo sguardo i gufi della scuola devo usare uno di questi Edvige ululò molto forte e decollò così all'improvviso che i suoi artigli gli penetrarono nella spalla si tenne lontana da Henry mentre lui legava la lettera alla zampa di un grosso barbagianni quando il barbagianni fu volato via Henry tese la mano per accarezzare Edvige ma lei fece scattare il becco con rabbia e volò verso le travi fuori tiro prima Ron poi tu esclamò Henry con rabbia non è colpa mia se Henry aveva pensato che le cose sarebbero migliorate non appena tutti si fossero abituati all'idea che era uno dei campioni il giorno seguente gli dimostrò quanto si sbagliava non poté più evitare il resto della scuola quando ripresero le lezioni ed era chiaro che il resto della scuola proprio come i grifondoro era convinto che Henry si fosse proposto per il torneo a differenza dei grifondoro però non sembravano affatto entusiasti i tassofrasso che di solito erano in ottimi rapporti con i grifondoro erano diventati decisamente freddi nei loro confronti una lezione di erbologia bastò a dimostrarlo evidentemente i tassofrasso sentivano che Henry aveva rubato la gloria al loro campione un sentimento inasprito forse dal fatto che la casa di tassofrasso molto di rado si copriva di gloria e che Cedric era uno dei pochi ad avergliene conferita quando aveva battuto grifondoro a Quidditch Ernie McMillan e Justin Finch Fletchley con i quali Henry di solito andava molto d'accordo non gli rivolsero la parola anche se stavano trapiantando bulbi balzellanti allo stesso tavolo in compenso risero in maniera piuttosto sgradevole quando uno dei bulbi balzellanti si divincolò dalla presa di Henry e lo schiaffeggiò nemmeno Ron gli rivolgeva la parola Hermione sedeva tra di loro sforzandosi di fare conversazione ma anche se tutti e due le rispondevano normalmente evitavano di guardarsi Henry pensò che perfino la professoressa Sprout sembrava fredda con lui ma d'altra parte era la direttrice della casa di Tassofrasso in circostanze normali non avrebbe visto l'ora di parlare con Hagrid ma cura delle creature magiche voleva dire trovarsi faccia a faccia con i serpe verde per la prima volta da quando era diventato campione come era prevedibile Malfoy arrivò alla capanna di Hagrid con il consueto ghigno beffardo al suo posto ah guardate ragazzi c'è il campione disse a crebbe Goyle nell'istante in cui arrivò a portata di Henry avete i vostri libri degli autografi meglio chiedere una firma adesso perché dubito che sarà in circolazione ancora a lungo metà dei campioni del tre maghi sono morti quanto pensi che resisterai potter dieci minuti dall'inizio della prima prova scommetto crebbe Goyle scoppiarono docilmente a ridere ma Malfoy non poteva andare avanti perché Hagrid spuntò da dietro la capanna portando una torre pericolante di cassette ciascuna delle quali conteneva uno schiopodo molto grosso con orrore della classe Hagrid spiegò che la ragione per cui gli schiopodi si ammazzavano a vicenda era un eccesso di energia repressa e che la soluzione era che ciascuno di loro mettesse un guinzaglio a uno schiopodo e lo portasse a fare una passeggiatina la sola cosa buona del progetto fu che distrasse completamente Malfoy da Harry portare questa roba a passeggio ripetè Malfoy disgustato guardando dentro una delle cassette e dove esattamente dovremmo far passare il guinzaglio attorno al pungiglione alla coda esplosiva o alla ventosa lì intorno in mezzo indicò Hagrid forse è meglio che vi mettete i guanti di pelle di drago così per precauzione insomma Harry vieni qui e aiutami con questo grosso qua la vera intenzione di Hagrid era di parlare con Harry lontano dal resto della classe attese finché tutti gli altri furono partiti con i loro schiopodi poi si rivolse a Harry e disse molto serio allora sei in gara Harry nel torneo campione della scuola uno dei campioni lo corresse Harry i neri occhi lucidi di Hagrid erano pieni d'ansia sotto le sopracciglia incolte non hai idea di chi ti ci ha messo dentro Harry allora tu ci credi che non sono stato io esclamò Harry nascondendo a fatica un fiotto di gratitudine ma certo che ci credo grugni Hagrid tu dici che non sei stato tu e io ti credo e silente ti crede ecco vorrei proprio sapere chi è stato disse Harry amaramente guardarono tutti e due verso il prato la classe era sparpagliata e in grande difficoltà gli schiopodi erano lunghi più di un metro ed estremamente robusti non erano più nudi e privi di colore ma coperti da una sorta di spessa lucente corazza grigiastra sembravano un incrocio tra scorpioni giganti e granchi oblunghi ma sempre senza testa o occhi riconoscibili erano diventati spaventosamente forti e molto difficili da controllare si divertono eh esclamò Hagrid allegramente Harry dedusse che stava parlando degli schiopodi perché i suoi compagni certo non si divertivano ogni tanto con un bang preoccupante una delle code degli schiopodi esplodeva sparando la bestia parecchi metri più avanti e trascinando sulla pancia il malcapitato accompagnatore io non so Harry disse Hagrid all'improvviso con un gran sospiro tornando a guardarlo preoccupato campione della scuola sembra che capita tutto a te vero Harry non rispose sì sembrava che capitasse tutto a lui era più o meno quello che aveva detto Hermione camminando attorno al lago ed era questa la ragione secondo lei per cui Ron non gli rivolgeva più la parola i giorni che seguirono furono tra i più brutti di Harry a Hogwarts era arrivato a sentirsi così male solo durante quei mesi del secondo anno in cui gran parte della scuola sospettava che fosse lui a pietrificare i compagni ma allora Ron era suo amico Harry era convinto che sarebbe riuscito a sopportare il resto della scuola se solo avesse potuto riavere Ron al suo fianco ma non intendeva cercare di convincerlo a parlargli se lui non voleva ora si sentiva solo con il livore che gli pioveva addosso da tutte le parti poteva capire l'atteggiamento dei Tassofrasso anche se non gli piaceva avevano il loro campione da sostenere non si aspettava altro che biechi insulti dai serpeverde era estremamente impopolare tra loro e lo era sempre stato perché con i colori di Grifondoro li aveva battuti un'infinità di volte sia a Quidditch che nella Coppa delle Case ma aveva sperato che i Corvo Nero sarebbero stati disposti a tifare per lui come per Cedric invece no i Corvo Nero parevano convinti in gran parte che avesse imbrogliato il calice solo perché era avido di celebrità poi c'era il fatto che Cedric sembrava un campione molto più di lui straordinariamente bello con quel naso diritto i capelli scuri e gli occhi grigi era difficile dire chi fosse più ammirato in quei giorni se lui o Victor Crum Harry vide addirittura le stesse ragazze del sesto anno che avevano smaniato per l'autografo di Crum supplicare Cedric di firmare le loro borse un giorno a pranzo nel frattempo non c'era risposta da Sirius Edwige si rifiutava di avvicinarsi a lui la professoressa Trelawney prediceva la sua morte con ancora più sicurezza del solito e Harry andò così male in incantesimi di appello alla lezione del professor Fritwick che gli toccarono dei compiti in più fu l'unico ad averli oltre a Neville davvero non è così difficile Harry cercò di rassicularlo Hermione mentre uscivano dalla lezione di Fritwick lei aveva attirato oggetti da tutta la stanza per tutta la lezione come se fosse stata una calamita per cancellini cestini della carta straccia e l'unascopy è solo che non ti sei concentrato nel modo giusto chissà perché borbottò Harry Cupo mentre Cedric Diggory lo superava circondato da un bel gruppo di ragazze miagolanti che guardarono tutte Harry come se fosse uno schiopodo particolarmente grosso comunque non c'è problema oggi pomeriggio doppie pozioni non vedo l'ora la doppia lezione di pozioni era sempre un'esperienza terribile ma in quei giorni rasentava la tortura essere rinchiusi nei sotterranei per un'ora e mezzo compito nei serpeverde tutti decisi a quanto pareva a fargli pagare l'ardire di essere diventato campione della scuola era la cosa più orrenda che Harry potesse immaginare o quasi aveva già sofferto per un venerdì con Ermione seduta accanto a lui che ripeteva ignorali 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 sottovoce e non vedeva perché quel giorno le cose sarebbero dovute andare meglio quando lui e Ermione raggiunsero il sotterraneo di Piton dopo pranzo scoprirono che i serpeverde li aspettavano fuori ognuno con una grossa spilla puntata sulla divisa in bella vista per un folle attimo Harry pensò che si trattasse di spilla e crepa poi si accorse che avevano tutte lo stesso slogan a lettere rosse che brillavano vivaci nel corridoio sotterraneo scarsamente illuminato ti fa per Cedric Diggory il vero campione di Hogwarts ti piacciono Potter esclamò Malfoy ad alta voce mentre Harry si avvicinava e non è tutto guarda premette la spilla e lo slogan sparì sostituito da un altro questa volta verde Potter fa schifo i serpeverde ulularono dalle risate anche loro tutti quanti premettero le loro spille finché la frase Potter fa schifo non scintillò intorno a Harry lui sentì il calore invadergli di colpo la faccia e il collo oh molto divertente disse Ermione sarcastica a Penzi Parkinson e alla sua banda di ragazze di serpeverde che ridevano più di tutti davvero spiritoso Ron era appoggiato al muro con Dean e Simus non rideva ma non prese nemmeno le difese di Harry ne vuoi una Granger disse Malfoy tendendo una spilla a Ermione ne ho un sacco però non toccarmi la mano me la sono appena lavata sai non voglio che una sangue marcio ci sbavi sopra la rabbia che Harry provava da giorni e giorni parve il rompere dal suo petto come da una diga prima ancora di pensare a ciò che faceva cercò la bacchetta i ragazzi intorno si ritrassero rapidamente indietreggiando nel corridoio Harry esclamò Ermione in tono di avvertimento vai avanti allora Potter disse tranquillamente Malfoy estraendo la sua bacchetta mudi adesso non è qui a tenerti d'occhio fallo se ne hai il coraggio per un attimo si guardarono negli occhi poi scattarono esattamente nello stesso istante furnunculus urlò Harry densa uggio strellò Malfoy getti di luce irruppero da entrambe le bacchette cozzarono a mezz'aria e rimbalzarono indietro ad angoli diversi quella di Harry colpì Goyle in faccia e quella di Malfoy colpì Ermione Goyle ululò e si portò le mani al naso dove stavano eruttando grosse orribili bolle Ermione gemendo terrorizzata si teneva la bocca Ermione esclamò Ron scattando verso di lei Harry si voltò e vide che Ron strappava via la mano di Ermione dal suo viso non era un bello spettacolo i denti davanti di Ermione già più grandini del normale stavano crescendo a un ritmo preoccupante lei assomigliava sempre più a un castoro mentre i denti le si allungavano spuntavano da sotto il labbro superiore dritto verso il mento presero al panico li toccò ed emise un urlo terrorizzato si può sapere che cos'è tutto questo fracasso? disse una bassa voce feroce era arrivato Piton nel chiasso generale i serpe verde cercarono di dare la loro versione dei fatti Piton puntò un lungo dito giallastro verso Malfoy e disse spiegati potter mi ha aggredito signore ci siamo attaccati nello stesso istante urlò Henry e ha colpito Goyle guardi Piton esaminò Goyle il cui volto assomigliava a qualcosa che sarebbe stato di casa in un libro sui funghi velenosi in infermeria Goyle disse tranquillamente Malfoy ha colpito Ermione intervenne Ron guardi costrinse Ermione a mostrare i denti a Piton lei stava facendo del suo meglio per nasconderli con le mani anche se era difficile visto che ormai avevano superato il colletto della divisa Penzi Parkinson e le altre di serpe verde erano piegate in due dalle risate silenziose e additavano Ermione da dietro le spalle di Piton Piton guardò con freddezza Ermione poi disse non vedo nessuna differenza Ermione emise un gemito gli occhi le si riempirono di lacrime girò sui tacchi e corse via su per il corridoio fino a sparire fu una fortuna forse che sia Erick e Ron cominciassero a gridare contro Piton nello stesso momento fu una fortuna che le loro voci rimbombassero così tanto nel corridoio di pietra perché nel confuso clamore Piton non riuscì a sentire esattamente quali epiteti gli scagliavano contro comunque se ne fece un'idea vediamo disse con voce quanto mai sua dente 50 punti in meno a Grifondoro e una punizione per Potter e Weasley ora entrate o la punizione durerà una settimana a Erick rimbombavano le orecchie voleva ridurre Piton in mille visci di pezzi con un incantesimo per quella mostruosa ingiustizia lo superò raggiunse con Ron il fondo del sotterraneo e scaraventò la borsa dei libri sul tavolo anche Ron tremava di rabbia per un istante fu come se tutto tra loro fosse tornato normale ma poi Ron si voltò e si sedette con Dean e Simus lasciando Harry solo al suo tavolo dalla parte opposta Malfoy voltò le spalle a Piton e premette la spilla con un ghigno Potter fa schifo lampeggiò ancora una volta attraverso la stanza Harry rimase a sedere con gli occhi fissi su Piton mentre la lezione cominciava immaginandolo vittima delle cose più orribili se solo avesse saputo come scagliare la maledizione Cruciatus avrebbe avuto Piton lì disteso sulla schiena come quel ragno a strellare e contorcersi antidoti annunciò Piton volgendo intorno lo sguardo i freddi occhi neri che brillavano di una luce sgradevole dovreste aver tutti preparato le vostre pozioni adesso voglio che le facciate distillare con cura e poi sceglieremo qualcuno su cui sperimentarne una gli occhi di Piton incontrarono quelli di Harry e Harry seppe che cosa si preparava Piton aveva intenzione di avvelenare proprio lui immaginò di prendere il calderone scagliarsi in avanti e rovesciarlo sulla testa unta di Piton e poi un toc toc alla porta del sotterraneo interruppe i suoi pensieri era Colin Crivey avanzò lentamente nella stanza con un gran sorriso per Harry e raggiunse la scrivania di Piton in fondo si disse Piton asciutto mi scusi signore devo accompagnare di sopra Harry Potter Piton fissò dall'alto del naso di curvo il piccolo Colin e il sorriso svanì dal suo viso impaziente potter ha un'altra ora di pozioni disse freddamente verrà di sopra quando la lezione sarà finita Colin a Rossi signore signore lo vuole il signor Bugman disse in tono nervoso tutti i campioni devono andare credo che vogliano fargli delle foto Harry avrebbe dato tutto ciò che possedeva per impedire a Colin di pronunciare quelle ultime parole azzardò una mezza occhiata a Ron ma Ron stava fissando con determinazione il soffitto molto bene molto bene ribatte Piton Potter lascia qui la tua roba voglio che più tardi torni di sotto a provare il tuo antidoto la prego signore deve portare la sua roba con sé squitti Colin tutti i campioni molto bene disse Piton Potter prendi la tua borsa e sparisci Harry si gettò la borsa sulla spalla si alzò e si diresse verso la porta mentre passava accanto ai banchi dei serpeverde Potter fa schifo ammiccò verso di lui da tutte le direzioni è incredibile vero Harry disse Colin cominciando a parlare nell'istante in cui Harry si richiuse alle spalle la porta della segreta vero che tu sia un campione sì davvero incredibile rispose Harry in tono pesante mentre risalivano i gradini diretti alla sala d'ingresso perché vogliono le foto Colin per la gazzetta del profeta credo grandioso commentò Harry depresso proprio quello di cui ho bisogno un altro po' di pubblicità buona fortuna esclamò Colin quando ebbero raggiunto la stanza giusta Harry bussò alla porta ed entrò si trovava in una classe decisamente piccola gran parte dei banchi erano stati spinti in fondo alla stanza lasciando un grande spazio al centro tre però erano stati sistemati uno accanto all'altro di fronte alla lavagna e ricoperti da un lungo drappo di velluto dietro erano disposte cinque sedie su una sedeva Ludo Bugman e parlava con una strega vestita di cremisi che Harry non aveva mai visto prima Victor Crum era in piedi in un angolo malmostoso come al solito e non parlava con nessuno Cedric e Fleur stavano chiacchierando Fleur sembrava parecchio più allegra di quanto non fosse stata fino a quel momento continuava a gettare indietro la testa in modo che i suoi lunghi capelli argentei catturassero la luce un uomo panciuto che leggeva una grossa macchina fotografica nera da cui usciva un fil di fumo osservava Fleur con la coda dell'occhio Bugman all'improvviso intercettò Harry si alzò in fretta e avanzò saltellando ah eccolo qui il campione numero 4 entra Harry entra non c'è niente di cui preoccuparsi è solo la cerimonia della pesa delle bacchette gli altri giudici saranno qui a momenti la pesa delle bacchette ripete Harry nervosamente dobbiamo controllare che le vostre bacchette siano perfettamente efficienti senza problemi sai visto che sono i vostri strumenti più importanti nelle prove che vi aspettano disse Bugman l'esperto adesso è di sopra consilente e poi ci sarà il tempo per qualche scatto questa è Rita Skitter aggiunse indicando la strega con il vestito cremisi scriverà un piccolo articolo sul torneo per la gazzetta del profeta forse non tanto piccolo ludo disse Rita Skitter gli occhi fissi su Harry i suoi capelli erano acconciati in riccioli elaborati e curiosamente rigidi che facevano uno strano contrasto con il viso dalla mascella pronunciata portava occhiali incorniciati di strass le grosse dita che stringevano la bolsetta di pelle di coccodrillo terminavano con unghie lunghe almeno 5 centimetri dipinte di rosso cremisi chissà se posso scambiare due parole con Harry prima di cominciare disse a Bugman continuando a fissare Harry il campione più giovane sai per aggiungere un po' di colore ma certo strillò Bugman cioè se Harry non ha niente in contrario disse Harry splendido disse Rita Skitter e in un attimo le sue dita dai rossi artigli stringevano il braccio di Harry con forza sorprendente lei lo pilotava fuori della stanza e apriva una porta lì accanto non è il caso che rimaniamo di là con tutto quel rumore disse vediamo ah sì qui è carino e intimo era un ripostiglio delle scope Harry la fissò perplesso vieni caro così splendido disse di nuovo Rita Skitter appollaiandosi in precario equilibrio su un secchio rovesciato spingendo Harry a sedere su una scatola di cartone e chiudendo la porta così che si trovarono immersi nell'oscurità ora vediamo un po' aprì con uno schiocco la borsetta di coccodrillo ed estrasse una manciata di candele che accese con un colpo di bacchetta e fece magicamente galleggiare a mezz'aria non ti dispiace Harry se uso una penna prendi appunti mi permette di parlarti normalmente una cosa disse Harry il sorriso di Rita Skitter si fece più largo Harry contò tre denti d'oro frugò di nuovo nella borsa di cocodrillo e ne sfilò una lunga penna d'oca verde acido e un rotolo di pergamena che srotolò fra loro su una cassetta di solvente magico di nonna acetonella per ogni tipo di sporcizia si infilò si infilò in bocca la punta della penna verde la succhiò per un momento con evidente piacere poi la mise in piedi sulla pergamena dove rimase in equilibrio sulla punta vibrando lievemente prova sono Rita Skitter inviato della gazzetta del profeta Harry gettò un'occhiata nell'istante in cui Rita Skitter aveva aperto bocca la penna verde aveva cominciato a scrivere freneticamente scivolando sulla pergamena l'attraente bionda Rita Skitter 43 anni la cui indomita penna ha punzecchiato molti palloni gonfiati splendido disse ancora una volta Rita Skitter strappò la striscia superiore del rotolo la appallottolò e la ficcò nella borsetta poi si chinò verso Harry e disse allora Harry che cosa ti ha convinto a partecipare al torneo tre maghi eh disse di nuovo Harry ma era distratto dalla penna anche se lui non stava parlando sfrecciava sulla pergamena e nella sua scia riuscì a distinguere una nuova frase una brutta cicatrice ricordo di un tragico passato sfigura l'altrimenti affascinante volto di Harry Potter i cui occhi ignora la penna Harry disse Rita Skitter con decisione a malincuore Harry alzò gli occhi verso di lei allora perché hai deciso di prendere parte al torneo Harry non ho deciso rispose Harry non so come ha fatto il mio nome a finire dentro il calice di fuoco non ce l'ho messo io Rita Skitter sollevò un sopracciglio pesantemente ritoccato con la matita nera andiamo Harry non è il caso di aver paura di finire nei guai sappiamo tutti che non avresti dovuto affatto partecipare ma non preoccuparti i nostri lettori adorano i ribelli ma io non mi sono fatto avanti ripete Harry non so chi che cosa provi quando pensi alle prove che ti attendono chiese Rita Skitter sei eccitato nervoso veramente non ci ho pensato sì nervoso immagino disse Harry a queste parole qualcosa si contorse in maniera spiacevole dentro di lui sono morti dei campioni nel passato vero disse Rita Skitter tutta frizzante non ci hai pensato beh dicono che quest'anno sarà molto più sicuro disse Harry la penna sfrecciò sulla pergamena avanti e indietro come se stesse pattinando naturalmente tu hai già visto la morte in faccia vero disse Rita Skitter guardandolo con attenzione diresti che questo ha lasciato un segno su di te ripete Harry credi che il trauma del tuo passato possa averti indotto a metterti alla prova a dimostrare di essere all'altezza della tua fama credi che forse ti sia venuto il desiderio di iscriverti al torneo tre maghi perché non mi sono iscritto ribatte Harry che cominciava a irritarsi ti ricordi vagamente i tuoi genitori chiese Rita Skitter dandogli sulla voce no rispose Harry come credi che si sentirebbero se sapessero che parteciperai al torneo tre maghi orgogliosi preoccupati arrabbiati ora Harry era seccato davvero come diavolo faceva a sapere cosa avrebbero provato i suoi genitori se fossero stati vivi si accorse che Rita Skitter lo osservava con molta attenzione incupito evitò il suo sguardo e lesse le parole che la penna aveva appena tracciato i suoi occhi di un verde stupefacente si riempiono di lacrime quando la nostra conversazione verte sui genitori che a stento ricorda no no gli occhi pieni di lacrime disse Harry ad alta voce prima che Rita Skitter potesse proferir parola la porta del ripostiglio delle scope si aprì Harry alzò gli occhi strizzandoli nella luce forte Albus Silente era in piedi e guardava tutti e due lì schiacciati nello sgabbuzzino Silente strillò Rita Skitter apparentemente deliziata ma Harry notò che penna e pergamena erano spariti all'improvviso da sopra la scatola di solvente magico e le dita artigliate di Rita facevano scattare in gran fretta il fermaglio della sua borsa di coccodrillo come sta disse alzandosi e tendendo una delle sue manone mascoline a Silente spero che durante l'estate abbia letto il mio articolo sulla conferenza della Confederazione Internazionale dei Maghi di una perfidia incantevole commentò Silente con gli occhi che brillavano ho particolarmente apprezzato il fatto che lei mi abbia definito uno svitato che ha fatto il suo tempo Rita Skeeter non parve nemmeno vagamente imbarazzata stavo solo sottolineando che alcune delle sue idee sono un po' vecchio stile Silente e che molti maghi oggi su piazza ascolterò con vero piacere che ragionamento si nasconde dietro alla scortesia Rita disse Silente con un inchino galante e un sorriso ma temo che dovremo discutere la questione più tardi la pesa delle bacchette sta per cominciare e non può aver luogo se uno dei nostri campioni è nascosto in un ripostiglio delle scope assai lieto di sfuggire a Rita Skeeter Harry tornò in fretta nella stanza gli altri campioni erano seduti vicino alla porta lui si mise subito vicino a Cedric e guardò verso il tavolo coperto di velluto dove ora erano schierati quattro dei cinque giudici il professor Karkaroff Madame Maxim il signor Crouch e Ludo Bugman Rita Skeeter si sistemò in un angolo Harry la vide far scivolare di nuovo la pergamena fuori dalla borsa spiegarla sul ginocchio succhiare la punta della penna prendi appunti e sistemarla sul foglio vi presento il signor Ollivander disse Silente sedendosi al tavolo dei giudici e rivolgendosi ai campioni sarà lui a controllare le vostre bacchette per assicurarsi che siano in buone condizioni prima del torneo Harry alzò gli occhi e con un sussulto di sorpresa vide un vecchio mago dai grandi occhi scoloriti immobile vicino alla finestra Harry aveva già incontrato il signor Ollivander era il fabbricante di bacchette dal quale aveva comprato la sua più di tre anni prima a Diagon Alley Mademoiselle Delacour può farsi avanti per prima prego disse Ollivander avanzando nello spazio vuoto al centro della stanza Fleur Delacour raggiunse Ollivander e gli consegnò la sua bacchetta mmm disse lui fece ruotare la bacchetta tra le lunghe dita e quella sprigionò una serie di scintille rosa e oro poi l'avvicinò agli occhi e la osservò con attenzione si disse piano nove pollici e mezzo rigida legno di rosa e contiene santo cielo un capello della testa di una vila concluse Fleur era mia nonna e così Fleur era effettivamente in parte vila pensò Harry prendendo mentalmente nota della cosa per dirlo a Ron poi si ricordò che Ron non gli rivolgeva la parola si disse il signor Ollivander si io non ho mai usato capelli di vila naturalmente trovo che siano adatte a bacchette piuttosto umorali comunque a ciascuno la sua e se questa va bene per lei il signor Ollivander fece scorrere le dita lungo la bacchetta evidentemente alla ricerca di graffi o bozzi poi borbottò orchideus e dalla punta sbucò un mazzo di fiori molto bene molto bene è in buone condizioni disse Ollivander afferrando i fiori e porgendoli a Fleur con la sua bacchetta signor Diggory ora tocca a lei Fleur tornò al suo posto e sorrise a Cedric quando lui le passò accanto ah certo questa è una delle mie vero disse il signor Ollivander molto più animato mentre Cedric gli consegnava la sua bacchetta si me la ricordo bene contiene un unico crine della coda di un unicorno maschio particolarmente bello doveva essere alto almeno un metro e ottanta mi ha quasi trafitto col suo corno dopo che gli ho spennato la coda dodici pollici e un quarto frassino piacevolmente flessibile e in buone condizioni fa regolarmente manutenzione l'ho lucidata ieri sera rispose Cedric con un sorriso Harry guardò la sua bacchetta e vide che era coperta di impronte afferrò un lembo della veste e cercò di lucidarla di nascosto parecchie scintille d'oro sprizzarono dalla sua punta fleur de la cour gli scoccò uno sguardo di superiorità e lui lasciò perdere il signor olivander scagliò con la bacchetta di Cedric una scia di anelli di fumo d'argento attraverso la stanza si disse soddisfatto e poi esclamò signor crum prego victor crum si alzò e si fece avanti ciondolando le spalle curve e i piedi all'infuori estrasse la bacchetta e rimase lì imbronciato con le mani in tasca mmm disse olivander questa è una creazione di gregorovic o mi sbaglio un bravo fabbricante di bacchette anche se il suo design non è mai proprio comunque sollevò la bacchetta e la esaminò minuziosamente facendola ruotare più volte davanti agli occhi si carpine e corda di cuore di drago esclamò rivolto a crum che annui è parecchio più spessa del solito piuttosto rigida dieci pollici e un quarto avis la bacchetta schioccò come una pistola e uno stormo di uccellini cinguettanti decollò dalla sua estremità uscì dalla finestra e volò via nella luce acquosa bene disse il signor olivander restituendo la bacchetta a crum quindi rimane il signor potter harry si alzò passò davanti a crum e raggiunse olivander gli consegnò la bacchetta ah sì disse quest'ultimo gli occhi scoloriti improvvisamente accesi sì 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 ricordo benissimo anche harry ricordava ricordava come se fosse stato ieri quattro estati prima il giorno del suo undicesimo compleanno harry era entrato con agrid nel negozio del signor olivander questi gli aveva preso le misure e aveva cominciato a fargli provare le bacchette harry aveva impugnato probabilmente tutte le bacchette del negozio finché finalmente non aveva trovato quella adatta a lui fatta di agrifoglio lunga undici pollici e con un'unica piuma dalla coda di una fenice il signor olivander era rimasto molto sorpreso dal fatto che harry fosse compatibile con quella bacchetta curioso aveva detto curioso ma solo dopo che harry glielo ebbe chiesto aveva spiegato che cosa c'era di tanto curioso la piuma di quella bacchetta proveniva dalla stessa fenice che aveva fornito il nucleo di quella di voldemort harry non aveva mai confidato questa cosa a nessuno era molto affezionato alla sua bacchetta e per quello che lo riguardava la sua parentela con la bacchetta di voldemort era una cosa che non poteva evitare un po' come non poteva evitare di essere imparentato con sia petunia comunque sperava davvero che il signor olivander non avesse intenzione di raccontarlo ai presenti aveva la strana sensazione che in tal caso la penna prendi appunti di rita skitter sarebbe semplicemente scoppiata di gioia il signor olivander impiegò molto più tempo per osservare la bacchetta di harry alla fine ne fece sprizzare una fontana divino e la riconsegnò a harry sentenziando che era ancora in perfette condizioni grazie a tutti voi disse silente alzandosi al tavolo dei giudici ora potete tornare alle vostre lezioni o forse sarebbe più pratico che scendeste direttamente a cena visto che stanno per finire con la sensazione che quel giorno qualcosa era finalmente andato per il verso giusto harry si alzò e fece per uscire ma l'uomo con la macchina fotografica nera balzò in piedi e si schiarì la voce le foto silente le foto strillò bugman eccitato i giudici insieme ai campioni cosa ne dici rita sì facciamo prima quelle rispose rita skitter gli occhi di nuovo puntati addosso a harry e poi magari qualche scatto singolo le fotografie richiesero molto tempo madame maxime faceva ombra a tutti gli altri ovunque si sistemasse e il fotografo non riusciva ad allontanarsi tanto da farla stare nell'obiettivo alla fine lei dovette sedersi mentre tutti gli altri la circondavano in piedi karkaroff continuava ad arrotolarsi la barbetta sul dito per arricciarla di più crum che secondo herry doveva essere abituato a quel genere di cose si rannicchiò si rannicchiò dietro a tutti cercando di nascondersi il fotografo sembrava assolutamente deciso a tenere davanti fleur ma rita skitter continuava a correre in avanti a trascinare herry dove era più visibile poi insistette per scattare foto di tutti i campioni uno per uno finalmente furono liberi di andarsene herry scese a cena ermione non c'era immaginò che si trovasse ancora in infermeria a farsi sistemare i denti cenò tutto solo all'estremità del tavolo poi tornò alla torre di grifondoro pensando a tutto il lavoro extra sugli incantesimi di appello che doveva fare su in dormitorio incrociò ron ti è arrivato un gufo disse ron in tono brusco appena entrato indicò il cuscino di herry il barbagianni della scuola lo aspettava lì oh bene disse herry e la punizione è domani sera nel sotterraneo di piton aggiunse ron poi uscì dalla stanza senza guardarlo per un istante herry pensò di seguirlo non sapeva se voleva parlargli o picchiarlo entrambe le possibilità erano piuttosto allettanti ma la risposta di sirius lo attirava come una calamita herry raggiunse il barbagianni gli sfilò la lettera dalla zampa e la srotolò herry non posso dire tutto quello che vorrei per lettera è troppo rischioso nel caso che il gufo venga intercettato dobbiamo parlare faccia a faccia puoi fare in modo di trovarti da solo vicino al fuoco nella torre di grifondoro il 22 novembre a luna di notte so meglio di chiunque altro che sei in grado di badare a te stesso e finché silente e mudi sono nelle vicinanze non credo che nessuno possa farti del male comunque pare che qualcuno ci stia provando sul serio farti partecipare al torneo è stata una mossa molto azzardata soprattutto sotto il naso di silente sta in guardia herry avvertimi subito se succede qualcosa di strano per il 22 novembre fammi sapere al più presto sirius lungaro spinato la prospettiva di parlare faccia a faccia con sirius fu la sola cosa che sostenne herry per i 15 giorni che seguirono l'unica luce in un orizzonte che non era mai stato più cupo lo shock di essere campione della scuola ormai si era un po' attenuato e cominciava a farsi strada la paura per ciò che lo attendeva la prima prova era sempre più vicina la sentiva acquattata davanti a lui come un mostro orrendo che gli sbarrava il cammino non era mai stato così nervoso nemmeno prima di un incontro di quidditch compreso l'ultimo contro serpe verde in cui grifondoro aveva vinto la coppa herry non riusciva a pensare a un dopo era come se tutta la sua vita lo avesse condotto alla prima prova e con questa dovesse finire a dire il vero non sapeva come sirius avrebbe potuto migliorare il suo stato d'animo doveva affrontare una prova sconosciuta di difficile pericolosa magia davanti a centinaia di persone ma la sola vista di un volto amico sarebbe stata preziosa al momento henry rispose a sirius scrisse che si sarebbe trovato davanti al fuoco della sala comune allora concordata e lui e ermione passarono molto tempo a studiare piani per costringere eventuali intrusi a uscire dalla sala comune la notte in questione nella peggiore delle ipotesi avrebbero lanciato un sacchetto di cacca bombe ma speravano di no filch li avrebbe scuoiati vivi nel frattempo all'uscita dell'articolo di rita skitter sul torneo tre maghi la vita di henry nel castello peggiorò ancora si scoprì infatti che era non tanto un pezzo sul torneo quanto la storia della vita di henry tratteggiata a tinte forti una foto di henry occupava gran parte della prima pagina l'articolo che continuava alle pagine 2 6 e 7 era tutto su henry i nomi dei campioni di bobaton e durmstrang scritti sbagliati erano stati infilati nell'ultima riga dell'articolo e cedric non era stato nemmeno citato l'articolo era uscito dieci giorni prima e tutte le volte che ci pensava henry provava ancora un senso di nausea e vergogna bruciante rita skitter aveva riferito una mostruosa quantità di cose che lui non ricordava di aver mai detto nella vita men che meno nel ripostiglio delle scope credo di aver ereditato la mia forza dai miei genitori so che sarebbero molto fieri di me se potessero vedermi sì qualche volta la notte piango ancora per loro non mi vergogno di ammetterlo so che nulla mi potrà ferire durante il torneo perché loro vegliano su di me ma rita skitter era andata oltre non solo aveva trasformato i suoi emm in lunghe frasi stucchevoli ma aveva anche intervistato altri sul suo conto henry a hogwarts ha finalmente trovato l'amore il suo intimo amico colin crevey dice che henry è quasi sempre in compagnia di una certa ermione granger una ragazza straordinariamente graziosa babbana per nascita che come henry è una degli studenti migliori della scuola dal momento in cui uscì l'articolo henry dovette sopportare un'incredibile quantità di battute e commenti sarcastici da parte di tutti soprattutto i serpe verde vuoi un fazzoletto henry così se per caso ti metti a piangere a trasfigurazione da quando sei uno degli allievi migliori della scuola potter o è una scuola che tu e longbottom avete messo su insieme ehi henry henry si voltò di scatto ne aveva abbastanza sì è vero urlò esasperato mi sono appena cavato gli occhi a forza di piangere la mamma morta e adesso ho intenzione di continuare no era solo ti è caduta la penna era ciò henry diventò di fiamma oh oh va bene scusa borbottò riprendendosi la penna buona fortuna per martedì disse lei spero davvero che tu te la cavi bene henry non poté che sentirsi molto stupido anche ermione si sorbiva la sua bella dose di battute sgradevoli ma non aveva ancora cominciato a strillare ai passanti innocenti in effetti henry era davvero ammirato per il modo in cui affrontava la situazione straordinariamente graziosa lei aveva esclamato pensi parkinson la prima volta che si era trovata faccia a faccia con ermione dopo l'uscita dell'articolo di rita chi aveva in mente un castoro ignorale disse ermione con voce piena di dignità oltrepassando a testa alta le serpe verde soggnanti come se non esistessero ignorale e basta henry ma henry non ci riusciva ron non gli rivolgeva la parola da quando gli aveva detto del castigo di piton henry aveva mezzo sperato che si sarebbero rapacificati durante le due ore nelle quali furono costretti a mettere sott'aceto cervelli di ratto nel sotterraneo di piton ma proprio quel giorno era uscito l'articolo di rita a rafforzare la convinzione di ron che henry si stesse davvero godendo tutta l'attenzione di cui era oggetto ermione era arrabbiata con tutti e due andava dall'uno all'altro cercando di costringerli a parlarsi ma henry era irremovibile avrebbe parlato con ron solo se lui avesse riconosciuto che henry non aveva messo il suo nome nel calice di fuoco e si fosse scusato per averlo definito un bugiardo non sono stato io a cominciare diceva henry cociuto è un problema suo ma lui ti manca esclamava ermione impaziente e io so che tu manchi a lui lui mancarmi diceva henry non mi manca affatto ma era una bugia bella e buona a henry piaceva molto ermione ma non era come con ron ridevi molto meno e stavi molto di più in biblioteca se ermione era la tua migliore amica henry non padroneggiava ancora gli incantesimi di appello sembrava avere sviluppato una specie di blocco e ermione insistette che apprendere la teoria gli sarebbe servito di conseguenza passarono un sacco di tempo chini sui libri all'ora di pranzo anche victor crum passava un mucchio di tempo in biblioteca e henry si chiese che cosa stesse tramando studiava o cercava informazioni che gli potessero tornare utili per superare la prima prova ermione si lamentava della presenza di crum non perché desse loro fastidio ma perché da dietro gli scaffali spuntavano spesso interi gruppi di ragazzine ridacchianti e sospiranti venute a spiarlo e ermione trovava irritante tutto quel chiasso non è nemmeno carino borbottava arrabbiata scrutando torva il profilo aguzzo di crum lo adorano solo perché è famoso non lo guarderebbero due volte se non sapesse fare quella roba quella falsa wonky fin tavronsky la corresse erri a denti stretti oltre al fastidio nel sentire storpiare i termini del quidditch aveva provato una fitta di nostalgia al pensiero della faccia di ron se avesse sentito ermione parlare di false wonky è strano ma quando si ha paura di qualcosa e si darebbe tutto per rallentare il tempo quest'ultimo ha la spiacevole abitudine di accelerare i giorni che precedettero la prima prova parvero scivolar via come se qualcuno avesse regolato gli orologi sulla doppia velocità quella sensazione di panico a stento controllato seguiva erri ovunque andasse onnipresente come le battute maligne sull'articolo della gazzetta del profeta il sabato prima della prova tutti gli studenti dal terzo anno in su ebbero il permesso di andare in gita al villaggio di hogsbid ermione disse a erri che gli avrebbe fatto bene allontanarsi dal castello per un po' e erri non tardò molto a farsi convincere ma erron disse non vuoi andarci con lui oh beh ermione arrossì pensavo che potremmo vederci ai tre manici di scopa no disse erri in tono netto oh erri è una cosa così stupida verrò ma non ho intenzione di vedere ron e mi porto il mantello dell'invisibilità oh va bene allora sbottò ermione ma detesto parlarti quando ce l'hai addosso non so mai se devo guardarti o no così erri si mise il mantello dell'invisibilità su in dormitorio tornò di sotto e lui e ermione partirono insieme per hogsmeade erri si sentiva meravigliosamente libero sotto il mantello osservò gli altri studenti superarli mentre entravano nel villaggio e molti ostentavano spille con la scritta tifa per cedric digori ma una volta tanto non fu oggetto di commenti sarcastici e nessuno citò quello stupido articolo adesso continuano a guardare me disse più tardi ermione imbronciata mentre uscivano da mielandia mangiando grossi cioccolatini ripieni credono che parli da sola non muovete così tanto le labbra allora ma dai ti prego togliti quel mantello per un po' qui nessuno ti darà fastidio ah davvero disse Harry guardati alle spalle Rita Skeeter e il suo amico fotografo erano appena usciti dal pub tre manici di scopa passarono proprio accanto a ermione senza guardarla parlando a bassa voce Harry si ritrasse contro il muro di mielandia perché Rita Skeeter la smettesse di colpirlo con la sua borsetta di coccodrillo quando se ne furono andati Harry disse rimane qui al villaggio scommetto che verrà a vedere la prima prova nel dirlo il suo stomaco fu invaso da un'ondata di panico purissimo non lo disse lui e ermione non avevano discusso molto di ciò che lo aspettava Harry aveva la sensazione che lei non volesse pensarci se n'è andata disse ermione guardando dritto attraverso Harry verso la fine della high street perché non andiamo a berci una burro birra ai tre manici di scopa fa un po' freddo no? non sei obbligato a parlare con Ron aggiunse seccata interpretando correttamente il suo silenzio i tre manici di scopa era pieno zeppo soprattutto di studenti di Hogwarts che si godevano il pomeriggio di libertà ma anche di personaggi magici che si potevano incontrare solo lì Harry immaginava che Hogsmeade essendo il solo villaggio completamente magico di tutta la Gran Bretagna fosse una sorta di portofranco per creature come le Megere che non erano abili come i maghi nel camuffarsi era molto difficile spostarsi tra la folla con addosso il mantello dell'invisibilità perché potevi pestare per sbaglio i piedi a qualcuno cosa che tendeva ad attirare domande inopportune Harry avanzò lentamente verso un tavolo libero nell'angolo mentre Ermione andava a prendere le bibite attraversando il pub Harry notò Ron seduto con Fred George e Lee Jordan resistendo all'impulso di dargli una bella manata sulla nuca finalmente raggiunse il tavolo e si sedette Ermione arrivò un attimo dopo e gli fece scivolare una burro birra sotto il mantello sembro una scema qui seduta da sola borbottò meno male che mi sono portata qualcosa da fare ed estrasse un quaderno in cui teneva il registro dei membri del crepa Harry vide il suo nome e quello di Lon in cima alla brevissima lista sembrava passato un secolo da quando avevano inventato insieme le profezie per la professoressa Trelawney ed era spuntata Ermione e li aveva nominati segretario e tesoriere sai forse dovrei cercare di coinvolgere un po' di gente del villaggio nel crepa disse Ermione pensierosa guardandosi intorno se è certo disse Harry beve una sorsata di burro birra da sotto il mantello Ermione quando ha intenzione di lasciar perdere questa storia del crepa quando gli elfi domestici avranno salari e condizioni di lavoro dignitosi gli sibilò in risposta sai sto cominciando a pensare che sia venuto il momento di passare a un'azione più diretta chissà come si fa a entrare nelle cucine della scuola non ne ho idea chiedi a Fred e George suggerì Harry Ermione cadde in un silenzio meditabondo mentre Harry beveva la sua burro birra e osservava gli avventori del pub sembravano tutti allegri e rilassati Ernie Macmillan e Anna Abbott si stavano scambiando le figurine delle cioccorane a un tavolo vicino entrambi portavano la spilla con scritto tifa per Cedric Diggory appuntata al mantello vicino alla porta vide ciò con un gruppo di amiche di corvo nero non aveva la spilla però cosa che rincuorò Harry ma appena appena che cosa non avrebbe dato per essere uno di loro seduto a ridere e parlare senza niente di cui preoccuparsi tranne i compiti immaginò come sarebbe stato essere lì se il suo nome non fosse uscito dal calice di fuoco non avrebbe indossato il mantello dell'invisibilità prima di tutto Ron sarebbe stato seduto accanto a lui loro tre probabilmente si sarebbero divertiti a immaginare quale pericolo mortale avrebbero affrontato i campioni nella prova di martedì avrebbe aspettato con impazienza il momento di vederli in azione di qualunque cosa si trattasse di tenere per Cedric assieme a tutti gli altri al sicuro in un posto in fondo agli spalti si chiese che cosa dovevano provare gli altri campioni le ultime volte che aveva incrociato Cedric era circondato da ammiratori e sembrava nervoso ma eccitato Harry scorgeva Fleur de la Cour di tanto in tanto nei corridoi aveva la stessa aria di sempre altezzosa impeccabile e Crum si limitava a star seduto in biblioteca chino sui libri Harry pensò a Sirius e il nodo che gli stringeva forte il petto parve allentarsi un po' avrebbe parlato con lui esattamente di lì a dodici ore perché quella era la notte in cui si sarebbero incontrati davanti al camino della sala comune ammesso che nulla andasse storto come viceversa era successo ultimamente guarda è Hagrid esclamò Hermione il retro del testone lanoso di Hagrid aveva provvidenzialmente abbandonato i ciuffetti affiorava sopra la folla Harry si chiese come mai non lo avesse notato subito visto che Hagrid era così grosso ma alzandosi con cautela vide che Hagrid era chino verso il professor Moody Hagrid aveva di fronte il solito boccale enorme ma Moody beveva dalla fiaschetta Madame Rosmerta la graziosa ostessa non sembrava apprezzarlo molto osservava sospettosa Moody mentre raccoglieva i bicchieri dai tavoli attorno a loro forse pensava che fosse un insulto al suo idromele aromatizzato ma Harry capiva perfettamente Moody aveva detto a tutti loro durante l'ultima lezione di difesa contro le arti oscure che preferiva prepararsi sempre da sé cibo e bevande perché era molto facile per i maghi oscuri avvelenare una tazza incustodita Hagrid e Moody si alzarono per uscire Harry agitò la mano poi divenne in mente che Hagrid non poteva vederlo Moody però si fermò l'occhio magico puntato verso l'angolo nel quale si trovava Harry diede un colpetto a Hagrid nel fondoschiena non riuscendo a raggiungere la sua spalla gli borbottò qualcosa e poi entrambi riattraversarono il pub diretti al tavolo di Harry e Hermione tutto bene Hermione esclamò Hagrid a voce alta ciao disse Hermione ricambiando il suo sorriso Moody soppicò attorno al tavolo e si curvò Harry credette che stesse leggendo il quaderno di Crepa finché non lo sentì mormorare bel mantello Potter Harry lo fissò stupefatto così da vicino il grosso pezzo mancante del naso di Moody era particolarmente evidente Moody fece un ghigno il suo occhio voglio dire lei può sì può vedere attraverso i mantelli dell'invisibilità disse tranquillamente Moody e a volte si è rivelato utile te lo assicuro anche Hagrid sorrideva a Harry dall'alto Harry sapeva che Hagrid non poteva vederlo ma evidentemente Moody gli aveva detto dov'era Hagrid si chinò con la scusa di leggere sul quaderno di Crepa e disse in un sussurro così sommesso che solo Harry riuscì a sentirlo Harry ci vediamo stanotte a mezzanotte alla mia capanna mettiti il mantello raddrizzandosi esclamò ad alta voce è stato un piacere vederti Hermione strizzò l'occhio e se ne andò Moody lo seguì perché vuole vedermi a mezzanotte chiese Harry molto sorpreso già perché disse Hermione allarmata chissà che cosa ha in mente non so se dovresti andare Harry si guardò intorno con aria nervosa e si bilò rischi di arrivare in ritardo da Sirius era vero che scendere fino alla capanna di Hagrid a mezzanotte voleva dire lasciare un margine molto stretto all'appuntamento con Sirius Hermione suggerì di spedire Edvige da Hagrid per dirgli che non poteva sempre che accettasse di portare il biglietto naturalmente ma Harry riflettè che era meglio andare e sbrigarsi qualunque cosa volesse Hagrid era molto curioso di scoprirlo Hagrid non gli aveva mai chiesto di andarlo a trovare così a notte fonda quella sera alle undici e mezzo Harry che aveva finto di andare a dormire presto indossò di nuovo il mantello dell'invisibilità e sgattaiolò giù per le scale e attraverso la sala comune erano rimasti in pochi i fratelli Crivei erano riusciti a impossessarsi di un bel mucchio di spille tifa per Cedric Diggory e stavano cercando di stregarle in modo da trasformare gli slogan in sostieni Harry Potter fino a quel momento comunque tutto quello che erano riusciti a fare era bloccarle su Potter fa schifo Harry li superò raggiunse il buco del ritratto e attese per un minuto circa con un occhio all'orologio poi Hermione aprì la signora grassa dall'esterno come avevano stabilito le scivolò accanto sussurrando grazie e attraversò il castello il parco era molto buio Harry percorse il prato in discesa puntando alle luci che brillavano nella capanna di Hagrid anche l'interno dell'enorme carrozza di Bobaton era illuminato Harry riconobbe la voce di Madame Maxim sei tu Harry sussurrò Hagrid aprendo la porta e guardandosi attorno sì rispose Harry scivolando all'interno e sfilandosi il cappuccio dalla testa che cosa succede c'è una cosa che devo farti vedere disse Hagrid era terribilmente agitato all'occhiello esibiva un fiore che assomigliava a un enorme carciofo sembrava che avesse smesso di usare la morchia ma evidentemente aveva cercato di pettinarsi Harry distinse i denti spezzati del pettine impigliati nella sua chioma di che si tratta chiese Harry cauto chiedendosi se gli schiopodi avessero deposto le uova o Hagrid fosse riuscito a comprare un altro cane gigante a tre teste da uno straniero in un pub vieni con me fai pianino e stai coperto disse Hagrid non portiamo Zanna a lui non ci piacerebbe senti Hagrid non posso fermarmi tanto devo tornare al castello entro luna ma Hagrid non ascoltava stava aprendo la porta della capanna e si addentrava nella notte Harry si affrettò a seguirlo e con sua grande sorpresa scoprì che Hagrid lo guidava verso la carrozza di Bobaton Hagrid che cosa pssst disse Hagrid e bussò tre volte alla porta effigiata con le bacchette d'oro incrociate fu madame Maxime ad aprire attorno alle spalle massicce portava uno scialle di seta sorrise quando vide Hagrid ah Hagrid e ora beau soir disse Hagrid con un sorriso radioso e le forse la mano per aiutarla a scendere i gradini d'oro madame Maxime si richiuse la porta alle spalle Hagrid le offrì il braccio e i due si incamminarono costeggiando lo steccato che ospitava i cavalli alati giganti di madame Maxime mentre Harry completamente sbalordito correva per tener loro dietro Hagrid aveva voluto mostrargli madame Maxime poteva vederla tutte le sante volte che voleva non era proprio difficile da individuare ma pareva che ci fosse una sorpresa anche per madame Maxime perché dopo un po' disse in tono giocoso dove mi stai portando Hagrid ti piacerà rispose Hagrid burbero ne vale la pena credimi solo che non devi dire a nessuno che te li ho fatti vedere d'accordo non dovresti saperlo certo che no disse madame Maxime sbattendo le lunghe ciglia nere e proseguirono Harry diventava sempre più irritato mentre trotterellava dietro di loro controllando l'orologio di tanto in tanto Hagrid aveva per la testa un qualche progetto scervellato che rischiava di fargli perdere l'appuntamento con Sirius se non fossero arrivati in fretta decise che si sarebbe voltato sarebbe tornato dritto filato al castello e avrebbe lasciato Hagrid a godersi la sua passeggiata al chiaro di luna con madame Maxime ma poi dopo essersi allontanati lungo i confini della foresta al punto che il castello e il lago non erano più visibili Harry sentì qualcosa c'erano degli uomini che gridavano laggiù poi si udì un ruggito assordante da spaccare i timpani Hagrid guidò madame Maxime oltre una macchia di alberi e si arrestò Harry si affrettò ad affiancarli per un istante credette di vedere dei falò e degli uomini che correvano tutto intorno e poi rimase a bocca spalancata draghi quattro enormi draghi adulti dall'aria malvagia si impennavano in uno spazio recintato da spesse assi di legno ruggendo e sbuffando torrenti di fuoco sprizzavano nel cielo buio dalle loro bocche spalancate e zannute sorrette dai colli tesi a quindici metri di altezza ce n'era uno di un blu argente o con lunghe corna appuntite che ringhiava e tentava di mordere i maghi a terra uno verde ricoperto di scaglie lisce che si contorceva e pestava le zampe con tutte le sue forze uno rosso con una strana frangia d'oro lucente attorno al muso che sparava nuvole di fuoco a forma di fungo nell'aria e uno nero gigantesco più simile a un lucertolone degli altri il più vicino a loro una trentina di maghi sette e otto per ciascun drago cercavano di tenerli sotto controllo tirando le catene agganciate a pesanti collari di cuoio fissate attorno al collo e alle zampe dei bestioni ipnotizzato Harry guardò in su molto in alto e vide gli occhi del drago nero dalle pupille verticali come quelle di un gatto sporgere per la paura o la furia non sapeva dire perché emetteva un suono terribile un urlo stridente quasi un ululato stai indietro Hagrid gridò un mago vicino alla staccionata tirando la catena che aveva in mano sputano fuoco nel raggio di sei metri sai questo spinato è arrivato anche a dodici l'ho visto io non è bello disse Hagrid dolcemente non serve urlò un altro mago schiantesimo al mio tre Harry vide tutti i guardadraghi estrarre le bacchette stupeficium urlarono in coro e gli schiantesimi sfrecciarono nell'oscurità come razzi infiammati esplodendo in una pioggia di stelle sulla pelle squamosa dei draghi Harry vide il drago più vicino barcollare pericolosamente sulle zampe dietro la mascella si aprì in un gemito improvvisamente muto le narici d'un tratto furono prive di fiamme pur continuando a fumare poi molto lentamente cadde parecchie tonnellate di nerboruto drago nero squamato si schiantarono a terra con un tonfo che Harry lo avrebbe giurato fece tremare gli alberi dietro di lui i guardadraghi abbassarono le bacchette e avanzarono verso le bestie affrosciate ciascuna delle quali aveva le dimensioni di una collinetta si affrettarono a stringere le catene e a fissarle saldamente a pioli di ferro che piantarono in profondità nel terreno con le loro bacchette vuoi vederli più da vicino chiese Hagrid a madame Maxime eccitato i due avanzarono fino alla staccionata e Harry li seguì il mago che aveva avvertito Hagrid di non avvicinarsi oltre si voltò e Harry lo riconobbe era Charlie Weasley tutto bene Hagrid disse Ansante avvicinandosi per parlare ora dovrebbero essere a posto li avevamo messi fuori gioco con una pozione sonnifera venendo qui pensavamo che sarebbe stato meglio se si fossero svegliati al buio in un posto tranquillo ma come hai visto non erano contenti nemmeno un po' di che razza sono Charlie chiese Hagrid contemplando il drago più vicino quello nero quasi con reverenza gli occhi del mostro erano ancora semi aperti Harry vide una striscia di un giallo brillante sotto la rugosa palpebra nera questo è un ungaro spinato disse Charlie lì abbiamo un gallese comune verde il più piccolo un grugno corto svedese quello blu grigio e un petardo cinese quello rosso Charlie si guardò attorno madame Maxime si stava avvicinando allo steccato e fissava i draghi non sapevo che l'avresti portata Hagrid disse Charlie accigliato i campioni non dovrebbero sapere che cosa li aspetta si sentirà in dovere di dirlo alla sua allieva no? ho pensato solo che le piaceva vederli disse Hagrid scrollando le spalle senza smettere di fissare rapito i draghi un appuntamento veramente romantico Hagrid disse Charlie scuotendo la testa quattro disse Hagrid quindi ce n'è uno per ciascuno vero? che cosa devono fare? combatterci contro? solo superarli credo rispose Charlie noi saremo pronti a intervenire se le cose si mettono male con gli incantesimi idranti a portata di bacchetta hanno voluto delle madri in cova non so perché ma ti dico una cosa non invidio il ragazzo a cui toccherà lo spinato è davvero malvagio è pericoloso dietro quanto davanti guarda Charlie indicò la coda dello spinato e Harry vide una serie di lunghe punte color del bronzo che spuntavano a intervalli di pochi centimetri in quel momento cinque colleghi di Charlie avanzarono barcollando verso lo spinato trasportando un mucchio di grosse uova color granito su una coperta che tenevano per gli orli li deposero con cautela accanto allo spinato Hagrid lanciò un gemito di desiderio le ho fatte contare Hagrid disse Charlie con fermezza poi aggiunse come sta Harry bene rispose Hagrid senza distogliere lo sguardo dalle uova spero solo che starà bene anche dopo aver affrontato questi qua disse Charlie cupo guardando verso il recinto dei draghi non ho avuto il coraggio di dire a mia madre in che consiste la prima prova è già così agitata Charlie imitò la voce ansiosa di sua madre come hanno potuto permettere che partecipasse a quel torneo è troppo troppo giovane credevo che fossero tutti al sicuro credevo che ci sarebbe stato un limite d'età era una fontana dopo quell'articolo della gazzetta del profeta su di lui piange ancora per i suoi genitori oh poverino io non l'ho mai saputo Harry ne aveva avuto abbastanza certo che Hagrid non avrebbe sentito la sua mancanza con le attrattive di quattro draghi e di madame Maxime a tenerlo occupato si voltò in silenzio e si incamminò di ritorno verso il castello non sapeva se essere contento di aver visto ciò che lo aspettava o no forse così era meglio ora il primo shock era passato forse se avesse visto i draghi per la prima volta martedì sarebbe svenuto secco davanti a tutta la scuola ma forse sarebbe svenuto comunque avrebbe avuto come unica arma la bacchetta che al momento non sembrava niente più che una strisciolina di legno contro un drago sputa fuoco alto 15 metri squamoso e irto di punte e doveva superarlo davanti a tutti come Harry accelerò costeggiando il limitare della foresta aveva meno di 15 minuti per tornare davanti al camino e parlare con Sirius e non ricordava di aver mai desiderato tanto parlare con qualcuno quando inaspettatamente urtò contro qualcosa di molto duro Harry cadde all'indietro gli occhiali di traverso stringendosi addosso il mantello una voce molto vicina disse aia chi è là Harry verificò in fretta che il mantello lo ricoprisse e rimase disteso immobile a fissare la sagoma scura che aveva urtato riconobbe il pizzetto era Karkaroff chi è là ripete Karkaroff molto sospettoso guardandosi intorno nell'oscurità Harry rimase fermo in silenzio dopo un minuto Karkaroff sembrò convincersi che si fosse trattato di un qualche animale si guardò attorno all'altezza della vita come se si aspettasse di vedere spuntare un cane poi scivolò di nuovo al riparo degli alberi e prese ad avanzare verso il luogo in cui si trovavano i draghi lentamente con molta cautela Harry si rialzò e ripartì più velocemente possibile senza far troppo rumore e si affrettò nell'oscurità diretto a Hogwarts Harry non aveva alcun dubbio su ciò che stava per fare Karkaroff era sgattaiolato giù dalla sua nave per cercare di scoprire quale sarebbe stata la prima prova forse aveva addirittura visto Hagrid e Madame Maxim allontanarsi insieme verso la foresta non erano certo difficili da individuare anche in lontananza e ora tutto quello che doveva fare era seguire il suono delle voci e così avrebbe saputo che cosa era in serbo per i campioni a quanto pareva il solo che martedì avrebbe affrontato l'ignoto era Cedric Harry raggiunse il castello scivolò dentro per la porta principale e prese a salire la scalinata di marmo era molto affannato ma non osò rallentare aveva meno di cinque minuti per raggiungere il fuoco Guazzabuglio boccheggiò alla signora grassa che stava ronfando nella sua cornice davanti al passaggio se lo dici tu borbottò lei assonnata senza aprire gli occhi e il quadro scattò per lasciarlo passare Harry si arrampicò all'interno la sala comune era deserta e a giudicare dall'odore normale Hermione non aveva dovuto ricorrere alle cacca bombe per garantire la privacy a lui e Sirius Harry si sfilò il mantello dell'invisibilità e si lasciò cadere in una poltrona davanti al fuoco la stanza era immersa nella semioscurità le fiamme erano l'unica fonte di luce lì accanto sul tavolo le spille tifa per Cedric Diggory che i crivei avevano cercato di modificare scintillavano al bagliore del fuoco ora dicevano Potter fa davvero schifo Harry tornò a guardare le fiamme e sobalzò la testa di Sirius troneggiava nel fuoco se Harry non avesse visto il signor Diggory fare esattamente la stessa cosa nella cucina dei Weasley gli sarebbe venuto un colpo invece con il volto illuminato dal primo sorriso dopo giorni e giorni si rizzò in piedi si accoccolò vicino al camino e disse Sirius come stai? Sirius era diverso da come lo ricordava Harry quando si erano salutati il suo volto era magro e incavato circondato da una gran massa di lunghi capelli neri e aggrovigliati ma ora i capelli erano corti e puliti il viso era florido e Sirius sembrava molto più giovane molto più simile alla sola fotografia che Harry aveva di lui scattata al matrimonio di James e Lily Potter non pensare a me come stai tu disse Sirius serio io per un istante Harry cercò di dire bene ma non ce la fece prima di riuscire a fermarsi si ritrovò a parlare più di quanto non avesse fatto da giorni di come nessuno credesse che non era stato lui a proporsi per il torneo delle bugie di Rita Skeeter sulla gazzetta del profeta di come non poteva fare un passo senza essere preso in giro e di Ron Ron che non gli credeva Ron che era invidioso e adesso Hagrid mi ha appena fatto vedere che cosa succederà nella prima prova e si tratta di draghi Sirius e io sono spacciato concluse disperato Sirius lo scrutò ansiosamente con occhi che non avevano ancora perso lo sguardo fosco e spiritato che Azkaban gli aveva impresso aveva lasciato parlare Harry fino allo sfinimento senza interromperlo ma ora disse coi draghi possiamo vedercela Harry ma ci arriveremo tra un minuto non posso restare molto sono penetrato in una casa di maghi per usare il fuoco ma potrebbero tornare da un momento all'altro devo metterti in guardia da alcune cose cosa? esclamò Harry sentendo l'umore scendere ancora di qualche tacca non poteva certo esserci in arrivo niente di peggio dei draghi Karkaroff disse Sirius Harry era un mangiamorte lo sai che cosa sono i mangiamorte è vero? sì lui cosa? fu catturato era ad Azkaban con me ma è stato rilasciato scommetterei qualunque cosa che Silente ha voluto un auror a Hogwarts quest'anno per tenerlo d'occhio Moody prese Karkaroff e lo schiaffò ad Azkaban Karkaroff è stato rilasciato disse Harry lentamente il suo cervello sembrava lottare contro un altro shock perché lo hanno rilasciato? ha trovato un accordo con il ministero della magia disse Sirius con amarezza ha dichiarato di aver capito l'errore delle sue scelte e poi ha fatto dei nomi ha fatto finire un mucchio di altra gente al suo posto ad Azkaban non è molto popolare l'aggiunta lo assicuro e da quando è uscito per quel che ne so insegna le arti oscure a tutti gli studenti che passano per quella sua scuola quindi guardati anche dal campione di Durmstrang ok disse Harry lentamente ma stai dicendo che è stato Karkaroff a mettere il mio nome nel calice perché se è stato lui è davvero un bravo attore sembrava furibondo voleva impedirmi di gareggiare sappiamo che è un bravo attore disse Sirius perché ha convinto il ministero della magia a liberarlo no? ora sto tenendo d'occhio la gazzetta del profeta Harry tu e il resto del mondo lo interruppe Harry amareggiato e leggendo tra le righe del pezzo di quella skitter il mese scorso beh Moody è stato aggredito la sera prima di cominciare a lavorare a Hogwarts sì lo so che lei sostiene che si è trattato di un altro falso allarme aggiunse Sirius in fretta vedendo che Harry stava per parlare ma io non credo che sia così credo che qualcuno abbia tentato di impedirgli di venire a Hogwarts credo che qualcuno sapesse che il suo compito sarebbe stato molto più difficile con lui nei paraggi e nessuno ha intenzione di indagare a fondo ma l'occhio denuncia intrusi un po' troppo spesso ma questo non significa che non sia più in grado di riconoscere i pericoli Moody era l'auror migliore che il ministero abbia mai avuto allora che cosa vorresti dire disse Harry esitante Karkaroff sta cercando di uccidermi ma perché Sirius esitò ho sentito dire cose molto strane rispose lentamente i Mangiamorte ultimamente sembrano un po' più attivi del solito si sono fatti vedere alla coppa del mondo di Quidditch no? qualcuno ha evocato il marchio nero e poi hai sentito parlare di quella strega del ministero della magia che è scomparsa Bertha Jorkins disse Harry precisamente è sparita in Albania e quello è proprio il posto in cui correva voce che si trovasse Voldemort e lei lo sapeva che si stava preparando il torneo tre maghi no? sì ma non è molto probabile che sia andata dritta da Voldemort no? senti conosco Bertha Jorkins disse Sirius con una smorfia era a Hogwarts quando c'ero anch'io qualche classe avanti a me e a tuo padre ed era un idiota molto indiscreta e senza cervello nemmeno un po' non è una bella combinazione sarebbe stato molto facile attirarla in una trappola allora allora Voldemort potrebbe aver scoperto del torneo disse Harry è questo che vuoi dire credi che Karkaroff potrebbe essere qui per suo ordine non lo so rispose Sirius soppesando le parole non lo so proprio Karkaroff non mi sembra il tipo che tornerebbe da Voldemort a meno di non essere certo che Voldemort sia abbastanza potente da proteggerlo ma chiunque ha messo il tuo nome in quel calice lo ha fatto per una ragione e non posso fare a meno di pensare che il torneo sarebbe un gran bel modo di eliminarti e di farlo sembrare un incidente mi sembra davvero un ottimo piano disse Harry sconsolato dovranno solo stare in un angolo e lasciar fare ai draghi giusto i draghi disse Sirius parlando molto in fretta c'è un modo Harry non farti tentare da uno schiantesimo i draghi sono forti e hanno troppo potere magico per essere abbattuti così servono una mezza dozzina di maghi insieme per sopraffare un drago sì lo so ho appena visto commentò Harry ma puoi farcela da solo riprese Sirius c'è un modo e ti serve solo un semplice incantesimo basta che ma un tratto Harry alzò una mano per zittirlo con il cuore che batteva all'impazzata come se stesse per esplodere dei passi scendevano la scala a chiocciola alle sue spalle vai si bilò a Sirius vai sta arrivando qualcuno Harry si raddrizzò nascondendo il fuoco se qualcuno avesse visto la faccia di Sirius entro le mura di Hogwarts sarebbe successo un pandemonio il ministero sarebbe stato coinvolto lui Harry sarebbe stato interrogato su dove si trovava Sirius Harry udì un piccolo pop nel fuoco alle sue spalle e seppe che Sirius se n'era andato fissò la parte più bassa della scala a chiocciola chi aveva deciso di fare una passeggiatina a luna del mattino e aveva impedito a Sirius di dirgli come fare a superare un drago era Ron si fermò di botto quando si trovò di fronte Harry dall'altra parte della stanza e si guardò intorno con chi stavi parlando chiese che te ne frega ringhiò Harry che cosa fai qua giù a quest'ora della notte mi stavo chiedendo dove fossi Ron si interruppe e alzò le spalle niente torno a dormire hai pensato che dovevi venire a ficcare il naso eh gridò Harry sapeva che Ron non aveva idea di che cosa avesse interrotto sapeva che non l'aveva fatto apposta ma non gli importava in quel momento odiava tutto di Ron perfino i parecchi centimetri di caviglie nude che spuntavano dai pantaloni del pigiama scusa tanto disse Ron rosso di rabbia avrei dovuto capirlo che non volevi essere disturbato me ne vado subito così potrai continuare a fare le prove per la prossima intervista in santa pace Harry afferrò una delle spille Potter fa davvero schifo dal tavolo e la scagliò con violenza attraverso la stanza la spilla colpì Ron sulla fronte e rimbalzò a terra tieni si bilò Harry portati questa martedì magari adesso avrai anche tu una cicatrice se sei fortunato è questo che vuoi no? scappò via dalla stanza e si precipitò per le scale una parte di lui si aspettava che Ron lo fermasse magari che gli tirasse un pugno ma Ron restò lì nel suo pigiama troppo piccolo e Harry giacque a lungo insonne e agitato e non lo sentì salire a dormire la prima prova Harry si alzò la domenica mattina e si vestì così distrattamente che ci mise un po' ad accorgersi che stava cercando di infilarsi il cappello sul piede al posto del calzino quando finalmente ebbe sistemato tutti gli abiti sulle parti giuste del corpo andò a cercare Ermione e la trovò nella sala grande al tavolo di Grifondoro dove stava facendo colazione con Ginni troppo irrequieto per mangiare Harry attese che Ermione ingollasse la sua ultima cucchiaiata di porridge poi la trascinò fuori per un'altra passeggiata mentre facevano un altro lungo giro attorno al lago le raccontò tutto dei draghi e quasi tutto quello che aveva detto Sirius pur allarmata per gli avvertimenti di Sirius a proposito di Karkaroff Ermione continuava a pensare che i draghi fossero il problema più urgente troviamo il modo di farti restare vivo fino a martedì sera disse accolatamente e poi potremmo preoccuparci di Karkaroff fecero tre volte il giro del lago cercando di pensare a un incantesimo semplice che potesse soggiogare un drago ma non gliene venne in mente nessuno così si rinchiusero in biblioteca qui Harry sfilò dagli scaffali tutti i libri sui draghi che riuscì a trovare e tutti e due si misero a consultarli uno dopo l'altro come tagliare gli artigli d'incanto come curare la carie delle scaglie questa roba non serve va bene per svitati come Hagrid che vogliono tenerli in forma i draghi sono estremamente difficili da uccidere a causa dell'antica magia che intride la loro spessa pelle che solo gli incantesimi più potenti sono in grado di perforare ma Sirius ha detto che ne basta uno semplice proviamo con dei libri di incantesimi semplici allora disse Harry gettando via uomini che amano troppo i draghi tornò al tavolo con una pila di libri di formule magiche li posò e cominciò a scorrerli uno per uno con Ermione che sussurrava ininterrottamente al suo fianco beh ci sono gli incantesimi di scambio ma a cosa serve a meno che tu non scambi le sue zanne con gomma da masticare o roba del genere così diventerebbe meno pericoloso il guaio è che come dice il libro non c'è molto che possa trapassare la pelle di drago ti suggerirei di trasfigurarlo ma una cosa così grossa non hai la minima speranza dubito che anche la professoressa McGonagall a meno che tu non debba scagliare l'incantesimo su di te forse per attribuirti dei poteri in più ma quelli non sono incantesimi semplici voglio dire non ne abbiamo fatto nemmeno uno in classe io so solo che esistono perché faccio i test del GUFO per esercitarmi Ermione disse Henry a denti stretti puoi stare un po' zitta per favore sto cercando di concentrarmi ma tutto quello che successe quando Ermione tacque fu che il cervello di Henry si riempì di una specie di vuoto ronzio che non lasciava spazio alla concentrazione scorse senza speranza l'indice di incantesimi base per chi ha poco tempo rasatura istantanea ma i draghi non avevano il pelo alito pepato probabilmente avrebbe solo aumentato la gittata del fuoco di un drago lingua cornuta proprio quello di cui aveva bisogno regalargli un'arma in più oh no è tornato un'altra volta perché non può leggere sulla sua stupida nave sbottò Ermione seccata mentre Victor Clum entrava ciondolando scoccava un'occhiata al cigna verso di loro e si sistemava in un angolo lontano con una pila di libri andiamo Henry torneremo in sala comune il suo fan club sarà qui a momenti tutto cinguettante e in effetti mentre uscivano una banda di ragazze entrò in punta di piedi una di loro portava una sciarpa della Bulgaria legata alla vita quella notte Henry dormì appena quando si svegliò il lunedì mattina per la prima volta in assoluto prese seriamente in considerazione l'idea di fuggire da Hogwarts ma mentre si guardava intorno nella sala grande a colazione pensò a ciò che avrebbe significato lasciare il castello e seppe che non ci sarebbe riuscito era l'unico posto in cui fosse mai stato felice beh doveva esserlo stato anche con i suoi genitori ma non se lo ricordava in qualche modo gli faceva bene sapere che trovarsi di e affrontare un drago era meglio che essere ancora a private drive con Dudley lo faceva sentire un po' più tranquillo finì a fatica la pancetta la gola non gli funzionava molto bene e mentre lui e Ermione si alzavano vide Cedric Diggory allontanarsi dal tavolo di Tassofrasso Cedric non sapeva ancora dei draghi era il solo campione a non sapere se Henry aveva ragione di pensare che Madame Maxime e Karkaroff lo avrebbero detto a Fleur e Krum Ermione ci vediamo alle serre disse Henry seguendo con gli occhi Cedric che usciva vai avanti io ti raggiungo Henry farai tardi la campana sta per suonare ti raggiungo va bene quando Henry giunse ai piedi della scalinata di marmo Cedric era in cima con un gruppo di amici del sesto anno Henry non voleva parlargli davanti a loro erano di quelli che lo bersagliavano di battute sull'articolo di Rita Skeeter tutte le volte che lo incontravano seguì Cedric tenendosi a distanza e vide che puntava verso il corridoio dell'aula di incantesimi ciò gli diede un'idea fermandosi a una certa distanza da loro estrasse la bacchetta e prese la mira con cura diffindo la borsa di Cedric si strappò pergamene penne e libri si sparpagliarono sul pavimento parecchie boccette d'inchiostro andarono in frantumi non importa disse Cedric seccato mentre i suoi amici si chinavano per aiutarlo dite a Flitwick che sto arrivando andate era esattamente ciò che Harry sperava fece sparire la bacchetta attese che gli amici di Cedric fossero entrati in classe e corse nel corridoio ora completamente deserto a parte loro due ciao disse Cedric raccogliendo la sua guida alla trasfigurazione avanzata che ora era macchiata d'inchiostro mi si è appena rotta la borsa e pensare che era nuova di zecca Cedric disse Harry la prima prova è con i draghi cosa? esclamò Cedric alzando gli occhi draghi disse Harry parlando in fretta nel caso che il professor Flitwick uscisse a vedere che cosa stava facendo Cedric ce ne sono quattro uno per ciascuno e dobbiamo superarli Cedric lo fissò sbalordito Harry vide un po' del panico che provava da sabato a notte balenare negli occhi grigi di Cedric sei sicuro? gli chiese con voce soffocata sicurissimo rispose Harry li ho visti ma come hai fatto a scoprirlo? non dovremmo sapere non è importante disse Harry in fretta sapeva che Hagrid sarebbe finito nei guai se avesse detto la verità ma non sono solo io a saperlo Maxim e Carcaroff hanno visto i draghi ormai lo sapranno anche Fleur e Crum Cedric si alzò le braccia cariche di penne pergamene e libri macchiati d'inchiostro la borsa strappata che pensolava dalla spalla osservò Harry con uno sguardo perplesso quasi sospettoso perché sei venuto a dirmelo? Harry lo guardò incredulo era sicuro che Cedric non glielo avrebbe chiesto se avesse visto i draghi con i suoi occhi Harry non avrebbe lasciato nemmeno il suo peggior nemico ad affrontare quei mostri impreparato beh forse Malfoy o Piton è solo che è corretto no? disse a Cedric adesso lo sappiamo tutti partiamo alla pari Cedric lo guardava ancora con un vago sospetto quando Harry udì un ticchettio familiare alle sue spalle si voltò e vide malocchio Moody uscire da una delle aule vicine vieni con me Potter ringhiò digori vai Harry fissò Moody allarmato gli aveva sentiti professore dovrei essere a erbologia dopo Potter nel mio ufficio prego Harry lo seguì chiedendosi che cosa gli sarebbe successo e se Moody voleva sapere come aveva fatto a scoprire i draghi sarebbe andato da silente e avrebbe denunciato Hagrid o si sarebbe limitato a trasformare Harry in un furetto beh poteva essere più facile superare un drago sotto le sembianze di un furetto Harry riflette depresso sarebbe stato molto più piccolo molto meno visibile da un'altezza di 15 metri seguì Moody nel suo ufficio Moody chiuse la porta e si rivolse a Harry l'occhio magico puntato su di lui come quello normale hai fatto una cosa molto onesta Potter disse Moody tranquillamente Harry non sapeva cosa dire non era questa la reazione che si era aspettato siediti disse Moody Harry sedette e si guardò intorno era entrato in quell'ufficio al tempo di due dei suoi occupanti precedenti all'epoca del professor Lockhart le pareti erano tappezzate di ritratti sorridenti di Lockhart stesso che facevano l'occhiolino quando c'era Lupin era più probabile imbattersi in un esemplare di qualche nuova affascinante creatura oscura che si era procurato per la lezione ora invece l'ufficio era pieno di una serie di oggetti straordinariamente stravaganti che Moody doveva aver usato nei giorni in cui era un Auror sulla sua scrivania c'era quella che sembrava una grossa trottola di vetro inclinato era uno spioscopio Harry lo riconobbe subito perché ne aveva uno anche lui molto più piccolo di quello di Moody su un tavolino nell'angolo c'era un oggetto che sembrava un'antenna televisiva dorata decisamente arzigogolata l'antenna ronzava quello che sembrava uno specchio era appeso alla parete di fronte a Harry ma non rifletteva la stanza sagome in ombra si muovevano al suo interno nessuna completamente a fuoco ti piacciono i miei detector oscuri chiese Moody che studiava attentamente Harry quello cos'è chiese Harry indicando l'antenna d'oro arzigogolata un sensore segreto vibra quando capta dissimulazioni e bugie qui non serve naturalmente ci sono troppe interferenze studenti da tutte le parti che mentono sul perché non hanno fatto i compiti ronza da quando sono arrivato ho dovuto disattivare lo spioscopio perché non smetteva mai di fischiare è molto sensibile capta segnali nel raggio di un chilometro naturalmente è in grado di captare molto più della solita roba da bambini aggiunse con un brontolio e lo specchio a cosa serve quello è il mio avversaspecchio li vedi quelli là che gironzolano non sono davvero nei guai finché non distingue il bianco dei loro occhi allora apro il mio baule esplose in una breve risata roca e indicò un grosso baule sotto la finestra aveva sette serrature in fila Harry si chiese che cosa ci fosse dentro finché la domanda successiva di Moody non lo riportò bruscamente sulla terra allora hai saputo dei draghi vero Harry esitò era quello che aveva temuto ma non aveva detto a Cedric e certo non aveva intenzione di dire a Moody che Hagrid aveva violato le regole va tutto bene disse Moody sedendosi estendendo la gamba di legno con un lamento imbrogliare è una componente tradizionale del torneo tre maghi lo è sempre stata non ho imbrogliato disse Harry seccamente lo scoperto per caso Moody sorrise non ti stavo accusando ragazzo è dall'inizio che lo ripeto a Silente può fare il nobile quanto gli pare ma ci puoi scommettere che il vecchio Karkaroff e la Maxim non lo saranno avranno raccontato ai loro campioni tutto quello che potevano vogliono vincere vogliono battere Silente vogliono dimostrare che è soltanto un essere umano Moody scoppiò in una risata rauca e il suo occhio magico volticò così in fretta che nel guardarlo a Harry venne la nausea allora hai già idea di come farai a superare il tuo drago no rispose Harry beh non ho intenzione di dirtelo disse Moody burbero non faccio favoritismi io ti darò solo qualche buon consiglio generale e il primo è gioca secondo le tue forze non ne ho disse Harry prima di riuscire a trattenersi se permetti ringhiò Moody te lo dico io che le hai ora rifletti qual è la cosa che sai fare meglio Harry si sforzò di concentrarsi qual era la cosa che sapeva fare meglio beh era facile davvero il quidditch rispose depresso e mi sarà molto utile è vero disse Moody fissandolo intensamente l'occhio magico quasi immobile sei maledettamente bravo a volare da quel che ho sentito sì ma Harry restituì lo sguardo non mi è concesso portare la scopa ho solo la bacchetta il mio secondo consiglio generale lo interruppe Moody ad alta voce è usare un bell'incantesimo facile che ti permetta di ottenere ciò di cui hai bisogno Harry gli rivolse uno sguardo vacuo di che cosa aveva bisogno andiamo ragazzo borbottò Moody fai due più due non è così difficile e poi tutto andò al suo posto la cosa che faceva meglio era volare doveva superare il drago via aria per riuscirci aveva bisogno della sua firebolt e per avere la sua firebolt aveva bisogno di Hermione sussurrò Harry dieci minuti dopo arrivando di corsa nella serra numero tre biascicando delle scuse affrettate alla professoressa Sprout mentre le passava davanti Hermione devi aiutarmi che cosa credi che stia cercando di fare Harry ribatté lei gli occhi sbarrati dall'ansia al di sopra del fremente cespuglio farfallino che stava potando Hermione devo imparare a fare un incantesimo di appello come si deve entro domani pomeriggio e così si allenarono non pranzarono ma cercarono un'aula vuota e qui Harry tentò con tutte le sue forze di attirare a sé svariati oggetti attraverso la stanza aveva ancora qualche difficoltà i libri e le penne continuavano a perdere potenza a metà strada e a cadere a terra come sassi concentrati Harry concentrati cosa credi che stia facendo ribatté Harry infuriato continua a venirmi in mente uno schifoso drago enorme chissà perché ok ci riprovo voleva saltare divinazione per continuare ad allenarsi ma Hermione si rifiutò decisamente di bigiare a ritmanzia e non aveva senso restare senza di lei così dovette sopportare più di un'ora di professoressa Trelonei che passò metà della lezione a dire a tutti che in base alla posizione di Marte rispetto a Saturno in quel momento le persone nate in luglio correvano seri pericoli di morte improvvisa e violenta beh magnifico disse Harry forte sentendosi invadere dalla rabbia basta che sia una cosa rapida non voglio soffrire per un attimo parve che Ron stesse per scoppiare a ridere di sicuro incrociò lo sguardo di Harry per la prima volta da giorni ma Harry provava ancora troppo rancore per badargli passò il resto della lezione cercando di attirare a sé con la bacchetta piccoli oggetti sotto il tavolo riuscì a far volare una mosca dritto nel palmo della mano anche se non era del tutto certo che fosse dovuto alla sua abilità nell'incantesimo di appello forse la mosca era solo stupida cercò di buttar giù qualcosa per cena dopo divinazione poi tornò nell'aula vuota con Hermione usando il mantello dell'invisibilità per evitare gli insegnanti continuarono ad allenarsi fino a mezzanotte passata sarebbero rimasti anche più a lungo ma comparve Peeves che fingendo di credere che Harry volesse farsi tirare addosso le cose cominciò a scaraventare sedie per la stanza Harry e Hermione se ne andarono di corsa prima che il frastuono attirasse Filch e tornarono nella sala comune di Grifondoro che ora era misericordiosamente vuota alle due di notte Harry era in piedi vicino al camino circondato da cataste di oggetti libri penne parecchie sedie rovesciate un vecchio set di gobiglie e il rospo di Neville Trevor solo nel corso dell'ultima ora era riuscito davvero a padroneggiare l'incantesimo di appello va meglio Harry va molto meglio disse Hermione sfinita ma molto soddisfatta beh adesso sappiamo cosa fare la prossima volta che non riesco a imparare un incantesimo esclamò Harry lanciando a Hermione il dizionario delle rune per riprovare basta che mi minacci con un drago pronti levò ancora una volta la bacchetta accio dizionario il librone decollò dalla mano di Hermione attraversò la stanza volando e Harry lo afferrò Harry l'hai imparato davvero disse Hermione incantata basta che funzioni domani disse Harry la firebolt sarà molto più lontana di questa roba sarà dentro il castello e io sarò fuori nel parco non ha importanza disse Hermione decisa basta che tu sia molto molto concentrato e verrà Harry sarà meglio che dormiamo un po' ne avrai bisogno quella sera Harry si era concentrato così tanto per imparare l'incantesimo di appello che un po' della sua paura cieca lo aveva abbandonato la mattina dopo comunque tornò tutta intera l'atmosfera nella scuola era di grande tensione ed eccitazione le lezioni sarebbero terminate a mezzogiorno dando modo a tutti gli studenti di scendere al recinto dei draghi anche se naturalmente non sapevano ancora che cosa avrebbero trovato laggiù Harry si sentiva stranamente isolato da tutti sia che gli augurassero buona fortuna sia che si bilassero teniamo pronta una scatola di fazzoletti Potter al suo passaggio era talmente nervoso che si chiese se nel momento di affrontare il drago non avrebbe semplicemente perso la testa scagliando incantesimi su tutti quanti il tempo si comportava in modo più stravagante che mai filava via a grandi blocchi così che un momento gli sembrava di essere seduto in classe per la prima lezione storia della magia e il momento dopo stava andando a pranzo e poi dove era finita la mattinata le ultime ore senza draghi ecco che la professoressa McGonagall gli correva incontro nella sala grande un sacco di ragazzi gli puntarono gli occhi addosso Potter i campioni devono venire giù nel parco adesso dovete prepararvi per la prima prova va bene disse Harry alzandosi mentre la forchetta cadeva nel piatto con un tintinnio buona fortuna Harry sussurrò Hermione andrà tutto bene certo disse Harry con una voce che non somigliava affatto alla sua uscì dalla sala grande assieme alla professoressa McGonagall quasi non sembrava lei in effetti era preoccupata quasi quanto Hermione mentre lo scortava giù per i gradini di pietra nel freddo pomeriggio di novembre gli posò una mano sulla spalla ora non farti prendere dal panico disse cerca di restare distaccato abbiamo maghi a disposizione per controllare la situazione se sfugge di mano la cosa più importante è che tu faccia meglio che puoi e nessuno penserà male di te ti senti bene? sì Harry si sentì rispondere sì sto bene lo stava guidando verso il luogo in cui si trovavano i draghi lungo il limitare della foresta ma quando si avvicinarono alla macchia di alberi oltre la quale lo steccato sarebbe stato chiaramente visibile Harry vide che era stata eretta una tenda l'ingresso era davanti a loro e nascondeva i draghi devi entrare là con gli altri campioni disse la professoressa McGonagall con voce piuttosto tremante e aspettare il tuo turno Potter il signor Bugman è là dentro ti spiegherà la procedura buona fortuna grazie disse Harry con voce sorda e distante lei lo lasciò all'ingresso della tenda Harry entrò Fleur de la Cour era seduta in un angolo su un basso sgabello di legno non sembrava affatto calma come al solito ma era pallida e sudaticcia Victor Crum sembrava ancor più arcigno e Harry suppose che fosse il suo modo di manifestare la tensione Cedric camminava avanti e indietro all'ingresso di Harry gli rivolse un sorrisetto che Harry ricambiò accorgendosi che i suoi muscoli facciali facevano fatica a lavorare come se avessero dimenticato come si faceva Harry ehi là disse Bugman allegro voltandosi a guardarlo entra entra mettiti comodo Bugman sembrava vagamente un personaggio dei cartoni animati un po' gonfiato lì in mezzo ai campioni pallidi e tirati indossava di nuovo la sua vecchia divisa da Vespa beh ora che ci siamo tutti è giunto il momento di informarvi disse Bugman in tono vivace quando il pubblico avrà preso posto vi consegnerò questa borsa mostrò un sacchetto di seta viola e lo scosse da cui estrarrete a turno un modellino della cosa che state per affrontare ce ne sono diversi tipi sapete e devo dirvi anche qualcos'altro ah sì il vostro compito è impadronirvi dell'uovo d'oro Harry si guardò attorno Cedric aveva annuito una volta per mostrare che aveva capito le parole di Bugman e poi aveva ripreso a percorrere la tenda su e giù era un po' verdastro Fleur de la Cour e Crum non avevano avuto alcuna reazione forse pensavano che ad aprire la bocca avrebbero vomitato era proprio così che si sentiva Harry ma loro almeno si erano fatti avanti spontaneamente e in un attimo si udirono centinaia e centinaia di paia di piedi al di là della tenda mentre i loro proprietari parlavano eccitati ridevano scherzavano Harry si sentiva separato dalla folla come se fosse di un'altra specie e poi dopo quello che gli parve un secondo Bugman aprì il sacchetto di seta viola prima le signore disse forgendolo a Fleur de la Cour la ragazza infilò una mano tremante nel sacchetto ed estrasse un minuscolo perfetto modellino di drago un gallese verde attorno al collo aveva appeso il numero 2 Harry seppe dal fatto che Fleur non diede segno di sorpresa ma piuttosto una determinata rassegnazione che aveva avuto ragione Madame Maxime le aveva detto che cosa la aspettava la stessa cosa valse per Krum lui estrasse il petardo cinese aveva il numero 3 attorno al collo Krum non batte ciglio si limitò a fissare il terreno Cedric infilò la mano nel sacchetto e ne uscì il grugno corto svedese blu grigio col numero 1 appeso al collo sapendo che cosa era rimasto Harry mise la mano nel sacchetto di seta ed estrasse lunga lo spinato il numero 4 mentre lo guardava quello spalancò le ali e scoprì le minuscole zanne bene ci siamo disse Bugman ciascuno di voi ha estratto il drago che dovrà affrontare e i numeri si riferiscono all'ordine in cui li sfiderete capito? ora fra un attimo vi devo lasciare perché farò la cronaca signor Diggory lei è il primo non deve far altro che entrare nel recinto quando sente un fischio d'accordo? ora Harry posso dirti due parole? fuori? eh si disse Harry confuso si alzò e uscì dalla tenda con Bugman che lo condusse poco distante tra gli alberi e poi gli si rivolse con fare paterno ti senti bene Harry? c'è qualcosa che posso farti avere? cosa? disse Harry io no niente hai un piano? gli chiese Bugman abbassando la voce in tono cospiratorio perché non mi dispiace darti qualche consiglio se ti va insomma voglio dire continuò Bugman a voce ancora più bassa tu sei quello messo peggio qui Harry se posso fare qualcosa per aiutarti no rispose Harry così in fretta che capì di essere stato sgarbato no io ho già deciso che cosa fare grazie non lo vedrebbe a sapere nessuno Harry disse Bugman con una strizzatina d'occhio no sto bene disse Harry chiedendosi perché continuava a ripeterlo a tutti e domandandosi se era mai stato meno bene di così ho un piano che ho escogitato io da qualche parte risuonò un fischio oh cielo devo correre esclamò Bugman allarmato e filò via Harry tornò verso la tenda e vide uscirne Cedric più verde che mai cercò di augurargli buona fortuna mentre passava ma dalla sua bocca non uscì altro che una specie di rauco grugnito Harry tornò dentro da Fleur e Crum qualche secondo più tardi udirono il rugito della folla a indicare che Cedric era entrato nello steccato e si trovava faccia a faccia con l'equivalente in carne e ossa del suo modellino fu peggio di quanto Harry avesse mai potuto immaginare star lì seduto ad ascoltare la folla urlò strillò trattenne il respiro come una sola entità dotata di molte teste mentre Cedric si ingegnava a superare il grugno corto svedese Crum continuava a fissare a terra Fleur ripercorreva i passi di Cedric intorno alla tenda e la cronaca di Bugman rendeva tutto molto molto peggiore immagini terribili si formarono nella mente di Harry mentre sentiva oh c'è mancato poco molto poco corre dei rischi questo signore bella mossa peccato che non abbia funzionato e poi dopo circa quindici minuti Harry udì il frastuono assordante che poteva significare solo una cosa Cedric aveva superato il suo drago e afferrato l'uovo d'oro davvero molto bene gridava Bugman e ora il punteggio dei giudici ma non gridò i punti Harry immaginò che i giudici li tenessero alti e li mostrassero alla folla fuori uno tre ancora in gara strillò Bugman mentre il fischietto suonava di nuovo signorina della cour prego Fleur tremava da capo a piedi Harry si sentì più ben disposto nei suoi confronti di quanto non fosse stato fino ad allora mentre lei usciva dalla tenda a testa alta con la mano che stringeva convulsamente la bacchetta lui e Crum rimasero soli ai lati opposti della tenda evitando di incrociare gli sguardi tutto ricominciò da capo oh non sono sicuro che sia stata una mossa saggia udirono Bugman gridare gaillamente oh quasi attenta ora santo cielo credevo che ci fosse riuscita dieci minuti dopo Harry sentì la folla esplodere di nuovo in un applauso anche Fleur doveva avercela fatta una pausa mentre venivano mostrati i punti di Fleur altri battimani poi per la terza volta il fischio ed ecco il signor Crum strillò Bugman e Crum uscì ciondolando lasciando Harry solo si sentiva molto più consapevole del solito di possedere un corpo molto consapevole del suo cuore che batteva forte e delle sue dita che formicolavano di paura eppure allo stesso tempo gli pareva di essere fuori da se stesso di vedere le pareti della tenda e di sentire la folla come da una grande distanza molto audace stava urlando Bugman e Harry udì il petardo cinese dare in un orrendo gemito ruggente mentre la folla tratteneva il respiro come un solo uomo sta dimostrando un bel coraggio e si ha preso l'uovo gli applausi inclinarono l'aria invernale tesa come un vetro Krum aveva finito a momenti sarebbe toccato a Harry si alzò notando vagamente che le sue gambe sembravano fatte di zucchero filato attese e poi sentì il fischietto suonare uscì dall'ingresso della tenda il panico crescente dentro di lui ed ecco che oltrepassava gli alberi ecco che entrava nello steccato attraverso un'apertura vide ogni cosa davanti a lui come se si trattasse di un sogno a colori vivacissimi c'erano centinaia e centinaia di facce che lo fissavano da tribune che erano state erette per magia dall'ultima volta che era stato lì e c'era lo spinato all'altro capo del recinto accoccolato sulla sua covata le ali ripiegate a metà i malvagi occhi gialli fissi su di lui un mostruoso lucertolone dalle squame nere che agitava la coda irta di punte scavando solchi lunghi un metro nel terreno duro la folla faceva un gran frastuono ma Harry non sapeva né sicuro di scoprire se fosse amichevole o meno era ora di fare ciò che doveva fare di concentrarsi totalmente e assolutamente su ciò che costituiva la sua unica possibilità levò la bacchetta accio firebolt urlò attese ogni fibra del suo corpo che sperava pregava se non avesse funzionato sembrava che vedesse ogni cosa intorno attraverso una sorta di barriera trasparente e lucicante come una foschia di calore che faceva fluttuare in modo strano il recinto e le centinaia di facce attorno a lui e poi la sentì sfrecciare nell'aria alle sue spalle si voltò e vide la sua firebolt che si scagliava verso di lui costeggiando il bosco galleggiava nel recinto e si immobilizzava a mezz'aria accanto a lui in attesa che la cavalcasse la folla faceva ancora più rumore bugman urlava qualcosa ma le orecchie di Harry non funzionavano più a dovere ascoltare non era importante gettò la gamba oltre la scopa e decollò e un istante dopo accadde qualcosa di miracoloso mentre si alzava in volo mentre il vento gli soffiava nei capelli mentre là sotto i volti del pubblico diventavano semplici punte di spillo color carne e lo spinato rimpiccioliva diventando delle dimensioni di un cane capì che non si era lasciato indietro solo il suolo ma anche la sua paura era tornato nel suo elemento quella era solo un'altra partita a Quidditch ecco tutto solo un'altra partita a Quidditch e lo spinato era solo un'altra brutta squadra avversaria guardò giù il mucchio di uova e riconobbe quello d'oro che brillava contro i compagni color granito tutti ammucchiati al sicuro tra le zampe anteriori del drago ok si disse Harry tattica diversiva andiamo si tuffò il muso dello spinato lo seguì Harry conosceva le sue intenzioni e scartò dalla picchiata appena in tempo un getto di fuoco aveva investito il punto preciso in cui si sarebbe trovato se non avesse deviato ma Harry non vi fece caso era esattamente come evitare un bolide santo cielo questo è volare strillò bugman mentre la folla gemeva e tratteneva il respiro visto che roba signor crum Harry si levò più su in cerchio lo spinato stava ancora seguendo la sua avanzata con la testa che dondolava sul lungo collo se continuava così l'avrebbe intontito un bel po' ma meglio non esagerare o avrebbe sputtato fuoco un'altra volta Harry scese a picco proprio mentre lo spinato spalancava la bocca ma questa volta ebbe meno fortuna evitò le fiamme ma la coda si alzò sferzante per intercettarlo e mentre deviava a sinistra una delle lunghe punte gli scalfì la spalla strappandogli l'abito sentì un bruciore udì strilli e gemiti salire dalla folla ma la ferita non sembrava profonda sfrecciò attorno al dorso dello spinato e gli balenò in mente una possibilità lo spinato non sembrava intenzionato a prendere il volo era troppo impegnato a proteggere le uova anche se si contorceva e si agitava spalancando e ripiegando le ali e tenendo i temibili occhi gialli fissi su Harry aveva paura di allontanarsi troppo lui doveva riuscire a indurlo a spostarsi o non si sarebbe mai avvicinato alle uova il trucco era farlo con cautela un po' alla volta prese a volare prima da una parte poi dall'altra non abbastanza vicino da provocare una fiammata ma simulando una minaccia sufficiente affinché gli tenesse gli occhi incollati addosso il suo testone dondolava da una parte all'altra mentre lo guardava con quelle pupille verticali le zanne scoperte volò più su la testa dello spinato si levò con lui il collo ora teso al massimo ancora oscillante come un serpente davanti al suo incantatore Harry si alzò ancora di qualche metro e il drago emise un ruggito esasperato per lui Harry era come una mosca una mosca che desiderava scacciare la sua coda si dibatté di nuovo ma ora era troppo in alto per raggiungerlo sputò fuoco nell'aria e lui lo schivò le sue mascelle si spalancarono andiamo si bilò Harry scartando sopra di lui in modo da tentarlo andiamo vieni a prendermi vieni su ora e poi il drago si levò spalancando finalmente le grandi ali di cuoio nero larghe come quelle di un piccolo aeroplano e Harry si tuffò prima che il drago avesse capito ciò che aveva fatto o dove fosse sparito Harry sfrecciava verso il suolo a velocità massima verso le uova ora non più difese dalle zampe anteriori armate di artigli ecco che levava le mani dalla firebolt ecco che afferrava l'uovo d'oro e con un'enorme accelerata era su galleggiava sopra le tribune il pesante uovo al sicuro sotto il braccio ancora sano e fu come se qualcuno avesse appena rialzato il volume per la prima volta si accorse del fragore della folla che urlava e applaudiva forte come i tifosi irlandesi alla coppa del mondo ma guardate strillava bugman ma guardate un po il nostro campione più giovane è stato il più veloce a prendere l'uovo bene ciò abbasserà le quote sul signor potter Harry vide i guardiani a correre per domare lo spinato e all'ingresso del recinto la professoressa McGonagall il professor Moody e Hagrid che gli correvano incontro e gli facevano tutti segno di avvicinarsi i sorrisi ben visibili anche a quella distanza tornò a volare sulle tribune mentre il frastuono della folla gli pulsava nelle orecchie e atterrò dolcemente il cuore più leggero di quanto non fosse stato da settimane aveva superato la prima prova era sopravvissuto ottimo potter urlò la professoressa McGonagall mentre lui scendeva dalla firebolt detto da lei era un complimento insolito notò che le tremavano le mani mentre indicava la sua spalla devi andare a farlo